Harry Potter e il principe mezzosangue di J.K. Rowling narrato da Francesco Pannofino un audiolibro offerto da Pottermore from J.K. Rowling l'altro ministro era quasi mezzanotte e il primo ministro stava seduto da solo nel suo ufficio a leggere una lunga relazione che gli scivolava via dalla mente senza lasciare la minima traccia aspettava una chiamata dal presidente di un paese remoto e tra il chiedersi quando quel disgraziato avrebbe telefonato e il cercare di allontanare gli spiacevoli ricordi di una settimana lunghissima faticosa e complicata nella sua testa non c'era molto spazio per altro più cercava di concentrarsi sui caratteri stampati della pagina più chiara vedeva la faccia maligna del suo avversario politico questi era apparso al telegiornale quel giorno stesso non solo per elencare tutte le cose terribili successe nell'ultima settimana come se ci fosse bisogno di ricordarle ma anche per spiegare perché fossero dalla prima all'ultima colpa del governo il polso del primo ministro accelerò al solo pensiero di quelle accuse perché non erano né giuste né vere come accidenti avrebbe potuto il governo impedire che quel ponte crollasse l'insinuazione che non si spendesse abbastanza per i ponti era a dir poco assurda quello poi aveva meno di dieci anni e neanche i migliori esperti riuscivano a spiegare perché si fosse spezzato in due di netto precipitando una decina di auto negli abissi del fiume sottostante e come osavano sostenere che quei due efferatissimi e clamorosi omicidi fossero dovuti a una carenza di personale nella polizia o che il governo avrebbe dovuto prevedere l'uragano anomalo nel west country che tanti danni aveva provocato alle persone e alle cose ed era colpa sua se uno dei suoi viceministri herbert chorley aveva scelto proprio quella settimana per comportarsi in modo così bizzarro da dover passare molto più tempo con la famiglia un'atmosfera sinistra è calata sul paese aveva concluso l'avversario nascondendo a stento un largo sorriso e purtroppo questo era perfettamente vero anche il primo ministro lo avvertiva la gente sembrava davvero più depressa del solito perfino il tempo era lugubre tutta quella nebbia gelida a metà luglio non era giusto non era normale passò alla seconda pagina della relazione vide quanto era lunga e decise che era un'impresa disperata stilacchiò le braccia sopra la testa e volse per l'ufficio uno sguardo dolente era una stanza piacevole con un bel camino di marmo di fronte alle alte finestre a ghigliottina chiuse contro il freddo del tutto fuori stagione con un leggero brivido il primo ministro si alzò e andò a guardare la nebbia sottile che premeva contro i vetri e in quel momento mentre dava le spalle alla stanza sentì un lieve colpo di tosse raggelò naso a naso con il proprio riflesso spaventato nel vetro scuro conosceva quella tosse l'aveva già sentita si voltò molto lentamente per fronteggiare la stanza vuota si disse cercando di sembrare più spavaldo di quanto si sentisse per un istante si abbandonò all'impossibile speranza che nessuno gli rispondesse ma subito una voce replicò una voce volitiva e perentoria che pareva stesse leggendo un discorso scritto veniva come il primo ministro aveva capito già dal colpo di tosse dall'ometto simile a una rana con una lunga parrucca argentea ritratto in un piccolo sporco dipinto a olio nell'angolo più remoto della stanza al primo ministro dei babbani necessità d'incontro urgente si prega di rispondere all'istante distinti saluti faggio l'uomo del ritratto guardò il primo ministro con aria penetrante fu la risposta senta non è un buon momento per me sto aspettando una telefonata sa dal presidente del a questo si può rimediare disse subito il ritratto il primo ministro ebbe un tuffo al cuore era quello che aveva temuto ma io speravo proprio di parlare faremo in modo che il presidente si dimentichi di chiamare telefonerà domani sera concluse l'ometto si prega di rispondere immediatamente al signor faggio io molto bene balbettò debolmente il primo ministro si vedrò faggio si affrettò a raggiungere la scrivania aggiustandosi la cravatta si era appena seduto e aveva appena ricomposto il volto in quella che sperava fosse un'espressione rilassata e imperturbabile quando alte fiamme verdi si accesero nel focolare vuoto del camino di marmo il primo ministro rimase a guardare cercando di non tradire la minima traccia di sorpresa o allarme mentre un uomo corpulento appariva tra le fiamme girando come una trottola qualche istante dopo ne uscì calpestando un tappeto piuttosto antico e prezioso e si spazzolò via la cenere dalle maniche del lungo mantello gessato aveva in mano una bombetta verde acido a primo ministro disse cornelius faggio avanzando con la mano tesa sono lieto di rivederla il primo ministro non poteva in tutta sincerità dire altrettanto perciò non rispose non era affatto contento di vedere faggio le cui occasionali apparizioni oltre a essere allarmanti in sé significavano in genere l'annuncio di brutte notizie inoltre faggio era evidentemente preoccupato era più magro più calvo e più grigio e il suo volto sembrava stropicciato il primo ministro aveva già visto quei sintomi nei politici e non promettevano mai bene come posso esserle utile disse stringendo brevemente la mano di faggio e indicandogli la più scomoda delle sedie di fronte alla scrivania non saprei da dove cominciare borbottò faggio si sedette e appoggiò la bombetta verde sulle ginocchia che settimana che settimana pessima anche la sua chiese il primo ministro in tono sostenuto sperando così di far capire che aveva già abbastanza grattacapi senza il contributo di faggio si capisce rispose faggio strofinandosi gli occhi con gesto stanco e guardando con aria cupa il collega la mia settimana è stata uguale alla sua primo ministro il ponte di brockdale gli omicidi bons e vans per non parlare del finimondo nel west country lei la sua voglio dire alcuni dei suoi sono sono coinvolti in queste queste cose faggio fissò il primo ministro con una certa severità ma certo disse lei avrà senz'altro capito che cosa sta succedendo io esitò il primo ministro era proprio per quell'atteggiamento che detestava tanto le visite di faggio dopo tutto era il primo ministro e non gli piaceva fare la figura dello scolaretto ignorante ma naturalmente era stato così fin dal loro primissimo incontro durante la sua primissima sera da capo del governo lo ricordava come se fosse ieri e sapeva che quel ricordo l'avrebbe ossessionato fin nel letto di morte si trovava da solo in quello stesso ufficio ad assaporare il trionfo che aveva coronato tanti anni di sogni e progetti quando aveva sentito un colpo di tosse alle spalle proprio come quella sera e si era voltato per scoprire quel brutto piccolo ritratto che gli parlava annunciandogli che il ministro della magia stava per venire a presentarsi naturalmente aveva pensato che la lunga campagna e la tensione delle elezioni lo avessero fatto impazzire sentirsi rivolgere la parola da un ritratto era stato spaventoso anche se nulla in confronto a quando un sedicente mago era saltato fuori dal camino e gli aveva stretto la mano era rimasto senza parole per tutto il tempo in cui faggio gli aveva spiegato cortesemente che esistono ancora streghe e maghi nascosti nel mondo e l'aveva rassicurato che non avrebbe dovuto preoccuparsi per loro visto che il ministero della magia si prendeva cura dell'intera comunità magica ed evitava che la popolazione non magica sospettasse della sua esistenza era un mestiere difficile aveva detto faggio che comprendeva tutto dalle regole sull'uso responsabile delle scope volanti al monitoraggio della popolazione dei draghi qui il primo ministro ricordava di essersi aggrappato alla scrivania per non cadere poi faggio aveva dato una pacca paterna sulla spalla del primo ministro ancora sotto shock non si preoccupi aveva detto probabilmente non mi rivedrà mai più la disturberò solo se da noi succederà qualcosa di molto grave qualcosa che possa colpire i babbani dovrei dire la popolazione non magica altrimenti vivi e lascia vivere e comunque la sta prendendo molto meglio del suo predecessore lui aveva cercato di buttarmi dalla finestra credeva che fosse uno scherzo dell'opposizione a questo punto il primo ministro aveva finalmente ritrovato la voce lei è lei non è uno scherzo allora era stata la sua ultima disperata speranza no aveva risposto faggio con dolcezza no temo di no guardi e aveva trasformato la tazza da tè del primo ministro in un gerbillo ma aveva boccheggiato il primo ministro guardando l'ex tazza rosicchiare l'angolo del prossimo discorso ma perché perché nessuno mi ha detto il ministro della magia si palesa solo al primo ministro babbano suo contemporaneo aveva spiegato faggio riponendo la bacchetta dentro la giacca riteniamo che sia il modo migliore per mantenere il segreto ma allora aveva piagnucolato il primo ministro perché il mio predecessore non mi ha avvertito a queste parole faggio era scoppiato a ridere mio caro primo ministro lei ha intenzione di dirlo a qualcuno e senza smettere di ridacchiare aveva gettato della polvere nel focolare era entrato nelle fiamme smeraldine ed era sparito con un sibilo il primo ministro era rimasto immobile e aveva capito che in nessun caso in tutta la sua vita avrebbe osato raccontare quell'incontro perché chi mai nell'universo mondo gli avrebbe creduto c'era voluto un po di tempo perché lo shock si attenuasse per un certo periodo aveva cercato di convincersi che faggio era davvero un'allucinazione causata dalla mancanza di sonno durante l'estenuante campagna elettorale in un vano tentativo di sbarazzarsi di tutto ciò che gli ricordava quello spiacevole incontro aveva regalato il gerbillo a una felicissima nipotina e dato ordine al suo segretario personale di eliminare il ritratto parlante dell'ometto però con grande sconforto del primo ministro il quadro si era dimostrato impossibile da rimuovere dopo che parecchi falegnami uno o due operai uno storico dell'arte e il cancelliere dello scacchiere avevano tentato in vano di staccarlo dalla parete il primo ministro aveva lasciato perdere e si era rassegnato a sperare che quel coso restasse zitto immobile per il resto del suo mandato ogni tanto avrebbe potuto giurare di aver visto con la coda dell'occhio l'abitante del dipinto sbadigliare o grattarsi il naso perfino un paio di volte uscire dalla cornice lasciandosi alle spalle solo una striscia di tela color fango tuttavia si era allenato a non guardare molto da quella parte e a ripetersi con fermezza ogni volta che succedeva qualcosa del genere che si trattava di un'illusione ottica poi tre anni prima in una notte molto simile a quella il ritratto aveva di nuovo annunciato l'arrivo imminente di faggio il quale era sbucato dal camino fradicio e in un evidente stato di panico prima che lui riuscisse a chiedergli perché stesse gocciolando sul suo axminster faggio aveva cominciato a far perneticare di una prigione di cui il primo ministro non aveva mai sentito parlare di un uomo chiamato serius black di una roba che si chiamava hogwarts o giù di lì e di un ragazzo di nome harry potter tutte cose che per lui non avevano il minimo senso arrivo aurora da azkaban aveva detto faggian sante rovesciandosi in tasca un bel po d'acqua dal bordo della bombetta in mezzo al mare del nord sa un volo orribile i dissennatori sono in tumulto era rabbrividito non hanno mai avuto un'evasione finora comunque dovevo venire ad avvertirla primo ministro black è un noto assassino di babbani e potrebbe avere l'intenzione di unirsi a lei sa chi ma naturalmente lei non sa nemmeno chi è lei sa chi per un attimo aveva scrutato il primo ministro con un'espressione scoraggiata poi aveva detto beh si accomodi si accomodi è meglio che la ragguagli beva un whisky il primo ministro si era piuttosto offeso sentendosi dire di accomodarsi nel suo stesso ufficio figuriamoci vedendosi offrire il suo whisky ma si era seduto comunque fagg aveva estratto la bacchetta fatto comparire dal nulla due grossi bicchieri colmi di liquido ambrato ne aveva messo uno in mano al ministro e aveva avvicinato una sedia aveva parlato per più di un'ora a un certo punto si era rifiutato di pronunciare un certo nome a voce alta e l'aveva scritto invece su una striscia di pergamena che aveva ficcato nella mano libera del primo ministro quando infine si era alzato per andarsene il primo ministro l'aveva imitato quindi lei è convinto che e aveva sbirciato il nome sulla carta nella sua mano sinistra lord vol colui che non deve essere nominato aveva ringhiato fagg mi scusi è convinto che colui che non deve essere nominato sia ancora vivo quindi beh silente dice di sì aveva risposto fagg allacciandosi il mantello gessato sotto il mento ma non l'abbiamo mai trovato secondo me non è pericoloso a meno che non abbia degli alleati quindi è di black che dovremmo preoccuparci diramerà quel comunicato di allerta allora eccellente beh spero che non ci vedremo mai più primo ministro buonanotte ma si erano rivisti meno di un anno dopo un faggio dall'aria stressata era comparso nella sala di gabinetto per informare il primo ministro che c'era stata qualche seccatura alla coppa del mondo di che vittish o qualcosa del genere e che parecchi babbani erano stati coinvolti ma il primo ministro non doveva preoccuparsi il fatto che il marchio di lui sapeva chi fosse stato visto di nuovo non significava nulla fagg era certo che si trattasse di un incidente isolato e l'ufficio relazioni con i babbani in quello stesso istante si stava occupando di tutte le necessarie modifiche alla memoria o quasi dimenticavo aveva aggiunto fagg stiamo importando tre draghi e una sfinge dall'estero per il torneo tre maghi una faccenda di routine ma l'ufficio regolazione e controllo delle creature magiche mi dice che secondo le reggi dobbiamo informarvi se introduciamo nel paese creature altamente pericolose io che cosa draghi aveva farfugliato il primo ministro sì tre aveva risposto faggio e una sfinge beh buona giornata a lei il primo ministro aveva sperato con tutte le sue forze che draghi e sfingi fossero il peggio e invece no meno di due anni dopo faggio era sbucato di nuovo dal fuoco questa volta con la notizia che c'era stata un'evasione di massa da azkaban un'evasione di massa aveva ripetuto il primo ministro con voce roca niente paura niente paura aveva urlato faggio già con un piede tra le fiamme li riprenderemo in un baleno ho solo pensato che dovesse saperlo il primo ministro non ebbe il tempo di gridare insomma aspetti un momento che faggio era svanito in una pioggia di scintille verdi qualunque cosa potessero dire la stampa e l'opposizione il primo ministro non era uno sciocco non gli era sfuggito che nonostante le rassicurazioni di faggio al loro primo incontro ormai si vedevano parecchio né che faggio era ogni volta più agitato per quanto poco gli piacesse pensare al ministro della magia o come lo definiva sempre tra sé l'altro ministro non poteva fare a meno di temere che alla sua prossima apparizione faggio avrebbe portato notizie ancora più gravi perciò la vista di faggio che usciva di nuovo dal fuoco scarmigliato inquieto e decisamente sorpreso che il primo ministro non sapesse perché era lì fu più o meno la cosa peggiore di quella settimana già così tetra come potrei sapere che cosa succede nella nella comunità magica sbottò ho un paese da governare e abbastanza preoccupazioni senza abbiamo le stesse preoccupazioni lo interruppe faggio il ponte di brockdale non si è deteriorato l'uragano non era un vero uragano quegli omicidi non sono opera dei babbani e la famiglia di herbert charley sarebbe più al sicuro senza di lui stiamo predisponendo il suo trasferimento all'ospedale san mungo per malattie e ferite magiche dovrebbe avvenire questa notte che cosa temo di non che cosa urlò il primo ministro faggio trasse un profondo respiro e disse primo ministro sono molto spiacente di doverla informare che è tornato colui che non deve essere nominato è tornato tornato quando lei dice tornato è vivo voglio dire il primo ministro frugò nella memoria alla ricerca dei particolari della terribile conversazione di tre anni prima faggio gli aveva parlato del mago temuto sopra ogni altro il mago che aveva commesso un migliaio di orrendi crimini e che da 15 anni era misteriosamente scomparso sì vivo disse faggio cioè non so è vivo uno se non può essere ucciso non capisco e silente non vuole spiegarmelo bene ma comunque di sicuro possiede un corpo e parla e cammina e uccide quindi immagino che ai fini della nostra discussione sì è vivo il primo ministro non seppe che cosa replicare ma la costante abitudine di voler sembrare bene informato su qualunque argomento lo spinse a cercare di ricordare tutti i dettagli delle loro precedenti conversazioni serius black sta con colui che non deve essere nominato black black ripete faggio e distratto rigirandosi velocemente la bombetta tra le dita sirius black intende per la barba di merlino no black è morto si è scoperto che c'eravamo sbagliati a proposito di black era innocente dopo tutto e non era nemmeno in combutta con colui che non deve essere nominato voglio dire aggiunse sulla difensiva facendo frullare ancora più rapidamente la bombetta tutte le prove indicavano avevamo più di 50 testimoni oculari comunque come dicevo è morto assassinato in verità all'interno del ministero della magia ci sarà un'inchiesta ecco con sua grande sorpresa il primo ministro provò una fitta di pietà per faggio e clissata tuttavia quasi subito da un lampo di compiacimento al pensiero che per quanto lui potesse essere carente nel materializzarsi nei camini non c'era mai stato alcun omicidio in nessuno degli uffici del governo sotto il suo mandato non ancora almeno mentre il primo ministro toccava furtivamente il legno della scrivania in un gesto scaramantico faggi riprese ma black è storia vecchia ormai il punto è che siamo in guerra primo ministro e bisogna prendere dei provvedimenti in guerra ripete il primo ministro nervosamente un po' eccessivo non le pare colui che non deve essere nominato è stato raggiunto dai suoi seguaci evasi da azkaban in gennaio disse faggio parlando sempre più in fretta e girando la bombetta così rapidamente che pareva un alone verde acido da quando sono usciti allo scoperto stanno seminando il caos il ponte di brockdale è stato lui primo ministro ha minacciato una strage di babbani se non mi fossi tolto di mezzo santi numi quindi è colpa sua se quelle persone sono state uccise e io devo rispondere a domande su cavi arrugginiti e giunti espansi corrosi e non so che altro esclamò il primo ministro furibondo colpa mia ribatte faggio paonazzo sta dicendo che lei avrebbe ceduto a un ricatto del genere forse no rispose il primo ministro alzandosi e percorrendo la stanza a grandi passi ma avrei concentrato tutti i miei sforzi per fermare il responsabile prima che commettesse una simile atrocità crede davvero che non stessi già facendo tutti gli sforzi possibili sbraito faggio ogni auror del ministero stava e sta cercando di trovarlo e catturare i suoi seguaci ma si dà il caso che parliamo di uno dei maghi più potenti di tutti i tempi un mago che è riuscito a sfuggire per quasi 30 anni quindi mi dirà che ha provocato anche l'uragano nel west country no urlò il primo ministro e il suo malumore cresceva ogni passo era sconvolgente scoprire la ragione di tutti quei terribili disastri e non poterla rivelare era quasi peggio che se fosse stata davvero colpa del governo non c'è stato nessun uragano rispose faggio desolato mi scusi tanto abbaiò il primo ministro praticamente pestando i piedi alberi sradicati tetti scoperchiati lampioni piegati orribili ferite sono stati i mangiamorte spiegò faggio i seguaci di colui che non deve essere nominato e e sospettiamo l'implicazione di un gigante il primo ministro si bloccò come se avesse urtato contro una parete invisibile l'implicazione di chi faggio fece una smorfia ha usato i giganti l'ultima volta quando voleva gli effetti speciali l'ufficio fra intendimenti sta lavorando 24 ore su 24 abbiamo squadre di obbliviatori impegnate a modificare la memoria di tutti i babbani che hanno visto quello che è successo davvero abbiamo messo gran parte dell'ufficio regolazione e controllo delle creature magiche a setacciare il somerset ma non riusciamo a trovare il gigante è un disastro non lo dica a me sbottò il primo ministro furente non negherò che il morale è molto basso al ministero disse faggio prima tutto questo e poi la perdita di amelia bones la perdita di chi amelia bones direttore dell'ufficio applicazione della legge sulla magia crediamo che possa averla uccisa colui che non deve essere nominato in persona perché era una strega molto dotata e tutte le prove indicano che abbia dato battaglia faggio si schiarì la voce e con evidente sforzo cessò di far roteare la bombetta ma quell'omicidio è finito sui giornali disse il primo ministro momentaneamente distolto dalla propria rabbia i nostri giornali amelia bones dicevano solo che era una donna di mezza età che viveva sola è stato un omicidio orrendo vero se ne è parlato parecchio la polizia non sa che pesci prendere faggio sospirò beh naturale uccisa in una stanza chiusa a chiave dall'interno noi d'altro canto sappiamo benissimo chi è stato non che questo ce ne faciliti la cattura e poi c'è stata emeline vance forse di lei non ha sentito parlare altro che esclamò il primo ministro è successo qui dietro l'angolo i giornali ci hanno dato dentro legge e ordine al collasso sotto il naso del primo ministro e come se tutto questo non bastasse riprese faggio senza dar retta al collega abbiamo orde di senatori che attaccano a destra e a manca in un tempo più felice questa frase sarebbe stata incomprensibile per il primo ministro ma ormai ne sapeva abbastanza credevo che i dissenatori facessero la guardia ai prigionieri ad azkaban mormorò cautamente era così rispose faggio con voce stanca ora non più hanno abbandonato la prigione e si sono uniti a colui che non deve essere nominato non fingerò che non sia stato un duro colpo ma disse il primo ministro con crescente orrore non sono le creature che succhiano via speranza e gioia alle persone proprio così e si stanno moltiplicando ecco la ragione di tutta questa nebbia il primo ministro con le ginocchia molli sprofondò nella poltrona più vicina l'idea di creature invisibili che fluttuavano per città e campagne seminando dolore e disperazione tra i suoi elettori lo faceva sentire molto debole mi ascolti faggio deve fare qualcosa in quanto ministro della magia e sua responsabilità mio caro primo ministro non può onestamente credere che io sia ancora ministro della magia dopo tutto questo sono stato cacciato tre giorni fa la comunità magica al completo ha chiesto le mie dimissioni per 15 giorni di fila non li ho mai visti così concordi in tutto il mio mandato sbottò faggio con un eroico tentativo di sorridere il primo ministro rimase per un attimo senza parole benché indignato per la posizione in cui era stato messo provava ancora solidarietà per l'uomo dall'aria rattrappita che gli sedeva di fronte mi dispiace molto disse infine c'è qualcosa che posso fare è molto gentile da parte sua primo ministro ma non può fare niente sono stato inviato qui stanotte per aggiornarla sugli ultimi avvenimenti e presentarla al mio successore pensavo che fosse già arrivato ma sarà molto occupato al momento con tutto quello che sta succedendo faggio si voltò a guardare il ritratto del brutto ometto con la lunga ricciuta parrucca argentea che si stava frugando un orecchio con la punta di una penna d'oca notando il suo sguardo il ritratto annunciò sarà qui fra un attimo sta finendo di scrivere una lettera a silente tanti auguri disse faggio per la prima volta in tono amaro sono due settimane che scrivo a silente due lettere al giorno ma non dà segno di vita se fosse stato pronto a convincere il ragazzo io forse potrei essere ancora beh forse scream jor avrà più successo faggio cadde in quello che era chiaramente un doloroso silenzio infranto quasi subito dal ritratto che parlò all'improvviso col suo rigido tono ufficiale al primo ministro dei babbani richiesta di incontro urgente si prega di rispondere all'istante rufus scream jor ministro della magia si si d'accordo mormorò il primo ministro distratto e quasi non batte ciglio mentre le fiamme nel focolare diventavano di nuovo verde smeraldo si allungavano e rivelavano al centro un secondo mago rotante scaricandolo di lì a qualche secondo sul tappeto antico fudge si alzò e dopo un attimo di esitazione il primo ministro fece lo stesso guardando il nuovo arrivato raddrizzarsi spolverarsi la lunga veste nera e dare un'occhiata intorno il primo sciocco pensiero del primo ministro fu che rufus scream jor assomigliava molto a un vecchio leone c'erano ciocche grigie nella sua criniera di capelli fulvi e nelle sopracciglia cespugliose aveva ardenti occhi giallastri dietro un paio di occhiali cerchiati di metallo e pur soppicando leggermente possedeva una certa grazia slanciata e scattante dava un'impressione immediata di acume e durezza il primo ministro pensò di capire perché la comunità magica preferisse scream jor a fudge come guida in quei tempi pericolosi piacere disse educatamente tendendo la mano scream jor la strinse per un attimo mentre il suo sguardo percorreva la stanza poi estrasse una bacchetta da sotto la veste fudge le ha detto tutto chiese avvicinandosi alla porta e picchiettando con la bacchetta sul buco della serratura il primo ministro udì la serratura scattare sì rispose e se non le dispiace preferirei che la porta rimanesse aperta io preferisco non essere interrotto disse scream jor asciutto ne spiato aggiunse puntando la bacchetta verso le finestre le tende le coprirono all'istante bene allora sono molto occupato quindi veniamo al dunque prima di tutto dobbiamo discutere della sua sicurezza il primo ministro si levò in tutta la sua statura e replicò sono assolutamente soddisfatto delle misure di sicurezza che ho già adottato grazie mol beh noi no lo interruppe scream jor sarebbe una gran brutta prospettiva per i babbani se al loro primo ministro venisse inflitta la maledizione imperius il nuovo segretario del suo ufficio qui fuori non mi priverò di kingsley shacklebolt se è questo che suggerisce esclamò il primo ministro con ardore è molto efficiente fa il doppio del lavoro degli altri perché è un mago interruppe di nuovo scream jor senza il barlume di un sorriso un auror molto preparato assegnato a lei per proteggerla ehi aspetti un momento si ribellò il primo ministro non potete mettere la vostra gente nel mio ufficio decido io chi lavora per me credevo che fosse soddisfatto di shacklebolt rispose scream jor gelido lo sono insomma lo ero quindi non c'è problema chiese scream jor io finché il lavoro di shacklebolt continua a essere eccellente farfugliò il primo ministro ma scream jor non diede segno di averlo sentito ora quanto a herbert charley il suo vice ministro riprese quello che intrattiene il pubblico imitando una papera si chiese il primo ministro è sotto il palese effetto di una maledizione imperius malamente eseguita proseguì scream jor gli ha confuso il cervello ma potrebbe ancora essere pericoloso ma non fa altro che starnazzare obiettò il primo ministro poco convinto certo un po di riposo forse se ci andasse più piano con l'alcol una squadra di guaritori dell'ospedale san mungo per malattie e ferite magiche lo sta esaminando mentre parliamo finora ha cercato di strangolarne tre disse scream jor credo sia meglio allontanarlo dalla società babbana per un po io beh guarirà vero fece il primo ministro preoccupato scream jor scrollò le spalle stava già tornando verso il camino beh questo è quanto la terrò informata primo ministro è probabile che sia troppo occupato per venire di persona nel caso manderò fudge ha consentito a restare come consulente fudge cercò di sorridere ma senza successo sembrava solo uno con il mal di denti scream jor si stava già frugando in tasca in cerca della polvere misteriosa che faceva diventare verde il fuoco il primo ministro fissò disperato entrambi per un attimo poi le parole che aveva faticosamente represso tutta la sera esplosero all'improvviso ma per l'amor del cielo voi siete maghi voi fate magie siete in grado di risolvere beh tutto scream jor si voltò lentamente e scambiò uno sguardo incredulo con fudge questi riuscì a produrre un vero sorriso e rispose con dolcezza il guaio è che anche gli altri fanno magie primo ministro e con questo i due maghi entrarono l'uno dopo l'altro nel fuoco verde vivo e sparirono spinner sand a molti chilometri di distanza la nebbia gelida che aveva premuto contro le finestre del primo ministro aleggiava sopra un fiume suddicio tra rive piene di erbacce e di rifiuti un'immensa ciminiera il rudere di una fabbrica in disuso si innalzava cupa e minacciosa non c'erano rumori a parte il sussurro dell'acqua nera e nessun segno di vita tranne una volpe macilenta scesa sulla riva per annusare speranzosa alcuni vecchi cartocci di pesce e patatine nell'erba alta ma in quel momento con un debolissimo pop una sottile sagoma incappucciata apparve da nulla sul greto del fiume la volpe rimase immobile lo sguardo diffidente fisso su quello strano nuovo fenomeno la sagoma parve calcolare la propria posizione per alcuni istanti poi si avviò a rapidi passi leggeri col lungo mantello che frusciava sull'erba un'altra figura incappucciata si materializzò con un secondo pop più sonoro aspetta il grido rauco spaventò la volpe appiattita tra gli arbusti che balzò fuori dal suo nascondiglio e salì la sponda ci fu un lampo di luce verde un uggiolio e la volpe ricadde a terra morta la seconda figura rivoltò l'animale col piede è solo una volpe disse una decisa voce femminile da sotto il cappuccio credevo che fosse un auror sì sì aspetta ma l'altra che si era fermata e si era voltata a guardare il lampo di luce si stava già arrampicando su per la sponda dalla quale la volpe era appena caduta sì sì narcisa ascoltami la seconda donna raggiunse la prima e la ferrò per un braccio ma questa si divincolò torna indietro bella devi ascoltarmi ti ho già ascoltato ho deciso lasciami stare la donna chiamata narcisa arrivò alla sommità dell'argine dove una fila di vecchie sbarre separava il fiume da una stretta stradina acciottolata l'altra donna bella la raggiunse all'istante rimase lo fianco a a guardare le file di faticenti case di mattoni oltre la strada le finestre tetre e cieche nell'oscurità abita qui chiese bella sprezzante qui in questo letamaio babbano saremo le prime della nostra razza a mettere piede ma narcisa non l'ascoltava era scivolata in un varco tra le sbarre arrugginite e già attraversava la strada di corsa sì sì aspetta bella seguì narcisa col mantello che le fluttuava alle spalle e la vide sfrecciare in un vicolo per finire in una seconda via quasi identica alcuni lampioni erano rotti le due donne correvano tra macchie di luce e di buio profondo bella raggiunse narcisa prima che girasse un altro angolo e questa volta riuscì ad afferrarla per il braccio e a farla voltare sì sì non devi farlo non puoi fidarti di lui il signore oscuro si fida di lui no il signore oscuro credo si sbagli ansimo bella e i suoi occhi brillarono per un istante sotto il cappuccio mentre si guardava intorno per controllare che fossero davvero sole in ogni caso ci è stato detto di non parlare del piano con nessuno questo è tradimento del signore oscuro lasciami bella ringhiò narcisa e sfoderò la bacchetta da sotto il mantello per puntarla minacciosa contro il viso dell'altra bella si limitò a ridere sì sì contro tua sorella non oseresti non c'è più niente che non oserei si bilò narcisa con una nota isterica nella voce calò la bacchetta come un pugnale ci fu un altro lampo di luce e bella lasciò andare il braccio della sorella come se si fosse scottata narcisa ma l'altra era corsa avanti strofinandosi la mano bella ricominciò a correre tenendosi ora a distanza mentre si addentravano nel labirinto deserto di case di mattoni infine narcisa imboccò una strada chiamata spinner sand sulla quale la torreggiante ciminiera sembrava incombere come un gigantesco dito a monitore i suoi passi echeggiarono sull'acciottolato davanti a finestre sprangate e rotte finché giunse all'ultima casa dove una luce tenue baluginava attraverso le tende di una stanza al piano terra bussò alla porta prima che bella imprecando sottovoce la raggiungesse insieme rimasero in attesa ansanti inalando l'odore del fiume sporco portato dalla brezza notturna pochi secondi dopo avvertirono un movimento dietro la porta che si aprì di uno spiraglio lo spicchio di un uomo le guardò un uomo con lunghi capelli corvini spartiti in due bande attorno al volto giallognolo dagli occhi neri narcisa gettò indietro il cappuccio era così pallida che parve brillare nel buio le lunghe ciocche bionde che le ricadevano sulla schiena le davano l'aspetto di un'annegata narcisa disse l'uomo e aprì un po di più la porta così che la luce cadde su di lei e anche su sua sorella che piacevole sorpresa severus rispose lei in un sussurro teso posso parlarti è urgente ma certo si fece da parte per lasciarla entrare la sorella ancora incappucciata la seguì senza aspettare un invito piton salutò seccamente passandogli davanti bella tricks repricò lui e la sua bocca sottile si arricciò in un sorriso vagamente beffardo chiuse la porta con uno scatto erano entrati in un minuscolo salotto che pareva un'oscura cella imbottita le pareti erano foderate di libri in gran parte rilegati in vecchia pelle nera o marrone un divano liso una vecchia poltrona e un tavolo traballante erano riuniti in una pozza di luce tenue gettata da un lampadario a candele appeso al soffitto il luogo aveva un'aria trascurata come se di solito non fosse abitato piton fece cenno a narcisa di accomodarsi sul divano lei si sfilò il mantello lo gettò da un lato e sedette fissandosi le bianche mani tremanti intrecciate in grembo bellatrix abbassò il cappuccio più lentamente bruna quanto sua sorella era bionda con occhi dalle palpebre grevi e la mascella pronunciata non distorse lo sguardo da piton e rimase in piedi alle spalle di narcisa allora che cosa posso fare per voi chiese piton sedendosi nella poltrona di fronte a loro siamo siamo soli vero chiese piano narcisa sì naturalmente beh c'è coda liscia ma la feccia non conta no puntò la bacchetta contro la parete di libri alle proprie spalle e con un'esplosione una porta segreta si spalancò rivelando una stretta scala sulla quale stava un ometto immobile come avrai capito coda liscia abbiamo ospiti disse piton pigramente l'ometto strisciò ingobbito giù dagli ultimi scalini ed entrò nella stanza aveva piccoli occhi acquosi il naso a punta e uno sgradevole sorrisetto lezioso la mano sinistra accarezzava la destra che sembrava rinchiusa in un lucido guanto d'argento narcisa esclamò con voce stridula e bella tricks che piacere coda liscia ci porterà da bere se lo desiderate disse piton e poi tornerà nella sua stanza coda liscia trasalì come se piton gli avesse scagliato addosso a qualcosa non sono il tuo servo gemette evitando lo sguardo di piton davvero ero convinto che il signore oscuro ti avesse messo qui per assistermi per assisterti sì ma non per portarti da bere e pulirti la casa non avevo idea coda liscia che aspirassi a compiti più rischiosi rispose piton con voce di seta ma possiamo provvedere parlerò con il signore oscuro posso parlarci da solo se voglio sicuro che puoi disse piton sogghignando ma nel frattempo portaci da bere un po di vino elfico andrà bene coda liscia esitò pronto a ribattere ma poi si voltò e si diresse verso una seconda porta segreta si udirono dei colpi e un tintinio di bicchieri dopo qualche secondo fu di ritorno con una bottiglia impolverata e tre bicchieri su un vassoio li depose sul tavolo traballante e zampetto via sbattendosi alle spalle la porta coperta di libri piton riempì tre bicchieri di vino rosso sangue e ne passò due alle ospiti narcisa mormorò un grazie mentre bellatrix non disse nulla ma continuò a scrutare piton torva la cosa non parve turbarlo anzi sembrava piuttosto divertito al signore oscuro disse levò il bicchiere e lo vuoto le sorelle lo imitarono piton riempì di nuovo i bicchieri narcisa beve per la seconda volta e disse in fretta severus mi dispiace di essere arrivata così ma dovevo vederti credo che solo tu possa aiutarmi piton alzò una mano per interromperla poi puntò di nuovo la bacchetta contro la porta nascosta che dava sulle scale si udirono una forte esplosione e uno squittio seguiti dal rumore di coda liscia che trotterellava su per le scale le mie scuse disse piton negli ultimi tempi ha preso l'abitudine di origliare alle porte non so che intenzioni abbia stavi dicendo narcisa lei trasse un profondo sospiro fremente e ricominciò severus so che non dovrei essere qui mi è stato detto di non dire niente a nessuno ma allora dovresti tenere a freno la lingua ringhiò bellatrix soprattutto con certe persone certe persone ripete piton sardonico e che cosa dovrei dedurne bellatrix che non mi fido di te piton lo sai benissimo narcisa emise un rumore che avrebbe potuto essere un singhiosso senza lacrime e si coprì il volto con le mani piton posò il bicchiere sul tavolo e si abbandonò di nuovo nella poltrona le mani sui braccioli sorridendo all'espressione torva di bellatrix narcisa credo che dovremmo ascoltare ciò che bellatrix arde dalla voglia di dire ci eviterà noiose interruzioni su continua bellatrix la esortò perché non ti fidi di me per un centinaio di ragioni rispose lei ad alta voce avanzando da dietro il divano per sbattere il bicchiere sul tavolo da dove comincio dove eri quando il signore oscuro è caduto perché non l'hai mai cercato quando è sparito che cosa hai fatto in tutti questi anni che hai passato sotto le sottane di silente perché ha impedito che il signore oscuro si procurasse la pietra filosofale perché non sei tornato subito quando è risorto dove eri qualche settimana fa quando abbiamo combattuto per impossessarci della profezia per il signore oscuro e perché piton harry potter è ancora vivo quando l'hai alla tua merceda cinque anni tacque il petto che si alzava e abbassava rapido lo sguardo infuocato dietro di lei narcisa sedeva immobile il volto ancora nascosto tra le mani piton sorrise prima che ti risponda no sì bellatrix risponderò potrai riferire le mie parole agli altri che mormorano alle mie spalle e spargono menzogne sulla mia slealtà verso il signore oscuro prima che ti risponda dicevo lascia che faccia io una domanda credi davvero che il signore oscuro non mi abbia rivolto tutte queste domande una per una e credi davvero che se non fossi riuscito a dargli delle risposte soddisfacenti sarei qui seduto a parlare con te bellatrix esitò so che crede in te ma pensi che si sbagli o che in qualche modo io l'abbia ingannato che mi sia preso gioco del signore oscuro il mago più grande il legilimens più abile che il mondo abbia mai conosciuto bellatrix non disse nulla ma per la prima volta parve vagamente a disagio piton non insistette prese di nuovo il bicchiere beve alcuni sorsi e continuò mi chiedi dov'ero quando il signore oscuro cadde ero dove mi aveva ordinato di stare alla scuola di magia e stregoneria di hogwarts perché desiderava che spiassi albus silente immagino tu sappia che è stato per ordine del signore oscuro che ho preso il posto di insegnante bellatrix annui in modo quasi impercettibile e poi aprì la bocca ma piton l'anticipò mi chiedi perché non lo cercai quando sparì per la stessa ragione per cui everi yaxley i carrow graybeck lucius fece un breve cenno del capo verso narcisa e tanti altri non lo cercarono lo credetti finito non ne vado fiero mi sbagliavo ma è così se non avesse perdonato noi che perdemmo la fede in quel momento gli sarebbero rimasti ben pochi seguaci sarei rimasta io esclamò bellatrix compassione io che ho trascorso molti anni ad azca ban per lui sì certo molto ammirevole rispose piton annoiato ovviamente non gli sei stata di grande aiuto in prigione ma il gesto è stato senz'altro nobile il gesto strillò lei nella sua collera c'era una vena di follia mentre io sopportavo i dissenatori tu sei rimasto a hogwarts a fare il cocco di silente non proprio ribatte piton tranquillo non ha voluto darmi il posto di insegnante di difesa contro le arti oscure lo sai a quanto pare pensava che potesse causarmi una diciamo ricaduta che avrei avuto la tentazione di riprendere le vecchie abitudini questo è stato il tuo sacrificio per il signore oscuro non insegnare la tua materia preferita lo schernì bellatrix perché sei rimasto là tutto quel tempo piton a spiare silente per un padrone che credevi morto non direi rispose piton anche se il signore oscuro è soddisfatto che io non abbia mai abbandonato il mio posto avevo 16 anni di informazioni su silente da riferirgli quando è tornato un dono ben più utile dei tuoi interminabili ricordi di quanto fosse sgradevole azca ban ma sei rimasto sì bellatrix sono rimasto disse piton tradendo per la prima volta un'ombra di impazienza avevo un lavoro comodo che ho preferito a una visita ad azca ban stavano catturando i mangia morte lo sai la protezione di silente mi ha tenuto fuori di prigione è stata molto opportuna e io l'ho usata lo ripeto il signore oscuro non è dispiaciuto che io sia rimasto quindi non vedo perché debba esserlo tu credo che tu voglia sapere anche continuò a un po più alta perché bellatrix dava segno di volerlo interrompere come mai mi sono frapposto tra il signore oscuro e la pietra filosofale la risposta è facile lui non sapeva se poteva fidarsi di me pensava come te che da fedele mangia morte fossi diventato il tirapiedi di silente era in condizioni pietose molto debole e condivideva il corpo di un mago mediocre non osò rivelarsi a un alleato del passato se quell'alleato poteva consegnarlo a silente o al ministero rimpiango profondamente che non abbia avuto fiducia in me sarebbe tornato al potere tre anni prima invece io ho visto solo l'avido inetto quirrel che tentava di rubare la pietra e lo ammetto ho fatto tutto ciò che potevo per ostacolarlo la bocca di bellatrix si contorse come se avesse trangugiato una medicina cattiva ma quando lui è tornato tu non sei venuto non sei volato da lui subito quando hai sentito il marchio nero bruciare esatto l'ho fatto due ore più tardi sono tornato per ordine di silente di silente cominciò bellatrix indignata rifletti esclamò piton di nuovo impaziente rifletti aspettando due ore solo due ore ho fatto in modo di poter restare a hogwarts come spia da allora lasciando credere a silente che tornavo dalla parte del signore oscuro solo perché mi era stato ordinato ho potuto passare informazioni su silente e sull'ordine della fenice pensaci bellatrix il marchio nero si stava rafforzando da mesi sapevo che lui stava per tornare tutti mangiamorte lo sapevano ho avuto un sacco di tempo per pensare a cosa volevo fare per progettare la mia mossa successiva per fuggire come carcaroff no l'iniziale disappunto del signore oscuro per il mio ritardo è del tutto svanito te lo assicuro quando ho spiegato che gli ero rimasto fedele anche se silente era convinto del contrario sì il signore oscuro credeva che io l'avessi abbandonato per sempre ma si sbagliava ma che cosa sei servito domandò bellatrix come per canzonarlo quali informazioni utili abbiamo ottenuto da te le mie informazioni sono state consegnate al signore oscuro rispose piton se lui decide di non parlarne con te lui mi dice tutto ribatte bellatrix infiammandosi dice che sono la sua più leale più fedele davvero fece piton la voce delicatamente modulata a suggerire incredulità lo dice ancora dopo il fiasco al ministero non è stata colpa mia protestò bellatrix arrossendo il signore oscuro in passato mi ha fatto l'onore di rivelarmi i suoi più preziosi se lucius non avesse non ti permettere non ti permettere di dare la colpa mio marito intervenne narcisa con voce bassa e mortifera levando lo sguardo sulla sorella non serve a nulla rinfacciarsi le colpe disse piton soave quel che fatto è fatto ma non da te sbottò bellatrix furente no tu ancora una volta non c'eri mentre noi correvamo rischi vero piton ho avuto ordine di restare indietro rispose piton forse sei in disaccordo con il signore oscuro forse credi che silente non se ne sarebbe accorto se mi fossi unito ai mangiamorte per combattere l'ordine della fenice e perdonami parli di rischi hai affrontato sei ragazzini no poco dopo come sai benissimo sono stati raggiunti da metà dell'ordine ringhiò bellatrix e già che parliamo dell'ordine sostiene ancora di non poter rivelare dove si trova il suo quartier generale io non sono il custode segreto non posso pronunciare il nome di quel luogo sai come funziona l'incantesimo immagino il signore oscuro è soddisfatto delle informazioni che gli ho passato sull'ordine come forse hai capito hanno portato alla recente cattura e uccisione di emmeline vance e di sicuro hanno contribuito a sbarazzarsi di sirius black anche se ti rendo merito di averlo finito inclinò il capo e le indirizzò un brindisi l'espressione di bellatrix non si ammorbidì stai evitando la mia ultima domanda piton harry potter avresti potuto ucciderlo in qualunque momento negli ultimi cinque anni non l'hai fatto perché hai discusso l'argomento con il signore oscuro le chiese piton lui ultimamente noi lo sto chiedendo a te piton se io avessi ucciso harry potter il signore oscuro non avrebbe potuto usare il suo sangue per rigenerarsi rendendosi invincibile non vorrai farmi credere di aver previsto l'uso che avrebbe fatto del ragazzo disse lei beffarda per nulla non avevo idea dei suoi progetti ho già ammesso che pensavo che il signore oscuro fosse morto sto solo cercando di spiegare perché il signore oscuro non è dispiaciuto che potter sia sopravvissuto almeno fino a un anno fa ma perché l'hai tenuto in vita non hai capito solo la protezione di silente mi ha tenuto fuori d'azgaban non trovi che assassinare il suo studente preferito l'avrebbe indotto a cambiare idea su di me ma c'è dell'altro quando potter arrivò per la prima volta a hogwarts circolavano ancora molte storie su di lui voci secondo le quali lui stesso era un grande mago oscuro e per questo era sopravvissuto all'attacco del signore oscuro a dire il vero molti vecchi seguaci del signore oscuro pensarono che potter potesse essere un vessillo attorno al quale potevamo tutti stringerci ancora ero curioso lo ammetto e niente affatto incline a ucciderlo nel momento in cui avesse messo piede nel castello naturalmente mi è stato subito chiaro che non possedeva alcun talento straordinario è riuscito a cavarsela in un certo numero di situazioni difficili grazie alla combinazione di pura fortuna e amici più brillanti di lui è del tutto mediocre pur se odioso e pieno di sé come suo padre ho fatto il possibile per farlo espellere da hogwarts luogo al quale credo che non appartenga affatto ma ucciderlo o lasciare che venisse ucciso sotto i miei occhi sarei stato uno sciocco a rischiare con silente a un passo e con tutto questo dovremmo credere che silente non abbia mai sospettato di te chiese bellatrix non ha capito da che parte sta in realtà si fida ancora incondizionatamente di te ho recitato bene la mia parte rispose piton e tu trascuri la più grande debolezza di silente deve credere il meglio delle persone gli ho raccontato una storia di profondissimo rimorso quando sono entrato a far parte del corpo insegnanti fresco dei miei giorni di mangiamorte e lui mi ha accolto a braccia aperte anche se come dicevo mi ha tenuto lontano dalle arti oscure per quanto ha potuto silente è stato un grandissimo mago o si lo è stato perché bellatrix aveva fatto un verso sarcastico anche il signore oscuro lo ammette sono felice di dire tuttavia che sta invecchiando il duello con il signore oscuro sostenuto il mese scorso lo ha scosso dopo di allora ha riportato una brutta ferita perché le sue reazioni sono più lente di un tempo ma in tutti questi anni non ha mai smesso di avere fiducia in severus piton ed è qui che sta il mio grande valore per il signore oscuro bellatrix era ancora insoddisfatta anche se pareva incerta su come attaccare di nuovo approfittando del suo silenzio piton si rivolse alla sorella allora sei venuta a chiedermi aiuto narcisa narcisa alzò lo sguardo su di lui il volto tradiva tutta la sua disperazione sì severus io io credo che tu sia il solo a potermi aiutare non ho altre a cui rivolgermi lucius è in prigione e chiuse gli occhi e due grosse lacrime le spuntarono dalle palpebre il signore oscuro mi ha proibito di parlarne riprese con gli occhi ancora chiusi non vuole che nessuno sappia del piano è molto segreto ma se l'ha proibito non ne devi parlare la interruppe subito piton la parola del signore oscuro è legge narcisa rimase senza fiato come se lui l'avesse innaffiata di acqua fredda bellatrix parve soddisfatta per la prima volta da che era entrata ecco esclamò trionfante lo dice anche piton ti è stato detto di non parlare quindi stai zitta ma piton si era alzato per avvicinarsi alla finestrella spiò la strada deserta tra le tende poi le richiuse di scatto si voltò a guardare narcisa accigliato caso vuole che io sia informato del piano mormorò sono uno dei pochi a cui il signore oscuro l'ha confidato tuttavia se non fossi stato messo a parte del segreto narcisa saresti colpevole di alto tradimento nei confronti del signore oscuro ero convinta che tu lo sapessi rispose narcisa respirando più liberamente si fida tanto di te severus conosci il piano intervenne bellatrix la fugace espressione soddisfatta sostituita da una offesa tu lo conosci certo confermò piton ma che aiuto mi chiedi narcisa se immagini che io possa convincere il signore oscuro a cambiare idea temo che non ci sia speranza nessuna speranza severus sussurrò narcisa mentre le lacrime le scorrevano sulle guance pallide mio figlio il mio unico figlio draco dovrebbe esserne fiero disse bellatrix indifferente il signore oscuro gli concede un grande onore e devo dire questo di draco non si sottrae al suo dovere sembra lieto di avere l'opportunità di mettersi alla prova esaltato dalla prospettiva narcisa prese a piangere forte senza levare da piton lo sguardo supplichevole è perché ha sedici anni e non ha idea di quello che lo aspetta perché severus perché mio figlio è troppo pericoloso è una vendetta per l'errore di lucius lo so piton non rispose distorse lo sguardo dalle sue lacrime come se fossero indecenti ma non poté fingere di non sentirla è per questo che ha scelto draco vero insistette narcisa per punire lucius se draco ce la farà rispose piton sempre senza guardarla verrà onorato sopra ogni altro ma non ce la farà singhiozzò narcisa come potrà quando nemmeno il signore oscuro bellatrix rimase senza fiato narcisa parve perdere il controllo volevo solo dire che nessuno è ancora riuscito severus per favore tu sei l'insegnante preferito di draco lo sei sempre stato sei un vecchio amico di lucius ti supplico sei il prediletto del signore oscuro il suo consigliere più fidato vuoi parlargli convincerlo il signore oscuro non si lascerà convincere e io non sono così stupido da provarci replicò piton senza enfasi non posso fingere che il signore oscuro non sia adirato con lucius lucius aveva la responsabilità dell'operazione si è fatto catturare insieme a non so quanti altri e non è nemmeno riuscito a recuperare la profezia se il signore oscuro è adirato narcisa molto adirato allora ho ragione ha scelto draco per vendicarsi esclamò narcisa con voce strozzata non vuole che ci riesca vuole che rimanga ucciso nel tentativo poiché piton di nuovo non rispose narcisa parve smarrire in poco autocontrollo che le rimaneva si alzò avanzò barcollando verso piton e lo afferrò per la veste il volto vicino al suo le lacrime che colavano sul petto di lui ansimo potresti farlo tu potresti farlo tu al posto di draco severus tu ce la faresti è naturale e sareste ricompensato molto più di tutti noi piton la prese per i polsi e si liberò dalla sua stretta guardandole il volto striato di lacrime disse lentamente credo che voglia che lo faccia io alla fine ma ha deciso che draco provi per primo vedi nell'improbabile eventualità che draco riesca io potrei restare a hogwarts ancora qualche tempo a ricoprire il mio utile ruolo di spia insomma non gli importa se draco viene ucciso il signore oscuro è molto adirato ripete piton piano non ha potuto ascoltare la profezia sai quanto me narcisa che non è facile al perdono narcisa si afflosciò ai suoi piedi gemendo e singhiozzando sul pavimento il mio unico figlio il mio unico figlio dovresti essere fiera intervenne bellatrix spietata se avessi dei figli sarei lieta di offrirli al signore oscuro narcisa emise un breve strillo disperato e si afferrò i lunghi capelli biondi piton si chinò la prese per le braccia la fece alzare e la guidò verso il divano poi le versò altro vino e le mise a forza il bicchiere in mano narcisa adesso basta bevi questo ascoltami la donna si calmò un po con mani tremanti beve un sorso di vino rovesciandoselo addosso forse posso aiutare draco narcisa si drizzò il volto di un biancore terreo gli occhi enormi severus o severus lo aiuterai lo proteggerai lo difenderai posso provare narcisa scagliò via il bicchiere che scivolò sul tavolo mentre lei dal divano si buttava i piedi di piton gli prendeva la mano tra le sue e vi posava le labbra se tu lo proteggerai severus me lo giuri stringerai il voto infrangibile il voto infrangibile l'espressione di piton era vuota indecifrabile bellatrix emise una risatina chioccia e trionfante lo senti narcisa o ci proverà certo le sue solite parole inutili il suo solito modo di strisciar via dal cuore dell'azione per ordine del signore oscuro naturalmente piton non guardò bellatrix i suoi occhi neri erano fissi in quegli azzurri e lacrimanti di narcisa che continuava a stringergli la mano certo narcisa stringerò il voto infrangibile disse piano forse tua sorella consentirà a essere il nostro suggello bellatrix rimase a bocca aperta piton si abbassò e si inginocchiò di fronte a narcisa sotto lo sguardo stupefatto di bellatrix si strinsero la mano destra ti servirà la bacchetta bellatrix sibilò piton gelido lei la sfoderò ancora esterrefatta e dovrai avvicinarti aggiunse piton bellatrix si fece avanti modo da sovrastarli e posò la punta della bacchetta sulle loro mani intrecciate narcisa parlò severus vuoi tu vegliare su mio figlio draco nel suo tentativo di adempiere ai voleri del signore oscuro lo voglio rispose piton una lingua sottile di fiamma brillante scivolò dalla bacchetta e si avvolse attorno alle loro mani come un filo incandescente e vuoi tu al massimo delle tue capacità proteggerlo da ogni pericolo lo voglio disse piton una seconda lingua di fiamma scaturì dalla bacchetta e si intrecciò alla prima formando una sottile catena ardente e se dovesse rendersi necessario se draco dovesse fallire sussurrò narcisa la mano di piton si mosse nella sua ma lui non la ritrasse vuoi tu portare a compimento l'impresa che il signore oscuro ha ordinato a draco di eseguire ci fu un attimo di silenzio bellatrix li guardava la bacchetta sopra le loro mani intrecciate gli occhi spalancati lo voglio disse piton il volto stupefatto di bellatrix si accese di rosso nel bagliore di una terza lingua di fiamma che esplose dalla bacchetta si aggiunse alle altre e si strinse attorno alle mani intrecciate come una fune come un feroce serpente lettera e testamento harry potter russava forte era rimasto per quasi quattro ore seduto su una sedia vicino alla finestra di camera sua a fissare la strada sempre più avvolta nel buio e infine si era addormentato con una guancia schiacciata contro il vetro freddo gli occhiali storti e la bocca spalancata l'alone nebuloso lasciato dal suo respiro sulla finestra scintillava al bagliore aranciato del lampione e la luce artificiale privava il suo volto di ogni colore dandogli un'aria spettrale sotto il ciuffo ribelle di capelli neri la stanza era disseminata di vari oggetti e di una certa quantità di rifiuti piume di civetta torsoli di mela e carte di caramella ingombravano il pavimento parecchi libri di incantesimi giacevano alla rinfusa tra le divise aggrovigliate sul suo letto e una catasta disordinata di giornali si levava in una pozza di luce sulla sua scrivania uno dei titoli strillava harry potter il prescelto continuano a correre voci sui recenti misteriosi disordini al ministero della magia durante i quali colui che non deve essere nominato è stato nuovamente avvistato non siamo autorizzati a rilasciare interviste non chiedetemi niente ha dichiarato ieri sera all'uscita dal ministero un obbliviatore in ansia che non ha voluto dire il proprio nome tuttavia fonti ben informate all'interno del ministero confermano che i disordini si sono concentrati nella leggendaria sala delle profezie nonostante i portavoce del ministero si siano finora rifiutati persino di confermare l'esistenza di un luogo simile un crescente numero di appartenenti alla comunità magica crede che i mangiamorte ora detenuti ad azkaban per irruzione in edificio pubblico e tentato furto stessero cercando di rubare una profezia la natura di tale profezia è ignota anche se è opinione diffusa che essa riguardi harry potter l'unico che sia sopravvissuto alla maledizione mortale e presente al ministero nella notte in questione alcuni arrivano a definire potter il prescelto convinti che la profezia lo indichi come il solo che riuscirà a liberarci di colui che non deve essere nominato il luogo in cui si trova al momento la profezia se essa esiste è ignoto sebbene continua pagina 2 accanto al primo giaceva un secondo giornale questo titolava scrimgeor successore di fudge gran parte della prima pagina era occupata da una grande foto in bianco e nero di un uomo con una criniera leonina e il volto angosciato la foto si muoveva l'uomo agitava la mano verso il soffitto rufus scrimgeor già capo dell'ufficio auror presso l'ufficio applicazione della legge sulla magia è il successore di cornelius fudge come ministro della magia la nomina è stata generalmente accolta con entusiasmo dalla comunità magica anche se voci di una spaccatura tra il nuovo ministro e albus silente recentemente reintegrato nel ruolo di stregone capo del wisengamot sono affiorate a poche ore dalla nomina di scrimgeor i portavoce di scrimgeor hanno ammesso che il neo ministro ha incontrato silente subito dopo il suo insediamento alla massima carica ma non hanno rilasciato altri commenti albus silente è noto per aver continua pagina 3 a sinistra di questo c'era un altro giornale piegato in modo da mostrare un articolo dal titolo il ministero garantisce la sicurezza degli studenti il neo designato ministro della magia rufus scrimgeor ha parlato oggi delle rigide misure prese dal suo ministero per garantire la sicurezza degli studenti che faranno ritorno alla scuola di magia e stregoneria di hogwarts quest'autunno per ovvie ragioni il ministero non entrerà nel dettaglio del nuovo rigoroso piano di sicurezza ha dichiarato il ministro anche se fonti a lui vicine hanno confermato che le misure comprendono magie incantesimi difensivi una complicata gamma di contro maledizioni e una piccola pattuglia di auror assegnata esclusivamente alla protezione della scuola di hogwarts molti sembrano rassicurati dalla nuova ferma presa di posizione del ministero a proposito della sicurezza degli studenti la signora augusta longbottom ha dichiarato mio nipote neville tra l'altro un buon amico di harry potter che in giugno ha combattuto i mangiamorte al suo fianco al ministero e ma il resto dell'articolo era coperto da una grossa gabbia dentro c'era una magnifica civetta delle nevi i suoi occhi d'ambra scrutavano la stanza con aria imperiosa e la testa ogni tanto ruotava per consentirle di osservare il padrone intento a russare una o due volte fece schioccare il becco impaziente ma harry dormiva troppo profondamente per sentirla un grande baule campeggiava al centro della stanza era aperto come in attesa eppure era quasi vuoto a parte un residuo di vecchia biancheria dolci boccette d'inchiostro vuote e penne d'oca spezzate che ricopriva il fondo lì vicino a terra c'era un libriccino viola con stampate le parole a cura del ministero della magia come proteggere casa e famiglia dalle forze oscure la comunità magica attualmente è minacciata da un'organizzazione che si fa chiamare i mangiamorte osservare le seguenti semplici regole di sicurezza vi aiuterà a proteggere voi la vostra famiglia e la vostra casa da attacchi esterni uno si consiglia di non uscire di casa da soli due osservate la massima cautela durante le ore di buio se possibile effettuate eventuali spostamenti prima del cadere della notte tre controllate le misure di sicurezza attorno alla vostra casa assicurandovi che tutti i membri della famiglia siano pratici di mezzi di emergenza come gli incantesimi scudo e di disillusione e nel caso di minorenni la materializzazione congiunta 4 concordate parole d'ordine con gli amici più stretti e i familiari in modo da individuare i mangiamorte che assumessero sembianze altrui tramite la pozione polisucco vedi pagina 2 5 se un membro della famiglia un collega un amico o un vicino vi sembrano comportarsi in modo inusuale contattate immediatamente la squadra speciale magica potrebbero trovarsi sotto l'influenza della maledizione imperius vedi pagina 4 6 se il marchio nero appare sopra un'abitazione o un altro edificio non entrate ma contattate immediatamente l'ufficio auror 7 segnalazioni non confermate suggeriscono che i mangiamorte attualmente possano servirsi di inferi vedi pagina 10 qualunque avvistamento di un inferius o incontro con lo stesso deve essere riferito al ministero immediatamente harry grugnì nel sonno e il suo viso scivolò di qualche centimetro lungo il vetro inclinandogli ancora di più gli occhiali ma lui non si destò una sveglia che aveva riparato parecchi anni prima ticchettava sonora sul davanzale indicando le 11 meno un minuto accanto alla sveglia fermo sotto la sua mano abbandonata c'era un foglio di pergamena coperto da una grafia sottile obliqua harry aveva letto quella lettera tante volte da quando era arrivata tre giorni prima che sebbene alla consegna fosse arrotolata in un cilindro ben stretto ormai era decisamente piatta caro harry se per te va bene sarò al numero 4 di private drive questo venerdì alle 11 di sera per accompagnarti alla tana dove sei stato invitato a trascorrere il resto delle vacanze scolastiche sempre se sei d'accordo ti sarei molto grato se potessi aiutarmi in una faccenda che vorrei sbrigare prima di arrivare alla tana ti spiegherò meglio di persona per favore manda la tua risposta con questo gufo a venerdì spero un caro saluto albus silente anche se la sapeva già a memoria harry aveva continuato a gettare occhiate a quella missiva a intervalli di pochi minuti fin dalle 7 di quella sera quando aveva preso posizione vicino alla finestra della sua camera che offriva una vista adeguata di entrambe le estremità di private drive sapeva che era inutile continuare a rileggere le parole di silente aveva rispedito il suo sì come richiesto e ormai non poteva far altro che aspettare o sarebbe venuto o non sarebbe venuto ma harry non aveva fatto i bagagli sembrava troppo bello per essere vero venire sottratto dai darsley dopo soli 15 giorni non riusciva a liberarsi dalla sensazione che qualcosa sarebbe andato storto la sua risposta a silente poteva essersi smarrita silente poteva avere qualche impedimento e non riuscire a venire la lettera poteva rivelarsi non opera di silente ma un trucco o uno scherzo o una trappola harry non era riuscito ad affrontare l'idea di fare i bagagli per poi restare deluso e dover disfare il baule l'unica cosa che aveva fatto nell'eventualità di un viaggio era stata chiudere in gabbia la sua civetta edvige la lancetta dei minuti sulla sveglia raggiunse il numero 12 e in quel preciso istante il lampione fuori dalla finestra si spense harry si destò al buio improvviso come se la sveglia avesse suonato si raddrizzò in fretta gli occhiali staccò la guancia dal vetro vi premette invece il naso e socchiuse gli occhi per scrutare il marciapiede un'alta figura avvolta in un lungo mantello svolazzante risaliva il vialetto del giardino harry balzò su quasi avesse ricevuto una scarica elettrica rovesciò la sedia e cominciò a recuperare dal pavimento tutto ciò che era alla sua portata e a gettarlo dentro il baule mentre lanciava una veste due libri di incantesimi e un pacchetto di patatine dall'altra parte della stanza il campanello suonò giù in salotto si overno urlò chi diavolo è a quest'ora di notte harry rimase paralizzato con un cannocchiale di ottone in una mano e un paio di scarpe da ginnastica nell'altra si era completamente dimenticato di avvertire i darsley dell'arrivo di silente in preda al panico e insieme sul punto di scoppiare a ridere scavalcò il baule e spalancò la porta della sua stanza in tempo per sentire una voce profonda che diceva buonasera lei deve essere il signor darsley harry le ha detto che sarei venuto a prenderlo harry si precipitò di sotto e si bloccò di colpo un po prima dell'ultimo gradino poiché una lunga esperienza gli aveva insegnato a restare fuori dalla portata dello zio per quanto possibile sulla soglia c'era un uomo alto e magro con i capelli e la barba d'argento lunghi fino alla vita portava in equilibrio sul naso di curvo degli occhiali a mezzaluna indossava un lungo mantello nero da viaggio e un cappello a punta vernon darsley che aveva baffi cespugliosi quasi quanto quelli di silente anche se neri e indossava una vestaglia color pulce fissava il visitatore come se non potesse credere ai propri occhietti a giudicare dalla sua espressione distordita incredulità harry non l'ha avvertita del mio arrivo proseguì silente in tono cortese tuttavia facciamo conto che lei mi abbia invitato con calore a entrare non è saggio indugiare troppo a lungo sulle soglie in questi tempi travagliati varcò elegantemente l'uscio e si chiuse la porta alle spalle è passato molto tempo dalla mia ultima visita continuò silente scrutando zio vernon dall'alto del suo naso di curvo devo dire che i suoi agapanti sono rigogliosi vernon darsley non aprì bocca harry non dubitava che la parola gli sarebbe tornata e presto le pulsazioni dell'avena sulla sua tempia stavano raggiungendo la soglia di pericolo ma qualcosa in silente sembrava avergli mozzato il fiato poteva essere il suo vistoso aspetto stregonesco o forse poteva essere che come perfino zio vernon aveva percepito lì c'era qualcuno con cui sarebbe stato molto difficile fare il prepotente ah buonasera harry disse silente posando lo sguardo su di lui attraverso gli occhiali a mezza luna con intensa soddisfazione ottimo ottimo queste parole parvero riscuotere zio vernon era chiaro che chiunque guardasse harry dicendo ottimo era uno con cui non avrebbe mai potuto trovarsi d'accordo non ho intenzione di essere sgarbato esordì con un tono che minacciava sgarbo in ogni sillaba ma purtroppo atti di educazione accidentale si verificano con allarmante frequenza concluse silente con gravità meglio non dire proprio nulla mio caro signore ah e questa deve essere petunia la porta della cucina si era aperta ed ecco la zia di harry con i guanti di gomma e un grembiule sopra la camicia da notte evidentemente intenta l'abituale ripassata serale di tutte le superfici della cucina la sua faccia cavallina non mostrava altro che paura albus silente disse silente dato che zio vernon non faceva le presentazioni ci siamo scritti come ricorderà harry lo trovò un modo curioso di ricordare a zia petunia che una volta le aveva mandato una strilletta ma zia petunia non contestò la scelta di lessico e questo deve essere vostro figlio dadley dadley aveva sbirciato in quel momento dalla soglia del salotto il suo testone biondo che spuntava dal colletto a righe del pigiama sembrava curiosamente staccato dal corpo e la bocca era spalancata in una smorfia di stupore e paura silente attese per vedere se qualcuno dei darsley diceva qualcosa ma quando il silenzio si protrasse sorrise diciamo allora che mi avete invitato ad accomodarmi in salotto dadley si tolse di torno quando silente l'oltrepassò harry con il cannocchiale le scarpe da ginnastica ancora in mano superò con un salto gli ultimi scalini e seguì silente che si era sistemato nella poltrona più vicina al fuoco e osservava la stanza con benevolo interesse era straordinariamente fuori posto non non andiamo professore gli chiese harry preoccupato sì certo ma prima dobbiamo discutere di alcune questioni disse silente e preferirei non farlo all'aperto dovremo abusare dell'ospitalità dei tuoi zii ancora un po' ah davvero vernon darsley era entrato nella stanza con petuni al suo fianco e dadley appostato dietro di loro sì rispose con semplicità silente davvero estrasse la bacchetta così in fretta che harry quasi non la vide a un tocco non curante il divano sfrecciò in avanti e travolse le gambe di tutti e tre i darsley che vi crollarono uno sopra l'altro un nuovo tocco di bacchetta e il divano tornò dove era prima tanto vale stare comodi osservò silente con garbo mentre si rimetteva in tasca la bacchetta harry vide che la sua mano era annerita e racgrinzita come se la carne fosse scomparsa bruciata professore che cosa è successo alla sua più tardi harry rispose silente per favore siediti harry prese la poltrona che restava deciso a non guardare i darsley che sembravano tramortiti mi piacerebbe pensare che stiate per offrirmi da bere disse silente a zio vernon ma quanto ho visto finora mi dice che sarebbe ottimistico fino alla stoltezza un terzo colpo di bacchetta e apparvero a mezz'aria una bottiglia impolverata e cinque bicchieri la bottiglia si inclinò e versò una dose generosa di liquido color miele nei bicchieri che poi svolazzarono fino a ciascuno dei presenti il miglior idromele di madame rosmerta affinato in barrique illustrò silente levando il bicchiere a harry che afferrò il suo e beve non aveva mai assaggiato niente di simile ma gli piacque moltissimo dopo uno scambio di occhiate atterrite i darsley cercarono di ignorare del tutto i loro bicchieri impresa non facile in quanto quelli continuavano a colpirli gentilmente sulla testa harry non riuscì a reprimere il sospetto che silente si stesse divertendo bene harry esordì questi è sorta una difficoltà che spero riuscirai a risolvere per noi quando dico noi intendo l'ordine della fenice ma prima di tutto devo dirti che una settimana fa è stato ritrovato il testamento di sirius e che ha lasciato a te tutto ciò che possedeva zio vernon voltò la testa ma harry non lo guardò e non riuscì a dire nient'altro che tutto sommato è piuttosto semplice continuò silente aggiungi una discreta quantità d'oro al tuo conto alla gringot ed erediti tutte le proprietà personali di sirius la parte problematica dell'ascito il suo padrino è morto chiese zio vernon ad alta voce sia silente che harry si voltarono a guardarlo il bicchiere di idromele ormai gli picchiava in testa con una certa insistenza e lui tentò di scacciarlo è morto il suo padrino si rispose silente non chiese a harry perché non si era confidato con i darsley il nostro problema riprese come se non ci fosse stata alcuna interruzione è che sirius ti ha lasciato anche il numero 12 di grimmall place ha ereditato una casa domandò zio vernon avido gli occhietti ridotti a fessure ma nessuno gli rispose potete continuare a usarla come quartier generale disse harry non mi importa potete tenerla non la voglio non voleva mai più rimettere piede al numero 12 di grimmall place se poteva evitarlo sarebbe stato ossessionato per sempre dal ricordo di sirius che si aggirava da solo in quelle cupe stanze muffite prigioniero del luogo che aveva così disperatamente desiderato lasciare è generoso da parte tua disse silente tuttavia al momento abbiamo abbandonato l'edificio perché beh rispose silente ignorando i borbotti di zio vernon che ormai riceveva dall'ostinato bicchiere di idromele dei colpi decisi sulla testa la tradizione di famiglia dei black stabiliva che la casa venisse ereditata per linea diretta passando al maschio successivo di nome black sirius era l'ultimo della sua linea di sangue perché il fratello minore regulus morì prima di lui ed entrambi non hanno avuto figli mentre il suo testamento esprime la chiara volontà che la casa vada a te è comunque possibile che sul luogo sia stato gettato un incantesimo o un sortilegio per assicurarsi che non possa essere proprietà di nessuno che non sia di sangue puro a harry palenò in mente una vivida immagine del ritratto urlante e sputacchiante della madre di sirius appeso nell'ingresso ci scommetto che è così disse già ribatté silente e se esiste un sortilegio simile allora è molto probabile che la proprietà della casa passi al più anziano dei parenti in vita di sirius ossia sua cugina bellatrix lestrange senza capire quello che faceva harry balzò in piedi cannocchiale e scarpe da tennis gli caddero a terra bellatrix lestrange l'assassina di sirius ereditare la sua casa no disse beh ovviamente anche noi preferiremmo che non andasse a lei rispose silente tranquillo la situazione è carica di complicazioni non sappiamo se gli incantesimi che noi stessi vi abbiamo imposto per esempio rendendola indisegnabile avranno ancora valore ora che la proprietà non appartiene più a sirius bellatrix potrebbe presentarsi alla porta da un momento all'altro naturalmente abbiamo dovuto trasferirci finché le cose non saranno chiarite ma come farete a scoprire se io posso averla per fortuna replicò silente c'è una prova semplice posò il bicchiere vuoto su un tavolino accanto alla poltrona ma prima che potesse fare altro zio vernon urlò vuole toglierci di dosso questi maledetti cosi harry si voltò tutti e tre i darsley si riparavano la testa con le mani mentre i bicchieri rimbalzavano su e giù sui loro crani e l'idromele schizzava dappertutto oh mi dispiace tanto disse silente con garbo e levò di nuovo la bacchetta i bicchieri sparirono ma sarebbe stato più educato bere zio vernon sembrava pronto a esplodere in un effluvio di rispostacce ma si limitò a ritrarsi fra i cuscini con sia petunia e dadley senza dire nulla tenendo gli occhietti porcini fissi sulla bacchetta di silente vedi riprese quest'ultimo rivolto a harry come se zio vernon non avesse proferito motto se hai davvero ereditato la casa hai ereditato anche agitò la bacchetta per la quinta volta si udì un forte crack e apparve un elfo domestico con il naso a grugno orecchie giganti da pipistrello ed enormi occhi iniettati di sangue rannicchiato sulla folta moquette pelosa dei darsley e coperto di stracci sudici sia petunia emise uno strillo da far rizzare i capelli niente di così sporco era entrato in casa sua a memoria d'uomo dadley sollevò dal pavimento i rose i piedoni nudi e rimase seduto tenendoli quasi sopra la testa come se pensasse che la creatura potesse risalirli e superi i pantaloni del pigiama e zio vernon urlò che diavolo è quello creature rispose silente creature non vuole creature non vuole creature non vuole gracchiò l'elfo domestico forte quasi quanto zio vernon pestando i lunghi piedi contorti e tirandosi le orecchie creature appartiene alla signorina bellatrix oh sì creature appartiene ai black creature vuole la sua nuova padrona creature non andrà dal moccioso potter no 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 come puoi vedere erri gridò silente per superare i ripetuti gracchianti no 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 dell'elfo domestico creature mostra una certa riluttanza a diventare tua proprietà non mi importa rispose di nuovo erri guardando con disgusto l'elfo domestico che si contorceva e pestava i piedi io non lo voglio no 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 preferiresti che passasse nelle mani di bellatrix lestrange sapendo che ha trascorso l'ultimo anno nel quartier generale dell'ordine della fenice no 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 erri fissò silente sapeva che non si poteva lasciare che creature andasse a stare con bellatrix lestrange ma l'idea di possederlo di essere responsabile della creatura che aveva tradito sirius era ripugnante dagli un ordine disse silente se è diventato tua proprietà dovrà obbedire altrimenti dovremmo pensare a un altro modo per tenerlo lontano dalla sua legittima padrona no 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 la voce di creature era diventata un urlo erri non riuscì a pensare a niente da dire se non creature sta zitto per un attimo parve che creature stesse per soffocare si afferrò la gola con la bocca che ancora si agitava furiosa e gli occhi sporgenti dopo qualche secondo di quelle boccate frenetiche si gettò faccia in giù sulla moquette sia petunia piagnucolò e batte mani e piedi per terra lasciandosi andare a una violenta ma del tutto silenziosa scenata beh questo semplifica le cose commentò silente con allegria pare che sirius sapesse quello che faceva sei il legittimo proprietario del numero 12 di grimmall place e di creature devo devo tenerlo con me chiese erri agghiacciato mentre creature si divincolava i suoi piedi no se non vuoi rispose silente se posso darti un suggerimento potresti mandarlo a hogwarts a lavorare nelle cucine così gli altri elfi domestici lo terranno d'occhio sicuro disse erri sollevato sì farò così creature voglio che tu vada a hogwarts e lavori nelle cucine con gli altri elfi domestici creature che giaceva sulla schiena con mani e piedi per aria scoccò a erri uno sguardo intriso del più profondo disprezzo e sparì con un altro sonoro crack bene disse silente c'è anche la questione dell'ippogrifo fiero becco agrid si occupa di lui dalla morte di sirius ma ora fiero becco è tuo quindi se preferisci un'altra sistemazione no rispose subito erri può restare con agrid credo che sia quello che vorrebbe fiero becco agrid ne sarà lieto ribattesi lente con un sorriso era emozionatissimo quando ha rivisto fiero becco tra parentesi abbiamo deciso nell'interesse della sua sicurezza di ribattezzarlo alisecco per il momento anche se dubito che il ministero potrebbe mai indovinare che è l'ippogrifo che una volta ha condannato a morte allora erri il tuo baule è pronto dubitavi che sarei venuto suggerì silente ironico vado a finire rispose subito erri e si affrettò a raccogliere cannocchiale e scarpe da tennis gli ci vollero poco più di dieci minuti per recuperare tutto ciò di cui aveva bisogno infine riuscì a estrarre il mantello dell'invisibilità da sotto il letto a riavvitare il tappo sulla boccetta di inchiostro cambia colore e a costringere il coperchio del baule a chiudersi sopra il suo calderone poi trascinando il bagaglio con una mano e reggendo la gabbia di edvige nell'altra tornò di sotto fu deluso di scoprire che silente non lo aspettava nell'ingresso e che quindi gli toccava tornare in sala nessuno parlava silente canticchiava piano evidentemente a suo agio ma l'atmosfera era più densa di una crema pasticcera erri non osò guardare i darsley professore ora sono pronto bene disse silente un'ultima cosa allora e si rivolse di nuovo ai darsley come senza dubbio saprete erri diventerà maggiorenne fra un anno no ribattezzi a petunia parlando per la prima volta prego chiese silente in tono educato no che non diventa maggiorenne a un mese meno di dadley e di dino compirà 18 anni solo fra due anni ah rispose silente garbato ma nel mondo magico si diventa maggiorenne a 17 anni sio vernon borbottò ridicolo ma silente lo ignorò ora come già sapete il mago chiamato lord voldemort è tornato in questo paese la comunità magica attualmente è in uno stato di guerra aperta erri che lord voldemort ha già cercato di uccidere parecchie volte è ancora più in pericolo del giorno che lo lasciai sulla vostra soglia 15 anni fa con una lettera che spiegava dell'assassinio dei suoi genitori ed esprimeva la speranza che vi sareste presi cura di lui come se fosse vostro silente osservò una pausa e anche se la sua voce rimase leggera e tranquilla e lui non diede segni evidenti di rabbia erri sentì una sorta di gelo emanare dalla sua persona e notò che i darsley si stringevano più vicini tra loro non avete fatto come vi ho chiesto non avete mai trattato erri come un figlio con voi non ha conosciuto altro che abbandono e spesso crudeltà il meglio che si possa dire è che almeno è sfuggito al terribile danno che avete inflitto al disgraziato ragazzo seduto tra voi sia sia petunia che zio vernon si voltarono distinto come se si aspettassero di vedere qualcun altro che non fosse dad lei schiacciato fra loro noi maltrattare di dino che cosa cominciò zio vernon furioso ma silente levò un dito e il signor darsley ammutoli come se il mago l'avesse colpito con un incantesimo la magia che evoca i 15 anni fa implica che erri abbia su di sé una protezione potente finché ancora può definire questo luogo casa sua per quanto infelice sia stato qui per quanto male accetto per quanto maltrattato almeno pur a malincuore vi avete concesso un posto la magia cesserà di funzionare nel momento in cui erri compirà 17 anni in altre parole nel momento in cui diventerà un uomo chiedo solo questo che concediate a erri di tornare ancora una volta in questa casa prima del suo diciassettesimo compleanno il che garantirà che la protezione continui fino ad allora nessuno dei darsley disse nulla dad lei era un po accigliato come se stesse ancora cercando di capire quando mai era stato maltrattato se overnon sembrava avere qualcosa impigliato in gola sia petunia invece era stranamente colorita berri è ora di andare silente si alzò e si risciò il lungo mantello nero ci rivedremo disse ai darsley che avevano tutta l'aria di pensare che se fosse dipeso da loro quel momento non sarebbe arrivato mai e dopo essersi tolto il cappello uscì dalla stanza addio mormorò erri in fretta ai darsley e seguì silente che si fermò accanto al baule sul quale era in bilico la gabbia di edvige non è il caso che ci carichiamo di queste cose adesso disse e sfoderò di nuovo la bacchetta le spedirò alla tana ad aspettarci tuttavia vorrei che tu portassi il mantello dell'invisibilità non si sa mai erri sfilò il mantello dal baule con qualche difficoltà cercando di evitare che silente notasse il caos che c'era dentro quando lo ebbe ficcato in una tasca interna del giubbotto silente agitò la bacchetta e baule gabbia e edvige svanirono allora il mago agitò di nuovo la bacchetta e la porta si aprì sulla fresca nebbiosa oscurità e ora erri usciamo nella notte e seguiamo la fugace tentatrice l'avventura oras lumacorno pur avendo trascorso ogni momento di veglia degli ultimi giorni nella febbrile attesa di silente erri si sentì strano quando si avviarono insieme lungo private drive non aveva mai sostenuto una vera conversazione con il suo preside fuori da hogwarts di solito c'era una scrivania tra loro anche il ricordo del loro ultimo faccia a faccia continuava a riaffiorare aggravando il suo imbarazzo in quella circostanza aveva urlato parecchio senza contare che aveva fatto del suo meglio per distruggere molti degli oggetti più preziosi di silente che però sembrava del tutto rilassato tieni la bacchetta pronta erri disse in tono allegro ma signore credevo di non essere autorizzato a usare la magia fuori dalla scuola in caso di attacco rispose silente ti do il permesso di usare qualunque controfattura o contro maledizione ti venga in mente ma non credo che dovresti preoccuparti di essere attaccato stanotte perché no signore sei con me si limitò a dire silente e questo basterà erri si fermò di botto alla fine di private drive naturalmente non hai fatto l'esame di materializzazione vero domandò no rispose erri credevo che si dovessero avere 17 anni vero confermò silente quindi dovrai aggrapparti ben stretto al mio braccio al sinistro se non ti dispiace come hai notato il braccio della bacchetta al momento è un po fragile erri afferrò l'avambraccio che gli veniva offerto molto bene disse silente beh andiamo erri sentì il braccio di silente sfuggirgli e rafforzò la presa un attimo dopo tutto diventò nero si sentì premere da tutte le parti non riusciva a respirare come se fasce di ferro gli stringessero il petto le pupille gli vennero ricacciate nella testa i timpani premuti più a fondo nel cranio e poi inghiottì enormi sorsate di fredda aria notturna e aprì gli occhi lacrimanti si sentiva come se fosse stato infilato a forza in un tubo di gomma molto stretto passarono alcuni secondi prima che si rendesse conto che prive drive era sparita lui e silente si trovavano in quella che sembrava la piazza deserta di un villaggio al centro della quale c'erano un vecchio monumento ai caduti e alcune panchine quando la mente si ricongiunse con i sensi henry capì che si era materializzato per la prima volta nella sua vita tutto a posto gli chiese silente scrutandolo preoccupato ci vuole un po ad abituarsi sto bene rispose henry strofinandosi le orecchie che davano l'idea di aver lasciato prive drive piuttosto a malincuore ma penso di preferire le scope silente sorrise si strinse un po di più il mantello da viaggio attorno al collo e disse da questa parte si avviò a passo rapido superando una locanda vuota e alcune case secondo l'orologio della chiesa vicina era quasi mezzanotte allora dimmi henry cominciò silente la cicatrice ti fa male henry si portò istintivamente una mano alla fronte e si strofinò il segno a forma di saetta no rispose e mi stavo chiedendo come mai credevo che avrebbe bruciato di continuo adesso che voldemort sta ridiventando così potente guardò in su verso silente e lo vide soddisfatto io invece non lo pensavo disse il mago lord voldemort ha finito per rendersi conto che godevi di un pericoloso accesso ai suoi pensieri e sentimenti pare che ora sia ricorso all'oclumanzia contro di te beh non mi sento osservò henry che non sentiva la mancanza né degli incubi né degli spaventosi squarci della mente di voldemort voltarono un angolo passarono davanti a una cabina telefonica e a una pensilina dell'autobus henry guardò di nuovo silente professore si henry dove ci troviamo di preciso questo henry è l'incantevole villaggio di badly babberton e che cosa ci facciamo qui ah sì certo non te l'ho detto rispose silente beh ho perso il conto del numero di volte che l'ho detto negli ultimi anni ma al nostro corpo insegnanti manca di nuovo un componente siamo qui per convincere un mio vecchio collega a lasciare la vita ritirata e tornare a hogwarts e io in che cosa posso essere utile signore credo che ti troveremo qualcosa da fare replicò silente in tono vago qui a sinistra henry avanzarono lungo una ripida stretta strada fiancheggiata da case tutte le finestre erano buie lo strano gelo che da due settimane gravava su private drive persisteva anche lì pensando ai dissennatori henry si gettò un'occhiata alle spalle e strinse la bacchetta in tasca per rassicurarsi professore perché non ci siamo materializzati direttamente nella casa del suo vecchio collega perché sarebbe stato sgarbato quanto buttar giù a calci la porta spiegò silente la cortesia impone che offriamo ai colleghi maghi l'opportunità di negarci l'ingresso in ogni caso gran parte delle abitazioni di maghi sono protette da incantesimi contro i materializzatori indesiderati a hogwarts per esempio non ci si può materializzare da nessuna parte negli edifici e dentro il perimetro della scuola concluse henry in fretta me l'ha detto ermione granger e ha ragione ancora a sinistra l'orologio della chiesa dietro di loro batte la mezzanotte henry si chiese come mai silente non considerava scortese far visita al suo collega così tardi ma ora che la conversazione era stata avviata aveva domande più urgenti professore ho letto sulla gazzetta del profeta che fagge è stato cacciato corretto rispose silente svoltando in una ripida stradina laterale è stato sostituito sono certo che hai letto anche questo da rufus scrimgeor già capo dell'ufficio auror e secondo lei è bravo domanda interessante riflette silente è abile questo è certo una personalità più volitiva ed energica di cornelius sì ma io volevo dire so cosa volevi dire rufus è un uomo d'azione e avendo combattuto contro maghi oscuri per gran parte della sua carriera non sottovaluta lord voldemort henry attese ma silente non disse nulla dei disaccordi con scrimgeor di cui la gazzetta del profeta aveva riferito non ebbe il coraggio di insistere così cambiò argomento e signore ho letto di madame bones sì mormorò silente una perdita terribile era una gran strega su di qui credo aia per indicare la strada aveva usato la mano ferita professore che cosa è successo alla sua non ho tempo di spiegartelo adesso rispose silente è una storia appassionante e vorrei renderle giustizia sorrise e ricapì che non lo stava rimproverando e che poteva fare altre domande signore ho ricevuto via gufo un opuscolo del ministero della magia sulle misure di sicurezza che dovremmo tutti adottare contro i mangiamorte sì ne ho ricevuto uno anch'io riprese silente sempre sorridendo hai trovato utile non proprio no lo immaginavo non mi hai chiesto per esempio qual è il mio gusto di marmellata preferito per essere certo che io sia davvero il professor silente e non un impostore io non cominciò erri incerto se quello fosse invece un vero riprovero per futura informazione erri è lampone sebbene naturalmente se fossi un mangiamorte mi sarei assicurato di indagare sulla mia marmellata preferita prima di impersonare me stesso giusto disse erri beh il libriccino parlava degli inferi che cosa sono di preciso non era molto chiaro sono cadaveri rispose silente tranquillo corpi morti stregati per eseguire gli ordini di un mago oscuro è da molto tempo che non si vedono inferi però da quando voldemort era potente ha ucciso abbastanza persone da metterne insieme un esercito è qui erri proprio qui si stavano avvicinando a una piccola linda casa di pietra circondata da un giardino erri era troppo impegnato ad assimilare la terribile idea degli inferi per potersi concentrare su altro ma quando ebbero raggiunto il cancello silente si fermò di botto erri lo urtò o cielo o cielo 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 erri seguì il suo sguardo lungo il curatissimo viale d'ingresso ed ebbe un tuffo al cuore la porta pensolava dai cardini silente guardo su e giù lungo la via sembrava deserta fuori la bacchetta e seguimi erri sussurrò aprì il cancello e risali il vialetto a passi rapidi e silenziosi con erri alle calcagna poi spinse la porta molto piano la bacchetta alzata e pronta lumos la punta della bacchetta si accese illuminando uno stretto ingresso sulla sinistra c'era un'altra porta spalancata tenendo alta la bacchetta accesa silente entrò nel salotto seguito da erri ai loro occhi si presentò una scena di totale devastazione una pendola giaceva a pezzi ai loro piedi il quadrante spaccato il pendolo poco lontano come una spada abbandonata un pianoforte era rovesciato sul fianco con la tastiera distesa sul pavimento le schegge di un lampadario scintillavano lì vicino dei cuscini giacevano sgonfi con le piume che traboccavano dagli squarci frammenti di vetro e porcellana ricoprivano ogni cosa come polvere silente alzò ancora la bacchetta così che la sua luce cadde sulle pareti dove qualcosa di rosso scuro e glutinoso copriva di schizzi la tappezzeria il breve sospiro di erri indusse silente a voltarsi brutto no commentò il mago in tono grave sì qui è successo qualcosa di terribile avanzò cauto fino al centro della stanza osservando il disastro ai suoi piedi erri lo seguì guardandosi attorno già atterrito all'idea di ciò che avrebbe potuto vedere dietro i resti del pianoforte o il divano rovesciato ma non c'era traccia di un corpo forse c'è stata una battaglia e e l'hanno trascinato via professore suggerì cercando di non immaginare che genere di ferite dovesse avere una persona per lasciare quegli schizzi fino a metà parete non credo mormorò silente spiando dietro una poltrona molto imbottita che giaceva sul fianco vuol dire che è ancora qui da qualche parte sì e senza preavviso silente piombò in avanti affondando la punta della bacchetta nel sedile della poltrona che strillò aia buonasera oras disse silente raddrizzandosi erri rimase a bocca aperta dove un istante prima c'era una poltrona ora stava accovacciato un vecchio calvo enormemente grasso che si massaggiava la pancia e so guardava silente con occhi acquosi e afflitti non c'era bisogno di infilzarmi in quel modo borbottò rialzandosi con difficoltà mi hai fatto male la luce della bacchetta scintillava sulla pelata brillante sugli occhi sporgenti sugli enormi baffi argentei da tricheco e sui lustrissimi bottoni della giacca di velluto ruggine che indossava sopra un pigiama di seta lilla la sua testa raggiungeva appena il mento di silente da cosa l'hai capito grugnì barcollando senza smettere distrofinarsi la pancia sembrava straordinariamente disinvolto per un uomo che è stato appena scoperto a far finta di essere una poltrona mio caro oras rispose silente divertito se i mangiamorte fossero davvero venuti a farti visita sulla casa sarebbe stato imposto il marchio nero il mago si batte una mano grassa e tozza sulla vasta fronte il marchio nero borbottò lo sapevo che c'era qualcosa vabbè non ne avrei avuto il tempo comunque avevo appena finito di dare gli ultimi ritocchi alla mia imbottitura quando siete entrati trasse un gran sospiro che gli fece svolazzare le punte dei baffoni vuoi che ti dia una mano a rimettere in ordine gli chiese con garbo silente grazie rispose l'altro si dispose lo schiena contro schiena l'alto mago sottile e quello basso e tondo e agitarono le bacchette in un identico ampio movimento i mobili tornarono volando al loro posto i soprammobili si ricomposero a mezz'aria le piume schizzarono dentro i loro cuscini i libri strappati si ripararono atterrando sui loro scaffali le lanterne a olio planarono sui tavolini e si riaccesero un'ampia collezione di cornici d'argento infrante volarono scintillando attraverso la sala e si posarono intatte e lustre su una scrivania strappi inclinature e buchi si ripararono ovunque le pareti si ripulirono che tipo di sangue era tra parentesi chiese silente sovrastando con la voce i battiti della pendola tornata come nuova sulle pareti di drago urlò il mago chiamato oras mentre fra scricchioli e tintinnie assordanti il lampadario si riavvitava al soffitto ci fu un ultimo plin del pianoforte poi silenzio si di drago ripete il mago conversando amabilmente la mia ultima bottiglia e i prezzi al momento sono alle stelle ma forse lo si può riciclare avanzò pesantemente fino a una bottiglietta di cristallo su una credenza e la tenne contro luce osservando il denso liquido all'interno un po' polveroso posò di nuovo la bottiglia sulla credenza e sospirò fu allora che il suo sguardo si posò su erri oh mormorò i grandi occhi si spostarono rapidi sulla fronte di erri e sulla cicatrice a forma di fulmine oh questo disse silente avanzando per fare le presentazioni erri potter erri questo è un mio vecchio amico e collega oras luma corno luma corno si voltò verso silente con aria furbetta allora è così che pensavi di convincermi e beh la risposta è no albus oltrepassò erri con la faccia voltata dall'altra parte come se cercasse di resistere a una tentazione immagino che possiamo bere qualcosa almeno propose silente in ricordo dei vecchi tempi luma corno esitò d'accordo allora ma solo un bicchiere a consentì in tono sgarbato silente sorrise a erri e gli indicò una poltrona non dissimile da quella che luma corno aveva appena impersonato accanto al fuoco riacceso e a una lampada olio che brillava vivace erri prese posto con la netta impressione che silente per qualche ragione volesse tenerlo più in vista possibile in effetti quando luma corno che si era indaffarato con caraffe e bicchieri si voltò di nuovo il suo sguardo cadde irresistibilmente su erri fece e distolse subito gli occhi come se avesse paura di farsi male ecco diede da bere a silente che si era seduto senza aspettare un invito spinse il vassoio verso erri e poi in un silenzio mal mostoso sprofondò nei cuscini del divano riparato aveva le gambe così corte che non toccavano terra beh come te la passi oras gli chiese silente non molto bene rispose pronto luma corno sono debole di petto ho l'asma e anche i reumatismi non riesco a muovermi come una volta beh c'era da aspettarselo l'età la stanchezza eppure devi esserti mosso piuttosto in fretta per prepararci un tale benvenuto con così breve preavviso osservò silente non puoi aver avuto più di tre minuti con un misto di irritazione e orgoglio luma corno rispose due non ho sentito scattare l'incantesimo intruso stavo facendo il bagno però aggiunse con fermezza come a riacquistare il controllo resta il fatto che sono un vecchio albus un vecchio stanco che si è guadagnato il diritto a una vita tranquilla e a qualche piccola comodità quelle certo non gli mancavano pensò erri guardandosi intorno la stanza era soffocante ingombra ma non si poteva dire che fosse scomoda c'erano soffici poltrone e poggiapiedi bibite e libri scatole di cioccolatini e cuscini gonfi se erri non avesse saputo chi ci abitava avrebbe pensato a una ricca fronzoluta vecchia signora non hai nemmeno la mia età oras osservò silente beh forse dovresti pensare anche tu alla pensione ribatte schiettamente l'altro i suoi palli di occhi color uva spina avevano scoperto la mano ferita di silente le tue reazioni non sono più le stesse vedo hai ragione ammise silente con serenità scostando la manica per rivelare le dita bruciate e annerite la vista fece pizzicare in modo spiacevole la nuca di erri senza dubbio sono più lento di un tempo ma d'altra parte scrollò le spalle allargò le mani come per dire che l'età ha i suoi vantaggi e erri notò sulla mano intatta un anello che non gli aveva mai visto era grande grossolanamente modellato in quello che sembrava oro e recava incastonata una pesante pietra nera che si era spezzata al centro anche lo sguardo di lumacorno indugiò sull'anello e erri vide una piccola ruga increspargli per un attimo l'ampia fronte allora tutte queste precauzioni contro gli intrusi oras sono per i mangiamorte o per me chiese silente che cosa potrebbero volere i mangiamorte da un povero vecchio mal ridotto come me domandò lumacorno immagino che potrebbero voler trasformare i tuoi considerevoli talenti in coercizione tortura e assassinio rispose silente mi stai dicendo sul serio che non sono ancora venuti ad assoldarti lumacorno scrutò silente con aria funerea per un attimo poi borbottò non gliene ho dato l'opportunità sono in movimento da un anno non sto mai più di una settimana nello stesso luogo mi sposto di casa babbana in casa babbana i proprietari di questa sono in vacanza alle canarie è molto gradevole mi dispiacerà andar via è abbastanza facile quando sai come fare basta un semplice incantesimo congelatore su quegli assurdi antifurto che usano invece degli spioscopi e assicurarsi che i vicini non ti notino quando porti dentro il pianoforte ingegnoso commentò silente ma mi sembra un'esistenza piuttosto faticosa per un povero vecchio mal ridotto in cerca di una vita tranquilla ora se dovessi tornare a hogwarts se stai per dirmi che la mia vita sarebbe più serena in quella scuola pestilenziale puoi risparmiarti il fiato albus posso anche aver vissuto alla macchia ma mi sono giunte voci curiose da quando dolore sunbridge se n'è andata c'è così che tratti i tuoi segnanti di questi tempi la professoressa sunbridge ha avuto un diverbio con la nostra comunità di centauri lo interruppe silente credo che tu oras ci avresti pensato due volte prima di marciare nella foresta e chiamare sudici ibridi un'orda di centauri arrabbiati è così che è andata chiese l'umacorno che idiota non mi è mai piaciuta harry ridacchiò e sia silente che l'umacorno si voltarono a guardarlo scusate mormorò harry in fretta è solo che anche a me non è mai piaciuta silente si alzò all'improvviso te ne vai domandò subito l'umacorno speranzoso no mi chiedevo se posso usare il bagno rispose silente disse l'umacorno evidentemente deluso la seconda porta a sinistra nell'ingresso silente attraversò la stanza quando la porta si fu chiusa alle sue spalle calò il silenzio dopo qualche istante l'umacorno si alzò ma parve incerto sul da farsi scoccò uno sguardo furtivo a harry poi andò verso il fuoco per scaldarsi l'ampio sedere non credere che non sappia perché ti ha portato esordì senza preamboli harry lo guardò gli occhi acquosi dell'ex professore scivolarono sulla cicatrice di harry e questa volta si soffermarono su tutto il volto assomigli molto a tuo padre si me l'hanno detto rispose harry a parte gli occhi ai gli occhi di mia madre si harry l'aveva sentito dire così spesso che lo trovava un po logorante si beh un professore non dovrebbe avere degli allievi prediletti naturalmente ma lei era la mia tua madre aggiunse l'umacorno in risposta allo sguardo interrogativo di harry lily evans una delle allieve migliori che abbia mai avuto vivace sai una ragazza affascinante le dicevo sempre che avrebbe dovuto stare nella mia casa e ottenevo delle belle rispostacce anche qual era la sua casa ero direttore di serpeverde disse l'umacorno adesso continuò in fretta notando l'espressione di harry agitandogli contro un dito tozzo non avercela con me per questo tu sei grifondoro come lei immagino sì in genere è una cosa ereditaria non sempre però mai sentito parlare di sirius black immagino di sì è stato sui giornali per gli ultimi due anni è morto qualche settimana fa fu come se una mano invisibile avesse strizzato le viscere di harry e le tenesse strette beh comunque era un grande amico di tuo padre a scuola tutta la famiglia black era stata nella mia casa ma sirius finì a grifondoro peccato era un ragazzo pieno di talento io ho avuto suo fratello regulus quando è stato il momento ma li avrei preferiti tutti e due sembrava un collezionista avido che fosse stato sconfitto a un'asta chiaramente smarrito nei suoi ricordi scrutò la parete di fronte ondeggiando pigramente quel tanto da assicurare un calore diffuso al proprio sedere tua madre era babbana di nascita naturalmente non ci credevo quando l'ho scoperto pensavo che fosse puro sangue era così brava una delle mie migliori amiche babbana di nascita ribatte harry ed è la più brava del nostro anno ogni tanto succede buffo no osservò lumacorno non proprio rispose harry gelido lumacorno lo guardò sorpreso non pensare che io abbia dei pregiudizi esclamò no 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 non ho appena detto che tua madre è stata uno dei miei studenti preferiti in assoluto e c'era dirk creswell nell'anno dopo il suo adesso è direttore dell'ufficio delle relazioni con i goblin naturalmente un altro babbano di nascita uno studente molto dotato che mi dà ancora ottime informazioni su quello che succede alla gringot molleggiò un po su e giù sorridendo compiaciuto e indicò le numerose cornici splendenti sulla credenza ciascuna abitata da minuscoli personaggi mobili tutti ex studenti tutte foto firmate questo è barnabas caff direttore della gazzetta del profeta mi chiede sempre un parere sulle notizie del giorno e ambrosius flum di mielandia un cesto a ogni compleanno e solo perché sono riuscito a raccomandarlo a cicero narkis che gli ha offerto il suo primo lavoro e là dietro se allunghi un po il collo la vedi quella è gwenhock jones che come sai è il capitano delle hollyhead harpies la gente resta sempre basita quando scopre che ci diamo del tu e ho i biglietti gratis tutte le volte che voglio il pensiero parve rinfrancarlo enormemente e tutta questa gente sa dove trovarla per mandarle la roba domandò harry che non pote fare a meno di chiedersi come mai i mangiamorte non avessero ancora rintracciato lumacorno se cesti di dolci biglietti per le partite e visitatori avidi dei suoi consigli e delle sue opinioni riuscivano a trovarlo il sorriso sparì dal volto di lumacorno rapido come il sangue dalle sue pareti certo che no rispose guardando harry è un anno che ho perso tutti i contatti per un istante sembrò scioccato dalle sue stesse parole poi alzò le spalle comunque il mago prudente tiene la testa bassa in tempi come questi silente ha un bel dire ma lavorare a hogwarts adesso sarebbe come dichiarare pubblica fedeltà all'ordine della fenice e anche se sono certo che siano assolutamente ammirevoli e coraggiosi e quant'altro personalmente non apprezzo il tasso di mortalità non deve unirsi all'ordine per insegnare hogwarts obiettò harry senza riuscire a evitare una nota di scherno era difficile provare comprensione per l'esistenza viziata di lumacorno quando ricordava sirius accovacciato in una caverna a vivere di ratti molti insegnanti non ne fanno parte nessuno di loro è stato ucciso beh a parte quirl e ha avuto quello che meritava visto che lavorava con voldemort harry era sicuro che lumacorno fosse uno di quei maghi che non sopportavano di sentir pronunciare ad alta voce il nome di voldemort e non fu deluso lumacorno rabbrividì e mugolò una protesta che lui ignorò suppongo che il personale si è più al sicuro degli altri finché silenta il preside pare che sia l'unico che voldemort abbia mai temuto no riprese lumacorno scrutò nel vuoto per qualche istante e parve riflettere sulle parole di harry beh sì è vero che colui che non deve essere nominato non ha mai cercato lo scontro con silente ammise a malincuore e suppongo che si possa dedurre che siccome non mi sono unito ai mangiamorte colui che non deve essere nominato non può comunque annoverarmi tra i suoi amici nel qual caso potrei essere più al sicuro stando un po più vicino a silente non posso far finta che la morte di amelia bones non mi abbia scosso se lei con tutti i suoi contatti al ministero e la protezione silente tornò nella stanza e lumacorno sobbalzò come se si fosse dimenticato che era in casa oh ecco ti albus disse sei stato via un pezzo stomaco in subbuglio no stavo solo leggendo le riviste babbane rispose silente adoro i modelli a maglia bene harry abbiamo abusato abbastanza dell'ospitalità di oras credo che sia il momento di andarcene tutt'altro che riluttante harry balzò in piedi lumacorno rimase spiazzato ve ne andate sì certo credo di saper riconoscere una causa persa quando ne vedo una persa lumacorno era agitato si rigirava i grassi pollici osservando silente allacciarsi il mantello da viaggio e harry alzare la cerniera del giubbotto beh mi spiace che tu non voglia il posto oras disse silente levando la mano sana in un gesto d'addio hogwarts sarebbe stata lieta di rivederti nonostante le nostre misure di sicurezza siano enormemente aumentate le tue visite saranno sempre benvenute sì beh molto cortese come dicevo allora addio arrivederci salutò harry erano sulla soglia quando alle loro spalle si levò un grido va bene va bene verrò silente si voltò e vide lumacorno senza fiato sulla porta del salotto tornerai sì sì rispose lumacorno spazientito devo essere pazzo ma sì meraviglioso silente era raggiante allora oras ci vediamo il primo settembre sì direi proprio di sì grugnì lumacorno mentre ripercorrevano il vialetto la voce di lumacorno li seguì fluttuando voglio un aumento silente questi ridacchiò il cancelletto si chiuse alle loro spalle e si avviarono giù per la collina nel buio e nei vortici di nebbia ottimo lavoro harry commentò silente io non ho fatto niente rispose harry sorpreso oh sì hai mostrato con precisione a oras quanto ci guadagna a tornare a hogwarts che ti pare di lui harry non sapeva bene se lumacorno gli piacesse o no era stato gradevole a suo modo ma gli era anche sembrato vanesio e per quanto avesse sostenuto il contrario troppo sorpreso dal fatto che una babbana potesse diventare una buona strega a oras proseguì silente sollevando harry dalla responsabilità di dire una di queste cose piacciono gli agi gli piace anche la compagnia dei famosi dei potenti e delle persone di successo gode della sensazione di avere influenza su queste persone non ha mai voluto occupare il trono di persona preferisce star dietro le quinte dove si sta più larghi capisci aveva l'abitudine di scegliersi dei prediletti a hogwarts a volte per la loro ambizione o il loro cervello a volte per il fascino e il talento e aveva un'insolita abilità nello scegliere coloro che sarebbero diventati personalità di spicco nei vari campi oras formava una specie di club dei suoi prediletti con se stesso al centro presentava l'uno all'altro creava utili contatti tra i membri e otteneva sempre qualche beneficio in cambio che fosse una scatola del suo adorato ananas candito o la possibilità di raccomandare un giovane all'ufficio delle relazioni con i goblin harry ebbe l'improvvisa vivida immagine di un enorme ragno gonfio che tesseva una tela attorno a sé torcendo un filo qua e là per avvicinare un po di più le sue grasse succulente mosche ti dico tutto questo riprese silente non per montarti contro oras o come dobbiamo ormai chiamarlo il professor lumacorno ma per metterti in guardia senza alcun dubbio cercherà di farti entrare nella sua collezione harry saresti il suo gioiello il ragazzo che è sopravvissuto o come ti chiamano in questi giorni il prescelto a queste parole un gelo che non aveva niente a che vedere con la nebbia circostante calò lento su harry ricordò le parole che aveva udito poche settimane prima parole che avevano un terribile significato per lui nessuno dei due può vivere se l'altro sopravvive silente si era fermato accanto alla chiesa che avevano oltrepassato prima ci siamo harry se vuoi prendermi il braccio questa volta harry era pronto ma trovò la materializzazione sempre sgradevole quando la pressione svanì e fu di nuovo in grado di respirare era su un viottolo di campagna accanto a silente e guardava davanti a sé la sagoma storta del secondo edificio che preferiva al mondo la tana nonostante la sensazione di terrore che l'aveva appena pervaso il suo umore non poté che risollevarsi a quella vista c'era ron là dentro e anche la signora weasley che cucinava meglio di chiunque altro se non ti dispiace harry disse silente mentre varcavano il cancello vorrei scambiare qualche parola con te prima che ci separiamo in privato magari qui dentro silente indicò un malconscio casotto di pietra dove i weasley tenevano le scope un po perplesso harry lo seguì oltre la porta cigolante in uno spazio poco più piccolo di un armadio normale silente illuminò la punta della bacchetta così da farla brillare come una torcia e sorrise spero che mi perdonerai se te ne accenno harry ma sono contento e un po orgoglioso di come hai reagito dopo tutto quel che è successo al ministero permettimi di dirti che sirius sarebbe stato fiero di te harry deglutì la voce sembrava averlo abbandonato non poteva sopportare di parlare di sirius era stato già abbastanza doloroso sentire ziovernon chiedere il suo padrino è morto ancora peggio udire il nome di sirius buttato lì per caso dall'umacorno è una cosa crudele disse silente con dolcezza che tu e sirius abbiate avuto così poco tempo da passare insieme una fine brutale per quello che avrebbe dovuto essere un legame lungo e felice harry annui lo sguardo ostinatamente fisso sul ragno che si arrampicava su per il cappello di silente si rendeva conto che silente lo capiva che forse aveva addirittura sospettato che fino all'arrivo della sua lettera harry aveva passato quasi tutto il tempo disteso sul letto rifiutandosi di mangiare e fissando la finestra velata pieno del gerido vuoto che aveva imparato ad associare ai dissenatori è dura mormorò infine rendersi conto che non mi scriverà più gli occhi gli bruciarono all'improvviso e batte le palpebre si sentiva stupido ad ammetterlo ma il fatto di aver avuto qualcuno fuori da hogwarts a cui importava di lui quasi come un genitore era stata una delle cose più belle e ora i gufi non gli avrebbero mai più portato quella consolazione sirius rappresentava per te tante cose che non avevi mai conosciuto prima sussurrò silente con dolcezza la sua perdita è devastante ma mentre stavo dai darsley lo interruppe harry a voce più alta ho capito che non posso rinchiudermi o crollare sirius non l'avrebbe voluto no e comunque la vita è troppo breve guardi madame bones guardi emmeline vans io potrei essere il prossimo vero ma se è così disse con forza guardando silente dritto negli occhi azzurri che scintillavano alla luce della bacchetta farò in modo di portare con me tutti i mangiamorte che posso e anche voldemort se ci riesco hai parlato come il degno figlio di tua madre e tuo padre e il vero figlioccio di sirius ribattessi lente dandogli una pacca di approvazione sulla schiena mi levo il cappello davanti a te o meglio lo farei se non avessi paura di ricoprirti di ragni ora harry a proposito di un argomento strettamente connesso mi par di capire che hai letto la gazzetta del profeta nelle ultime due settimane sì rispose harry col cuore che batteva un po più rapido allora avrai visto che non ci sono state solo indiscrezioni ma vere e proprie fughe di notizie a proposito della tua avventura nella sala delle profezie sì ripete harry e ora tutti sanno che sono quello no che non lo sanno lo interruppe silente ci sono solo due persone in tutto il mondo che conoscono fino in fondo il contenuto della profezia su te e lord voldemort e sono tutte due qui in questo armadio delle scope puzzolente e pieno di ragnatele è vero tuttavia che molti hanno indovinato e ha ragione che voldemort ha mandato i suoi mangiamorte a rubare una profezia e che questa profezia riguarda te ora credo di aver ragione a ritenere che tu non abbia raccontato a nessuno che sai quello che diceva no non l'ho detto a nessuno confermò harry saggia decisione nel complesso osservò silente anche se credo che dovresti aprirti con i tuoi amici il signor ronald weasley e la signorina ermione granger se riprese quando harry parve stupito credo che debbano sapere fai loro un torto non confidando un segreto così importante io non volevo preoccuparli o spaventarli suggerì silente osservando harry da sopra gli occhiali a mezzaluna o forse confessare che anche tu sei preoccupato e spaventato tu hai bisogno dei tuoi amici harry come hai giustamente detto sirius non avrebbe voluto che ti isolassi harry tacque ma silente non pareva aver bisogno di una risposta riprese quanto a un argomento diverso ma collegato è mio desiderio che tu prenda lezioni private da me quest'anno private da lei ripete harry colto di sorpresa nel proprio silenzio inquieto sì credo sia arrivato il momento che io ricopra un ruolo più importante nella tua istruzione che cosa mi insegnerà professore un po di questo un po di quello rispose silente con leggerezza harry attese speranzoso ma silente non aggiunse altro così fece un'altra domanda che lo assillava se prenderò lezioni da lei non dovrò più studiare occlumanzia con piton vero il professor piton harry no non dovrai bene sospirò harry sollevato perché sono state un si interruppe attento a non dire quello che pensava credo che la parola fiasco sia la più appropriata concluse silente e annui harry scoppiò a ridere beh vuol dire che d'ora in poi non vedrò molto il professor piton disse perché non mi permetterà di continuare a studiare pozioni a meno che io non abbia preso eccezionale nel mio gufo e so che non l'ho preso non contare i tuoi gufi prima che vengano recapitati rispose silente con gravità anzi adesso che ci penso dovrebbero arrivare oggi stesso tra qualche ora ancora due cose harry prima che ci separiamo primo vorrei che d'ora in poi tu portassi sempre con te il mantello dell'invisibilità anche dentro hogwarts non si sa mai mi capisci harry annui infine durante il tuo soggiorno è stato garantito alla tana il livello di sicurezza più alto che il ministero della magia possa offrire queste misure hanno procurato una certa quantità di fastidi ad arthur e molly tutta la loro posta per esempio viene passata al setaccio dal ministero prima di essere mandata a destinazione loro non ci badano assolutamente perché la loro sola preoccupazione è la tua sicurezza tuttavia sarebbe un gran brutto modo di ricambiarli se rischiassi l'osso del collo mentre sei loro ospite capisco rispose harry in fretta molto bene allora concluse silente spinse la porta del capanno delle scope e uscì nel cortile vedo una luce in cucina non priviamo oltre molly del piacere di lamentarsi della tua magrezza un eccesso di flora batterica harry e silente si avvicinarono alla porta sul retro della tana che era circondata dal consueto caos di vecchi stivali di gomma e calderoni arrugginiti harry sentì un chiocciare di galline assonnate arrivare da un capanno lontano silente bussò tre volte harry vide un improvviso movimento dietro la finestra della cucina chi è là chiese una voce nervosa che riconobbe come quella della signora weasley identificatevi sono io silente e accompagno harry la porta si aprì all'istante e apparve la signora weasley piccola e tonda avvolta in una vecchia vestaglia verde harry caro santo cielo albus mi hai spaventato avevi detto di non aspettarti prima di domattina abbiamo avuto fortuna rispose silente spingendo harry oltre la soglia l'umacorno si è dimostrato molto più facile da convincere di quanto mi aspettassi merito di harry naturalmente ah salve ninfadora harry si voltò e vide che nonostante l'ora tarda la signora weasley non era sola una giovane strega dal pallido volto a forma di cuore e dai capelli color topo era seduta al tavolo e stringeva fra le mani un grosso boccale salve professore salutò ciao harry ciao tongs pareva incredibilmente stanca quasi malata con qualcosa di forzato nel sorriso il suo aspetto era meno vivace del solito senza i suoi abituali capelli color rosa la gomma da masticare meglio che vada aggiunse in fretta si alzò e si avvolse il mantello attorno alle spalle grazie per il tè e il conforto molly per favore non andare per causa mia disse silente con garbo io non posso restare ho affari urgenti da discutere con rufus scrimgeor no no devo proprio andare replicò tongs senza incrociare il suo sguardo notte cara perché non vieni a cena nel fine settimana ci saranno anche remus e malocchio no davvero molly grazie comunque buonanotte a tutti tongs uscì rapida nel cortile oltrepassando silente harry a pochi passi dalla soglia girò su se stessa e svanì harry notò che la signora weasley era preoccupata beh ci vediamo a Hogwarts harry disse silente stammi bene molly servo tuo fece un inchino alla signora weasley e seguì tongs scomparendo nello stesso punto la signora weasley chiuse la porta sul cortile vuoto e poi spinse harry in piena luce per esaminarlo ben bene sei come ron sospirò scrutandolo sembra che vi abbiano fatto una fattura allungante a tutti e due giuro che ron è cresciuto di dieci centimetri da quando gli ho comprato l'ultima divisa hai fame harry sicuro rispose lui scoprendo solo in quel momento quanta ne aveva siediti caro metto insieme qualcosa mentre harry si sedeva un peloso gatto rosso con il muso schiacciato gli balzò sulle ginocchia e si acciambellò facendo le fusa allora ermione è qui chiese lui allegro solleticando grattastinchi dietro un orecchio oh sì è arrivata l'altro ieri rispose la signora weasley picchiettando con la bacchetta su una grossa pentola di ferro quella rimbalzò sul fornello con un sonoro clang e cominciò subito a ribollire sono tutti a letto naturalmente ti aspettavamo fra parecchie ore ecco qui toccò di nuovo la pentola che si levò in aria volò verso harry e si inclinò la signora weasley le fece scivolare sotto una ciotola appena in tempo per raccogliere un ruscello di densa fumante zuppa di cipolle pane caro grazie signora weasley lei agitò la bacchetta alle sue spalle una pagnotta e un coltello planarono con dolcezza sul tavolo mentre la pagnotta si affettava e la pentola di zuppa atterrava di nuovo sul fornello la signora weasley prese posto di fronte a lui allora hai convinto oras lumacorno ad accettare il posto harry annui la bocca così piena di zuppa bollente da impedirgli di parlare è stato l'insegnante mio e di arthur proseguì la signora weasley ha lavorato a hogwarts per secoli ha cominciato con silente credo che te ne parso con la bocca piena di pane harry si strinse nelle spalle e fece un cenno non compromettente con la testa so che cosa vuoi dire osservò la signora weasley annuendo sa essere affascinante quando vuole ma ad arthur non è mai piaciuto granché il ministero è pieno zeppo di vecchi pupilli di lumacorno è sempre stato bravo a dispensare aiuti ma non ha mai perso tempo con arthur sembrava pensare che non volasse abbastanza alto beh il che dimostra che anche lumacorno sbaglia non so se ronte l'ha scritto in una delle sue lettere è appena successo arthur è stato promosso non poteva essere più chiaro che la signora weasley scoppiava dalla voglia di raccontarlo harry inghiottì una cucchiaiata di zuppa molto calda e gli parve di sentire la gola ricoprirsi di vesciche straordinario boccheggiò sei un tesoro gorgogliò la signora weasley con un gran sorriso forse scambiando i suoi occhi umidi per una reazione commossa sì rufus scrimgeor ha aperto molti nuovi uffici per far fronte alla situazione attuale e arthur dirige l'ufficio intercettazione e confisca di incantesimi difensivi e oggetti protettivi contraffatti è una grossa responsabilità adesso a dieci dipendenti che cosa fa di preciso beh sai visto il panico per tu sai chi saltano fuori strane cose in vendita dappertutto cose che dovrebbero proteggere da tu sai chi e dai mangiamorte puoi immaginare di che genere sedicenti pozioni protettive che in realtà sono sugo di arrosto con un po di pus di bubo tubero o fatture difensive che in realtà ti fanno cascare le orecchie beh per lo più i charlatani sono gente come mandangus fletcher che non hanno mai lavorato onestamente un giorno della loro vita e approfittano del terrore che c'è in giro ma ogni tanto viene fuori qualcosa di veramente pericoloso l'altro giorno arthur ha sequestrato una scatola di spioscopi maledetti che quasi di sicuro sono stati messi lì da un mangiamorte quindi capisci è un lavoro molto importante io gli dico che è sciocco che senta la mancanza dei suoi traffici con le candele d'accensione i tostapane e tutta quanta quella spazzatura babbana concluse la signora weasley con uno sguardo severo come se fosse stato harry a suggerire che fosse naturale avere nostalgia delle candele d'accensione il signor weasley è ancora al lavoro chiese harry sì in effetti è un po in ritardo ha detto che sarebbe tornato verso mezzanotte si voltò a guardare un grosso orologio in bilico sopra una pila di lenzuola nel cesto della biancheria in fondo al tavolo harry lo riconobbe subito aveva nove lancette ciascuna con scritto il nome di un membro della famiglia e in genere era appeso alla parete del salotto ma la sua attuale postazione suggeriva che la signora weasley aveva preso l'abitudine di portarlo con sé in giro per la casa ognuna delle nove lancette puntava su pericolo mortale è così da un po ormai commentò la signora weasley con una disinvoltura per nulla convincente da quando tu sai chi è tornato allo scoperto immagino che siano tutti in pericolo mortale ora non credo solo la nostra famiglia ma non conosco nessun altro che possieda un orologio del genere quindi non posso verificare o con un'improvvisa esclamazione indicò il quadrante dell'orologio la lancetta del signor weasley si era spostata su in viaggio sta arrivando e in effetti un attimo dopo si sentì bussare la signora weasley balzò in piedi e corse alla porta sul retro con la mano sulla maniglia il viso schiacciato contro il legno mormorò arthur sei tu sì rispose la voce stanca del signor weasley ma lo direi anche se fosse un mangiamorte cara fammi la domanda o insomma molly va bene va bene qual è la tua più grande ambizione scoprire come fanno gli aeroplani a star su la signora weasley annui e abbassò la maniglia ma evidentemente il signor weasley la teneva dall'altra parte perché la porta rimase ben chiusa molly prima ti devo fare io la domanda arthur insomma è così stupido come vuoi che ti chiami quando siamo soli perfino alla luce fioca della lanterna harry notò che la signora weasley era diventata di un rosso acceso e anche lui avvertì all'improvviso un calorino attorno al collo e alle orecchie e mandò giù in fretta la zuppa facendo tintinare il cucchiaio più forte che poteva contro la ciotola lolly molly sussurrò la signora weasley mortificata corretto disse il signor weasley ora puoi farmi entrare la signora weasley aprì la porta a suo marito un mago scarno con i capelli rossi e una calvizia incipiente occhiali cerchiati di corno e un lungo polveroso mantello da viaggio non riesco ancora a capire perché dobbiamo fare questo teatrino tutte le volte che torni a casa protestò la signora weasley ancora rossa in faccia mentre aiutava il marito a sfilarsi il mantello voglio dire un mangiamorte avrebbe potuto strapparti a forza la risposta prima di assumere le tue sembianze lo so cara ma è la procedura del ministero e io devo dare l'esempio che buon profumino zuppa di cipolle il signor weasley si voltò speranzoso verso il tavolo harry non ti aspettavamo fino a domattina si strinsero la mano e il signor weasley si lasciò cadere sulla sedia accanto a harry mentre sua moglie gli posava davanti una ciotola di zuppa grazie molly è stata una notta taccia c'è un idiota che vende muta medaglie mettile al collo e potrai modificare il tuo aspetto a piacere centomila travestimenti per soli dieci galeoni e che cosa succede veramente se te ne metti una per lo più diventi di uno sgradevolissimo arancione ma un paio di persone sono cresciute verruche a forma di tentacoli su tutto il corpo come se a san mungo non avessero abbastanza da fare sembra il genere di cose che freddo e george potrebbero trovare divertente suggerì la signora weasley incerta sei sicuro neanche per sogno tagliò corto il signor weasley i ragazzi non lo farebbero mai non ora che la gente alla disperata ricerca di sicurezza allora è per questo che hai fatto tardi per le muta medaglie no c'è stata segnalata una brutta fattura torna fiamma giù a elephant and castle ma per fortuna la squadra speciale magica l'ha disinnescata prima che arrivassimo harry soffocò dietro la mano uno sbadiglio che non sfuggì alla signora weasley a letto disse subito ho preparato la stanza di freddo e george l'avrai tutta per te perché loro dove sono o a diagonale dormono nell'appartamentino sopra il negozio di scherzi adesso che sono così occupati rispose la signora weasley devo dire che all'inizio non approvavo ma sembra proprio che abbiano un certo talento per gli affari andiamo caro il tuo baule è già su notte signor weasley disse eri spingendo indietro la sedia grattastinchi balzò leggero dal suo grembo e uscì dalla stanza buonanotte harry rispose il signor weasley mentre uscivano dalla cucina la signora weasley lanciò un'occhiata all'orologio nella cesta della biancheria tutte le lancette erano di nuovo su pericolo mortale la stanza di freddo e george era al secondo piano la signora weasley puntò la bacchetta verso una lampada sul comodino che si accese subito inondando la stanza di un piacevole bagliore dorato anche se un grosso vaso di fiori era stato posato su una scrivania di fronte alla piccola finestra il loro profumo non riusciva a coprire un odore stagnante che a harry sembrò polvere da sparo un'ampia zona del pavimento era occupata da un gran numero di anonimi scatoloni di cartone sigillati tra i quali si trovava il baule di harry a quanto pareva la stanza veniva usata come deposito temporaneo edvige tubò allegra dalla sua postazione in cima a un grande armadio poi spiccò il volo e uscì dalla finestra harry capì che aveva aspettato di vederlo prima di andare a caccia diede la buonanotte alla signora weasley si mise il pigiama e si infilò in uno dei letti c'era qualcosa di duro nella federa frugò dentro ed estrasse una caramella appiccicosa arancione viola che riconobbe per una pasticca vomitosa sorridendo tra sé rotolò su un fianco e si addormentò all'istante qualche secondo dopo o almeno così gli parve fu svegliato da una specie di cannonata e la porta si spalancò scattò a sedere sentì un fruscio di tende aperte poi la ciecante luce del sole lo investì riparandosi gli occhi con una mano cercò in vano a tastoni gli occhiali con l'altra cosa succede non sapevamo che eri già qui gridò una voce eccitata e eri si prese una botta in testa ron non picchiarlo esclamò una voce di ragazza eri trovò gli occhiali e se li infilò ma la luce era così vivida che non ci vedeva comunque una lunga ombra vibrò davanti a lui per un attimo eri strizzò le palpebre e mise a fuoco ron weasley che gli sorrideva da un orecchio all'altro tutto bene ma è stato meglio rispose eri strofinandosi la testa e sprofondando di nuovo nel cuscino e tu non male disse ron avvicinò uno scatolone e ci si sedette sopra quando sei arrivato mamma ce l'ha appena detto a luna di stanotte i babbani hanno fatto i bravi ti hanno trattato bene come al solito rispose eri mentre ermione si appollagliava sul bordo del letto non mi hanno rivolto granché la parola ma io preferisco così come stai ermione o io bene fece lei che lo scrutava come in cerca di qualche malanno eri sapeva perché e siccome non aveva alcun desiderio di parlare della morte di sirius o di altri argomenti tristi si affrettò a chiedere che ore sono mi sono perso la colazione non preoccuparti la mamma ti sta portando su un vassoio sospetta che tu sia denutrito ron alzò gli occhi al cielo allora che c'è di nuovo non molto sono rimasto inchiodato a casa dei miei zii no andiamo esclamò ron sei andato in giro con silente non è stato niente di che voleva solo che lo aiutassi a convincere un vecchio insegnante a tornare al lavoro si chiama oras lumacorno oh mormorò ron deluso pensavamo ermione gli lanciò un'occhiataccia e ron cambiò discorso a tutta velocità pensavamo che fosse qualcosa del genere davvero chiese eri divertito sì sì adesso che la umbridge se n'è andata naturalmente avremo bisogno di un nuovo insegnante di difesa contro le arti oscure no allora che tipo è assomiglia un po a un trichieco ed è stato direttore di serpe verde spiegò eri qualcosa non va ermione lei lo stava osservando come se si aspettasse da un momento all'altro l'esplosione di sintomi preoccupanti ricompose in fretta la propria espressione in un sorriso poco convincente no certo che no allora lumacorno ti è sembrato un buon insegnante bo rispose eri non può essere peggio della umbridge no io conosco qualcuno che è peggio della umbridge annunciò una voce sulla soglia la sorella minore di ron si trascinò dentro la stanza con aria nervosa ciao eri che cos'hai le chiese ron è lei disse ginni lasciandosi cadere pesantemente sul letto di eri mi sta facendo impazzire adesso che cosa ha combinato le chiese ermione comprensiva è come mi parla neanche avessi tre anni lo so convenne ermione abbassando la voce è piena di sé in un modo eri rimase esterrefatto che ermione parlasse della signora weasley in quei termini e non poter biasimare ron quando ribatte arrabbiato non potete lasciarla perdere per cinque secondi ah bravo prendi le sue parti sbottò ginni lo sappiamo che sei pazzo di lei era un commento quantomeno bizzarro a proposito della madre di ron con la sensazione di aver perso qualche pezzo eri chiese di chi state ma la risposta arrivò prima che lui potesse finire la domanda la porta si spalancò di nuovo e eri si tirò distinto le lenzuola fin sotto il mento con tanta forza che ermione e ginni scivolarono a terra sulla soglia c'era una ragazza di una bellezza così mozzafiato che la stanza sembrò improvvisamente sotto vuoto era alta e flessuosa con lunghi capelli biondi e pareva emanare un vago bagliore argenteo per completare quella visione perfetta portava un vassoio carico di una ricca colazione a ri disse con voce roca quanto tompo che noi ci vediamo veleggiò verso di lui mostrando sulla soglia la signora weasley che ciondolava nella sua scia con aria contrariata non c'era bisogno di portare su il vassoio stavo per farlo io non ti disturbo rispose fleur de la cour posando il vassoio sulle ginocchia di eri e chinandosi a baciarlo sulle guance lui si sentì ardere nei punti in cui la bocca di lei l'aveva toccato avevo tonta voglia di vederti ti ricordi della mia sorella gabrielle non finisce mai di parlare di harry potter sarà tonto felice di rivederti oh è qui anche lei gracchiò eri no no sciocco rispose fleur con una risatina tintinnante voglio dire la prossima estate quando noi ma non lo sai i suoi occhioni azzurri si allargarono e guardò con aria di rimprovero la signora weasley che si giustificò non abbiamo ancora avuto modo di dirglielo fleur tornò a rivolgersi a harry mulinando la chioma argentea e colpendo la signora weasley in piena faccia io e bill ci sposiamo oh rispose harry piattamente non pote fare a meno di notare che la signora weasley ermione e ginny evitavano con decisione di guardarsi wow congratulazioni lei calò su di lui e lo baciò di nuovo bill è molto occupato al momento lavora tanto e io lavoro soltanto part time alla gringot per migliorare il mio anglese così mi ha portato qui per qualche giorno per conoscere bene la sua famiglia mi ha fatto tonto piacere e sapere che venivi non c'è molto da fare qui se non ti piace cucinare o non ami le galline beh buona colazione harry con queste parole si voltò con grazia e quasi galleggiando uscì dalla stanza e chiuse piano la porta la signora weasley fece un verso tipo boh la mamma la detesta disse ginny sottovoce io non la detesto ribatte la signora weasley in un sussurro irritato penso solo che si sono fidanzati troppo in fretta ecco si conoscono da un anno osservò ron che sembrava stranamente stordito e fissava la porta chiusa beh non è molto so perché è successo naturalmente e tutta questa incertezza per il ritorno di voi sapete chi la gente pensa di poter morire domani allora affretta tutte le decisioni anche quando ci vorrebbe più tempo era così anche l'ultima volta che è stato potente fughe d'amore da tutte le parti compresi tu e papà suggerì ginny maliziosa sì beh io e tuo padre eravamo fatti l'uno per l'altra che senso aveva aspettare replicò la signora weasley mentre bill e fleur beh che cos'hanno in comune lui è un gran lavoratore una persona concreta e invece lei è una sciacquetta completò ginny e annui ma bill non è poi così concreto è uno spezza incantesimi no gli piace l'avventura il prestigio immagino che sia per questo che ha perso la testa per flora batterica smettila di chiamarla così ginny la sgridò la signora weasley mentre erri e ermione ridevano beh è meglio se mi sbrigo mangia le uova finché sono calde erri e uscì dalla stanza pensierosa ron sembrava ancora vagamente rintronato scosse la testa con cautela come un cane che scrolla le orecchie bagnate non ci si fa l'abitudine vivendoci insieme gli chiese erri beh sì rispose ron ma se ti compare all'improvviso come prima patetico commentò ermione rabbiosa allontanandosi il più possibile da ron e poi girandosi a guardarlo a braccia incrociate non vorrai davvero averla intorno per sempre chiese ginny incredula quando lui alzò le spalle aggiunse beh la mamma lo impedirà se appena può ci scommetto quello che volete come chiese erri continua a invitare a cena tonks vorrebbe che bill si innamorasse di lei magari dico io preferisco mille volte avere lei in famiglia funzionerà di sicuro commentò ron sarcastico ascolta nessun uomo sano di mente può innamorarsi di tonks quando c'è in giro flor voglio dire tonks è carina quando non si fa quelle cose stupide ai capelli al naso ma è molto più simpatica di flora batterica lo interruppe ginny ed è più intelligente è un auror aggiunse ermione dal suo angolo flor non è stupida è stata abbastanza brava da essere ammessa al torneo tre maghi osservò erri non ti ci metterai anche tu esclamò ermione amareggiata ti piace come flora batterica dice a ri vero aggiunse ginny sprezzante no rispose erri rimpiangendo di aver aperto bocca stavo solo dicendo che flora cioè fleur preferisco mille volte tonks ripete ginny almeno è divertente mica tanto obiettò ron ultimamente somiglia a mirtilla malcontenta non essere ingiusto sbottò ermione non ha ancora superato il trauma insomma voglio dire era suo cugino erri si sentì il cuore sprofondare erano arrivati a sirius prese la forchetta e cominciò a ficcarsi le uova strapazzate in bocca sperando così di scoraggiare ogni invito a unirsi a questa parte della conversazione tonks e sirius si conoscevano appena esclamò ron sirius è stato ad azkaban per metà della vita di lei e prima le loro famiglie non si erano mai incontrate non è questo il punto ribatte ermione lei pensa che sia colpa sua se è morto e come le è venuto in mente chiese erri suo malgrado beh lei stava combattendo contro bellatrix l'estrange no penso che sia convinta che se fosse riuscita a farla fuori bellatrix non avrebbe ucciso sirius che cosa stupida commentò ron è il senso di colpa dei sopravvissuti spiegò ermione so che lupin ha cercato di convincerla ma è davvero molto depressa ha anche dei problemi con le metamorfosi con le non riesce a modificare il suo aspetto come una volta continuò ermione credo che i suoi poteri siano stati danneggiati dallo shock non sapevo che potesse succedere osservò erri nemmeno io fece ermione ma immagino che se uno è veramente depresso la porta si aprì di nuovo e la signora weasley infilò la testa nella stanza ginny sussurrò vieni giù ad aiutarmi col pranzo sto parlando con loro protestò ginny offesa subito ordinò la signora weasley e si ritrasse mi vuole di sotto per non dover stare da sola con flora batterica esclamò ginny contrariata mulinò i lunghi capelli rossi in un'ottima imitazione di fleur e marciò pavoneggiandosi per la stanza con le braccia in alto come una ballerina è meglio che scendiate in fretta anche voi dichiarò uscendo erri approfittò del temporaneo silenzio per mandar giù ancora un po di colazione ermione spiava dentro gli scatoloni di fredde george anche se ogni tanto guardava in tralice erri ron che stava divorando il pane tostato di erri continuava a fissare la porta con aria sognante che cos'è questo chiese infine ermione sollevando quello che sembrava un piccolo cannocchiale non so rispose ron ma se fredde george l'hanno lasciato qui probabilmente non è ancora pronto per il negozio quindi stai attenta tua madre dice che il negozio sta andando bene osservò erri che fredde george hanno un vero talento per gli affari a dir poco confermò ron si rotolano nei galeoni non vedo l'ora di andarci non siamo ancora stati a diagonale mamma vuole che ci sia anche papà per ragioni di sicurezza e lui ha un sacco di lavoro al ministero ma sembra proprio un gran bel posto e persi chiese erri il terzo figlio dei weasley si era allontanato dal resto della famiglia ha ripreso a parlare con i tuoi no rispose ron ma adesso sa che tuo padre aveva ragione su voldemort secondo silente è più facile perdonare gli altri quando si sbagliano che quando hanno ragione intervenne ermione ho sentito che lo diceva a tua madre ron sembra proprio il genere di cose assurde che potrebbe dire silente commentò lui quest'anno mi darà lezioni private buttò gli erri come se niente fosse a ron andò di traverso un pezzo di pane e ermione trattenne il respiro non ce l'avevi detto esclamò ron mi è venuto in mente solo adesso si giustificò erri me l'ha comunicato ieri notte nel vostro capanno delle scope acci lezioni private con silente ripete ron colpito chissà perché la sua voce si smorzò erri lo vide scambiarsi un'occhiata con ermione posò coltello e forchetta il cuore gli batteva piuttosto forte considerando che non stava facendo altro che star seduto a letto silente gli aveva detto di farlo perché non ora fissò lo sguardo sulla forchetta scintillante al sole che gli pioveva in grembo e disse non so di preciso perché mi dia lezioni private ma credo che sia per via della profezia né ron né ermione parlarono erri ebbe l'impressione che si fossero congelati tutti e due continuò sempre rivolto alla forchetta sapete quella che stavano cercando di rubare al ministero ma nessuno sa che cosa diceva replicò ermione in fretta si è infranta però secondo la gazzetta del profeta cominciò ron ma ermione lo zitti il profeta ha ragione continuò erri alzando con grande sforzo lo sguardo su entrambi ermione era spaventata e ron stupefatto quella sfera di vetro che andata in pezzi non era l'unica memoria della profezia l'ho ascoltata per intero nell'ufficio di silente è stata pronunciata davanti a lui quindi me l'ha potuta riferire secondo la profezia erri trasse un gran respiro sembra che io sia quello che deve uccidere voldemort o perlomeno pare che nessuno dei due possa vivere se l'altro sopravvive si guardarono tutti e tre in silenzio per un attimo poi si udì un gran colpo ermione scomparve dietro uno sbuffo di fumo nero ermione urlarono erri e ron il vassoio della colazione scivolò a terra con gran fracasso ermione riemerse tossendo dal fumo col cannocchiale stretto in mano e un grosso livido violetto attorno all'occhio l'ho strizzato e mi ha dato un pugno esalò e in effetti videro un pugno minuscolo su una lunga molla uscire dall'estremità del cannocchiale niente paura la confortò ron sforzandosi di non ridere la mamma te lo sistemerà è brava a curare le piccole ferite oh beh adesso non è importante tagliò corto ermione erri oh erri si risedette sul bordo del letto ce lo stavamo chiedendo dopo che siamo tornati dal ministero naturalmente non volevamo parlartene ma da quello che lucius malfoi aveva detto della profezia che riguardava te e voldemort beh abbiamo pensato che potesse essere qualcosa del genere oh erri lo fissò poi mormorò hai paura non quanto prima rispose erri quando l'ho sentita sì ma adesso mi sembra di aver sempre saputo di doverlo affrontare alla fine quando abbiamo sentito che silenta in persona veniva a prenderti abbiamo pensato che ti avrebbe detto o mostrato qualcosa che centrava con la profezia intervenne ron accalorato e avevamo ragione vero non ti darebbe lezioni se pensasse che sei spacciato non perderebbe tempo deve essere convinto che hai una possibilità è vero fece eco ermione chissà che cosa ti insegnerà erri magia difensiva veramente avanzata e probabile contro maledizioni potenti antifatture erri non stava ascoltando dentro di lui si diffondeva un tepore che non aveva niente a che fare con la luce del sole sembrava che un duro blocco nel suo petto si stesse sciogliendo sapeva che ron e ermione erano più spaventati di quanto lasciassero trapelare ma il solo fatto che fossero ancora lì al suo fianco a pronunciare parole di conforto senza ritrarsi da lui come se fosse contaminato o pericoloso valeva più di quanto avrebbe mai potuto spiegare e in tantesimi di fuga in generale concluse ermione beh almeno sai già qualcosa di un corso che seguirai quest'anno uno in più rispetto a me e ron chissà quando arriveranno i risultati del gufo non può mancare molto è passato un mese disse ron un momento fece erri perché gli era tornata in mente un'altra parte della conversazione della notte prima credo che silente abbia detto che i risultati dei nostri gufo arriveranno oggi oggi strillo ermione oggi ma perché non l'hai oh mio dio dovevi dirlo balzò in piedi vado a vedere se sono arrivati dei gufi ma quando è riscese dieci minuti dopo vestito e col vassoio vuoto scoprì ermione seduta al tavolo della cucina in grande agitazione mentre la signora weasley cercava di attenuare la sua somiglianza con un mezzo panda non vuole andarsene stava brontolando la signora weasley preoccupata in piedi davanti a ermione con la bacchetta in mano e una copia della guida del guaritore aperta alla voce lividi tagli e abrasioni ha sempre funzionato non riesco a capire deve essere il concetto di scherzo che hanno fredda george fare in modo che non venga più via disse ginni ma deve venire via squitti ermione non posso andare in giro così per sempre no mia cara troveremo un antidoto non preoccuparti la rincuorò la signora weasley bill mi ha detto che fredda george sono tonto divertanti esclamò flor con un sorriso sereno se mi sto sbellicando da ridere sbottò ermione balzò in piedi e cominciò a marciare in tondo torcendosi le mani signora weasley è proprio sicura che non siano arrivati dei gufi stamattina sì cara me ne sarei accorta rispose la signora weasley paziente ma non sono neanche le nove c'è un sacco di tempo so che ho fatto un disastro in antiche rune bormottò ermione febbrilmente sono sicura di aver sbagliato almeno una traduzione e la parte pratica di difesa contro le arti oscure non è andata affatto bene al momento me l'ha parso di essermela cavata in trasfigurazione ma ripensandoci ermione vuoi chiudere il becco non sei l'unica essere nervosa abbaiò ron e quando avrai i tuoi dieci eccezionale zitto 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 strillò ermione isterica agitando le mani lo so che sono stata bocciata in tutto che cosa succede se ti bocciano chiese erri a nessuno in particolare ma fu di nuovo ermione a rispondere vai a parlare con il direttore della casa delle tue possibilità l'ho chiesto alla professoressa mcgonagall alla fine dello scorso anno a erri si attorcigliò lo stomaco avrebbe voluto mangiare meno a colazione a bobaton disse fleur in tono soddisfatto facciamo tutto diverso io penso che è meglio facciamo gli esami dopo sei anni di studi invece che cinque e poi le parole di fleur vennero soffocate da un urlo ermione indicava qualcosa oltre la finestra della cucina tre puntolini neri erano chiaramente visibili nel cielo e diventavano sempre più grandi sono decisamente gufi ansimò ron e corse alla finestra accanto a ermione e sono tre osservò erri raggiungendoli uno per ciascuno sussurrò terrorizzata ermione o no o no o no afferrò stretti erri e ron per i gomiti i tre all'occhi volavano proprio verso la tana e come si vide man mano che calavano sul vialetto ognuno portava una grossa busta quadrata o no strillò ermione la signora weasley si insinuò tra loro e aprì la finestra della cucina uno due tre gli all'occhi planarono sul tavolo in una fila ordinata tutti e tre sollevarono la zampa destra erri si fece avanti la lettera indirizzata a lui era legata alla zampa del gufo al centro la slegò con dita incerte alla sua sinistra ron tentava di staccare la propria a destra le mani di ermione tremavano tanto da far sussultare anche il gufo in cucina nessuno parlò finalmente erri riuscì a slegare la busta l'aprì in fretta e dispiegò la pergamena grado ufficiale di fattucchiere ordinario voti di promozione eccezionale e oltre ogni previsione o accettabile voti di bocciatura scadente s desolante di troll t r james potter ha conseguito astronomia a cura delle creature magiche o incantesimi o difesa contro le arti oscure e divinazione s erbologia o storia della magia di pozioni o trasfigurazione o henry lesse parecchie volte la pergamena e il suo respiro si calmò a ogni lettura era tutto a posto sapeva già che sarebbe stato bocciato in divinazione e non aveva alcuna possibilità di passare storia della magia visto che era crollato a metà esame ma in tutto il resto era stato promosso fece scorrere il dito lungo la lista dei voti era andato bene in trasfigurazione ed erbologia e aveva preso addirittura oltre ogni previsione in pozioni e soprattutto aveva eccezionale in difesa contro le arti oscure al solo sguardo ermione gli dava le spalle a capochino marron era incantato bocciato solo in divinazione storia della magia e che se ne frega annunciò allegramente a erri ecco facciamo cambio erri lesse i voti di ron non c'era nessun eccezionale sapevo che avresti preso il massimo in difesa contro le arti oscure commentò ron dandogli un pugno sulla spalla siamo andati bene vero bravo disse la signora weasley fiera arruffandogli i capelli sette g u f o più di fredde george messi insieme ermione chiese gini esitante visto che lei non si era ancora voltata come sei andata io non male rispose ermione con una vocina o andiamo feceron si avvicinò a lei e le strappò i risultati di mano sicuro nove eccezionale e un oltre ogni previsione in difesa contro le arti oscure la guardò un po divertito e un po irritato sei proprio delusa vero ermione scosse il capo ma erri rise beh adesso siamo pronti per il mago esclamò ron con un sorriso mamma ci sono altre salsicce erri tornò a guardare i suoi risultati erano buoni secondo le sue aspettative provò solo una piccolissima fitta di rimpianto era la fine della sua ambizione di diventare un auror non era riuscito a ottenere il voto richiesto in pozioni sapeva da sempre che non ce l'avrebbe fatta ma sentì lo stesso un buco nello stomaco riguardando quella piccola o nera era strano davvero visto che era stato un mangiamorte camuffato il primo a dire a erri che sarebbe potuto diventare un buon auror ma in qualche modo l'idea si era impadronita di lui e non riusciva proprio a pensare a un altro futuro in più gli era sembrato davvero il suo destino da quando aveva ascoltato la profezia un mese prima nessuno dei due può vivere se l'altro sopravvive non sarebbe stato all'altezza della profezia e non avrebbe offerto a se stesso la miglior probabilità di sopravvivere se si fosse unito a quei maghi altamente specializzati il cui mestiere era trovare e uccidere Voldemort la deviazione di draco erri rimase entro i confini del giardino della tana per le poche settimane che seguirono passò gran parte delle giornate a giocare a quidditch due contro due nell'orto dei weasley lui e ermione contro ron e ginni ermione era tremenda e ginni brava quindi erano ragionevolmente equilibrati e le serate a mangiare triple porzioni di tutto ciò che la signora weasley gli metteva davanti sarebbe stata una perfetta vacanza felice se non fosse stato per le storie di persone scomparse strani incidenti e anche morti che ormai apparivano quasi ogni giorno sul profeta a volte bill e il signor weasley riportavano le notizie prima che fossero pubblicate sui giornali e con grandi spiacere della signora weasley i festeggiamenti per il sedicesimo compleanno di harry furono funestati dagli spaventosi eventi comunicati da remus lupin scarno e cupo con i capelli castani abbondantemente striati di grigio e gli abiti più strappati e rattoppati che mai i dissennatori hanno attaccato ancora annunciò mentre la signora weasley gli passava una grossa fetta di torta ed è stato scoperto il corpo di igor karkaroff in una capanna su a nord ci avevano messo il marchio nero beh francamente mi stupisco che karkaroff sia rimasto in vita per un anno intero dopo aver abbandonato i mangiamorte mi ricordo che il fratello di sirius regulus ha resistito solo qualche giorno sì beh intervenne la signora weasley accigliata magari dovremmo parlare dal hai sentito di florean forteschiuremus si intromise bill al quale fleur continuava a versare vino quello che aveva la gelateria in diagonale lo interruppe harry con un vuoto sgradevole in fondo allo stomaco mi regalava sempre i gelati che cosa gli è successo l'hanno portato via a giudicare dall'aspetto del negozio perché chiese ron mentre la signora weasley guardava bill con aria torva chi lo sa deve averli infastiditi in qualche modo era una brava persona florean a proposito di diagonale intervenne il signor weasley pare che anche olivander se ne sia andato il fabbricante di bacchette chiese gini sbalordita quello il negozio è vuoto nessun segno di lotta nessuno sa se è andato via di sua volontà o è stato rapito ma le bacchette come si fa adesso per le bacchette ci si rivolge agli altri artigiani rispose lupin ma olivander era il migliore e se quelli l'hanno preso non è una bella cosa per noi il giorno dopo quel tetro compleanno arrivarono da hogwarts le lettere e le liste dei libri quella di harry recava una sorpresa era stato nominato capitano della squadra di quidditch vuol dire che sei alla pari con i prefetti gridò ermione allegra puoi usare il nostro bagno speciale adesso e tutto il resto accidenti mi ricordo quando charlie ne aveva uno così disse ron osservando il distintivo con gioia è fantastico harry sei il mio capitano sempre che tu mi prenda di nuovo in squadra beh a questo punto non possiamo rimandare ancora per molto il giro a diagonale sospirò la signora weasley studiando la lista dei libri di ron ci andremo sabato se tuo padre non avrà ancora da lavorare io senza di lui non mi muovo mamma credi davvero che tu sai chi si nasconda dietro uno scaffale del girigoro chiese ron ridacchiando perché secondo te forte schiu e olivander sono andati in vacanza scattò la signora weasley infiammandosi all'istante se credi che la sicurezza sia roba da ridere e poi restare a casa e le tue cose te le prendo io no no vengo voglio vedere il negozio di fredda george esclamò precipitosamente ron allora metti la testa a posto ragazzo prima che io decida che sei troppo immaturo per venire con noi lo sgridò sua madre afferrò l'orologio con tutte le nove lancette ancora puntate su pericolo mortale e lo mise in equilibrio su una pila di strofinacci appena lavati e questo vale anche per il ritorno a hogwarts ron si voltò a fissare harry sballordito mentre la signora weasley sollevava il cesto della biancheria e l'orologio traballante e usciva come una furia dalla stanza accidenti qui non si può più fare nemmeno una battuta ma nei giorni seguenti ron fece attenzione a non scherzare sul tema voldemort il sabato arrivò senza altre esplosioni da parte della signora weasley anche se a colazione era molto tesa bill che sarebbe rimasto a casa assieme a fleur con grande gioia di ermione e ginni passò a harry un sacchetto pieno di soldi e il mio dov'è chiese subito ron sgranando gli occhi questo è di harry idiota rispose bill te l'ho preso dalla segreta harry perché per il pubblico al momento ci vogliono cinque ore per ritirare il denaro i goblin hanno irrigidito molto le regole di sicurezza due giorni fa archi philpot si è ritrovato una sonda sensitiva su per il beh credimi così è più semplice grazie bill disse harry intascando il denaro è tal monto gentile fece le fusa un adorante fleur accarezzando il naso a bill alle spalle di fleur ginni fece finta di vomitare nella propria tazza a harry andarono di traverso i fiocchi d'avena e ron gli batte forte sulla schiena era un giorno nuvoloso e fosco quando uscirono di casa allacciandosi i mantelli una delle auto speciali del ministero della magia nella quale harry aveva già viaggiato una volta li stava aspettando sul viale è bello che papà possa usarle di nuovo disse ron soddisfatto allungandosi con volutà mentre l'auto si allontanava dalla tana a un'andatura regolare e bill e fleur salutavano con la mano dalla finestra della cucina lui harry ermione e ginni erano tutti seduti larghi e comodi sull'ampio sedile posteriore non farci l'abitudine è solo per via di harry ribatte il signor weasley senza voltarsi era seduto davanti con la signora weasley e l'autista del ministero il sedile anteriore si era cortesemente allargato a forma di divano gli è stata garantita una copertura di massima sicurezza e avremo un'ulteriore scorta al paiolo magico harry non commentò non gli piaceva molto l'idea di fare compere circondato da un battaglione di auror aveva ficcato il mantello dell'invisibilità nello zaino e pensava che se silente lo riteneva una protezione adeguata il ministero doveva fare altrettanto anche se a pensarci bene non era sicuro che il ministero sapesse del mantello eccovi arrivati annunciò l'autista dopo un tempo sorprendentemente breve rallentando in sharing crossroad e fermandosi davanti al paiolo magico quanto vi fermerete più o meno un paio d'ore immagino rispose il signor weasley a bene è già qui harry scrutò fuori dal finestrino il suo cuore fece una capriola non c'erano auror in attesa davanti alla locanda ma la sagoma gigantesca e barbuta di rubeus agrid il guardacaccia di hogwarts indossava una lunga pelliccia di castoro e appena vide harry fece un enorme sorriso ignorando gli sguardi stupiti dei passanti babbani harry tuonò stringendolo in un abbraccio da spezzare le ossa fiero becco cioè alisecco volevo dire se lo vedi ragazzo è così felice che è di nuovo libero mi fa piacere rispose harry con un sorriso massaggiandosi le costole non sapevamo che scorta volesse dire te già come i vecchi tempi no sai il ministero voleva mandare un mucchio di auror ma silente ci ha detto che bastavo io fece agrid fiero gonfiando il petto infilandosi i pollici nelle tasche su andiamo allora dopo di voi molly arthur per la prima volta a memoria di harry il paiolo magico era vuoto della vecchia folla era rimasto solo il proprietario tom raggrinzito e sdentato al solo sguardo speranzoso al loro ingresso ma prima che potesse parlare agrid disse con aria solenne oggi siamo solo di passaggio tom mi spiace faccende di hogwarts hai capito tom annui cupo e tornò ad asciugare i bicchieri harry ermione agrid e i weasley attraversarono la sala e uscirono nel gelido cortiletto sul retro dove c'erano i bidoni dell'immondizia agrid al solo ombrello rosa e batte su un certo mattone nel muro che si aprì subito per far posto a un arco che dava su una tortuosa via acciottolata oltrepassarono l'ingresso e si fermarono osservare la scena diagonale era cambiata le colorate scintillanti vetrine stracolme di libri di magia ingredienti di pozioni e paioli erano sparite interamente coperte da grandi cartelloni del ministero della magia la maggior parte dei cupi annunci erano ingrandimenti delle istruzioni del ministero distribuite nel corso dell'estate ma altri recavano foto in bianco e nero di pericolosi mangiamorte ricercati bellatrix l'estrange sghignazzava dalla facciata della vicina bottega di uno speciale alcune vetrine erano sprangate comprese quelle della gelateria di florean forteschiù d'altro canto lungo la strada era sorto un certo numero di banchetti dall'aria squallida il più vicino costruito subito fuori dal ghirigoro sotto una sudicia tenda a righe aveva un'insegna di cartone appesa davanti amuleti efficaci contro lupi mannari dissennatori e inferi un piccolo mago dall'aria sciatta agitava verso i passanti manciate di simboli d'argento appesi a catene per la sua bambina signora gridò alla signora weasley rivolgendo a ginni un sorriso untuoso per proteggere il suo bel collo se fossi in servizio borbottò il signor weasley scrutando con rabbia il venditore di amuleti sì ma adesso non arrestare nessuno tesoro siamo di fretta ribatte la signora weasley consultando nervosamente una lista meglio andare prima da madame malkin ermione vuole una nuova veste elegante e dall'uniforme di ron spunta un po troppa caviglia e anche tu avrai bisogno di cose nuove erri sei tanto cresciuto andiamo tutti quanti molly non ha senso che andiamo tutti da madame malkin obiettò il signor weasley perché loro tre non vanno con agrid e noi andiamo al ghirigoro a comprare i libri per tutti non saprei replicò la signora weasley ansiosa chiaramente combattuta tra la voglia di finire le compere in fretta e il desiderio di restare tutti uniti agrid tu credi niente paura con me saranno al sicuro molly la tranquillizzò agrid agitando una mano grossa come il coperchio di un bidone la signora weasley non era proprio convinta ma alla fine accettò affrettandosi verso il ghirigoro con suo marito e ginni mentre erri ron ermione e agrid partivano alla volta di madame malkin erri notò che molti passanti avevano la stessa aria tormentata e ansiosa della signora weasley e che nessuno si fermava più a chiacchierare camminavano tutti uniti a ranghi serrati badando solo ai loro affari non c'era nessun compratore isolato sarà un po strettino là dentro se ci entriamo tutti disse agrid fermandosi davanti al negozio di madame malkin e chinandosi per spiare dalla vetrina io sto di guardia qua fuori va bene così erri ron e ermione entrarono insieme nel negozietto a prima vista sembrava vuoto ma la porta si era appena richiusa alle loro spalle quando sentirono una voce familiare levarsi da dietro una fila di luccicanti uniformi verde e blu se non te ne sei accorta madre non sono un bambino sono perfettamente in grado di fare da solo si udì un risolino e una voce che erri riconobbe per quella di madame malkin ma caro tua madre ha ragione nessuno di noi dovrebbe più andare in giro da solo non è questione di essere un bambino stia attenta dove infila quello spillo piuttosto un adolescente dal pallido volto appuntito e dai capelli di un biondo quasi bianco apparve da dietro la fila di divise con indosso un bel completo verde scuro che scintillava di spilli attorno all'orlo e ai bordi delle maniche si avvicinò allo specchio e si studiò passò qualche istante prima che notasse erri ron e ermione riflessi dietro di lui i suoi occhi grigio chiaro si serrarono se ti stai chiedendo che cos'è questa puzza madre è appena entrata una sangue marcio dichiarò draco malfoi non è proprio il caso di usare questo linguaggio esclamò madame malkin sbucando fuori da dietro il supporto dei vestiti con un metro a nastro e una bacchetta e non voglio nemmeno bacchette sfoderate nel mio negozio aggiunse in fretta quando vide erri e ron con le bacchette puntate contro malfoi dietro di loro ermione sussurrò no davvero non ne vale la pena certo come se aveste il coraggio di fare magie fuori dalla scuola li provocò malfoi chi ti ha fatto un occhio nero granger vorrei mandargli dei fiori basta così ordinò madame malkin guardandosi alle spalle in cerca di sostegno signora la prego narcisa malfoi uscì da dietro la fila di vestiti mettetele via disse freddamente a erri e ron se aggredite di nuovo mio figlio vi garantisco che sarà l'ultima cosa che fate davvero chiese erri fece un passo avanti e scrutò il liscio volto arrogante che nonostante il pallore somigliava tanto a quello della sorella ormai era alto come lei cosa fa va a chiamare un po di amici mangiamorte per farci fuori madame malkin squitti e si strinse le mani sul cuore davvero non dovreste accusare è una cosa pericolosa da dire via le bacchette per favore ma erri non abbassò la sua narcisa malfoi fece un sorriso sgradevole vedo che essere il cocco di silente ti rende spavaldo harry potter ma silente non sarà sempre lì a proteggerti erri si guardò intorno per il negozio sarcastico e guardi adesso non c'è perché non ci prova forse riusciranno a trovarle una cella doppia ad azkaban insieme a quel cialtrone di suo marito malfoi scattò verso erri ma inciampò nella veste troppo lunga ron scoppiò a ridere non osare parlare con quel tono a mia madre potter ringhiò malfoi non preoccuparti draco ribatte narcisa posandogli le bianche dita sottili sulla spalla per trattenerlo vedrai che potter raggiungerà il suo caro sirius prima che io raggiunga lucius erri levò più alta la bacchetta erri no gemette ermione afferrandogli il braccio e cercando di abbassarglielo a forza rifletti non devi finirai nei guai madame malkin rimase incerta per un attimo poi decise di comportarsi come se non stesse succedendo nulla nella speranza che non succedesse si chinò verso malfoi che ancora fissava torvo erri credo che questa manica sinistra potrebbe essere accorciata un altro po caro lascia che aia urlò malfoi allontanandole la mano con uno schiaffo guarda dove metti i tuoi spilli donna madre non voglio più questa roba si sfilò la veste dalla testa e la gettò per terra ai piedi di madame malkin ma hai ragione draco rispose narcisa con uno sguardo sprezzante a ermione ora che ho visto il genere di feccia che frequenta questo posto meglio andare da twilfit and tettin e con questo i due uscirono dal negozio prima però malfoi fece in modo di urtare ron più forte che poteva ma che modi esclamò madame malkin raccogliendo con un gesto brusco la veste caduta a terra e sfiorandola con la punta della bacchetta per rimuovere la polvere mentre ron e eri provavano le divise continuò a sembrare turbata cercò di vendere a ermione una veste da mago invece che da strega e quando infine li spinse fuori dal negozio pareva contenta di essersene liberata preso tutto chiese agri d'allegro quando li comparvero al suo fianco più o meno rispose eri hai visto i malfoi come no fece agri di imperturbabile ma non ci verrebbe certo in mente di far cagnare in mezzo a diagonali harry non ci pensare a loro harry ron e ermione si guardarono negli occhi ma prima che potessero contraddire agrid comparvelo i signori weasley e ginni carichi di libri siete tutti a posto chiese la signora weasley comprato i vestiti bene allora possiamo fare un salto dallo speziale e all'emporio del gufo di ilop sulla strada per fredde george state vicini ora né harry né ron comprarono niente dallo speziale visto che non avrebbero più studiato pozioni ma entrambi acquistarono grosse confezioni di noci per edvige e leo tordo all'emporio del gufo poi con la signora weasley che controllava l'orologio ogni minuto fecero un altro tratto di strada in cerca di tiri vispi weasley il negozio di scherzi di fredde george non abbiamo molto tempo disse la signora weasley quindi daremo solo un'occhiata veloce e poi subito in macchina dovremmo esserci quasi quello è il numero 92 94 urca fecero immobilizzandosi in contrasto con le squallide facciate dei negozi soffocate dai manifesti le vetrine di fredde george colpivano come uno spettacolo di fuochi d'artificio i passanti si voltavano a guardarle e alcune persone stupefatte si erano fermate come paralizzate la vetrina di sinistra riluceva di un assortimento di oggetti che giravano su se stessi esplodevano lampeggiavano rimbalzavano e strillavano a harry lacrimavano gli occhi alla sola vista la vetrina di destra era coperta da un poster gigante viola come quelli del ministero ma stampato a gialle lettere lampeggianti perché temere chi sai tu temi piuttosto non la fai più la sensazione di occlusione che opprime la nazione harry scoppiò a ridere la signora weasley emise un debole gemito e fissò il poster a occhi sbarrati le sue labbra si muovevano articolando in silenzio non la fai più finiranno assassinati nei loro letti sussurrò ma no esclamò ron sbellicandosi è geniale lui e harry entrarono per primi era stipato di clienti harry non riusciva ad avvicinarsi agli scaffali si guardò intorno osservando gli scatoloni accatastati fino al soffitto erano le merendine marinare che i gemelli avevano perfezionato durante il loro ultimo incompiuto anno a hogwarts harry notò che il torrone sanguinolento era assai richiesto dato che ne restava solo una confezione ammaccata sullo scaffale c'erano bidoni pieni di bacchette tra bocchetto dalle più economiche che si limitavano a trasformarsi in polli di gomma o mutande quando venivano agitate alle più costose che picchiavano l'incauto possessore sulla testa e sul collo e scatole di penne d'oca nelle varietà auto inchiostrante autocorreggente e risposta pronta un varco si aprì tra la folla harry si spinse fino al banco dove un gruppo di festanti bambini di dieci anni osservava un minuscolo omino di legno che saliva ai gradini di una vera forca il tutto sopra una scatola che recitava impiccato rimpiccabile se sbagli si impicca sogni e svegli e brevettati ermione era riuscita a insinuarsi fino a un grosso espositore vicino al banco e leggeva le informazioni sul retro di una scatola con l'immagine coloratissima di un bel ragazzo e di una ragazza in estasi sul ponte di una nave pirata un semplice incantesimo ed entrerete in un sogno a occhi aperti lungo 30 minuti di alta qualità e assolutamente realistico facile da inserire in una tipica lezione scolastica e virtualmente inintercettabile gli effetti collaterali includono espressione vacua e rivolo di bava vietata la vendita ai minori di 16 anni sai commentò ermione guardando erri questa è davvero magia straordinaria per quello che hai detto ermione intervenne una voce alle sue spalle puoi averne uno gratis un sorridente fredda parve davanti a loro indossando un completo color magenta in magnifico contrasto con i suoi capelli fiammeggianti come stai erri si strinsero la mano e che cosa è successo al tuo occhio ermione il tuo cannocchiale tira pugni rispose lei mesta o accidenti me ne l'ho dimenticato fece fred ecco estrasse un tubo dalla tasca e glielo porse lei lo svitò cauta e vide una densa pasta gialla basta che ne applichi un po sul livido e sparirà entro un'ora disse fred dovevamo ancora trovare un cancella lividi efficace stiamo provando gran parte dei prodotti su noi stessi ermione era nervosa non è pericoloso vero certo che no rispose fred incoraggiante vieni erri ti faccio fare un giro erri lasciò ermione a spalmarsi la pasta sull'occhio e seguì fred verso il fondo del negozio dove vide un espositore di giochi di prestigio con le carte e le corde trucchi magici babbani esclamò allegramente fred per fissati come papà sai che adorano la roba babbana non si guadagna granché ma è un introito regolare sono di moda oh ecco george il gemello di fred strinse con energia la mano a erri gli fai fare il giro vieni nel retro erri è qui che si fanno i soldi sul serio prova a sgraffignare qualcosa tu e non pagherai solo in galeoni aggiunse minaccioso rivolto a un bambinetto che ritrasse rapido la mano dalla confezione che diceva marchi neri commestibili nausea garantita george scosto a una tenda accanto ai trucchi babbani e erri vide una stanza più buia e meno affollata le confezioni dei prodotti che stipavano gli scaffali erano meno vistose abbiamo appena messo in produzione questa linea più seria spiegò fred è una storia buffa non ci si crede quanta gente ci sia anche impiegati del ministero che non sa fare un incantesimo scudo decente spiegò george naturalmente non hanno avuto te come maestro erri vero beh pensavamo che i cappelli scudo fossero una roba da ridere sai sfidi il tuo compagno a stregarti mentre lo indossi e guardi la faccia che fa quando l'incantesimo ti rimbalza addosso ma il ministero ne ha comprati 500 per tutto il personale di rinforzo e continuiamo a ricevere ordini enormi così abbiamo sviluppato una linea di mantelli scudo guanti scudo cioè non sarebbero di grande aiuto contro le maledizioni senza perdono ma per stregonerie o malefici minori e medi e poi abbiamo pensato di espanderci in tutta l'area della difesa contro le arti oscure perché è un bel giro di soldi continuò george entusiasta questo è forte guarda polvere buio pesto la importiamo dal perù ottima per una fuga rapida e i nostri detonatori abbindolanti vanno tantissimo guarda disse fred indicando alcuni bizzarri oggetti neri simili a trombette che cercavano di scappare dagli scaffali ne fai cadere uno di nascosto e lui scappa e fa un gran baccano senza farsi vedere una bella azione diversiva se ne hai bisogno comodi commentò erri colpito tieni disse george ne afferrò un paio e li lanciò a erri una giovane strega con biondi capelli corti sbucò dalla tenda erri notò che indossava anche lei la veste magenta del personale c'è un cliente che cerca un calderone finto signor weasley e signor weasley annunciò erri trovò molto strano sentir chiamare fredde george signor weasley ma loro non batterono ciglio grazie veriti vengo rispose subito george erri prendi quello che vuoi d'accordo gratis non posso protestò erri che aveva già estratto il suo sacchetto per pagare i detonatori abbindolanti qui non paghi chiarì fredde deciso facendo cenno a erri di mettere via i soldi ma sei stato tu a finanziarci non l'abbiamo dimenticato disse george prendi quello che vuoi e ricordati solo di dire in giro dove l'hai preso se te lo chiedono george sparì oltre la tenda per occuparsi dei clienti e fred riaccompagnò erri nella parte principale del negozio dove scoprirono ermione e ginni ancora immerse nella contemplazione dei sogni svegli brevettati ragazze non avete ancora visto i nostri prodotti speciali tu mi streghi chiese fred seguitemi signore vicino alla vetrina c'era una gamma di prodotti rosa shocking attorno ai quali alcune ragazze ridacchiavano entusiaste ermione e ginni si ritrassero sospettose ecco disse freddo orgoglioso il miglior assortimento di filtri d'amore sulla piazza ginni sollevò un sopracciglio scettica funzionano sicuro che funzionano fino a 24 ore di fila secondo il peso del ragazzo in questione e il fascino della ragazza concluse george ricomparso all'improvviso al loro fianco ma nostra sorella non li vendiamo aggiunse improvvisamente serissimo visto che ha già cinque ragazzi in pista da quello che abbiamo qualunque cosa vi abbia detto ron è una menzogna tagliò corto ginni tranquilla sporgendosi in avanti per prendere dallo scaffale un vasetto rosa questo cos'è a nulla foruncoli garantito dieci secondi rispose fred ottimo su tutto dai brufoli ai punti neri ma non cambiare discorso è vero o no che stai con un certo dean thomas sì che è vero rispose ginni e l'ultima volta che l'ho visto era decisamente uno non cinque quelle cosa sono indicò un gruppo di palle pelose in varie sfumature di rosa e viola che rotolavano sul fondo di una gabbia emettendo strilli acutissimi puffole pigmè disse george sono dei mini puff skin ne vendiamo tantissime non facciamo in tempo ad allevarle e un tale michael corner l'ho piantato e uno che non sa perdere fece ginni infilando un dito tra le sbarre della gabbia e osservando le puffole radunarsi attorno sono proprio carine sono tenere sì ammise fred ma non è che ti dai troppo da fare coi ragazzi ginni si voltò a guardarlo le mani sui fianchi aveva un cipiglio così da signora weasley che eri fu sorpreso che fred non facesse un passo indietro non sono affari tuoi e ti sarei grata aggiunse inviperita a ron appena comparso accanto a george carico di mercanzia se la smettessi di raccontare storie su di me a questi due fanno tre galeoni nuove falci e uno zellino contò fred osservando le numerose scatole tra le braccia di ron sgancia sono vostro fratello ed è nostra la roba che ti stai portando via tre galeoni e nove falci ti faccio lo sconto dello zellino ma io non ho tre galeoni e nove falci allora è meglio se rimetti tutto a posto e sugli scaffali giusti ron lasciò cadere parecchie scatole imprecò e fece un gestaccio a fred che purtroppo fu intercettato dalla signora weasley riapparsa proprio in quel momento se ti pesco a farlo un'altra volta ti affatturo le dita tutte insieme lo fulminò mamma posso comprare una puffola pigmea chiese subito ginni una cosa domandò la signora weasley sospettosa guarda sono così dolci la signora weasley si spostò per guardare le puffole pigmea e ron e ermione videro per un attimo la strada oltre la vetrina draco malfoi correva lungo la via solo quando passò davanti a tiri vispi weasley si guardò alle spalle qualche attimo dopo oltrepassò la vetrina e scomparve alla vista chissà dov'è la sua mammina osservò erri accigliato è riuscito a liberarsene a quanto pare aggiunse ron ma perché si chiese ermione erri non rispose era troppo impegnato a riflettere narcisa malfoi non avrebbe lasciato volentieri da solo il suo prezioso figlio malfoi doveva aver fatto una bella fatica per liberarsi dalle sue grinfie erri conoscendolo e detestandolo era certo che il motivo non poteva essere innocente si guardò intorno la signora weasley e ginny erano chine sulle puffole pigmea il signor weasley incantato osservava un mazzo babbano di carte da gioco segnate fred e george erano impegnati coi clienti dall'altra parte della vetrina agrid dava loro la schiena guardando lungo la via venite qui sotto presto sussurrò erri sfilando il mantello dell'invisibilità dallo zaino o non so erri mormorò ermione guardando incerta la signora weasley andiamo la incitò ron ermione esitò ancora un attimo poi si infilò sotto il mantello con erri e ron nessuno li vide sparire erano tutti troppo concentrati sui prodotti di fred e george il terzetto oltrepassò la porta più veloce che poté ma quando furono in strada malfoi era scomparso stava andando da quella parte mormorò erri in modo che agrid intento a canticchiare non li sentisse andiamo sgattaiolarono via spiando a destra e a sinistra oltre vetrine e porte finché ermione non indicò un punto davanti a loro è lui vero sussurrò quello che gira a sinistra bella sorpresa disse ron malfoi si era guardato intorno poi si era infilato in notturn alley svelti o lo perderemo l'incitò erri accelerando ci vedranno i piedi fece ermione preoccupata mentre il mantello sbatacchiava attorno alle loro caviglie era molto più difficile nasconderci si tutte e tre adesso non importa rispose erri impaziente muovetevi e basta ma notturn alley la strada laterale dedicata alle arti oscure era completamente deserta scrutarono nei negozi ma nessuno sembrava avere clienti probabilmente pensò erri comprare manufatti oscuri in quei tempi di pericolo e sospetto o almeno farsi vedere nell'atto di comprarli era troppo compromettente ermione gli diede un pizzicotto sul braccio aia guarda è là dentro gli sussurrò all'orecchio erano all'altezza dell'unico negozio di notturn alley che erri avesse mai visitato borgin and burke che vendeva un'ampia gamma di oggetti sinistri lì tra le casse piene di teschi e vecchie bottiglie c'era draco dava loro le spalle ed era appena visibile dietro lo stesso armadio nero nel quale una volta erri si era nascosto per evitare i malfoi padre e figlio a giudicare dai gesti stava parlando animatamente il proprietario del negozio il signor burgin un uomo curvo dai capelli unti stava di fronte a lui con una curiosa espressione un misto di rancore e paura se solo potessimo sentire quello che dicono sospirò ermione possiamo rispose ronne eccitato aspettate accidenti fece cadere un paio delle scatole che aveva sotto braccio per trafficare con quella più grande guardate orecchie oblunghe fantastico esclamò ermione mentre ron sbrogliava i lunghi fili color carne e cominciava a infilarli verso il fondo della porta spero che questa porta non sia imperturbabile no ribatte ron allegro ascoltate avvicinarono le teste dalle estremità dei fili la voce di malfoi proveniva forte e chiara come attraverso una radio sa come aggiustarlo può darsi rispose burgin e dal tono si capiva che non aveva alcun desiderio di prendere impegni devo vederlo però perché non me lo porta qui in negozio non posso replicò malfoi deve rimanere dov'è ho bisogno solo che lei mi dica come fare eri vide burgin leccarsi le labbra nervoso beh senza vederlo temo che sarà un lavoro molto difficile forse impossibile non posso garantire nulla no chiese malfoi eri capì dal suo tono che stava sogghignando forse questo le darà più sicurezza avanzò verso burgin l'armadio lo scuse eri ron e ermione si spostarono per cercare di vedere ma scorsero solo un burgin molto spaventato lo dica a qualcuno mormorò malfoi e verrà punito conosce fenrir greyback è un amico di famiglia ogni tanto farà un salto qui per assicurarsi che lei dedichi al problema la sua piena attenzione non c'è bisogno che questo lo decido io lo interruppe malfoi ora è meglio che vada e non dimentichi di tenere quello al sicuro ne avrò bisogno lo vuole portare via adesso no certo che no stupido ometto non posso portarlo così per strada ma non lo venda naturalmente no signore burgin fece un inchino profondo come quello che aveva fatto tempo prima lucius malfoi non una parola con nessuno burgin mia madre compresa capito naturalmente naturalmente mormorò burgin con un altro inchino un attimo dopo la campanella sulla porta tintinò forte e malfoi uscì dal negozio molto soddisfatto passò così vicino a erri ron e ermione che loro sentirono il mantello svolazzare di nuovo attorno alle ginocchia dentro il negozio burgin era immobile il suo sorriso untuoso era sparito sembrava preoccupato di che cosa parlava sussurrò ron riavvolgendo le orecchie oblung non so rispose erri meditabondo vuole che qualcosa venga riparato e vuole che gli si tenga da parte qualcosa che c'è là dentro siete riusciti a vedere che cosa indicava quando ha detto quello no era dietro quell'armadio voi due restate qui mormorò ermione che cosa ma ermione era già uscita da sotto il mantello si controllò i capelli nel riflesso del vetro poi entrò nel negozio facendo tintinare un'altra volta la campanella ron infilò di nuovo in tutta fretta le orecchie oblunghe sotto la porta e passò uno dei fili a erri buongiorno mattinata orribile vero esordì vivacemente ermione burgin non rispose ma le lanciò un'occhiata sospettosa canticchiando allegra ermione avanzò nel caos di oggetti in mostra questa collana è in vendita chiese fermandosi davanti a una vetrinetta se hai 1500 galeoni rispose burgin freddo o no non ho così tanti soldi fece ermione e avanzò di nuovo e questo adorabile teschio 16 galeoni quindi è in vendita non è che lo tiene da parte per qualcuno burgin la guardò erri ebbe la spiacevole sensazione che sapesse benissimo che cosa lei aveva in mente a quanto pareva anche ermione si sentì smascherata perché all'improvviso gettò ogni cautela alle urtiche il fatto è che quel ragazzo che è appena stato qui draco malfoi beh è un mio amico e voglio fargli un regalo di compleanno ma si ha già fatto mettere da parte qualcosa naturalmente non voglio comprargli lo stesso oggetto quindi un po debole pensò erri ed evidentemente burgin era della stessa opinione fuori le ordinò fuori di qui ermione non se lo fece ripetere e corse all'uscita con burgin alle calcagna la campanella tintinnò burgin sbatté la porta e appese il cartello chiuso beh commentò ron gettandole addosso il mantello tentarno nuoce ma sei stata un po ingenua beh la prossima volta mi fai vedere tu come si fa maestro del mistero sbottò lei ron e ermione batti beccarono per tutta la strada di ritorno ai tirivispi weasley dove furono costretti a smettere per sgattaiolare inosservati alle spalle di un'assai preoccupata signora weasley e di agrid che si erano accorti della loro assenza una volta dentro il negozio erri nascose il mantello dell'invisibilità nello zaino e si unì ai due amici quando in risposta alle accuse della signora weasley sostennero di essere stati tutto il tempo nella stanza sul retro dove lei sicuramente non aveva guardato bene il luma club erri passò gran parte dell'ultima settimana di vacanze rimuginando sul comportamento di malfoi in notturn alley ciò che più lo turbava era la sua espressione soddisfatta all'uscita dal negozio niente che rendesse malfoi così felice poteva essere buono con sua vaghe irritazione tuttavia né ron né ermione sembravano incuriositi quanto lui dalle attività di malfoi o almeno dopo qualche giorno si stufarono di parlarne sì ti ho già detto che hai ragione era sospetto erri ripete ermione con una certa impazienza era seduta sul davanzale della camera di fredde george con i piedi appoggiati su uno scatolone e solo a malincuore aveva alzato lo sguardo dalla sua nuova copia di traduzione runica avanzata ma non abbiamo detto che potrebbero esserci un sacco di spiegazioni forse ha rotto la sua mano della gloria rispose ron in tono distratto cercando di raddrizzare i rametti storti della coda della sua scopa ti ricordi quel braccio tutto raggrinzito che aveva malfoi ma quando ha detto non dimentichi di tenere quello al sicuro ribatte erri per l'ennesima volta secondo me borgin ha un altro oggetto uguale a quello rotto e malfoi li vuole tutti e due credi domandò ron impegnato a gratter via un po di sporco dal manico sì rispose erri poiché né ron né ermione replicavano aggiunse il padre di malfoi e ad azkaban non pensate che a lui piacerebbe vendicarsi ron al solo sguardo e batte le palpebre malfoi vendicarsi che cosa può farci è quello che mi chiedo anch'io non lo so sbottò erri frustrato ma ha in mente qualcosa e credo che dovremmo prendere la faccenda sul serio suo padre è un mangiamorte e erri si interruppe lo sguardo fisso sulla finestra alle spalle di ermione a bocca aperta gli era appena venuta in mente una cosa sbalorditiva erri disse ermione ansiosa cosa c'è che non va non ti fa male la cicatrice vero chiese ron teso è un mangiamorte rispose erri lentamente ha preso il posto di suo padre come mangiamorte cadde il silenzio poi ron scoppiò a ridere malfoi a sedici anni erri credi che tu sai chi permetterebbe a malfoi di unirsi a loro è abbastanza improbabile erri osservò ermione in tono pedante che cosa ti fa pensare madame alkin lei non l'ha toccato ma lui ha strillato e ha scostato il braccio quando voleva tirargli sulla manica era il braccio sinistro l'hanno segnato col marchio nero ron e ermione si guardarono beh cominciò ron decisamente perplesso credo che volesse solo andarsene erri disse ermione ha mostrato a borgin una cosa che noi non abbiamo visto insistette erri ostinato qualcosa che ha spaventato borgin era il marchio lo so ha mostrato a borgin con chi aveva a che fare e avete visto come lui l'ha preso sul serio ron e ermione si scambiarono un altro sguardo non so erri si continua a non essere convinto che tu sai chi permetterebbe a malfoi di unirsi irritato ma assolutamente certo di avere ragione erri afferrò una pila di divise da qui dice sporche e uscì la signora weasley insisteva da giorni perché non aspettassero l'ultimo momento per lavare le loro cose e preparare i bagagli sul pianerottolo urtò ginni che tornava nella sua stanza con una pila di vestiti puliti al momento eviterei di andare in cucina lo avvertì c'è un sacco di flora batterica in giro starò attento sorrise erri e in effetti quando entrò in cucina scoprì flor seduta al tavolo lanciata nei progetti per il suo matrimonio con bill mentre la signora weasley di malumore teneva d'occhio un mucchio di patate auto sbuccianti bill e io vogliamo due damicelle ginni e gabrielle saranno deliziose insieme pensavo a vestiti color or palido rosa sarebbe spomontoso con i capelli di ginni ah erri esclamò la signora weasley interrompendo il monologo di flor bene volevo parlarti delle misure per il viaggio a hogwarts di domani abbiamo di nuovo delle auto del ministero e ci saranno auror ad attenderci alla stazione ci sarà anche tonks chiese erri consegnandole le divise da quidditch no non credo è stata messa di guardia da qualche altra parte a quel che dice arthur si è lasciato andare quella tonks considerò flor osservando il proprio stupefacente riflesso sul retro di un cucchiaino un grande errore secondo me sì grazie mille la interruppe di nuovo la signora weasley acida è meglio se ti sbrighi erri voglio che i bauli siano pronti stasera se possibile così non avremo il solito delirio dell'ultima ora e in effetti la partenza la mattina dopo filò più liscia del solito le auto del ministero li trovarono già in attesa davanti alla tana con i bauli pronti gratta stinchi il gatto di ermione rinchiuso al sicuro nel suo cestino da viaggio edvige leotordo e arnold la nuova puffola pigmea viola di ginny nelle loro gabbie orevole a rì gorgogliò fleur con voce roca salutandolo con un bacio ron corse avanti speranzoso ma ginny sporse il piede e lui cadde lungo disteso nella polvere ai piedi di fleur furente tutto rosso impolverato corse in macchina senza salutare non c'era agrid ad aspettarli allegramente alla stazione di king's cross al suo posto quando le auto si fermarono due barbuti auror con la faccia tetra in scuri completi babbani si fecero avanti e scortarono dentro il gruppo senza una parola svelti svelti oltre la barriera disse la signora weasley un po confusa da quella austera efficienza è meglio che arriva da per primo con scocò uno sguardo interrogativo a uno degli auror che fece un breve cenno d'assenso prese erri per il braccio e cercò di condurlo verso la barriera tra i binari nove e dieci so camminare grazie sbottò erri irritato liberando il braccio dalla presa dell'auror spinse il carrello direttamente contro la massiccia barriera ignorando il suo silenzioso compagno e un attimo dopo si ritrovò sul binario nove e tre quarti dove l'ogwarts express rosso scarlatto e ruttava vapore sulla folla ermione e weasley lo raggiunsero dopo qualche secondo senza consultare il tetro auror erri fece cenno a ron e ermione di seguirlo lungo il marciapiede in cerca di uno scompartimento vuoto non possiamo erri si scusò ermione io e ron prima dobbiamo andare alla carrozza dei prefetti e poi pattugliare i corridoi per un po oh già me l'ero dimenticato fece erri meglio che saliate subito allora vi restano solo pochi minuti l'incitò la signora weasley consultando l'orologio beh buon rientro a scuola ron signor weasley posso dirle due parole chiese erri all'improvviso sicuro il signor weasley sembrava un po sorpreso ma seguì erri dove gli altri non potevano sentirli erri ci aveva riflettuto con calma ed era giunto alla conclusione che se doveva dirlo a qualcuno il signor weasley era la persona giusta primo perché lavorava al ministero e quindi era nella posizione migliore per indagare secondo perché pensava che non ci fossero troppi rischi che si infuriasse vide la signora weasley e il lugubre auror guardarli con sospetto quando eravamo in diagonale esordì ma il signor weasley lo interruppe con una smorfia sto per scoprire dove siete finiti tu ron e ermione quando dovevate essere nel retro del negozio di fred george come a erri per favore stai parlando con l'uomo che ha cresciuto fred george sì d'accordo non eravamo nel retro molto bene allora sentiamo il peggio beh abbiamo seguito draco malfoy abbiamo usato il mio mantello dell'invisibilità avevate una ragione particolare per farlo è stato un mero impulso pensavo che malfoy avesse qualcosa in mente spiegò erri ignorando l'espressione del signor weasley tra l'esasperato e il divertito era sfuggito a sua madre e io volevo scoprire perché naturalmente commentò il signor weasley rassegnato beh e lo hai scoperto è andato da borgin and burke continuò erri ha cominciato a strapazzare borgin in persona perché lo aiutasse a riparare una cosa e perché gliene conservasse un'altra apparentemente dello stesso genere di quella da riparare come se fossero una coppia e erri trasse un profondo respiro c'è qualcos'altro abbiamo visto malfoy fare un salto di un metro quando madame alkin ha cercato di toccargli il braccio sinistro credo che sia stato tatuato col marchio nero credo che abbia sostituito suo padre come mangiamorte il signor weasley parve colto alla sprovvista dopo un attimo disse erri dubito che tu sai chi permetterebbe a un sedicenne ma cosa ne sappiamo noi di quello che lei sa chi farebbe o non farebbe chiese erri rabbioso signor weasley mi scusi ma non vale la pena di indagare se malfoy vuole che qualcosa venga aggiustato e ha bisogno di minacciare borgin perché lo faccia probabilmente è qualcosa di oscuro pericoloso no a essere sincero ne dubito erri rispose lentamente il signor weasley vedi quando lucius malfoy è stato arrestato abbiamo perquisito la sua casa abbiamo portato via tutto ciò che avrebbe potuto essere pericoloso potreste aver dimenticato qualcosa insistette erri testardo beh può darsi disse il signor weasley più per secondare erri che per vera convinzione un fischio risuonò alle loro spalle ormai quasi tutti erano sul treno e le porte si stavano chiudendo meglio che ti sbrighi concluse il signor weasley e sua moglie gridò erri presto erri si mise a correre e i signori weasley lo aiutarono a caricare il baule chiuse con un gran tonfo la porta del vagone mentre già il treno cominciava a muoversi allora caro verrai da noi a natale abbiamo già sistemato tutto consilente quindi ci vediamo presto esclamò la signora weasley al di là del finestrino stai bene il treno prese velocità fai il bravo e ormai correva per tenere il passo mi raccomando stai attento erri salutò con la mano finché il treno non imboccò la prima curva e i signori weasley scomparvelo poi si voltò per vedere dove erano finiti gli altri immaginò che ron e ermione fossero chiusi nella carrozza dei prefetti ma ginni era nel corridoio a chiacchierare con alcune amiche così erri si mosse verso di lei trascinando il baule i ragazzi lo fissavano spudoratamente schiacciando perfino la faccia contro il vetro degli scompartimenti erri si era aspettato una nuova ondata di bocche aperte e occhi spalancati dopo tutte quelle storie sul prescelto sulla gazzetta del profeta ma la sensazione di essere sotto un riflettore non gli piaceva batte sulla spalla di ginni ti va di cercare uno scompartimento mi dispiace erri ho promesso a dean che l'avrei raggiunto rispose lei cordiale ci vediamo dopo sì certo fece erri la vide allontanarsi i lunghi capelli rossi che le danzavano sulle spalle e provò uno strano moto di irritazione si era talmente abituato a lei durante l'estate che aveva quasi dimenticato che ginni non frequentava lui ron e ermione a scuola poi batte le palpebre e si guardò intorno era circondato da ragazze ipnotizzate ciao erri lo salutò una voce familiare alle sue spalle neville esclamò erri sollevato e si voltò verso il ragazzo dalla faccia tonda che si faceva largo verso di lui ciao erri fece eco una ragazza coi capelli lunghi e grandi occhi velati un passo dietro neville luna ciao come stai molto bene grazie rispose luna stringeva al petto una rivista in prima pagina si annunciava grosse lettere un paio di spettrocoli in regalo il cavillo va sempre forte allora chiese erri che provava un certo affetto per la rivista a cui aveva concesso un'esclusiva l'anno prima oh sì ottima diffusione rispose luna contenta troviamo dei posti disse erri e i tre si avviarono lungo il treno fra orde di studenti che li fissavano in silenzio finalmente trovarono uno scompartimento vuoto erri vi si infilò con sollievo fissano anche noi perché stiamo con te fece neville indicando se stesso e luna vi fissano perché eravate anche voi al ministero ribatte erri hissando il baule nella rete portabagagli la nostra piccola avventura era sulla gazzetta del profeta l'avrai letta sì pensavo che la nonna si sarebbe arrabbiata per tutta quella pubblicità rispose neville invece era davvero contenta dice che comincio a essere all'altezza di mio padre finalmente mi ha comprato una bacchetta nuova guarda la sfoderò e la mostrò a erri ciliegio e crine di unicorno spiegò fiero probabilmente è una delle ultime vendute da olivander è sparito il giorno dopo oh torna qui trevor e si tuffò sotto il sedile per riprendere il suo rospo impegnato in un ennesimo tentativo di riguadagnare la libertà quest'anno faremo ancora le nostre riunioni dell'essary chiese luna staccando un paio di occhiali psichedelici dalla rivista non serve adesso che ci siamo liberati della umbridge no rispose erri sedendosi neville picchiò la testa contro il sedile riaffiorando dal pavimento era molto deluso a me piaceva l'ess ho imparato un mucchio di cose con te anch'io mi divertivo alle riunioni confermò luna serena era come avere degli amici era uno dei commenti imbarazzanti tipici di luna che infondevano in erri un misto di pena e disagio tuttavia prima che potesse replicare fuori dallo scompartimento si sentì un crescendo di voci un gruppo di ragazze del quarto anno parlava e ridacchiava oltre il vetro chiediglielo tu no tu lo farò io e una di loro con l'aria audace grandi occhi scuri il mento sporgente lunghi capelli neri entrò ciao erri io sono romilda romilda vain si presentò a voce alta e sicura perché non vieni nel nostro scompartimento non sei obbligato a stare con loro aggiunse con un sussurro sonoro indicando il sedere di neville che spuntava di nuovo da sotto il sedile mentre lui dava la caccia a trevor e luna che coi suoi spettrocoli sembrava un gufo demente multicolore sono amici miei loro ribatte erri gelido o disse la ragazza molto sorpresa o va bene e si ritirò richiudendo la porta la gente si aspetta che tu abbia degli amici più in gamba di noi disse luna dimostrando ancora una volta il suo talento per la sincerità imbarazzante voi siete in gamba rispose erri brevemente nessuno di loro era al ministero nessun altro ha combattuto con me è una cosa molto carina da dire commentò luna con un gran sorriso si aggiustò gli spettrocoli sul naso e si accinse a leggere il cavillo però noi non abbiamo affrontato lui disse neville riemergendola sotto il sedile con tante palline di polvere tra i capelli e un rassegnato trevor in mano tu sì dovresti sentire mia nonna quell'herry potter ha più fegato di tutto il ministero della magia messo insieme darebbe qualunque cosa per averti come nipote erri rise a disagio e portò al più presto il discorso sui risultati del gufo neville prese a recitare i suoi voti e a chiedersi se avrebbe potuto iscriversi a un mago in trasfigurazione con un solo accettabile ma erri lo guardava senza ascoltare l'infanzia di neville era stata rovinata da voldemort quanto la sua ma neville non aveva idea di quanto fosse arrivato vicino ad avere il destino di erri la profezia avrebbe potuto riferirsi all'uno all'altro eppure per le sue personali imperscrutabili ragioni voldemort aveva scelto di credere che alludesse a erri se avesse fatto l'altra scelta ora sarebbe stato neville ad avere la cicatrice a forma di saetta e a sopportare il peso della profezia o no la madre di neville sarebbe morta per salvarlo come liri per erri certo che sì ma se non fosse riuscita a frapporsi tra suo figlio e voldemort allora non ci sarebbe stato nessun prescelto un posto vuoto dove ora sedeva neville e un erri senza cicatrice che sarebbe stato baciato e abbracciato dalla propria madre e non da quella di ron stai bene erri hai l'aria strana chiese neville erri sussultò scusa io ti ha colpito un gorgo sprizzo chiese luna comprensiva scrutando erri attraverso gli enormi occhiali colorati un cosa un gorgo sprizzo sono invisibili ti entrano nelle orecchie ti confondono il cervello spiegò pensavo di averne visto uno sfrecciare qui intorno agitò le mani in aria come per scacciare grosse falene invisibili erri e neville si scambiarono uno sguardo e si affrettarono a parlare di quiddici fuori dai finestrini il tempo era incerto come lo era stato per tutta l'estate attraversavano banchi di nebbia fredda alternati alla debole chiara luce del sole fu durante uno di questi momenti luminosi quando il sole era quasi allo zenith che ron e ermione finalmente entrarono nello scompartimento vorrei tanto che il carrello si spicciasse muoio di fame ron sospirò sprofondando nel sedile accanto a erri e accarezzandosi lo stomaco ciao neville ciao luna indovina un po aggiunse rivolto a erri malfoy non è in servizio come prefetto sta seduto nel suo scompartimento con gli altri serpe verde l'abbiamo visto passando erri si rizzò a sedere incuriosito non era da malfoy rinunciare all'opportunità di sfoggiare i suoi poteri di prefetto di cui aveva allegramente abusato per tutto l'anno prima che cosa ha fatto quando vi ha visto il solito rispose ron con indifferenza facendo un gesto volgare con la mano non è da lui però cioè questo sì e rifece il gestaccio ma perché non è là fuori a fare il bullo con quelli del primo anno boh disse erri ma la sua mente lavorava rapidissima non era palese che malfoy aveva cose più importanti a cui pensare invece di strapazzare gli studenti più giovani forse preferiva la squadra di inquisizione suggerì ermione forse fare il prefetto gli sembrava un po noioso dopo quello non credo rispose erri io penso che sia ma prima che riuscisse a esporre la sua teoria la porta dello scompartimento si riaprì e una ragazza del terzo anno entrò senza fiato devo consegnare questi a neville longbottom e harry potter balbettò tutta rossa incrociando lo sguardo di harry tese loro due cilindri di pergamena legati con un nastrino viola perplessi harry e neville li presero e la ragazza uscì barcollando che cos'è chiese ron mentre harry srotolava il suo un invito rispose harry harry sarei lieto che ti unissi a me per un pranzetto nello scompartimento c cordialmente professor h e f lumacorno chi è il professor lumacorno domandò neville guardando perplesso il proprio invito un nuovo insegnante rispose harry beh immagino che dobbiamo andare no ma perché vuole me domandò ancora neville nervoso come se si aspettasse una punizione non lo so fece harry il che non era proprio vero anche se non aveva ancora la prova che la sua intuizione fosse corretta senti disse colto all'improvviso da un'idea geniale andiamoci col mantello dell'invisibilità così per strada possiamo dare una buona occhiata a malfoi e capire che intenzioni ha ma non fu possibile i corridoi affollati di ragazzi che aspettavano il carrello erano impraticabili col mantello harry dispiaciuto lo ripiegò e lo ripose nello zaino sarebbe stato bello indossarlo anche solo per evitare tutti quegli sguardi che dalla mattina sembravano essersi ulteriormente intensificati alcuni studenti uscivano di corsa dal proprio scompartimento solo per guardarlo meglio ciò chan invece quando lo vide arrivare strecciò dentro il suo harry la vide immersa in un ostentata conversazione con la sua amica marietta cui uno spesso strato di fondotinta non nascondeva del tutto la fioritura di strani foruncoli sul viso con una smorfia harry proseguì quando raggiunsero lo scompartimento c videro subito che non erano i soli invitati di lumacorno anche se a giudicare dal benvenuto entusiastico harry era il più atteso harry ragazzo mio esclamò lumacorno balzando in piedi appena lo vide il suo vasto ventre coperto di velluto parve riempire tutto lo spazio vuoto e la pelata ai grandi baffoni argentei scintillavano al sole quanto i bottoni d'oro del panciotto che piacere che piacere e tu devi essere il signor long bottom neville annui spaventato a un gesto di lumacorno si sedettero di fronte a lui nei due soli posti vuoti i più vicini alla porta harry osservò i loro compagni riconobbe un serpe verde del loro anno un alto ragazzo di colore con gli zigomi pronunciati e i lunghi occhi obliqui c'erano anche due ragazzi del settimo anno che non conosceva e strizzata nell'angolo accanto a lumacorno con l'aria di non sapere bene come mai fosse finita lì ginni bene vi conoscete tutti chiese lumacorno a harry e neville blaise sabini è del vostro anno naturalmente sabini non diede segno di riconoscerli né li salutò e nemmeno harry o neville lo fecero gli studenti di grifondoro e serpe verde si detestavano per principio questo è cormac mccluggen forse vi siete già incontrati no mccluggen un ragazzo grosso con i capelli crespi levò una mano e harry e neville gli risposero con un cenno e questo è marcus belby non so se belby che era magro e nervoso esibì un sorriso stiracchiato e questa affascinante signorina dice di conoscervi concluse lumacorno ginni fece una smorfia a harry e neville dietro la schiena di lumacorno bene è un piacere straordinario continuò lumacorno in tono intimo un'opportunità per conoscervi un po meglio ecco prendete un tovagliolo mi sono portato il pranzo da casa il carrello se ricordo bene ci va pesante con le bacchette di liquidizia e il sistema digestivo di un povero vecchio non regge un po di fagiano belby belby sussultò e accettò quello che sembrava un mezzo fagiano freddo stavo appunto dicendo al giovane marcus che ho avuto il piacere di avere come allievo suo zio damocles spiegò lumacorno a harry e neville offrendo un cestino di panini un mago notevole notevole e il suo ordine di merlino è davvero meritatissimo vedi spesso tuo zio marcus purtroppo belby aveva appena addentato un grosso boccone di fagiano nella fretta di rispondere al lumacorno lo inghiottì diventò paonazzo e cominciò ad annaspare anapneo disse lumacorno con calma puntando la bacchetta contro belby le cui vie respiratorie si liberarono all'istante no non molto spesso no balbettò belby lacrimando beh naturale scommetto che è molto occupato replicò lumacorno guardando belby con aria indagatrice immagino che inventare la pozione antilupo gli abbia richiesto un certo impegno suppongo rispose belby terrorizzato all'idea di prendere un altro pezzo di fagiano finché non era sicuro che lumacorno avesse finito con lui lui e mio padre non vanno tanto d'accordo sa quindi non è che io sappia molto di la sua voce si perse mentre lumacorno lo abbandonava con un sorriso freddo per rivolgersi a mc luggen tu invece cormac disse so che vedi spesso tuo zio tiberius perché ha una magnifica foto di voi due a caccia di noctail nel norfolk giusto o sì ci siamo divertiti rispose mc luggen ci siamo andati con bertie higgs e rufus scrimgeor prima che diventasse ministro ovviamente a conosci anche bertie rufus chiese lumacorno con un gran sorriso facendo girare un vassoietto di tartine chissà come belby venne saltato allora dimmi era come eri aveva sospettato tutti i presenti erano stati invitati perché avevano a che fare con qualche persona famosa o influente tutti tranne ginni sabini interrogato dopo mc luggen aveva per madre una strega di celebre bellezza da quello che eri riuscì a capire si era sposata sette volte e ciascuno dei suoi mariti era morto in circostanze misteriose lasciando le montagne d'oro poi fu il turno di neville furono dieci minuti molto difficili perché i genitori di neville due noti auror erano stati torturati fino alla follia da bellatrix lestrange e da un paio di vecchi compari mangiamorte alla fine eri ebbe l'impressione che luma corno avesse sospeso il giudizio in attesa di capire se il ragazzo possedeva un po del talento dei genitori e ora proseguì luma corno agitandosi sul sedile come un presentatore che annuncia il suo numero più brillante harry potter da dove cominciare ho la sensazione di aver appena grattato la superficie quando ci siamo incontrati quest'estate contemplò harry per un istante come se fosse un pezzo di fagiano particolarmente grosso e succulento poi disse il prescelto è così che ti chiamano adesso harry non rispose belby mclaggen e sabini lo fissarono naturalmente continuò luma corno osservando il ragazzo con attenzione sono anni che circolano voci mi ricordo quando beh dopo quella terribile notte lili james e tu sei sopravvissuto e si diceva che tu avessi poteri straordinari sabini tossicchiò con divertito scetticismo una voce arrabbiata si levò da dietro luma corno oh è vero sabini perché tu invece hai un gran talento per darti delle arie oh cielo ridacchiò luma corno tranquillamente guardando ginni che scrutava torva sabini al di sopra del suo pancione attento blaise ho visto questa signorina scagliare un meraviglioso maleficio muco volante mentre passavo dal suo scompartimento eviterei di contrariarla sabini si limitò ad assumere un'espressione sprezzante comunque proseguì luma corno tornando a harry tutte le voci di questa estate naturalmente non si sa a che cosa credere è noto che il profeta riporta notizie inattendibili commette errori ma pare ci siano pochi dubbi dato il numero di testimoni sul fatto che c'è stato un bel caos al ministero e tu c'eri dentro fino al collo harry che non riusciva a vedere una via d'uscita a meno di mentire spudoratamente annui ma non disse nulla luma corno gli rivolse un gran sorriso tanto modesto tanto modesto non mi stupisce che silente sia così affezionato tu c'eri quindi ma le altre storie così sensazionali che non si sa proprio a cosa credere questa leggendaria profezia per esempio non abbiamo sentito nessuna profezia rispose neville diventando rosso geranio giusto aggiunse ginni con fermezza c'eravamo anche io e neville e tutta quella robaccia sul prescelto è solo il profeta che si inventa le cose come al solito ah c'eravate tutti e due ripete luma corno con enorme interesse spostando lo sguardo da ginni a neville ma entrambi rimasero con le bocche sigillate davanti al suo sorriso incoraggiante sì beh è vero che spesso il profeta esagera naturale continuò un po deluso ricordo che la cara guenog mi disse guenog jones voglio dire naturalmente capitano delle holly ed arpis si avventurò in una prolissa reminiscenza ma eri ebbe la chiara impressione che non avesse ancora finito con lui e che neville e ginni non l'avessero convinto il pomeriggio passò noioso tra altri aneddoti su maghi illustri a cui luma corno aveva fatto da insegnante tutti felicissimi di unirsi a quello che definiva il luma club a hogwarts eri non vedeva l'ora di andarsene ma non sapeva come farlo educatamente infine il treno riemerse da un altro lungo tratto nebbioso dentro un tramonto rosso e luma corno si guardò attorno strizzando gli occhi davanti al crepuscolo santo cielo è già buio non mi ero accorto che avevano acceso le lampade è meglio se andate a cambiarvi tutti quanti mclagan devi passare a trovarmi e prendere in prestito quel libro sui noctail harry blaise quando volete lo stesso vale per te signorina e strizzò l'occhio a ginni andate andate mentre superava eri per addentrarsi nel corridoio sempre più buio sabini gli scoccò un'occhiata sgradevole che eri ricambiò con interesse lui ginni e neville lo seguirono verso la coda del treno sono contento che sia finita borbottò neville strano tipo è sì un po rispose eri gli occhi fissi su sabini come mai sei finita qui ginni mi ha visto fare un maleficio a zacharias smith disse ginni ti ricordi quell'idiotali tasso frasso che veniva all'es continuava a chiedere che cosa era successo al ministero e alla fine mi ha irritato tanto che gli ho scagliato un muco volante quando luma corno è entrato pensavo che mi avrebbe punito invece ha detto solo che lo trovava un ottimo maleficio e mi ha invitato a pranzo pazzo è meglio così che invitare uno perché sua mamma è famosa commentò eri scrutando a cigliato la testa di sabini o perché suo zio ma si interruppe gli era appena venuta un'idea sconsiderata ma potenzialmente meravigliosa entro un minuto sabini sarebbe rientrato nello scompartimento dei serpeverde del sesto anno e malfoy sarebbe stato lì convinto che lo sentissero solo i compagni serpeverde se solo eri fosse riuscito a entrare non visto dietro di lui che cosa avrebbe potuto vedere o sentire vero restava ancora un breve tratto di viaggio la stazione di hogsmeade doveva essere a meno di mezz'ora a giudicare dall'aspetto selvaggio dello scenario che lampeggiava dai finestrini ma nessun altro sembrava prendere sul serio i suoi sospetti quindi stava a lui di mostrarne la fondatezza ci vediamo più tardi disse sottovoce estrasse il mantello dell'invisibilità lo dispiegò e se lo gettò addosso ma che cosa stai gli chiese neville dopo rispose eri sfrecciando dietro sabini più silenziosamente possibile anche se lo sferragliare del treno rendeva superflua tanta cautela i corridoi erano quasi vuoti ora tutti erano tornati alle loro carrozze per indossare le divise scolastiche e preparare i bagagli nonostante gli stesse alle calcagna eri non fu abbastanza rapido da scivolare nello scompartimento quando sabini apri la porta e dovette infilare in fretta il piede per impedirgli di richiuderla che cosa c'è che non va abbaiò sabini spingendo più volte la porta scorrevole contro il piede di eri eri afferrò la maniglia e spinse forte sabini ancora aggrappato alla maniglia cadde in grembo a gregory goyle nella confusione che seguì eri si infilò nello scompartimento balzò sul sedile momentaneamente vuoto di sabini e si so sulla reticella porta bagagli fu una fortuna che goyle sabini si ringhiassero addosso attirando l'attenzione di tutti perché eri era quasi sicuro che il mantello ondeggiando gli avesse scoperto piedi e caviglie addirittura per un terribile istante aveva creduto di vedere gli occhi di malfoi seguire la sua scarpa da tennis che sfrecciava verso l'alto ma poi goyle chiuse la porta con violenza e si tolse di dosso sabini che cadde al proprio posto tutto scompigliato vincent kreb tornò al suo fumetto e malfoi sogghignando si distese su due sedili con la testa in grembo a pensi parkinson eri rimase scomodamente rannicchiato sotto il mantello per assicurarsi che ogni centimetro del suo corpo restasse nascosto e osservò pensi accarezzare i lisci capelli biondi sulla fronte di malfoi con il sorriso compiaciuto di chi pensa che chiunque sarebbe stato felice di trovarsi al suo posto le lanterne che dondolavano dal soffitto gettavano una luce vivida sulla scena eri riusciva a leggere ogni singola parola del fumetto di kreb proprio sotto di lui allora sabini chiese malfoi che cosa voleva luma corno solo ingraziarsi la gente ben ammanicata rispose sabini che continuava a guardare torvo goyle non che sia riuscito a trovarne molta questa informazione non fece piacere a malfoi chi altri aveva invitato chiese mclagen di griffondoro rispose sabini ah sì suo zio è un pezzo grosso al ministero commentò malfoi un altro che si chiama belby di corvo nero ma dai è un idiota esclamò pensi e long bottom potter e la ragazza weasley concluse sabini malfoi si rizzò a sedere all'improvviso allontanando bruscamente la mano di pensi ha invitato long bottom beh suppongo di sì visto che long bottom era lì rispose sabini indifferente che cosa long bottom che possa interessare l'umacorno sabini alzò le spalle potter il prezioso potter ovvio che voleva dare un'occhiata al prescelto soghignò malfoi ma quella weasley che cosa ha lei di tanto speciale piaccia un sacco di ragazzi disse pensi osservando la reazione di malfoi con la coda dell'occhio anche tu pensi che sia carina no blaze e sappiamo tutti che sei tanto difficile non toccherei una sudicia piccola traditrice di sangue come lei per quanto carina possa essere ribattesa bini gelido e pensi parve soddisfatta malfoi le si ridistese in grembo e le permise di ricominciare ad accarezzargli i capelli beh l'umacorno ha gusti da schifo forse si sta rincitrollendo peccato mio padre diceva sempre che ai suoi tempi era un buon mago papà era uno dei suoi preferiti l'umacorno probabilmente non ha saputo che sono sul treno io non conterei su un invito intervenne sabini appena sono arrivato mi ha chiesto del padre di not erano vecchi amici a quanto pare ma quando ha sentito che era stato arrestato al ministero non è parso contento e not non è stato invitato non credo che l'umacorno sia interessato ai mangiamorte malfoi era arrabbiato ma riuscì a mettere insieme una risata straordinariamente priva di allegria beh chi se ne frega che cos'è a pensarci bene solo uno stupido insegnante sbadigliò vistosamente voglio dire può darsi che il prossimo anno io non sia nemmeno a hogwarts che cosa me ne importa se piaccio o no a un vecchio grasso relitto come sarebbe può darsi che il prossimo anno tu non sia nemmeno a hogwarts chiese pensi indignata smettendo subito di pettinarlo beh non si può mai sapere rispose lui con l'ombra di un ghigno magari mi dedicherò a cose più grandi e più importanti rannicchiato sulla reticella sotto il suo mantello henry sentì il cuore battere più forte che cosa avrebbero detto ron e ermione crebbe goyle guardavano malfoi stupefatti evidentemente non avevano la minima idea dei suoi progetti più grandi e più importanti perfino sabini aveva concesso a una vaga curiosità di intaccare la sua faccia sprezzante pensi riprese ad accarezzare lentamente i capelli di malfoi stordita vuoi dire lui malfoi scrollò le spalle mia madre vuole che io porti a termine la mia istruzione ma io non lo trovo importante di questi tempi voglio dire pensateci quando il signore oscuro salirà al potere baderà a quanti gufo o mago uno ha preso certo che no dipenderà tutto dal genere di servigi che ha ricevuto dal livello di devozione che gli è stato dimostrato e tu credi di poter fare qualcosa per lui gli chiese sabini pungente a 16 anni e senza nemmeno aver preso il diploma l'ho appena detto no forse non gli importa se ho preso il diploma forse il lavoro che vuole da me non è qualcosa per cui serve il diploma mormorò malfoi crebbe goyle stavano a bocca aperta come due doccioni pensi fissava malfoi come se niente e nessuno le avesse mai ispirato tanta reverenza ecco hogwarts disse malfoi godendo chiaramente dell'effetto che aveva creato e indicando un punto oltre il finestrino annerito meglio vestirsi harry era così impegnato a fissarlo che non si accorse che goyle si protendeva per prendere il suo baule mentre lo tirava giù colpì harry forte sulla tempia lui si lasciò sfuggire un gemito e malfoi alzò lo sguardo verso la reticella accigliato harry non aveva paura di malfoi ma non gli andava di essere scoperto lì nascosto sotto il mantello dell'invisibilità da un gruppo di ostili serpeverde con gli occhi ancora lacrimanti e la testa che pulsava estrasse la bacchetta attento a non scostare il mantello e attese trattenendo il fiato con suo sollievo malfoi parve decidere di aver solo immaginato quel rumore si infilò la divisa come gli altri chiuse il baule e mentre il treno rallentava sussultando si allacciò il nuovo pesante mantello da viaggio i corridoi si riempirono harry bloccato lì finché la via non fosse tornata libera si augurò che ron e ermione prendessero anche i suoi bagagli infine con un ultimo sobbalzo il treno si fermò goyle spalancò la porta e si fece largo con violenza in una folla di piccoli del secondo anno spingendoli di lato crebbe sabini lo seguirono vai avanti disse malfoi a pensi che lo aspettava con la mano tesa nella speranza che lui la prendesse voglio solo controllare una cosa pensi uscì ora harry e malfoi erano soli nello scompartimento i ragazzi sfilavano fuori dalla porta e scendevano sul binario buio malfoi abbassò le tende poi si chinò sul suo baule e lo riaprì harry sbirciò oltre il bordo della retina col cuore che batteva ancora più veloce che cos'era che malfoi aveva voluto nascondere a pensi stava per mostrare il misterioso oggetto rotto che era tanto importante riparare petrificus totalus senza preavviso malfoi aveva puntato la bacchetta contro harry che rimase paralizzato all'istante come al rallentatore si ribaltò oltre la reticella e cadde ai piedi di malfoi con un tonfo doloroso che scosse il pavimento il mantello dell'invisibilità impigliato sotto il corpo ora del tutto visibile le gambe ancora assurdamente raccolte in quella scomoda posizione rannicchiata non poteva muovere un muscolo riuscì solo ad alzare lo sguardo su malfoi che fece un gran sorriso lo sapevo esultò ho sentito il baule di goyle sbatterti contro e mi è sembrato di vedere qualcosa di bianco lampeggiare per aria dopo che sabini è tornato il suo sguardo indugiò sulle scarpe da tennis di harry sei stato tu a bloccare la porta quando sabini è tornato dentro immagino contemplò harry per un momento non hai sentito niente di importante potter ma visto che sei qui e gli calpestò il viso forte harry sentì il naso spezzarsi il sangue schizzò dappertutto questo da parte di mio padre ora vediamo malfoi sfilò il mantello da sotto il corpo immobilizzato di harry e glielo gettò addosso non credo che ti troveranno prima che il treno sia tornato a londra sussurrò ci vediamo potter o forse no e premurandosi di calpestargli le dita malfoi uscì dallo scompartimento il trionfo di piton harry non riusciva a muovere un muscolo rimase disteso sotto il mantello dell'invisibilità sentendosi scorrere il sangue caldo e bagnato sul volto ascoltando le voci e i passi nel corridoio il suo primo pensiero fu che qualcuno avrebbe certamente controllato gli scompartimenti prima che il treno ripartisse ma sopravvenne immediatamente la scoraggiante consapevolezza che se anche qualcuno avesse guardato nello scompartimento non l'avrebbe visto né udito la sua unica speranza era che qualcuno entrasse e inciampasse su di lui harry non aveva mai odiato tanto malfoi come in quel momento disteso lì come un'assurda tartaruga rivoltata sul dorso col sangue che gli gocciolava nauseante nella bocca aperta in che situazione stupida si era ficcato e adesso gli ultimi passi si allontanavano tutti marciavano lungo il binario oscuro là fuori sentiva il grattare dei bauli e rumoroso brusio delle chiacchiere ron e ermione avrebbero pensato che fosse sceso senza di loro ora che fossero arrivate a hogwarts e avessero preso posto nella sala grande percorso con lo sguardo il tavolo di grifondoro un po di volte e compreso alla fine che non c'era lui sarebbe già stato a metà strada verso londra cercò di fare un rumore anche un grugnito ma era impossibile poi si ricordò che alcuni maghi come silente sapevano fare incantesimi senza parlare così cercò di appellare la sua bacchetta ripetendo le parole accio bacchetta più e più volte nella mente ma non successe nulla riparve di sentire il fruscio degli alberi che circondavano il lago e il remoto tubare di un gufo ma nessun suono che indicasse una ricerca in corso e nemmeno si disprezzò un po per averlo sperato voci di panico che si chiedessero dove era finito harry potter la disperazione lo assalì immaginava il corteo di carrozze trascinate dai testral che saliva lentamente verso la scuola e le risate soffocate in quella di malfoi che raccontava ai compagni serpeverde il suo attacco a harry il treno sussultò facendo rotolare harry sul fianco ora fissava la polverosa parte inferiore dei sedili invece del soffitto il pavimento prese a vibrare mentre il motore rombava nuova vita log wars express era in partenza e nessuno sapeva che lui era ancora a bordo poi sentì il mantello scivolargli di dosso e una voce sopra di lui dire ciao harry ci fu un lampo di luce rossa e il corpo di harry si scongelò riuscì a trascinarsi in una più dignitosa posizione seduta a ripulire in fretta dal sangue il volto ammaccato e ad alzare la testa per vedere tonks che reggeva il mantello sbrighiamoci a uscire di qui disse lei mentre i finestrini del treno si oscuravano per il vapore e il convoglio si metteva in moto vieni saltiamo giù harry la seguì di corsa nel corridoio tonks aprì la porta e balzò sul marciapiede che pareva scivolare sotto di loro mentre il treno guadagnava velocità harry la imitò barcollò appena quando atterrò poi si raddrizzò in tempo per vedere la lucente locomotiva scarlatta accelerare affrontare la curva e sparire la fredda aria notturna era come un balsamo sul suo naso pulsante tonks lo osservò harry era furioso e imbarazzato per essere stato scoperto in una posizione così ridicola senza parlare lei gli restituì il mantello dell'invisibilità chi è stato draco malfoi rispose harry amareggiato grazie per beh non c'è problema replicò tonks senza sorridere da quanto harry riusciva a vedere al buio aveva gli stessi capelli color topo e l'aria depressa di quando si erano incontrati alla tana posso ripararti il naso se stai fermo harry non apprezzò granché la proposta aveva in mente di andare da madame pomfrey l'infermiera nella quale riponeva un po più di fiducia riguardo agli incantesimi di guarigione ma gli sembrava sgarbato dirlo così rimase immobile e chiuse gli occhi e pismendo disse tonks harry sentì il naso molto caldo poi molto freddo alzò una mano e se lo tastò con cautela sembrava aggiustato grazie mille rimettiti quel mantello così possiamo andare a scuola a piedi aggiunse tonks sempre senza un sorriso mentre harry si riavvolgeva nel mantello lei agitò la bacchetta ne scaturì un'immensa argente a creatura quattro zampe che corse via nell'oscurità era un patronus chiese harry che aveva visto silente mandare dei messaggi a quel modo sì sto avvisando il castello che ti ho trovato o si preoccuperanno andiamo meglio non perdere tempo si avviarono lungo il viale che portava alla scuola come hai fatto a trovarmi mi sono accorta che non eri sceso dal treno e sapevo che avevi il mantello ho pensato che ti stessi nascondendo per qualche ragione quando ho visto le tende abbassate in quello scompartimento ho deciso di controllare ma che cosa ci fai qui comunque domandò ancora harry sono distaccata a hogsmeade adesso per dare più protezione alla scuola rispose tonks ci sei solo tu distanza qui o no anche proudfoot savage e dolish dolish l'auror che silente ha attaccato l'anno scorso se lui si trascinarono su per il viale buio e deserto seguendo le tracce fresche lasciate dalle carrozze harry guardò tonks in tralice da sotto il mantello l'anno prima era curiosa fin troppo in certi momenti pronta alle risate e con la battuta facile ora sembrava più vecchia e molto più seria e determinata era a causa degli eventi al ministero un po' imbarazzato pensò che ermione gli avrebbe suggerito di dirle qualcosa di consolatorio su sirius che non era stata affatto colpa sua ma non ci riuscì non l'accusava minimamente della morte di sirius non era colpa sua più che di chiunque altro e molto meno che di harry ma non gli andava di parlare di sirius se poteva farne a meno e così continuarono a marciare in silenzio nella notte fredda col lungo mantello di tonks che frusciava sul terreno poiché era sempre salito al castello in carrozza harry non aveva mai capito bene quanto fosse lontana hogwarts dalla stazione di hogsmeade con enorme sollievo vide infine le alte colonne ai due lati dei cancelli ciascuna col suo cinghiale alato in cima aveva freddo fame e una gran voglia di lasciarsi alle spalle questa nuova cupa tonks ma quando protese una mano per aprire i cancelli scoprì che erano chiusi da catene alomora esclamò fiducioso puntando la bacchetta sul lucchetto ma non successe nulla con questi non funziona lo informò tonks silente li ha stregati personalmente harry si guardò intorno potrei scalare un muro suggerì no che non potresti rispose lei in tono piatto ci sono fatture anti intrusione dappertutto la sicurezza è stata aumentata un sacco quest'estate d'accordo ribatte harry che cominciava a essere seccato dalla sua mancanza di collaborazione allora dovrò dormire qui fuori e aspettare domattina qualcuno sta scendendo a prenderti disse tonks guarda una lanterna dondolava lontano ai piedi del castello harry fu così lieto di vederla che sentì di poter sopportare perfino i rimproveri asmatici di filch e le sue tirate su come la puntualità sarebbe migliorata con la regolare applicazione di schiacciapollici fu solo quando la brillante luce gialla fu a tre metri da loro e harry si fu tolto il mantello dell'invisibilità che riconobbe con un fiotto di puro odio il naso adunco e i lunghi unti capelli neri di severus piton bene 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 soggignò estrasse la bacchetta e diede un solo colpo al lucchetto le catene strisciarono via e i cancelli si aprirono cicolando carino da parte tua farti vedere potter anche se evidentemente a tuo giudizio indossare la divisa scolastica è l'esivo della tua immagine non ho potuto cambiarmi non avevo il cominciò harry ma piton lo interruppe non c'è bisogno che aspetti ninfadora potter è decisamente se al sicuro nelle mie mani il mio messaggio era per agrid rispose tonks accigliata agrid era in ritardo per il banchetto proprio come potter quindi lo ricevuto io e tra parentesi aggiunse piton facendosi da parte per lasciare entrare harry ero curioso di vedere il tuo nuovo patronus le chiuse il cancello in faccia con un urto sonoro e picchiettò di nuovo le catene con la bacchetta così che strisciarono al loro posto tintinnando preferivo quello vecchio commentò piton con evidente malignità nella voce quello nuovo sembra debole alla luce dondolante della lanterna harry corse di sfuggita sul viso di tonks un'espressione insieme scioccata e furente poi fu di nuovo indiottita dall'oscurità buonanotte le gridò voltandosi indietro mentre saliva con piton verso il castello grazie di tutto ci vediamo harry piton non parlò per qualche minuto harry sentiva l'odio emanare a ondate dal proprio corpo ondate così potenti che sembrava impossibile che piton non se ne sentisse avvolto non solo harry lo detestava dal loro primo incontro ma per di più con il suo atteggiamento verso sirius piton si era posto per sempre e irrevocabilmente al di là di ogni possibile perdono harry aveva avuto tutto il tempo di riflettere durante l'estate qualunque cosa dicesse silente era convinto che le insinuazioni di piton sul fatto che sirius restasse nascosto mentre il resto dell'ordine della fenice combatteva voldemort probabilmente erano state decisive nello spingere sirius a correre al ministero la notte della sua morte harry si aggrappava questa idea perché gli dava modo di incolpare piton cosa che lo consolava e poi perché sapeva che se qualcuno al mondo non era per nulla dispiaciuto per la morte di sirius questi era l'uomo che ora camminava davanti a lui nel buio 50 punti in meno per grifondoro grazie al tuo ritardo direi cominciò piton e fammi pensare altri 20 per il tuo abbigliamento babbano sai non credo che nessuna casa abbia mai avuto un punteggio tanto negativo in così poco tempo non siamo ancora arrivati al dolce forse hai stabilito un record potter la furia e l'odio che ribollivano dentro harry diventarono incandescenti ma avrebbe preferito restare paralizzato per tutto il viaggio di ritorno a londra che dire a piton come mai era in ritardo avevi in mente un ingresso trionfale suppongo riprese piton e senza auto volanti a disposizione hai deciso che il rompere nella sala grande a metà banchetto sarebbe stato un bel effetto teatrale harry rimase ancora in silenzio anche se sentiva il petto scoppiarli sapeva che piton era venuto a prenderlo per questo per i pochi minuti in cui avrebbe potuto torturarlo e tormentarlo senza che nessun altro lo sentisse finalmente raggiunsero la scalinata del castello e mentre i grandi battenti di quercia si spalancavano sull'enorme sala d'ingresso la stricata un'esplosione di chiacchiere risate piatti e bicchieri li accolse attraverso la porta della sala grande harry si chiese se doveva rimettersi il mantello dell'invisibilità guadagnando così il proprio posto alla lunga tavola di grifondoro che purtroppo era la più lontana dalla sala d'ingresso senza farsi notare però come se gli avesse letto nel pensiero piton disse niente mantello entrerai in modo che tutti ti vedano che poi era quello che volevi no harry si voltò e marciò dritto oltre le porte aperte qualunque cosa pur di allontanarsi da piton la sala grande con i suoi quattro lunghi tavoli delle case e il tavolo degli insegnanti sul fondo era decorata come al solito da candele galleggianti che facevano scintillare i piatti harry tuttavia vedeva solo un brillante alone confuso camminava così veloce che superò la tavola di tassofrasso prima che i ragazzi potessero cominciare a fissarlo e quando si alzarono in piedi per vederlo bene aveva già individuato ron e ermione era sfrecciato lungo le panche verso di loro e si era insinuato a forza tra i due dove sei santo cielo che cosa ti sei fatto alla faccia chiese ron con gli occhi sgranati come tutti gli altri nelle vicinanze perché che cosa che non va chiese erri afferrò un cucchiaio e guardò il proprio riflesso deformato sei coperto di sangue esclamò ermione vieni qui levò la bacchetta disse tergeo e aspirò il sangue secco grazie fece erri toccandosi il viso pulito com'è il mio naso normale rispose ermione tesa perché non dovrebbe erri che cosa è successo eravamo spaventatissimi ve lo spiego dopo replicò lui asciutto sapeva che ginni neville din e simus erano lì in ascolto perfino nick quasi senza testa il fantasma di grifondoro era arrivato fluttuando lungo la per origliare ma disse ermione non ora ermione scandi erri in un eloquente tono cupo sperava che tutti pensassero che fosse stato coinvolto in qualcosa di eroico possibilmente con un paio di mangiamorte e un dissennatore naturalmente malfoy avrebbe raccontato la storia più diffusamente che poteva ma c'era sempre una probabilità che non raggiungesse troppe orecchie di grifondoro si protese oltre ron per prendere un paio di cosce di pollo e una manciata di patatine ma prima che riuscisse ad afferrarle scomparvero sostituite dai dolci ti sei perso lo smistamento comunque disse ermione mentre ron si lanciava su una grossa torta al cioccolato il cappello ha detto qualcosa di interessante chiese erri prendendo una fetta di torta alla melassa il solito direi ci ha consigliato ristare uniti per far fronte ai nemici silente ha nominato a voldemort non ancora ma tiene sempre il vero discorso per dopo cena no non può mancare molto piton ha detto che agrid era in ritardo hai visto piton come mai chiese ron tra avidi bocconi di dolce l'ho incontrato per caso rispose erri evasivo agrid è arrivato solo con qualche minuto di ritardo disse ermione guarda ti sta salutando erri erri guardò verso la tavola degli insegnanti e fece un gran sorriso a agrid che in effetti stava agitando la mano agrid non riusciva mai a comportarsi con la dignità della professoressa mcgonagall direttore della casa di grifondoro la cui testa spuntava tra il suo gomito e la sua spalla visto che erano seduti fianco a fianco e che osservava con disapprovazione quel saluto entusiastico erri fu sorpreso di vedere l'insegnante di divinazione la professoressa trelonei seduta all'altro lato di agrid abbandonava di rado la sua stanza nella torre e lui non l'aveva mai vista al banchetto d'inizio anno era stravagante come al solito tutta uno scintillio di perline e scialli drappeggiati gli occhi enormemente dilatati dagli occhiali avendola sempre considerata un po un impostora erri era rimasto scioccato alla fine dell'anno precedente scoprendo che era lei l'autrice della profezia che aveva indotto voldemort a uccidere i suoi genitori e ad aggredire lui saperlo l'aveva reso ancora meno desideroso di ritrovarsi in sua compagnia ma grazie al cielo quell'anno non avrebbe più seguito divinazione gli enormi occhi a fanale della professoressa trelonei ruotarono su erri che distolse in fretta lo sguardo per puntarlo sulla tavola di serpeverde draco malfoi stava mimando la rottura di un naso in mezzo a risate roche e applausi erri abbassò lo sguardo sulla torta alla melassa e si sentì di nuovo ribollire che cosa non avrebbe dato per sfidare malfoi faccia a faccia allora che cosa voleva il professor luma corno chiese ermione sapere che cos'è successo veramente al ministero rispose erri come tutti gli altri sbuffò ermione la gente ci ha fatto un interrogatorio sul treno e ron già confermò ron volevano tutti sapere se sei davvero il prescelto si è parlato molto di questo argomento anche tra i fantasmi lo interruppe nick quasi senza testa reclinando verso erri il capo a malapena unito al corpo tanto che oscillò pericolosamente sulla gorgera io sono considerato un'autorità su potter è ben noto che siamo in rapporti amichevoli ho assicurato alla comunità degli spiriti che non ti tormenterò per avere informazioni tuttavia harry potter sa che può confidarsi con me con la massima tranquillità ho detto loro morirei piuttosto che tradire la sua fiducia non è una gran promessa visto che lei è già morto osservò ron ancora una volta dimostri la sensibilità di un'ascia sbussata ribatte nick quasi senza testa in tono offeso si librò a mezz'aria e svolazzò via verso l'estremità della tavola di grifondoro proprio mentre silente si alzava dal tavolo degli insegnanti le chiacchiere e le risate nella sala si zittirono quasi all'istante buonissima serata a voi esordì il preside con un gran sorriso le braccia aperte come a comprendere tutta quanta la sala che cosa si è fatto alla mano chiese ermione senza fiato non fu la sola a notare la mano destra di silente nera e come priva di vita sussurri attraversarono la sala silente interpretandoli nel giusto modo si limitò a sorridere e fece scivolare la manica viola e oro sulla ferita niente di cui preoccuparsi disse in tono leggero ora ai nostri nuovi studenti benvenuti ai vecchi bentornati un altro anno di istruzione magica vi attende era già così quando l'ho visto quest'estate mormorò erri a ermione pensavo che ormai l'avesse curata però o che l'avrebbe fatto madame pomfri sembra morta commentò ermione con espressione nauseata ma ci sono ferite che non si possono guarire vecchie maledizioni e ci sono veleni senza antidoto e il signor filch il nostro custode mi ha chiesto di dirvi che vige il veto generale sull'utilizzo di qualunque scherzo acquistato nel negozio tirivispi weasley coloro che desiderano entrare a far parte delle squadre di quidditch devono dare i loro nomi ai direttori delle case come al solito stiamo cercando anche nuovi cronisti che dovranno fare lo stesso siamo lieti di dare il benvenuto a un nuovo membro del corpo insegnante quest'anno il professor luma corno e luma corno si alzò la testa calva scintillante alla luce delle candele il grosso ventre foderato dal panciotto che gettava un'ombra sulla tavola sotto di lui è un mio ex collega che ha accettato di riprendere il suo vecchio ruolo di insegnante di pozioni 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 la parola e che giò per tutta la sala mentre i ragazzi si chiedevano se avevano sentito bene pozioni fecero in coro ron e ermione voltandosi per fissare erri ma avevi detto il professor piton nel frattempo continuò silente alzando la voce per superare i borbottii ricoprirà il ruolo di insegnante di difesa contro le arti oscure no esclamò erri così forte che molte teste si voltarono dalla sua parte non ci badò fissava il tavolo degli insegnanti esasperato come era possibile che a piton fosse stata assegnata la cattedra di difesa contro le arti oscure dopo tutto quel tempo non si sapeva da anni che silente non si fidava di lui per quel ruolo ma erri non avevi detto che luma corno avrebbe insegnato difesa contro le arti oscure disse ermione era quello che credevo rispose erri frugando nella memoria per ricordare quando silente gliene aveva parlato ma ora che ci pensava non riuscì a ricordare che silente gli avesse mai detto quale materia avrebbe insegnato luma corno piton seduto alla destra di silente non si alzò quando fu citato ma levò solo una mano in pigro ringraziamento per l'applauso della tavola di serpeverde erri però fu certo di aver riconosciuto il trionfo sul volto tanto detestato beh una cosa buona c'è disse con furia piton se ne andrà alla fine dell'anno come sarebbe gli chiese ron quel lavoro è stregato nessuno dura più di un anno quirl è addirittura morto personalmente terrò le dita incrociate sperando che anche piton erri lo riprese ermione scioccata e severa potrebbe tornare a insegnare pozioni alla fine dell'anno suggerì ron ragionevole quel lumacorno potrebbe non volersi fermare a lungo mudi non l'ha fatto silente si schiarì la gola erri ron e ermione non erano i soli a parlottare tutta quanta la sala era esplosa in un ronzio di commenti alla notizia che finalmente piton aveva realizzato il suo più grande desiderio apparentemente ignaro della natura sensazionale dell'annuncio che aveva appena dato silente non disse altro sulle nomine degli insegnanti ma aspettò qualche secondo per ottenere assoluto silenzio prima di riprendere ora come tutti i presenti sanno lord voldemort e i suoi seguaci sono ancora una volta in libertà e riprendono forza il silenzio parve tendersi e allungarsi alle parole di silente erri osservò malfoi non guardava silente ma faceva galleggiare la sua forchetta a mezz'aria con la bacchetta come se trovasse le parole del preside indegne della sua attenzione non potrò mai sottolineare abbastanza quanto siano pericolose le attuali circostanze e quanta attenzione ciascuno di noi a hogwarts debba prestare per garantire la nostra sicurezza le difese magiche del castello sono state rafforzate durante l'estate siamo protetti con mezzi nuovi e potenti ma dobbiamo mantenere alto il livello di guardia contro le eventuali negligenze di studenti o di personale della scuola vi raccomando dunque di attenervi a tutte le restrizioni che i vostri insegnanti potrebbero imporvi per quanto fastidiose vi appaiano in particolare il divieto di trovarvi fuori dai vostri letti di notte vi supplico se doveste notare qualcosa di strano o sospetto dentro o fuori il castello di riferirlo subito a un insegnante confido che vi comporterete sempre con il massimo rispetto per la sicurezza vostra e di tutti gli altri gli occhi azzurri di silente corsero sopra gli studenti prima che sorridesse di nuovo ma ora i vostri letti vi attendono caldi e comodi e so che il vostro più grande desiderio è di essere ben riposati per le lezioni di domani vi auguro dunque la buonanotte hasta la vista con il solito grattare assordante le panche furono ritirate e centinaia di studenti presero a scorrere fuori dalla sala grande verso i loro dormitori henry che non aveva alcuna fretta di sfilare davanti a una folla occhieggiante né di avvicinarsi a malfoi tanto da consentirgli di raccontare di nuovo la storia del naso calpestato rimase indietro fingendo di riallacciarsi la scarpa e lasciando che gran parte dei grifondoro lo superasse ermione era scattata in avanti per adempiere al suo di prefetto e guidare i ragazzini del primo anno ma ron rimase con erri che cosa è successo veramente al tuo naso gli chiese quando si ritrovarono in coda al riparo da orecchie indiscrete erri glielo raccontò fu un chiaro segno della forza della loro amicizia che ron non ridesse ho visto malfoi mimare qualcosa che c'entrava con un naso disse cupo sì beh non importa replicò ernie amareggiato senti un po che cosa ha detto prima di scoprire che c'ero anch'io erri si aspettava che ron restasse sballordito dalle parole di malfoi con quella che giudicò pura ostinazione tuttavia ron rimase impassibile ma dai erri faceva solo un po di scena per la parkinson che tipo di missione gli può avere affidato tu sai chi come fai a sapere che voldemort non ha bisogno di qualcuno a hogwarts non sarebbe il primo preferisco che la smetti di dire quel nome erri intervenne una voce alle loro spalle erri si guardò indietro e vide agrid che scuoteva il capo silente lo usa ribattette stardo sicuro ma lui è silente no fece agrid misterioso come mai eri in ritardo erri sono stato in pensiero sono rimasto indietro sul treno rispose erri e tu perché eri in ritardo ero con gropp disse agrid tutto felice mi è scappato il tempo a una casa nuova su sulle montagne adesso silente ce l'ha preparata una bella caverna grande è molto più contento di quando stava nella foresta ci stavamo facendo una bella chiacchierata sul serio chiese erri facendo attenzione a non incrociare lo sguardo di ron l'ultima volta che aveva incontrato il fratellastro di agrid un feroce gigante con uno spiccato talento per sradicare gli alberi il suo vocabolario comprendeva cinque parole e due non riusciva a pronunciarle bene oh sì è proprio migliorato disse agrid fiero roba da lasciarvi secchi sto pensando di tirarlo su come mio assistente ron sbuffò forte ma riuscì a farlo passare per un violento starnuto ormai erano davanti all'enorme portone di quercia comunque vi vedo domani prima lezione subito dopo pranzo se venite presto potrete salutare fiero voglio dire alisecco alzò il braccio in un saluto affettuoso e uscì nell'oscurità erri e ron si guardarono erri sapeva che ron sentiva il suo stesso groppo nello stomaco tu fai cura delle creature magiche ron scosse il capo e nemmeno tu vero anche erri scosse il capo e ermione aggiunse ron neanche erri scosse di nuovo la testa non voleva pensare a cosa avrebbe detto agrid scoprendo che i suoi tre studenti preferiti avevano detto addio alla sua materia il principe mezzo sangue la mattina dopo erri e ron incontrarono ermione nella sala comune prima di colazione sperando di trovare un sostegno alla propria teoria erri raccontò in tutta fretta ermione quello che aveva sentito dire a malfoi sull'hogwarts express ma è chiaro che si faceva bello davanti alla parkinson no intervenne ron rapido prima che ermione potesse dire qualcosa beh fece lei esitante non so sarebbe da malfoi fingersi più importante di quello che è ma è una bugia bella grossa appunto ribatte erri ma non poteva insistere perché troppi ragazzi cercavano di ascoltare la sua conversazione lo fissavano e sussurravano di nascosto coprendosi la bocca con la mano è maleducato indicare col dito sbottò ron rivolto a un bambinetto particolarmente piccolo del primo anno mentre si univano alla folla per varcare il buco nel ritratto il bambino che stava borbottando qualcosa su harry potter al suo amico diventò subito scarlatto e si buttò dall'altra parte del buco preoccupato ron ridacchiò adoro essere al sesto anno e avremo anche delle ore buche ore intere in cui potremo stare qui a rilassarci quelle ore ci serviranno per studiare ron lo rimbeccò ermione mentre si avviavano lungo il corridoio sì ma non oggi ribatte ron oggi sarà una pacchia fermo esclamò ermione bloccando col braccio un ragazzino del quarto anno che cercava di superarla con un disco verde acido stretto in mano i frisbee zannuti sono proibiti dammelo gli intimo il ragazzino accigliato consegnò il frisbee ringhiante passò sotto il braccio di ermione e raggiunse i suoi amici ron aspettò che sparisse poi sfilò il frisbee dalla presa di ermione ottimo ne ho sempre desiderato uno le proteste di ermione furono soffocate da una risatina acuta lavanda brown evidentemente aveva trovato la battuta di ron molto spiritosa li superò continuando a ridere e si voltò a guardare ron che sembrava piuttosto compiaciuto il soffitto della sala grande era di un azzurro sereno macchiato da fragili nubi a ciuffi proprio come i rettangoli di cielo visibili oltre le alte finestre a bifora mentre si ingozzavano di porridge uova e pancetta henry e ron riferirono a ermione dell'imbarazzante conversazione con agrid la sera prima ma non può credere che continuiamo a frequentare cura delle creature magiche si rammaricò lei voglio dire quando mai uno di noi ha manifestato insomma entusiasmo beh in fondo si affermò ron mandando giù un nuovo fritto intero siamo stati quelli che si sono impegnati di più alle sue lezioni perché ci piace agrid ma lui è convinto che ci piacesse la sua stupida materia credi che qualcuno vorrà prendere un mago neri nermione risposero non ce n'era bisogno sapevano benissimo che nessuno del loro anno voleva continuare a seguire cura delle creature magiche evitarono lo sguardo di agrid e risposero con scarso entusiasmo al suo saluto allegro quando si alzò dalla tavola degli insegnanti dieci minuti più tardi dopo aver mangiato rimasero ai loro posti aspettando che la professoressa mcgonagall li raggiungesse la distribuzione degli orari fu più complicata del solito perché la mcgonagall dovette prima accertarsi che tutti avessero ottenuto i voti di gufo necessari per continuare nei mago che avevano scelto ermione ricevette subito il via libera per continuare con incantesimi difesa contro le arti oscure trasfigurazione erbologia aritmanzia antiche rune e pozioni e filò via senza indugi alla lezione di antiche rune della prima ora neville impiegò un po più di tempo a sistemare le cose la sua faccia tonda era preoccupata mentre la professoressa mcgonagall studiava la sua domanda e poi consultava i risultati del gufo erbologia va bene disse lei la professoressa sprout sarà felice di rivederti con un gufo eccezionale e sei ammesso a difesa contro le arti oscure con il tuo oltre ogni previsione ma il problema è trasfigurazione mi dispiace longbottom ma un accettabile non basta per continuare fino al livello mago non riuscireste a stare al passo con il programma neville abbassò la testa la professoressa mcgonagall lo scrutò attraverso gli occhiali quadrati perché vuoi continuare con trasfigurazione comunque non ho mai avuto l'impressione che ti piacesse particolarmente neville afflitto borbottò qualcosa tipo è mia nonna che vuole bene sbuffò la professoressa mcgonagall è venuto il momento che tua nonna impari a essere fiera del nipote che ha e non di quello che si aspetta soprattutto dopo quanto è successo al ministero neville arrossì e sbatté le palpebre confuso la professoressa mcgonagall non gli aveva mai fatto un complimento mi dispiace longbottom ma non posso ammetterti alle mie lezioni di mago vedo però che hai preso oltre ogni previsione in incantesimi perché non provi a prendere un mago in incantesimi mia nonna pensa che incantesimi sia una scelta facile borbottò neville tu scegli incantesimi disse la professoressa mcgonagall e io manderò due righe ad augusta per ricordarle che solo perché lei è stata bocciata nel suo gufo in incantesimi ciò non vuol dire che la materia sia necessariamente inutile con un breve sorriso per l'espressione di lieta incredulità di neville la professoressa mcgonagall colpì con la punta della bacchetta un orario in bianco e lo consegnò a neville adeguatamente compilato poi si rivolse a parvati patil che per prima cosa chiese se firenze il bel centauro avrebbe insegnato ancora divinazione lui e la professoressa trelone si dividono i corsi quest'anno rispose la professoressa mcgonagall con una punta di disapprovazione sapevano tutti che lei disprezzava la materia gli studenti del sesto anno saranno con lei parvati partì alla volta di divinazione cinque minuti dopo un po abbattuta allora potter potter proseguì la mcgonagall rivolta a harry consultando i propri appunti incantesimi difesa contro le arti oscure erbologia trasfigurazione tutto bene devo dire che mi ha fatto piacere il tuo voto in trasfigurazione potter molto piacere ora perché non hai chiesto di continuare con pozioni pensavo che volessi diventare un auror lo volevo ma lei mi ha detto che dovevo prendere eccezionale nel gufo professoressa ed era così quando il professor pitoni insegnava la materia ma il professor lumacorno è assolutamente felice di accettare allievi da mago che abbiano ottenuto oltre ogni previsione al gufo vuoi continuare con pozioni sì rispose erri ma non ho comprato i libri né gli ingredienti né niente sono certa che il professor lumacorno potrà prestarteli lo tranquillizzò lei molto bene potter ecco il tuo orario o tra l'altro venti giovani di belle speranze si sono già iscritti alle selezioni per la squadra di quiddici di grifondoro ti passerò la lista a tempo debito e potrai fissare le prove a tuo piacimento qualche minuto dopo a ron fu dato il via libera per le stesse materie di erri e i due si alzarono da tavola insieme guarda fece ron soddisfatto controllando l'orario adesso abbiamo un'ora buca e una dopo l'intervallo e una dopo pranzo ottimo tornarono nella sala comune c'erano solo cinque o sei allievi del settimo anno tra cui katie bell l'unica giocatrice rimasta della squadra di quiddici a cui erri si era unito il primo anno lo immaginavo che te l'avrebbero dato bravo gridò indicando il distintivo da capitano sul petto di erri fammi sapere quando fai le selezioni non dire sciocchezze rispose lui tu non hai bisogno di prove sono cinque anni che ti vedo giocare non fare così lo ammoni lei per quel che ne sai là fuori ci può essere qualcuno molto più bravo di me si sono rovinate delle ottime squadre perché i capitani continuavano a far giocare la solita gente o portavano in squadra i loro amici ron parve un po' a disagio e cominciò a giocare con il frisbee zannuto che ermione aveva sequestrato al ragazzo del quarto anno quello sfrecciò attraverso la sala comune ringhiando e tentando di staccare frammenti di tappezzeria grattastinchi lo seguì con i suoi occhi gialli e soffiò quando il frisbee si avvicinò troppo un'ora dopo lasciarono a malincuore la sala comune inondata di sole per l'aula di difesa contro le arti oscure quattro piani più sotto ermione era già in coda con una bracciata di libri pesanti e l'aria distrutta abbiamo una quantità di compiti di rune disse preoccupata quando harry e ron si unirono a lei 50 centimetri di tema due traduzioni e devo leggere questi per mercoledì mi dispiace per te sbadigliò ron aspetta ribatte lei rancorosa scommetto che piton ci caricherà mentre parlava si aprì la porta dell'aula e piton uscì nel corridoio il volto giallognolo incorniciato come sempre da due tendine di unti capelli neri sulla coda calò un istantaneo silenzio dentro disse lui harry si guardò intorno piton aveva già imposto la propria personalità alla stanza era più buia del solito con le tende tirate e illuminata da candele nuovi quadri adornavano le pareti e molti mostravano persone che soffrivano esibivano ferite orrende o parti del corpo stranamente deformate nessuno parlò mentre prendevano posto guardando le cruente immagini dense d'ombra non vi ho chiesto di prendere i libri esordì piton che chiuse la porta e andò a fronteggiare la classe da dietro la scrivania ermione ricacciò in fretta la sua copia di affrontare l'informe nella borsa che ficò sotto la sedia voglio parlare con voi ed esigo la vostra massima attenzione i suoi occhi neri frugarono le loro facce alzate indugiando per una frazione di secondo in più su harry finora avete avuto cinque insegnanti di questa materia mi sembra ti sembra come se non fossi stato lì a guardarli tutti andare e venire piton sperando di essere il prossimo pensò harry sarcastico naturalmente questi insegnanti avranno tutti avuto i loro metodi e le loro priorità data questa confusione sono sorpreso che tanti di voi abbiano rimediato un gufo in questa materia sarò ancora più sorpreso se tutti voi riuscirete a tenere il passo con il lavoro per il mago che sarà molto più complicato piton prese a fare il giro della stanza parlando a voce molto più bassa i ragazzi tesero il collo per riuscire a vederlo le arti oscure continuò sono molte varie mutevoli ed eterne combatterle come combattere un mostro con molte teste il quale ogni volta che una testa viene mozzata ne fa ricrescere una ancora più feroce e astuta voi combatterete ciò che è indeterminato cangiante indistruttibile harry fissò piton una cosa era rispettare le arti oscure come un nemico pericoloso un'altra parlarne con un'amorevole carezza nella voce come stava facendo lui o no le vostre difese piton alzò un po la voce devono dunque essere flessibili e fantasiose quanto le arti che cercate di neutralizzare queste immagini e ne indicò alcune passando danno un'onesta rappresentazione di ciò che accade a coloro che subiscono per esempio la maledizione cruciatus e agitò una mano verso una strega che strillava di dolore provano il bacio del dissennatore un mago con lo sguardo vacuo afflosciato e rannicchiato contro una parete o provocano l'aggressione dell'inferius una massa sanguinolenta a terra allora è stato avvistato un inferius chiese parvati patil con voce acutissima è vero che li usa il signore oscuro ha usato degli inferi in passato rispose piton quindi farete bene a pensare che possa usarli ancora dunque si avviò di nuovo lungo l'altro lato dell'aula verso la cattedra e di nuovo i ragazzi lo guardarono camminare con la veste scura che ondeggiava dietro di lui voi siete credo principianti assoluti nell'uso degli incantesimi non verbali qual è il vantaggio di un incantesimo non verbale la mano di ermione scattò in aria piton indugiò a guardare tutti gli altri assicurandosi di non aver scelta prima di dire in tono asciutto molto bene signorina granger l'avversario non ha sentore di quale tipo di magia si sta per praticare rispose ermione il che concede un brevissimo vantaggio risposta copiata quasi parola per parola dal manuale degli incantesimi volume sesto commentò piton in tono sdegnoso e dal suo angolo malfoi soghignò ma essenzialmente corretta sì coloro che progrediscono nell'uso della magia senza strillare formule magiche guadagnano l'elemento sorpresa non tutti i maghi possono naturalmente è una questione di concentrazione e potere mentale di cui alcuni e suo sguardo indugiò ancora una volta perfidamente su harry mancano piton stava pensando alle disastrose lezioni di occlumanzia dell'anno prima harry rifiutò di abbassare lo sguardo ma scrutò torvo piton finché fu questi a dover distogliere il proprio ora vi dividerete in coppie riprese piton uno dei due cercherà di stregare l'altro senza parlare l'altro cercherà di respingere la fattura in silenzio avanti anche se piton non lo sapeva l'anno prima harry aveva insegnato ad almeno metà della classe a tutti quelli che erano stati membri dell'ess a eseguire un incantesimo scudo nessuno di loro tuttavia l'aveva mai fatto senza parlare ne seguì una certa quantità di scorrettezze molti ragazzi si limitarono a sussurrare la formula invece di recitarla ad alta voce come al solito entro dieci minuti ermione riuscì a respingere la fattura gambe molli borbottata da neville senza pronunciare una sola parola impresa che le avrebbe meritato venti punti per grifondoro da parte di qualunque insegnante normale pensò harry amareggiato ma che piton ignorò passeggiava tra loro mentre si esercitavano simile a un pipistrello troppo cresciuto e indugiò a osservare harry e ron che si arrabattavano a eseguire il compito ron che avrebbe dovuto affatturare harry era viola le labbra compresse per trattenersi dalla tentazione di mormorare l'incantesimo harry aveva la bacchetta levata e aspettava sulle spine di respingere una fattura il cui arrivo pareva quanto mai improbabile patetico weasley commentò piton dopo un po ecco ti faccio vedere io puntò la bacchetta contro harry così veloce che lui reagì distinto e dimenticati gli incantesimi non verbali urlò proteggo il suo incantesimo scudo fu così potente che piton perse l'equilibrio e urtò contro un banco tutta la classe si voltò a guardare l'insegnante che si raddrizzava torvo ricordi che stiamo praticando gli incantesimi non verbali potter sì rispose harry rigido sì signore non c'è bisogno di chiamarmi signore professore le parole gli erano sfuggite prima che se ne rendesse conto parecchi ragazzi trattennero il respiro ermione compresa alle spalle di piton tuttavia ron din e simus sorridevano ammirati in punizione sabato sera nel mio ufficio disse piton non accetto l'impudenza da nessuno potter nemmeno dal prescelto geniale harry ridacchiò ron un po dopo quando furono al sicuro diretti verso la sala comune per l'intervallo non avresti dovuto lo rimbrottò invece ermione guardando ron accigliata che cosa ti è venuto in mente ha cercato di stregarmi nel caso che non te ne sia accorta esclamò harry irritato ne ho avuto abbastanza durante quelle lezioni di occlumanzia perché non usa un'altra cavia una volta tanto e a che gioco gioca silente a lasciargli insegnare difesa ma l'avete sentito quando parlava delle arti oscure le adora tutta quella roba sull'indeterminato indistruttibile beh rispose ermione io ho pensato che assomigliava un po a te a me sì quando ci hai raccontato come stato affrontare voldemort hai detto che non era solo imparare a memoria un mucchio di formule hai detto che eri solo tu con il tuo cervello e il fegato beh non è lo stesso che ha detto piton che in fondo si tratta solo di essere coraggiosi e mentalmente pronti harry fu talmente basito dal fatto che lei ricordasse a memoria le sue parole come quelle del manuale degli incantesimi che non ribatté harry hey harry harry si voltò jack sloper uno dei battitori di grifondoro dell'anno prima correva verso di lui con un rotolo di pergamena per te ansimo senti ho saputo che sei il nuovo capitano quando è che fai le selezioni non so ancora rispose harry pensando che sloper avrebbe dovuto essere molto fortunato per tornare in squadra te lo farò sapere oh d'accordo speravo che fosse questo fine settimana ma harry non lo ascoltò aveva appena riconosciuto la sottile grafia obliqua lasciando sloper a metà frase corse via con ron e ermione srotolando la pergamena caro harry vorrei cominciare le nostre lezioni private questo sabato ti prego di venire nel mio ufficio alle 8 di sera spero che ti stia godendo il primo giorno di scuola un caro saluto albus silente ps mi piacciono i pallini acidi chi piacciono i pallini acidi ripete ron perplesso dopo aver letto il messaggio da sopra la spalla di harry è la parola d'ordine per oltrepassare il gargoyle fuori dal suo studio rispose harry a bassa voce a peaton non farà piacere non potrò stare in punizione da lui lui ron e ermione passarono tutto l'intervallo all'ambicarsi su cosa avrebbe insegnato silente a harry ron pensava che molto probabilmente sarebbero stati malefici e fatture spettacolari cose che i mangia morte non potevano conoscere ermione ribatte che erano illegali e riteneva assai più probabile che silente volesse insegnare a harry la magia difensiva avanzata dopo l'intervallo andò ad aritmanzia mentre harry e ron tornavano nella sala comune dove attaccarano di malavoglia i compiti di piton i quali si rivelarono così complicati che non avevano ancora finito quando ermione li raggiunse per l'ora buca dopo pranzo anche se lei accelerò di parecchio il processo avevano appena concluso quando suonò la campana per la doppia ora pomeridiana di pozioni e i tre intrapresero la familiare discesa verso la segreta che tanto a lungo era stata di piton quando arrivarono nel corridoio videro che a continuare la materia fino al livello mago erano solo una decina di ragazzi crebbe goyle evidentemente non erano riusciti a ottenere il voto richiesto al gufo ma quattro serpe verde ce l'avevano fatta compreso malfoi c'erano poi quattro corvo nero e un tassofrasso ernie mcmillen che a harry era simpatico nonostante i suoi modi pomposi harry lo accolse ernie in tono solenne tendendogli la mano non sono riuscito a parlarti stamattina difesa contro le arti oscure una buona lezione ho pensato ma gli incantesimi scudo sono roba vecchia naturalmente per noi compari dell'ess e voi come state ron ermione prima che potessero rispondere qualcosa più di bene la porta della segreta si aprì e il pancione di lumacorno sbucò fuori dall'aula il professore li guardò entrare uno a uno i vasti baffoni da tricheco curvi sopra la bocca sorridente e salutò ernie sabini con particolare entusiasmo la segreta era cosa alquanto insolita già piena di fumi e strani odori ron e ermione annusarono interessati passando accanto ai grandi calderoni ribollenti i quattro serpe verde si raggrupparono attorno a un tavolo come i quattro corvo nero così ernie ron ermione divisero il tavolo con ernie scelsero quello più vicino a un calderone dorato che esalava uno degli aromi più seducenti che ernie avesse mai ispirato gli ricordava al tempo stesso la torta di melassa l'odore di legno di un manico di scopa e quello dei fiori che poteva aver annusato alla tana a un tratto si accorse che il suo respiro era diventato lento e profondo e che i vapori della pozione sembravano saziarlo come una bibita un enorme contentezza lo pervase fece un gran sorriso a ron che gli sorrise pigramente di rimando bene 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 cominciò l'umacorno la sua sagoma enorme tremava attraverso i densi vapori vibranti fuori le bilance tutti quanti e gli ingredienti e non dimenticate la vostra copia di pozioni avanzate signore disse eri alzando la mano eri ragazzo mio dimmi io non ho il libro nella bilancia né niente e ne meno ron non sapevamo che avremmo potuto affrontare il mago sa ah sì la professoressa megonagall in effetti me l'ha accennato non preoccuparti mio caro ragazzo non preoccuparti affatto oggi userete gli ingredienti che trovate nell'armadio delle scorte e sono sicuro che possiamo prestarvi delle bilance e abbiamo una piccola riserva di vecchi libri qui andranno benissimo finché non avrete scritto al ghirigoro l'umacorno avanzò fino a un'angoliera e dopo aver frugato un po ne emerse con due copie molto fruste di pozioni avanzate di libazius boreg che consegnò a eri e ron insieme a due bilance annerite e adesso proseguì tornando davanti alla classe e gonfiando il petto già sporgente tanto che i bottoni del panciotto minacciarono di saltar via ho preparato un po di pozioni da farvi vedere così per curiosità è un esempio di ciò che dovreste saper fare dopo aver completato il vostro mago forse ne avete sentito parlare anche se non ne avete mai preparate qualcuno sa dirmi che cos'è questo indicò il calderone più vicino al tavolo di serpeverde eri si alzò a metà e vide che conteneva qualcosa di simile ad acqua pura che ribolliva la destrata mano di ermione scattò prima di quella di chiunque altro l'umacorno le fece un cenno è verità serum una pozione in colore e in odore che costringe colui che la beve a dire la verità disse ermione molto bene molto bene esclamò l'umacorno allegro ora riprese indicando il calderone più vicino al tavolo dei corvo nero questa è piuttosto famosa di recente è stata citata con un certo rilievo in alcuni libriccini del ministero chissà ancora una volta la mano di ermione fu la più veloce è pozione pulisucco signore rispose anche eri aveva riconosciuto la sostanza fangosa che bolliva lenta nel secondo calderone ma non si irritò con ermione per essersi presa il merito di rispondere dopo tutto era stata lei a prepararla quando facevano ancora il secondo anno eccellente eccellente ora questa qui sì mia cara chiese l'umacorno piuttosto sorpreso quando la mano di ermione si levò di nuovo in aria è a mortenzia lo è sembra quasi sciocco chiederlo continuò l'umacorno decisamente colpito ma immagino che tu sappia che effetti ha è il filtro d'amore più potente del mondo rispose ermione esatto l'hai riconosciuta immagino dalla sua tipica luminosità madre perlacea e dal vapore che sale in caratteristiche spirali proseguì ermione con entusiasmo e dovrebbe avere un odore diverso per ciascuno di noi a seconda di ciò che ci attrae e io sento aroma di erba appena tagliata e pergamena nuova e marro sì e non finì la frase posso chiederti come ti chiami mia cara domandò l'umacorno ignorando l'imbarazzo di ermione ermione granger signore granger granger possibile che tu sia imparentata con hector dagwart granger che ha fondato la stra straordinaria società dei pozzionanti no non credo signore sono babbana di nascita erri vide malfoichinarsi verso notte e mormorare qualcosa entrambi soghignarono ma l'umacorno non mostrò disappunto al contrario fece un gran sorriso e spostò lo sguardo da ermione a erri che era seduto accanto a lei una delle mie migliori amiche è babbana ed è la più brava del nostro anno suppongo che sia questa l'amica di cui parlavi erri sì signore rispose erri bene bene venti meritatissimi punti per griffondoro signorina granger flautò l'umacorno gioviale malfoi aveva la stessa aria di quando ermione l'aveva schiaffeggiato lei si rivolse a erri e mormorò radiosa gli hai detto davvero che sono la più brava del nostro anno oh erri beh che cosa c'è di tanto speciale sussurrò ron che chissà perché sembrava seccato tu sei la più brava del nostro anno gliel'avrei detto anch'io se me l'avesse chiesto ermione sorrise ma gli fece segno di tacere per poter sentire l'umacorno ron era decisamente contrariato la mortenzia non crea veramente l'amore è ovvio è impossibile confezionare o imitare l'amore no si limita a provocare una potente infatuazione o d'ossessione probabilmente è la pozione più pericolosa e potente in tutta questa stanza oh sì ribadì annuendo grave verso malfoi e not che ostentavano una smorfia scettica quando avrete vissuto a lungo quanto me non sottovaluterete la potenza di un amore ossessivo e adesso è ora di metterci al lavoro signore non c'è ancora detto che cosa c'è qui dentro intervenne ernie mcmillen indicando un piccolo paiolo nero sulla scrivania di l'umacorno la pozione all'interno sciaguattava allegra era del colore dell'oro fuso e grosse gocce balzavano in superficie come pesci anche se non era traboccata nemmeno una stilla oh oh fece di nuovo l'umacorno ernie era sicuro che non si fosse affatto scordato della pozione ma che avesse aspettato la domanda per fare un po di teatro sì quella beh quella signore e signori è una pozione cina assai curiosa chiamata felix felices suppongo e si rivolse con un sorriso a ermione che aveva rumorosamente trattenuto il fiato che lei conosca gli effetti della felix felices signorina granger è fortuna liquida rispose ermione eccitata rende fortunati tutta quanta la classe si drizzò sulle sedie ora riusciva a vedere solo il retro della bionda testa liscia di malfoi che finalmente rivolgeva all'umacorno tutta la sua attenzione esatto altri dieci punti per grifondoro sì è una porzioncina bizzarra la felix felices spiegò l'umacorno assurdamente difficile da preparare e disastrosa se si sbaglia tuttavia se viene lavorata correttamente come questa scoprirete che tutti i vostri sforzi tendono ad avere successo almeno finché l'effetto dura perché la gente non la beve di continuo signore chiese terry boot impaziente perché se presa in eccesso provoca stordimento irrequietezza e un pericoloso eccesso di fiducia in se stessi rispose l'umacorno il troppo stroppia sapete in grandi quantità e altamente tossica ma presa con parsimonia e molto di rado lei l'ha mai presa signore chiese michael corner con enorme interesse due volte nella vita rispose l'umacorno una volta quando avevo ventiquattro anni un'altra quando ne avevo cinquantasette due cucchiai a colazione due giorni perfetti scrutò sognante in lontananza teatro o no pensò erri l'effetto era riuscito e questa pozione riprese l'umacorno evidentemente tornato sulla terra è ciò che darò in premio alla fine di questa lezione calò un silenzio in cui ogni bolla e gorgoglio delle pozioni nei paioli parve amplificato di dieci volte una piccola bottiglietta di felix felices disse l'umacorno estraendo dalla tasca una minuscola bottiglia di vetro col tappo e mostrandola a tutti sufficiente per dodici ore di fortuna dall'alba al tramonto sarete fortunati in qualunque cosa tenterete ora devo avvertirvi che la felix felices è una sostanza messa al bando nelle competizioni ufficiali negli eventi sportivi per esempio negli esami e alle elezioni quindi il vincitore dovrà usarla solo in un giorno qualunque e stare a vedere come quel giorno qualunque diventa straordinario allora proseguì improvvisamente vivace come farete a vincere il mio favoloso premio beh andando a pagina dieci di pozioni avanzate abbiamo ancora poco più di un'ora nella quale dovrete mettere insieme un dignitoso tentativo di distillato della morte vivente so che è più complicata di qualunque cosa abbiate fatto prima e non mi aspetto un risultato perfetto da nessuno che farà meglio tuttavia vincerà questa piccola felix forza ci fu un sonoro grattare mentre tutti avvicinavano a sé i paioli e alcuni tonfi sonori quando i ragazzi cominciarono a deporre i pesi sulle bilance ma nessuno parlò la concentrazione nella stanza era quasi palpabile harry vide malfoi sfogliare febbrilmente il libro era evidente che desiderava davvero per sé quel giorno fortunato harry si chinò rapido sul volume consunto che l'umacorno gli aveva prestato con sua grande irritazione notò che il proprietario precedente aveva scarabocchiato tutte le pagine tanto che i margini erano neri come le parti stampate dopo essersi chinato più in basso per decifrare gli ingredienti anche lì c'erano annotazioni e parole cancellate harry corse verso l'armadio delle scorte a prendere lo corrente mentre tornava velocissimo al calderone vide malfoi tagliuzzare radici di valeriana più rapidamente che poteva tutti spiavano quello che facevano gli altri un vantaggio e uno svantaggio di pozioni era difficile tenere segreto il proprio lavoro entro dieci minuti la stanza era piena di vapore bluastro ermione naturalmente sembrava più avanti di tutti gli altri la sua pozione somigliava già al liquido omogeneo color ribes nero menzionato come l'ideale stadio intermedio finito di tritare le sue radici harry si chinò di nuovo sul libro era davvero seccante dover decifrare le istruzioni sotto tutti gli stupidi scarabocchi del proprietario precedente che per qualche ragione aveva messo in discussione l'ordine di tagliare il fagiolo sopoforoso e aveva trascritto un'istruzione alternativa schiacciare con il piatto di un pugnale d'argento il succo scaturisce in modo migliore professore credo che lei abbia conosciuto mio nonno abraxas malfoi harry al solo sguardo l'umacorno stava passando vicino al tavolo dei serpe verde si rispose il professore senza guardare malfoi mi spiace ho saputo che è morto anche se naturalmente c'era da aspettarselo il vaiolo di drago alla sua età e si allontanò harry tornò a curvarsi sul calderone con un ghigno sapeva che malfoi si era aspettato di essere considerato come lui o sabini forse aveva anche sperato in un trattamento preferenziale come quello che gli aveva sempre riservato piton sembrava che invece dovesse contare su nient'altro che il proprio talento per ottenere la bottiglietta di felix felicis il fagiolo sopoforoso si stava dimostrando molto difficile da tagliare harry si rivolse a ermione mi presti il tuo coltello d'argento lei annui impaziente senza levare lo sguardo dalla pozione che era ancora di un viola intenso anche se secondo il libro avrebbe ormai dovuto assumere una sfumatura lilla chiaro harry schiacciò il fagiolo raggrinzito col piatto del pugnale con suo stupore liberò all'istante molto più succo di quanto pensava ne potesse contenere lo versò tutto in fretta nel calderone e con sua sorpresa la pozione diventò subito della precisa sfumatura di lilla descritta dal manuale la sua irritazione per il proprietario precedente svanì di botto harry guardò la riga di istruzioni successiva secondo il libro si doveva mescolare in senso antiorario finché la pozione non fosse diventata limpida come acqua secondo la nota scritta a mano tuttavia si doveva alternare un giro in senso orario ogni sette in senso antiorario possibile che avesse ragione due volte harry mescolò in senso antiorario trattenne il respiro e mescolò una volta in senso orario l'effetto fu immediato la pozione diventò rosa pallidissimo come hai fatto gli chiese ermione rossa in faccia coi capelli sempre più crespi per via dei vapori la sua pozione era ancora decisamente viola aggiungi un giro in senso orario no no il libro dice antiorario sbottò lei harry scrollò le spalle e continuò sette giri in senso antiorario uno in senso orario pausa sette giri in senso antiorario uno in senso orario dall'altra parte del tavolo ron imprecava sottovoce la sua pozione sembrava liquirizia liquida harry si guardò attorno a quanto riusciva a vedere nessuna delle altre pozioni era diventata chiara come la sua si sentì euforico cosa che non gli era mai successa prima in quella segreta e il tempo è scaduto annunciò l'umacorno smettete di mescolare prego il professore avanzò lentamente fra i tavoli spiando nei calderoni non fece commenti ma ogni tanto dava una mescolata o un'annusata infine raggiunse il tavolo dove erano seduti erri ron ermione ed erni rivolse un sorriso contrito alla sostanza simile a pece nel calderone di ron oltrepassò il liquido blu scuro di erni al decotto di ermione rivolse un cenno compiaciuto poi vide la pozione di erri e una gioia incredula gli illuminò il volto il palese vincitore gridò a tutta quanta la segreta ottimo ottimo erri santo cielo è chiaro che hai ereditato il talento di tua madre lili era un fenomeno in pozioni ecco allora ecco una bottiglietta di felix felicitis come promesso e fanne buon uso erri fece scivolare la minuscola bottiglia di liquido dorato nella tasca interna con uno strano miscuglio di gioia per le espressioni furiose dei serpeverde e di senso di colpa per il cipiglio deluso di ermione ron era semplicemente sbalordito come hai fatto sussurrò a erri mentre uscivano dalla segreta fortuna immagino rispose erri perché malfoy era a portata d'orecchio una volta al sicuro alla tavola di grifondoro per la cena però si sentì abbastanza tranquillo da rivelarlo il volto di ermione si pietrificò sempre più a ogni parola va bene dillo che ho imbrogliato concluse esasperato dalla sua espressione beh non è stata proprio opera tua sbottò lei rigida ha solo seguito istruzioni diverse dalle nostre disse ron avrebbe potuto essere una catastrofe invece ha corso un rischio e ha funzionato trasse un sospiro l'umacorno poteva darlo a me quel libro e invece no io ho preso quello su cui nessuno ha scritto niente semmai ci ha vomitato a giudicare dall'aspetto di pagina 52 ma un momento intervenne una voce vicina all'orecchio sinistro di erri che colse un'improvvisa folata di quel profumo di fiori hanno usato nella segreta di l'umacorno si voltò e vide ginni ho sentito bene hai preso ordini da qualcosa che qualcuno ha scritto in un libro erri era preoccupata e arrabbiata erri capì subito che cosa le passava per la mente ma no la rassicurò abbassando la voce non è come insomma il diario di riddol è solo un vecchio manuale su cui qualcuno ha preso appunti ma tu fai quello che dice ho solo provato alcuni dei suggerimenti scritti ai margini davvero ginni non c'è niente di strano ginni ha ragione disse ermione inalberandosi subito dobbiamo controllare che non ci sia niente di sospetto voglio dire tutte queste bizzarre istruzioni chi lo sa e fecerri indignato mentre lei gli sfilava dalla borsa la sua copia di pozioni avanzate e alzava la bacchetta specialis revelio disse ermione battendo con un gesto elegante sulla copertina non successe nulla di nulla il libro rimase lì vecchio e sporco e pieno di orecchie finito chiese erri seccato o vuoi aspettare di vedere se fa qualche capriola all'indietro sembra a posto mormorò ermione continuando a guardare il libro con sospetto voglio dire sembra davvero solo un manuale bene allora me lo riprendo tagliò corto erri e lo prese bruscamente dal tavolo ma gli scivolò di mano e atterrò sul pavimento nessun altro stava guardando erri si chinò a raccoglierlo e notò qualcosa scarabocchiato lungo la base della quarta di copertina nella stessa minuscola grafia rattrappita delle istruzioni che gli avevano meritato la bottiglia di felix felicit ora nascosta al sicuro dentro un paio di calzini nel suo baule di sopra questo libro è proprietà del principe mezzo sangue casa gant per tutte le altre ore di pozioni della settimana erri continuò a seguire i consigli del principe mezzo sangue ogni volta che discordavano da quelle di libazius boreg col risultato che entro la quarta lezione l'umacorno si sperticava in lodi sulle sue capacità dicendo che di rado aveva avuto un allievo così talentoso né ron né ermione ne erano contenti anche se erri si era offerto di condividere il libro con entrambi ron faceva più fatica di erri a decifrare la grafia e non poteva continuare a chiedergli di leggere ad alta voce o sarebbe sembrato sospetto ermione intanto si intestardiva a seguire quelle che definiva le istruzioni ufficiali ma era sempre più di malumore via via che le davano risultati più scarsi di quelle del principe erri si chiedeva chi fosse stato il principe mezzo sangue anche se la quantità di compiti gli impediva di leggere da cima a fondo la sua copia di pozioni avanzate l'aveva sfogliata abbastanza da vedere che quasi non c'era pagina sulla quale il principe non avesse fatto annotazioni aggiuntive e non tutte riguardavano le pozioni qua e là c'erano indicazioni per incantesimi che a quanto pareva il principe aveva inventato da solo o da sola precisò ermione seccata origliando erri che ne indicava alcuni a ron nella sala comune il sabato sera poteva anche essere una ragazza secondo me la scrittura è più femminile che maschile si chiamava il principe mezzo sangue ribatte erri quante ragazze sono state principi ermione non trovò una risposta si limitò a fare il broncio e ad allontanare bruscamente la propria ricerca sui fondamenti della rimaterializzazione da ron che cercava di leggerla alla rovescia erri guardò l'orologio e rimise in fretta il libro nella borsa sono le otto meno cinque è meglio che vada o arriverò in ritardo da silente o rantolò ermione alzando subito lo sguardo buona fortuna ti aspettiamo alzati vogliamo sapere che cosa ti insegna in bocca al lupo gli augurò ron e i due guardarono erri uscire dal buco del ritratto erri avanzò per corridoi deserti anche se dovette nascondersi rapidamente dietro una statua quando la professoressa trelonei comparve dietro un angolo borbottando tra sé mescolava un mazzo di carte dall'aria sudicia e le leggeva camminando due di picche conflitto mormorò oltrepassando il punto dove erri si era rannicchiato sette di picche presagio nefasto dieci di picche violenza fante di picche un giovane bruno forse nei guai uno a cui non piace colei che interroga le carte si fermò di botto sull'altro lato della statua beh questo non può essere esatto sbottò irritata erri la sentì rimescolare il mazzo con vigore e ripartire lasciandosi solo un sentore di sherry alle spalle aspettò finché non fu sicuro che se ne fosse andata poi riprese a correre e raggiunse il punto del corridoio del settimo piano dove un isolato gargoyle si ergeva contro la parete pallini acidi disse erri il gargoyle si spostò con un balzo la parete alle sue spalle scivolò di lato rivelando una scala a chiocciola di pietra che con un costante movimento circolare trasportò erri fino alla porta col battente dottone dell'ufficio di silente erri bussò avanti disse la voce di silente buonasera professore salutò erri entrando nell'ufficio del preside ah buonasera erri siediti lo accolse silente con un sorriso spero che la prima settimana di scuola sia stata piacevole sì grazie signore rispose erri devi esserti dato da fare hai già preso una punizione cominciò erri imbarazzato ma silente non sembrava troppo severo ho stabilito con il professor piton di rimandarla a sabato prossimo va bene assenti erri che aveva per la testa questioni più urgenti e cercava furtivo con lo sguardo qualche indizio di ciò che silente aveva deciso di fare con lui quella sera l'ufficio circolare aveva l'aspetto di sempre i delicati strumenti d'argento sbuffavano fumo e ronzavano su tavolini dalle gambe sottili i ritratti dei passati presidi sonnecchiavano nelle loro cornici e fox la magnifica fenice di silente appollaiato sul suo trespolo dietro la porta osservava erri con vivace interesse non sembrava che silente avesse fatto spazio per un duello d'allenamento allora erri esordì il preside in tono pratico sono sicuro che ti sei chiesto che cosa ho in serbo per te durante queste per così dire lezioni sì signore beh ora che sai che cosa ha spinto lord voldemort a cercare di ucciderti 15 anni fa è giunto il momento che ti siano fornite certe informazioni fece una pausa alla fine dell'anno scorso mi ha detto che mi avrebbe raccontato tutto di serri senza riuscire a nascondere una sfumatura d'accusa nella voce signore aggiunse e l'ho fatto ribatté silente tranquillo ti ho detto tutto quello che so da questo momento in poi lasceremo le salde fondamenta dei fatti e viaggeremo insieme attraverso le torbide paludi della memoria per addentrarci nel folto delle più audaci congetture d'ora in poi erri potrei clamorosamente sbagliarmi tanto quanto amfri belcher convinto che i tempi fossero maturi per un calderone di formaggio ma ritiene di avere ragione chiese erri certo che sì ma come ti ho già dimostrato commetto errori come chiunque altro in effetti avendo io perdonami un'intelligenza leggermente superiore alla media i miei errori tendono a essere in proporzione più vistosi signore erri esitò quello che mi dirà a qualcosa a che fare con la profezia mi aiuterà a sopravvivere a moltissimo a che fare con la profezia rispose silente con non curanza come se erri gli avesse chiesto le previsioni del tempo per l'indomani e ovviamente spero che ti aiuterà a sopravvivere silente si alzò girò intorno alla scrivania e raggiunse un armadietto vicino alla porta erri si voltò per seguirlo con gli occhi poi silente tornò con in mano una familiare ciotola bassa di pietra istoriata lungo il bordo posò il pensatoio sulla scrivania davanti a erri sembri preoccupato erri in effetti scrutava il pensatoio con una certa ansia le sue esperienze precedenti con lo strano strumento che immagazzinava e rivelava pensieri e ricordi pur altamente istruttive erano anche state sgradevoli l'ultima volta vi aveva visto molto più di quanto avrebbe desiderato ma silente sorrideva questa volta entrerai nel pensatoio con me e cosa ancora più insolita col permesso di farlo dove andremo signore partiamo per una gita lungo il sentiero della memoria di bob ogden spiegò silente e si sfilò di tasca una bottiglia di cristallo che conteneva una sostanza vorticante di un bianco argenteo chi era bob ogden lavorava all'ufficio applicazione della legge sulla magia disse silente morì un po di tempo fa ma non prima che lo rintracciassi e lo convincessi ad affidare a me questi ricordi stiamo per accompagnarlo in una visita che fece per ragioni di servizio se vuoi alzarti erri ma silente aveva difficoltà a stappare la bottiglia di cristallo la sua mano ferita sembrava rigida e dolorante posso posso professore non importa erri silente puntò la bacchetta verso la bottiglia e il tappo volò via signore cosa si è fatto alla mano chiese di nuovo erri guardando le dita anerite con un misto di orrore e pietà non è il momento di raccontare questa storia erri non ancora abbiamo un appuntamento con bob ogden silente versò l'argento contenuto della bottiglia nel pensatoio dove questo vorticò scintillando né liquido né gassoso dopo di te lo invitò silente indicando la ciotola erri si chinò in avanti trasse un profondo respiro e tuffò il volto nella sostanza argentata sentì i piedi abbandonare il pavimento dell'ufficio cadeva cadeva in un vortice oscuro e poi all'improvviso si ritrovò a strizzare gli occhi alla cecante luce del sole prima che la sua vista si adeguasse silente atterrò accanto a lui erano su un viottolo di campagna orlato da alte siepi aggrovigliate sotto un cielo estivo luminoso e azzurro come un non ti scordar di me a pochi metri da loro c'era un uomo basso e grassoccio con occhiali molto spessi che gli riducevano gli occhi a puntolini da talpa stava leggendo un cartello di legno che sbucava dai rovi sul lato sinistro della strada erri sapeva che doveva essere ogden c'era solo lui e in più indossava lo strano miscuglio di abiti tipico dei maghi inesperti che cercano di passare per babbani in questo caso una redingote e leghette sopra un costume da bagno intero a righe prima che erri potesse far altro che notare il suo aspetto bizzarro tuttavia ogden partì a passo rapido lungo il viottolo silente e erri lo seguirono oltrepassando il cartello di legno erri al solo sguardo sulle due frecce quella che indicava la strada da dove venivano recitava great engleton otto chilometri quella che puntava verso ogden diceva little engleton 1,5 chilometri camminarono un po senza vedere altro che siepi col vasto cielo azzurro sulla testa e la sagoma frusciante avvolta nella redingote davanti a loro poi la piccola strada piegò a sinistra e scese ripida giù per il fianco di una collina un'intera valle si distese improvvisamente davanti a loro erri notò un villaggio senza alcun dubbio little engleton annidato tra dueerte colline la chiesa e il cimitero si distinguevano chiaramente dall'altra parte della valle sulla collina di fronte c'era una bella dimora circondata da un'ampia distesa di erba vellutata ogden aveva preso un'andatura di trotto imposta dalla china ripida silente allungò il passo e erri si affrettò a seguirlo pensava che fossero diretti al little engleton e si chiese come la notte in cui aveva conosciuto lumacorno perché dovessero fare tanta strada ma ben presto scoprì che si sbagliava non erano diretti al villaggio il viotto lo svoltava a destra e quando girarono l'angolo videro l'orlo della reingot di ogden sparire dentro un buco nella siepe silente e erri lo seguirono su un sentierino di terra battuta orlato da siepi più alte e più selvatiche era stretto pieno di pietre e di buche scendeva giù per la collina e sembrava diretto verso una macchia di alberi scuri un po più sotto e infatti poco dopo sfociò nella macchia silente e erri si fermarono alle spalle di ogden che si era bloccato e aveva estratto la bacchetta nonostante il cielo limpido i vecchi alberi facevano un'ombra fonda scura e fresca e ci volle qualche istante prima che gli occhi di erri distinguessero la costruzione seminascosta nel groviglio di tronchi gli parve un posto molto strano per una casa con gli alberi che ostruivano la luce e la vista della valle sottostante si chiese se fosse abitata i muri erano coperti di muschio e dal tetto erano cadute tante tegole che qua e là si vedevano le travi tutto attorno crescevano le ortiche alte fino alle finestre minuscole e incrostate di sporco quando ormai sembrava impossibile che qualcuno potesse viverci una delle finestre fu aperta rumorosamente e ne sbucò un sottile filo di fumo come se qualcuno stesse cucinando ogden avanzò con una certa cautela mentre le ombre scure degli alberi gli scivolavano addosso si fermò di nuovo fissando la porta alla quale qualcuno aveva inchiodato un serpente morto poi si udirono un fruscio e un tonfo e un uomo coperto di stracci cadde dall'albero più vicino atterrando in piedi davanti a ogden questi balzò indietro così in fretta da calpestarsi le code della redingotte perdendo quasi l'equilibrio non sei il benvenuto l'uomo davanti a loro aveva folti capelli così impastati di sporco che non se ne capiva più il colore gli mancavano parecchi denti aveva occhi piccoli e scuri che fissavano in direzioni opposte avrebbe potuto sembrare comico e invece no l'effetto era spaventoso eri non potebbe asimare ogden che arretrò di diversi passi prima di parlare buongiorno sono del ministero della magia non sei il benvenuto mi spiace non la capisco rispose ogden teso eri pensò che ogden fosse estremamente ottuso lo straniero a suo parere era stato molto chiaro visto che oltretutto brandiva una bacchetta in una mano e un corto pugnale parecchio insanguinato nell'altra tu lo capisci eri chiese silente piano sì certo disse eri un po sconcertato perché ogden non può ma quando il suo sguardo incrociò di nuovo il serpente morto sulla porta all'improvviso capì sta parlando serpentese molto bene annui silente sorridendo l'uomo vestito di stracci stava avanzando verso ogden il pugnale in una mano la bacchetta nell'altra insomma senta cominciò ogden ma troppo tardi ci fu un botto e ogden finì a terra stringendosi il naso mentre un brutto muco giallastro gli colava tra le dita morfin chiamò forte una voce un vecchio era corso fuori dalla casa sbattendo la porta così forte che il serpente morto dondolò l'uomo era più basso del primo e aveva strane proporzioni le sue spalle erano molto larghe e le braccia troppo lunghe la qualcosa unita agli occhi marrone chiaro ai corti capelli ispidi e al volto rugoso gli dava l'aspetto di una vecchia robusta scimmia si fermò davanti all'uomo col pugnale che ridacchiava alla vista di ogden a terra il ministero chiese guardando ogden esatto esclamò ogden furioso tamponandosi la faccia e lei suppongo è il signor gant giusto disse gant ti ha preso in faccia è proprio così sbottò ogden dovevi segnalare la tua presenza reagì gant aggressivo questa è proprietà privata non puoi mica venire qui e pretendere che mio figlio non si difenda difendersi contro che cosa signore chiese ogden rimettendosi in piedi a fatica feccanaso intrusi babbani e feccia ogden puntò la bacchetta verso il proprio naso da cui colava ancora una grossa quantità di pus giallo e il flusso cessò all'istante il signor gant biascicò qualcosa a morfin entra in casa non discutere questa volta erri riconobbe il serpentese capiva le parole e avvertiva anche lo strano sibilo che sentiva ogden morfin fu lì lì per disobbedire ma quando suo padre gli scoccò uno sguardo minaccioso cambiò idea si avviò pesantemente verso la casa con una strana andatura barcollante e si sbatté la porta alle spalle così che il serpente oscillò di nuovo malinconico sono qui per suo figlio signor gant disse ogden asciugandosi le ultime tracce di pus dalla giacca quello è morfin vero se quello è morfin confermò il vecchio con indifferenza sei puro sangue chiese improvvisamente aggressivo non ha alcuna importanza rispose ogden freddo e erri sentì crescere il rispetto per il mago a quel che pareva gant la pensava molto diversamente strizzò gli occhi per scrutare il volto di ogden e borbottò in quello che chiaramente doveva essere un tono offensivo adesso che ci penso ho visto dei nasi come il tuo giù al villaggio non ne dubito se suo figlio viene lasciato libero di aggredirli ribatte ogden forse possiamo continuare questa discussione dentro dentro sì signor gant gliel'ho già detto sono qui per morfin abbiamo mandato un gufo dei gufi non so che farmene sbottò gant io non apro le lettere allora non può lamentarsi di non essere stato avvertito della mia visita osservò ogden acido sono qui in seguito a una grave violazione della legge magica che si è verificata nelle prime ore di stamattina va bene va bene urlò gant entra in questa stramaledetta casa allora e buon pro ti faccia la casa era composta da tre piccole stanze due porte conducevano fuori da quella principale che serviva da cucina e salotto insieme morfin era seduto in una sudicia poltrona vicino al fuoco fumante intento a torcere tra le grosse dita una vipera viva canticchiando le piano in serpentese soffia soffia serpentello striscia sulla terra nuda se con morfin non fa il bravo alla porta lui ti inchioda si udì un rumore strascicato nell'angolo vicino alla finestra aperta eri si accorse che c'era qualcun altro nella stanza una ragazza dall'acero abito grigio dello stesso colore del sudicio muro di pietra dietro di lei era in piedi davanti a una pentola fumante su un fornello nero coperto di sporcizia e trafficava con le squallide pignatte e padelle su uno scaffale sopra di lei aveva i capelli flosci e sbiaditi e una faccia brutta pallida dai lineamenti rozzi i suoi occhi come quelli del fratello guardavano in direzioni diverse sembrava un po più pulita dei due uomini ma eri non aveva mai visto una persona dall'aria così sconfitta merop mia figlia disse ganta malincuore mentre ogden guardava interrogativo verso di lei buongiorno la salutò ogden lei non rispose ma dopo aver rivolto uno sguardo spaventato a suo padre voltò le spalle alla stanza e continuò a spostare le pentole sullo scaffale bene signor gant cominciò ogden per arrivare subito al punto abbiamo ragione di credere che suo figlio morfin abbia eseguito una magia davanti a un babbano ieri notte si udì un gran chiasso merop aveva lasciato cadere una pentola raccoglila le gridò gant ecco sei lì che pulisci per terra come una sporca babbana a che cosa ti serve la bacchetta inutile sacco di fango signor gant la prego esclamò ogden indignato mentre merop che aveva già raccolto la pignatta diventava tutta rossa se la fece sfuggire di nuovo estrasse la bacchetta di tasca con mano tremante la puntò e borbottò un breve indibile incantesimo la pentola sfrecciò sul pavimento colpì la parete di fronte e si spaccò in due morfin si abbandonò a una risata folle gant strillò aggiustala inutile melma aggiustala merop si fece avanti barcollando ma prima che potesse alzare la bacchetta ogden aveva levato la sua ordinando reparo la pentola si aggiustò all'istante per un attimo parve che gant fosse lì lì per urlargli addosso ma poi cambiò idea per fortuna c'è qui questo simpaticone del ministero disse alla figlia in tono sarcastico forse mi libererà di te forse non gli darà fastidio una fetida magano senza guardare nessuno né ringraziare ogden merop prese la pentola e la ripose tremando sulla mensola poi rimase ferma la schiena contro la parete tra la finestra sudicia il fornello come se la sua più intensa speranza fosse di sprofondare nella pietra e sparire signor gant ricominciò ogden come ho già detto la ragione della mia visita ti ho già sentito sbottò gant e allora morfin ha dato a un babbano quello che si meritava e allora morfin ha infranto la legge magica disse ogden severo morfin ha infranto la legge magica lo scimmiottò gant pomposo e cantilenante morfin ridacchiò di nuovo ha dato a uno schifoso babbano una bella lezione è illegale adesso si rispose ogden temo di sì trasse da una tasca interna un piccolo rotolo di pergamena e lo srotolò che cos'è quella allora la sua condanna chiese ganta voce alta e rabbiosa è un mandato di comparizione al ministero per un'udienza 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 chi credi di essere a convocare mio figlio da qualche parte sono il capo della squadra speciale magica ribatte ogden e credi che noi siamo feccia vero urlò gant avanzando verso ogden e puntandogli contro il petto un sudicio dito dall'unghia ingiallita feccia che corre quando il ministero glielo ordina ma lo sai con chi stai parlando tu schifoso piccolo sangue marcio ero convinto di parlare col signor gant rispose ogden cauto ma deciso a tenergli testa giusto ruggì gant per un attimo erri pensò che stesse facendo un gesto osceno con la mano ma poi si accorse che stava mostrando a ogden il brutto anello con la pietra nera che portava al medio e lo agitava davanti agli occhi di ogden lo vedi questo lo vedi questo lo sai cos'è lo sai da dove viene sono secoli che in famiglia ecco quanto passato abbiamo e siamo sempre stati puro sangue lo sai quanto mi hanno offerto per questo col blasone dei peverel inciso sulla pietra non ne ho proprio idea rispose ogden battendo le palpebre mentre l'anello oscillava un pollice dal suo naso ed è del tutto irrilevante signor gant suo figlio ha commesso con un ululato di rabbia gant corse verso sua figlia per un istante sembro quasi che volesse strozzarla perché le mise una mano sulla gola un attimo dopo la trascinava verso ogden tirandola per la catena d'oro che portava al collo lo vedi questo strillò agitando verso di lui un pesante medaglione d'oro mentre merop sputacchiava e ansimava col respiro mozzo lo vedo lo vedo rispose ogden in fretta è di serpe verde urlò gant di salazar serpe verde noi siamo i suoi ultimi discendenti ancora in vita che cos'hai da dire eh signor gant sua figlia fece ogden allarmato ma gant aveva già lasciato andare merop che barcollò nel suo angolo massaggiandosi il collo e cercando di ritrovare il respiro allora esclamò gant trionfante come se avesse appena dimostrato un complicato argomento ormai indiscutibile non osare parlarci come se fossimo polvere sulle tue scarpe generazioni di puro sangue tutti i maghi è più di quanto tu possa dire di te non ne dubito e sputò per terra i piedi di ogden morfin ridacchiò di nuovo merop rannicchiata vicino alla finestra il capochino e il volto nascosto dai capelli flosci non diceva nulla signor gant insistette ogden temo che né i suoi antenati né i miei abbiano nulla a che fare con la questione sono qui a causa di morfin di morfin e del babbano che ha avvicinato ieri notte siamo a conoscenza e diede un'occhiata alla pergamena del fatto che morfin ha eseguito una fattura o una stregoneria sul detto babbano provocandogli un'eruzione assai dolorosa di orticaria morfin ridacchiò taci ragazzo sibilò gant in serpentese e morfin tacque di nuovo e allora riprese gant in tono di sfida immagino che tu abbia ripulito la faccia sporca del babbano e anche la sua memoria non è questo il punto signor gant rispose ogden è stato un attacco privo di movente su un indifeso già ho capito che eri un lecca babbani dal momento che ti ho visto lo interruppe gant beffardo e sputò di nuovo per terra questa discussione non ci porta da nessuna parte ribadì ogden deciso è chiaro dall'atteggiamento di suo figlio che non prova alcun rimorso per le proprie azioni guardò di nuovo la pergamena morfin si presenterà un'udienza il 14 settembre per rispondere all'accusa di aver usato la magia davanti a un babbano e di aver provocato dolore e disagio allo stesso babba ogden si interruppe un tintinio e un rumore di zoccoli di cavalli e alte voci ridenti entrarono dalla finestra aperta a quel che pareva il viottolo tortuoso che scendeva al villaggio passava molto vicino alla macchia che circondava la casa gant rimase immobile in ascolto gli occhi spalancati morfin si bilò e rivolse il viso ai suoni con aria avida merop alzò la testa la sua faccia notò erri era di un biancore assoluto mio dio che orrore esclamò una voce di ragazza chiarissima attraverso la finestra aperta come se fosse stata nella stanza accanto a loro tuo padre non potrebbe far radere al suolo quella baracca tom non è nostra rispose una giovane voce maschile tutto ciò che si trova dall'altra parte della valle appartiene a noi ma quella casa è di un vecchio vagabondo chiamato gant e dei suoi figli il maschio è pazzo dovresti sentire le storie che raccontano al villaggio la ragazza rise il tintinio e il tonfo degli zoccoli divennero sempre più sonori morfin fece per alzarsi dalla poltrona stai seduto intimò suo padre minaccioso in serpentese tom disse ancora la voce della ragazza ora così vicina che doveva essere appena fuori dalla casa forse mi sbaglio ma qualcuno ha inchiodato un serpente a quella porta santo cielo hai ragione esclamò la voce maschile sarà stato il figlio te l'ho detto che non è a posto non guardarlo cecilia tesoro tintinio e tonfo di zoccoli si indebolirono tesoro sussurrò morfin in serpentese guardando sua sorella la chiamata tesoro quindi non ti vorrebbe comunque merop era così pallida che pareva sul punto di svenire che cosa chiese gant brusco sempre in serpentese spostando lo sguardo dal figlio alla figlia che cosa hai detto morfin a lei piace guardare quel babbano rispose morfin con espressione malvagia fissando la sorella terrorizzata sta sempre in giardino quando lui passa lo spia attraverso la siepe non è vero e ieri sera merop scosse il capo a scatti supplichevole ma morfin continuò spietato si è spenzolata dalla finestra aspettando che lui tornasse a casa a cavallo si spenzolava dalla finestra per guardare un babbano ripete gant piano tutti e tre i gant sembravano essersi scordati di ogden sconvolto irritato a quel rinnovato scoppio di sibili e raspì è vero insistette gant con voce mortifera muovendo qualche passo verso la ragazza agghiacciata mia figlia discendente puro sangue di salazar serpe verde che muore dietro un sudicio babbano con le vene sporche merop scosse freneticamente la testa schiacciandosi contro la parete incapace di spiccicare parola ma io l'ho preso padre ridacchiò morfin l'ho beccato mentre passava e non era più così carino con tutte le bolle dell'orticaria vero merop tu disgustosa piccola maganò sudicia traditrice del tuo sangue ruggì gant perdendo il controllo e le sue mani si strinsero attorno alla gola della figlia sia eric e ogden urlarono no all'unisono ogden alzò la bacchetta e gridò rilascio gant fu scagliato all'indietro lontano dalla figlia volò oltre una sedia e cadde sulla schiena con un rugito di rabbia morfin balzò su dalla poltrona e corse verso ogden brandendo il pugnale insanguinato e sparando indiscriminatamente maledizioni con la bacchetta ogden scappò via silente fece cenno a eric di seguirlo e lui obbedì mentre le urla di merop gli echeggiavano nelle orecchie ogden sfrecciò lungo il sentiero e sbucò sul viottolo principale le braccia sopra la testa e qui cozzò contro il lustro cavallo sauro montato da un giovane molto attraente dai capelli scuri sia lui che la graziosa ragazza sul cavallo grigio al suo fianco si sbellicarono dalle risate alla vista di ogden che rimbalzò via dal fianco del cavallo e ripartì di corsa con la redingot che svolazzava coperto da capo a piedi di polvere su a rotta di collo per il viottolo penso che possa bastare erri disse silente lo prese per un gomito e gli diede uno strattone un attimo dopo galleggiavano privi di peso nel buio finché atterrarono nell'ufficio di silente ora immerso nella luce del crepuscolo che cosa è successo alla ragazza nella casa chiese subito erri mentre silente accendeva qualche lampada con un lieve colpo di bacchetta merop o come si chiamava o è sopravvissuta rispose silente riprendendo posto dietro la scrivania e facendo cenno a erri di sedersi ogden si materializzò di nuovo al ministero e tornò con i rinforzi 15 minuti dopo morfin e suo padre cercarono di dare battaglia ma furono sopraffatti entrambi portati via e in seguito condannati dal wisengamot morfin che aveva già precedenti per aggressioni contro babbani fu condannato a tre anni ad azkaban marvolo che aveva ferito parecchi dipendenti del ministero oltre a ogden ebbe sei mesi marvolo ripete erri stupefatto esatto confermò silente sorridendo con aria d'approvazione sono lieto di vedere che stai al passo quel vecchio era il nonno di voldemort si completò silente marvolo suo figlio morfin e sua figlia merop erano gli ultimi dei gant una famiglia magica molto antica nota per una vena di squilibrio e violenza che fiorì attraverso le generazioni a causa della loro abitudine di sposarsi tra cugini la mancanza di buonsenso unita a una smisurata tendenza allo sperpero fecero sì che il denaro di famiglia fosse dilapidato parecchie generazioni prima della nascita di marvolo lui come hai visto finì nello squallore e nella miseria con un carattere pessimo una straordinaria dose di arroganza e orgoglio e un paio di cibeli di famiglia che aveva cari quanto suo figlio e parecchio più di sua figlia quindi merop concluse erri chinandosi in avanti e fissando silente quindi merop era signore vuol dire che era la madre di voldemort già rispose silente e abbiamo anche avuto una fugace visione del padre di voldemort chissà se hai notato il babbano che morfina aggredito l'uomo a cavallo molto bene davvero fece silente con un gran sorriso sì quello era tom riddle senior il bel babbano che aveva l'abitudine di passare a cavallo davanti alla casa dei gant e per il quale merop gant covava una segreta ardente passione e si sposarono chiese erri incredulo incapace di immaginare due persone con meno probabilità di innamorarsi dimentichi che merop era una strega rispose silente io non credo che i suoi poteri magici fossero al meglio fin tanto che era terrorizzata dal padre ma quando marvolo e morfin furono rinchiusi ad azkaban quando lei si ritrovò sola e libera per la prima volta in vita sua evidentemente fu in grado di scatenare la propria abilità e progettare la fuga dalla condizione disperata in cui era vissuta per 18 anni secondo te come avrebbe potuto fare merop perché tom riddle dimenticasse la compagna babbana e si innamorasse invece di lei la maledizione imperius suggerì erri un filtro d'amore molto bene io sono incline a credere che abbia usato un filtro d'amore sono certo che le sarebbe sembrato più romantico e che non sia stato molto complicato in un giorno caldo quando riddle cavalcava da solo convincerlo a bere un po d'acqua in ogni caso pochi mesi dopo la scena a cui abbiamo appena assistito il villaggio di little angleton si godette un terribile scandalo può immaginare i pettegolezzi quando il figlio del signorotto locale fuggì con merop la figlia del vagabondo ma lo stupore degli abitanti del villaggio non fu nulla rispetto a quello di marvolo tornò da azgaban aspettandosi di trovare la figlia che devotamente attendeva il suo ritorno con un pasto caldo pronto in tavola invece trovò tre bei centimetri di polvere e il suo messaggio da dio in cui spiegava quello che aveva fatto e merop lei lei morì vero voldemort non stava in orfanotrofio si disse silente dobbiamo tirare un po a indovinare anche se non è difficile immaginare che cosa accatte vedi pochi mesi dopo la fuga tom riddle ricomparve nella sua dimora di little angleton senza la moglie nel vicinato corsevoce che raccontasse di essere stato ingannato e truffato certamente voleva dire che aveva subito un incantesimo che poi era cessato anche se dubito che abbia osato ricorrere a queste precise parole per timore di essere preso per pazzo tuttavia gli abitanti del villaggio ne dedussero che merop aveva mentito a tom riddle fingendo di aspettare un bambino da lui e che lui l'aveva sposata per questo ma lei lo ebbe un bambino da lui sì ma solo un anno dopo il matrimonio tom riddle la lasciò quando lei era ancora incinta che cosa successe chiese erli perché il filtro d'amore smise di funzionare sono di nuovo ipotesi rispose silente ma io credo che merop che era profondamente innamorata del marito non abbia potuto sopportare di tenerlo suo schiavo con mezzi magici penso che abbia deciso di non dargli più la pozione forse infatuata com'era si era convinta che ormai lui la ricambiasse forse pensò che sarebbe rimasto per amore del bambino se era così si sbagliava in entrambi i casi lui la lasciò non la rivide più e non si dire mai la pena di scoprire che cosa ne era stato di suo figlio il cielo fuori era nero come l'inchiostro e le lampade nello studio sembravano brillare più ardenti di prima per stasera può bastare erli disse silente dopo qualche attimo sì signore replicò erli si alzò ma non se ne andò signore è importante sapere tutte queste cose del passato di voldemort lo reputo molto importante rispose silente e ha qualcosa a che fare con la profezia ha tutto a che fare con la profezia bene fece erri un po confuso ma comunque rassicurato si girò per andarsene poi gli venne in mente un'altra domanda e si voltò di nuovo signore ho il permesso di raccontare tutto quello che mi ha detto a ron e ermione silente lo studiò per un attimo poi rispose sì credo che il signor weasley e la signorina granger si siano dimostrati degni di fiducia ma erri devi pregarli di non riferire nulla a nessun altro non sarebbe una buona idea se circolassero voci su quanto so o sospetto dei segreti di voldemort no signore farò in modo che siano solo ron e ermione buonanotte si voltò di nuovo ed era quasi alla porta quando lo vide posato su uno dei tavolini dalle gambe affusolate che reggevano tanti fragili strumenti d'argento c'era un brutto anello d'oro con una grossa pietra nera incrinata signore mormorò erri fissandolo quell'anello si domandò silente lo indossava quando abbiamo fatto visita al professor rumacorno quella notte vero confermò silente ma non è signore non è lo stesso anello che marvolo gant mostrò a ogden silente chinò il capo lo stesso ma com'è l'ha sempre avuto lei no l'ho acquisito da poco rispose silente qualche giorno prima di venire a prenderti dai tuoi zii in effetti ossia più o meno quando si è ferito la mano allora signore più o meno si erri erri esitò silente sorrideva signore come di preciso troppo tardi erri sentirai questa storia un'altra volta buonanotte buonanotte signore una mano da ermione come ermione aveva previsto le ore libere del sesto anno non si rivelarono le liete pause sperate da ron ma momenti in cui tentare di stare alla pari con l'enorme montagna di compiti assegnati non solo studiavano come se avessero gli esami tutti i giorni ma le lezioni stesse erano diventate più ardue che mai erri capiva astento la metà di ciò che spiegava la professoressa mcgonagall e perfino ermione aveva dovuto chiederle un paio di volte di ripetere le istruzioni cosa incredibile e sempre più irritante per ermione la materia in cui erri eccelleva era improvvisamente diventata pozioni grazie al principe mezzo sangue ormai gli incantesimi non verbali erano richiesti non solo a difesa contro le arti oscure ma anche a incantesimi e a trasfigurazione spesso in sala comune o durante i pasti erri sorprendeva i compagni paonazzi e tesi come se avessero preso una dose eccessiva di non la fai più ma sapeva che in realtà stavano cercando di formulare gli incantesimi senza pronunciarli ad alta voce uscire per andare alle serre era un sollievo durante erbologia avevano a che fare con piante estremamente pericolose ma almeno potevano ancora imprecare ad alta voce se la tentacula velenosa li aggrediva alle spalle una conseguenza dell'enorme carico di lavoro e delle ore frenetiche passate a studiare gli incantesimi non verbali fu che erri ron e ermione non erano ancora riusciti ad andare a trovare agrid lui non partecipava più ai pasti al tavolo degli insegnanti un segnale funesto e nelle poche occasioni in cui l'avevano incrociato nei corridoi o nei prati aveva misteriosamente mancato di notarli o di ricambiare i loro saluti dobbiamo spiegarci con lui disse ermione guardando l'enorme sedia vuota di agrid il sabato dopo a colazione questa mattina abbiamo i provini di quidditch ribatte ron e in più dovremmo studiare quell'incantesimo agguamenti per flitwick e poi spiegare che cosa come facciamo a dirgli che odiavamo la sua stupida materia non la odiavamo esclamò ermione parla per te io non mi sono dimenticato gli schiopodi replicò ron cupo vi assicuro che ce la siamo cavata per un non avete sentito come parla di quel suo orrido fratello se fossimo rimasti saremmo lì a insegnare a gropp come allacciarsi le scarpe detesto l'idea di non parlare con agrid riba di ermione turbata ci andremo dopo il quidditch le assicurò erri agrid mancava pure a lui anche se come ron era convinto di star meglio senza gropp ma le selezioni potrebbero durare tutta la mattina vista la gente che si è messa in vista si sentiva un po nervoso all'idea di affrontare la prima prova della sua carriera di capitano non so perché la squadra all'improvviso è così popolare o andiamo erri sbottò ermione non è il quidditch che è popolare sei tu non sei mai stato così interessante come ora e nemmeno così attraente a dirtela tutta a ron andò di traverso un grosso pezzo di aringa ermione lo degnò di un solo sguardo prima di tornare a rivolgersi a erri tutti sanno che hai detto la verità no il mondo magico ha dovuto ammettere che avevi ragione sul ritorno di voldemort che l'hai affrontato due volte negli ultimi due anni e che ogni volta gli sei sfuggito e adesso ti chiamano il prescelto beh andiamo non capisci che la gente è ammaliata da te erri all'improvviso trovò la sala grande molto calda anche se il soffitto era ancora freddo e gonfio di pioggia e in più sei stato perseguitato dal ministero che cercava di farti passare per uno squilibrato e un bugiardo porti ancora i segni di quando quella donna malvagia ti ha fatto scrivere col sangue ma tu non hai ritrattato nemmeno una parola anch'io porto ancora i segni dove quei cervelli mi hanno afferrato al ministero guarda intervenne ron tirandosi sulle maniche e non guasta nemmeno che tu sia cresciuto di 30 centimetri durante l'estate concluse fermione ignorando ron io sono alto affermò lui senza alcuna logica i gufi postali planarono attraverso le finestre punteggiate dalla pioggia spruzzando tutti di goccioline un sacco di ragazzi ricevevano più posta del solito i genitori preoccupati volevano avere notizie dei figli e rassicurarli a loro volta che a casa andava tutto bene erri non riceveva posta dall'inizio della scuola l'unico che gli scriveva con una certa regolarità era morto erri anche se aveva sperato che lupin gli mandasse una lettera ogni tanto finora era rimasto deluso fu molto sorpreso dunque di vedere la candida edvige volteggiare tra tutti i gufi marroni e grigi atterrò davanti a lui con un grosso pacco quadrato un attimo dopo arrivò un pacco identico per ron schiacciando il suo minuscolo sfinito portatore leo tordo ah fece erri aprì il pacco e scoprì una copia nuova di pozioni avanzate arrivata fresca dal dirigoro oh bene si l'allegrò ermione ora puoi restituire quella copia tutta scarabocchiata sei pazza protestò erri me la tengo senti ci ho pensato prese dalla borsa il vecchio pozione avanzate e batte sulla copertina con la bacchetta borbottando diffindo la copertina cadde fece lo stesso con il libro nuovo di zecca ermione era scandalizzata poi scambiò le copertine le picchiettò entrambe e ordinò reparo ed ecco la copia del principe travestita dal libro nuovo e la copia nuova del dirigoro con un aspetto decisamente usato restituirò all'umacorno quella nuova non può lamentarsi è costata nove galeoni ermione strinse le labbra arrabbiata e chiaramente in disaccordo ma fu distratta da un terzo gufo che atterrò davanti a lei con la gazzetta del profeta l'aprì in fretta e scorse la prima pagina è morto qualcuno che conosciamo chiese ron con ostentata non curanza faceva la stessa domanda tutte le volte che ermione apriva il giornale no ma ci sono stati altri attacchi dei dissennatori rispose ermione e un arresto ottimo chi chiese erri pensando a bellatrix l'estrange stenti raccorto ribatte ermione che cosa esclamò erri allarmato stanley tiracorto bigliettaio del popolare mezzo di trasporto magico il nottetempo è sospettato di attività da mangiamorte il signor tiracorto 21 anni è stato tratto in arresto la notte scorsa dopo un'irruzione nella sua casa di clapham stenti raccorto un mangiamorte ripete erri ricordando il ragazzo foruncoloso incontrato per la prima volta tre anni prima impossibile può darsi che abbia subito la maledizione imperius suggerì ron ragionevole non si può mai dire non sembrerebbe commentò ermione che stava ancora leggendo qui dice che è stato arrestato dopo che l'hanno sentito parlare dei piani segreti dei mangiamorte in un pub al solo sguardo turbata se fosse stato vittima della maledizione imperius non sarebbe andato in giro a spettegolare dei loro piani no magari fingeva di sapere più di quanto sapeva davvero per darsi delle arie rispose ron non era lui che diceva che sarebbe diventato ministro della magia quando cercava di attaccare bottone con quelle vila proprio lui confermò non so a che gioco stanno giocando se prendono sul serio stan probabilmente vogliono dare l'impressione di far qualcosa disse ermione pensierosa la gente è terrorizzata sapete che i genitori delle gemelle patil vogliono farle tornare a casa ed eloise midgen si è già ritirata dalla scuola suo padre è venuto a prenderla ieri sera che cosa fece ron guardando ermione con gli occhi sgranati ma hogwarts è più sicura delle loro case non c'è storia abbiamo gli auror e tutti quegli incantesimi di protezione e silente non credo che lui ci sia sempre mormorò ermione gettando un'occhiata verso il tavolo degli insegnanti da sopra il profeta non avete notato il suo posto è rimasto vuoto quanto quello di agri della settimana scorsa harry e ron seguirono il suo sguardo la sedia del preside in effetti era vuota a pensarci bene harry non vedeva silente dalla loro lezione privata di una settimana prima credo che sia andato in missione per l'ordine continuò ermione a bassa voce voglio dire è tutto molto preoccupante no harry e ron non risposero ma era chiaro che pensavano la stessa cosa il giorno prima era successa una disgrazia la scuola aveva convocato anna abbott durante erbologia per comunicarle che sua era stata trovata morta da allora anna non si era più vista cinque minuti dopo quando si alzarono dalla tavola di grifondoro per scendere al campo di quidditch passarono accanto a lavanda brown e parvati patil dopo quel che aveva detto ermione harry non fu stupito di vedere che le due grandi amiche bisbigliavano con aria afflitta piuttosto lo sorprese il fatto che quando ron le affiancò parvati diede all'improvviso una gomitata a lavanda che si voltò e rivolse a ron un gran sorriso lui la guardò sbattendo le palpebre poi sorrise a sua volta incerto e prese a camminare quasi a passo di marcia harry si trattenne dal ridere ricordando che anche ron l'aveva fatto dopo che malfoi gli aveva spaccato il naso ermione invece fu fredda e distante lungo tutta la strada fino allo stadio sotto la fresca pioggerellina e andò a sedersi nelle tribune senza augurare in bocca al lupo a ron come harry si era aspettato i provini occuparono gran parte della mattinata sembrava che si fosse presentata a metà della casa di grifondoro da quelli del primo anno che stringevano nervosamente alcune tremende vecchie scope della scuola a quelli del settimo anno che torreggiavano sugli altri con aria elegantemente intimidatoria tra gli ultimi c'era un ragazzone coi capelli crespi che harry riconobbe all'istante ci siamo conosciuti in treno nello scompartimento del vecchio luma disse in tono confidenziale facendosi avanti per stringere la mano a harry cormac mcluggen portiere non hai partecipato alle selezioni l'anno scorso vero chiese harry osservando la stazza di mcluggen e pensando che probabilmente avrebbe bloccato tutti e tre gli anelli delle porte senza nemmeno muoversi ero in infermeria quando ci sono stati i provini rispose mcluggen con una certa spavalderia avevo mangiato mezzo chilo di uova di doxi per una scommessa capisco disse harry bene se vuoi aspettare laggiù indicò il bordocampo dove era seduta ermione gli parve di vedere un'ombra di irritazione sul volto di mcluggen e si chiese se per caso si aspettasse un trattamento preferenziale perché entrambi i cocchi del vecchio luma harry decise di cominciare con un test di base chiedendo a tutti gli aspiranti giocatori di dividersi in gruppi di dieci e fare un giro di volo sul campo fu una buona decisione quelli del gruppo iniziale erano del primo anno ed era lampante che non avevano mai volato solo un ragazzino riuscì a restare sospeso per più di qualche secondo e ne fu così stupito che si schiantò all'istante contro uno dei pali il secondo gruppo comprendeva dieci delle ragazze più sceme che harry avesse mai incontrato quando lui fischiò non fecero altro che esplodere in risatine e aggrapparsi l'una all'altra tra loro c'era romilda vain quando le invitò a uscire dal campo obbedirono con grande allegria e andarono a sedersi nelle tribune a molestare tutti gli altri il terzo gruppo fece un tamponamento a catena a metà del giro di campo gran parte del quarto gruppo si era presentata senza scope il quinto gruppo era di tassofrasso se c'è qualcun altro che non è di grifondoro ruggì harry che cominciava a essere seriamente irritato se ne vada subito per favore una pausa poi un paio di piccoli corvo nero schizzarono fuori dal campo ridacchiando dopo due ore molte proteste e parecchie crisi di nervi una delle quali comportò la distruzione di una comet 260 e parecchi denti rotti harry aveva trovato tre cacciatori katie bell tornata in squadra dopo una prova eccellente demelsa robbins una nuova scoperta particolarmente abile nello schivare bolidi e ginny weasley che si era distinta in volo per tutta la prova e in più aveva segnato 17 gol pur soddisfatto delle sue scelte harry era diventato rauco a forza di strillare contro i tanti contestatori e ora stava sostenendo una battaglia analoga con i battitori respinti questa è la mia decisione definitiva e se no sparite subito lasciando il posto ai portieri vi affatturo urlò i battitori che aveva selezionato non erano fuori classe come i vecchi fredde george però harry era abbastanza soddisfatto jimmy peaks un ragazzo del terzo anno basso ma robusto che aveva fatto a harry un bernoccolo grosso come un uovo sulla testa colpendo un bolide con ferocia e ricicut un po allampanato ma dotato di buona mira i due si unirono agli spettatori nelle tribune a seguire la selezione dell'ultimo membro della squadra harry aveva lasciato apposta alla fine la prova dei portieri sperando che lo stadio fosse più vuoto e ci fosse meno tensione purtroppo però tutti i giocatori respinti e un po di gente che era scesa a guardare dopo colazione si erano uniti alla folla che quindi era più vasta che mai ogni volta che un portiere volava in posizione la platea ululava e lo sbeffeggiava in uguale misura harry scrutò ron che aveva sempre avuto qualche problema di nervi aveva sperato che la vittoria all'ultima partita dell'anno prima l'avesse guarito ma evidentemente non era così ron era di una delicata sfumatura di verde nessuno dei primi cinque aspiranti parò più di due gol a testa con enorme dispiacere di harry cormac mclagan intercettò quattro rigori su cinque all'ultimo tuttavia scattò nella direzione opposta la folla rise e fischiò e mclagan tornò a terra dirignando i denti ron sembrava sul punto di svenire quando salì sulla sua tornado 11 in bocca al lupo urlò una voce dalle tribune harry si guardò attorno aspettandosi di vedere ermione invece era lavanda brown avrebbe tanto voluto nascondersi il volto tra le mani come fece lei un attimo dopo ma pensò che come capitano doveva mostrare un po più di fermezza e così si voltò a guardare il provino di ron eppure non avrebbe dovuto preoccuparsi ron parò 1 2 3 4 5 rigori di fila felice resistendo a fatica alla tentazione di unirsi ai sonori complimenti della folla harry si rivolse a mclagan per dirgli che purtroppo ron l'aveva battuto e si ritrovò a pochi centimetri dalla sua faccia rossa si ritrasse in fretta sua sorella l'ha fatto apposta ringhiò mclagan minaccioso harry notò che una vena gli pulsava nella tempia in perfetto stile zio vernon attirato facile sciocchezze rispose harry gelido è stato il rigore che ha quasi mancato mclagan fece un passo verso harry che stavolta non si mosse fammi provare ancora no ribatte harry hai già provato ne hai parate 4 ron ne ha parate 5 ron è il portiere ha vinto lealmente togliti di mezzo per un momento pensò che mclagan gli avrebbe dato un pugno invece si accontentò di fare una brutta smorfia e filò via ringhiando all'aria quelle che sembravano minacce harry si voltò la sua squadra gli sorrideva bravi gracchiò avete volato proprio bene sei stato bravissimo ron questa volta era davvero ermione quella che correva verso di loro dalle tribune harry vide la vanda allontanarsi musonita dal campo a braccetto comparvati ron sembrava estremamente soddisfatto di sé e perfino più alto del solito rivolgeva grandi sorrisi alla squadra e a ermione fissato all'orario del primo vero allenamento per il martedì seguente harry ron e ermione salutarono gli altri e si avviarono verso la casa di agrid un sole pallido cercava di sbucare tra le nuvole finalmente aveva smesso di piovigginare harry aveva una gran fame sperava che da agrid ci fosse qualcosa da mangiare ho temuto di non parare il quarto rigore stava raccontando ron allegro quel tiro mancino di demelsa l'avete visto era una palla a effetto sì sì sei stato eccezionale rispose ermione divertita comunque sono stato più bravo di mclaggan continuò ron assai compiaciuto l'avete visto quando si è buttato dalla parte sbagliata al quinto rigore sembrava che fosse stato confuso con sorpresa di harry a quelle parole ermione arrossì violentemente ron non notò nulla occupato com'era a descrivere con amorevoli dettagli ogni parata fiero becco l'enorme ipogrifo grigio era legato davanti alla capanna di agrid fece schioccare il becco affilato come un rasoio quando si avvicinarono e voltò il testone verso di loro o cielo commentò ermione nervosa fa ancora un po paura vero ma dai l'hai anche cavalcato no fece ron erry si fece avanti e si inchinò profondamente all'ipogrifo senza distogliere lo sguardo né sbattere le palpebre dopo qualche istante anche fiero becco si piegò in un inchino come stai gli chiese erry a bassa voce avvicinandosi per accarezzare la testa piumata ti manca ma stai bene qui con agrid vero oi esclamò una voce agrid era arrivato a grandi passi da dietro la capanna indossava un grembiulone a fiori e portava un sacco di patate il monumentale danese zanna lo seguiva da presso abbaiò sonoramente e balzò in avanti lontani vi mangerà le dita o siete voi zanna saltava addossa ermione e ron cercando di leccar loro le orecchie agrid rimase a guardarli per un istante poi si voltò ed entrò nella capanna sbattendo la porta santo cielo fece ermione addolorata non preoccuparti rispose erry cupo andò alla porta e bussò forte agrid apri vogliamo parlarti nessun rumore dall'interno se non apri la porta tu la facciamo saltare minacciò erry spoderando la bacchetta erry esclamò ermione spaventata non puoi sì che posso ribatte erry state indietro ma prima che riuscisse a dire altro la porta si spalancò di nuovo e agrid guardò torvo erry dall'alto in basso nonostante il grembiule a fiori era decisamente inquietante sono un professore rugì contro erry un professore potter come osi minacciare di buttarmi giù la porta mi dispiace signore rispose erry sottolineando l'ultima parola mentre riponeva la bacchetta nella veste agrid era allibito da quando è che mi chiami signore da quando è che mi chiami potter oh molto furbo grugni agrid molto divertente mi hai messo nel sacco eh va bene venite in casa piccoli ingrati borbottando si fece indietro per lasciarli passare ermione sgattaiolò dentro dopo erry spaventata e ron la seguì allora fece agrid imbronciato quando i tre si furono seduti attorno all'enorme tavolo di legno zanna appoggiò subito il muso sul ginocchio di erry e gli sbavò su tutta la divisa cosa c'è siete in pensiero per me pensate che mi sento solo o roba del genere no rispose subito erry volevamo vederti ci sei mancato balbettò ermione vi sono mancato eh sbuffò agrid certo come no col suo passo pesante andò a preparare il tè nell'enorme bollitore di rame borbottando ininterrottamente infine sbatté davanti a loro tre boccali grossi come secchi e traboccanti di tè color mogano insieme a un piatto dei suoi biscotti rocciosi erry era abbastanza affamato perfino per la cucina di agrid e ne prese subito uno agrid esordì ermione titubante mentre lui si sedeva a tavola con loro e cominciava a pelare patate con brutalità come se ogni singolo tubero gli avesse fatto un gran torto personale volevamo davvero continuare con cura delle creature magiche agrid sbuffò ancora con forza erry si disse che un po di muccio doveva essere atterrato sulle patate e fu intimamente grato di non dover rimanere a cena davvero ripete ermione ma non siamo riusciti a farcela stare nei nostri orari sì certo rispose di nuovo agrid si udì uno strano sciaguattare e si guardarono tutti intorno ermione emise uno strillo ron fece un salto sulla sedia e corse intorno al tavolo per allontanarsi da un grosso barile nell'angolo era pieno di vermi lunghi trenta centimetri scivolosi bianchi e brulicanti che cosa sono agrid chiese erry cercando di sembrare interessato invece che disgustato ma posando subito il biscotto marmoreo sono solo bruchi giganti rispose agrid e diventano chiese ron preoccupato non diventano un bel niente ribatte agrid li tengo per darli da mangiare ad aragog e inaspettatamente scoppiò in lacrime agrid urlò ermione balzò in piedi corse dall'altra parte del tavolo per evitare il barile di vermi e gli passò un braccio attorno alle spalle scosse da sussulti che cosa c'è lui singhiosò agrid gli occhi neri colmi di lacrime asciugandosi la faccia col grembiule aragog credo che sta morendo si è ammalato d'estate e non migliora non so cosa faccio se lui se lui stiamo insieme da tanto tempo ermione batte agrid sulla spalla senza trovare nulla da dire erry la capiva aveva visto agrid regalare un orsacchiotto a un feroce cucciolo di drago canticchiare canzoncine a scorpioni giganti armati di ventose e pungiglioni tentare di ragionare con quel brutto gigantesco del suo fratellastro ma quella era forse la più incomprensibile di tutte le sue fantasie mostruose il gigantesco ragno aragog che abitava nel fitto della foresta proibita e al quale lui e ron erano sfuggiti per un soffio quattro anni prima c'è c'è qualcosa che possiamo fare chiese ermione ignorando le frenetiche smorfie e i dinieghi di ron non credo ermione rispose agrid con voce soffocata cercando di bloccare il flusso delle lacrime sai il resto della tribù la famiglia di aragog sono un po strani adesso che ha malato un po nervosi sì conosciamo un po quell'aspetto della loro personalità disse ron sottovoce io non penso che è sicuro per nessuno andarci vicino al momento tranne me concluse agrid soffiandosi forte il naso nel grembiule e alzando lo sguardo ma grazie dell'offerta ermione vuol dire molto per me dopodiché l'atmosfera si alleggerì perché anche se ne erri ne ron avevano mostrato alcun desiderio di portare bruchi giganti a un gargantuesco ragno assassino agrid sembrò dare per certo che avrebbero adorato farlo e ritornò l'amico di sempre sì ho sempre saputo che facevate fatica a ficcarmi nei vostri orari mugugno versando altro tè anche a chiedere delle giratempo non avremmo potuto ribatte ermione abbiamo infranto l'intera riserva di giratempo del ministero quando siamo stati là quest'estate c'era scritto sulla gazzetta del profeta ah beh allora convenne agrid non potevate proprio farcela mi spiace che sono stato insomma è che ero preoccupato per aragog e mi chiedevo se invece se c'era ancora la professoressa grabli plank a insegnarvi al che tutti e tre dichiararono categoricamente in piena falsità che la professoressa grabli plank che aveva sostituito agride per alcune lezioni era un insegnante tremenda al tramonto quando li salutò sulla soglia agrid era piuttosto allegro muoio di fame dichiarò erri dopo che la porta si fu chiusa alle loro spalle e i tre si furono avviati di corsa su per il prato buio e deserto aveva abbandonato il dolcetto roccioso dopo il sinistro scricchiolio di un molare e stasera sono in punizione da piton non ho molto tempo per la cena nel castello videro cormac mclaggan che entrava nella sala grande gli ci vollero due tentativi per oltrepassare la porta al primo sbatté contro lo stipite e rimbalzò indietro ron si limitò a sghignazzare malizioso ed entrò nella sala dopo di lui ma erri afferrò ermione per un braccio e la trattenne cosa c'è fece lei sulla difensiva se vuoi saperlo rispose erri a bassa voce a me pare proprio che mclaggan sia stato confuso ed era esattamente davanti a dove eri seduta tu ermione arrossì oh va bene l'ho fatto sussurrò ma avresti dovuto sentirlo parlare di ron e ginni comunque ha un brutto carattere hai visto come ha reagito quando non è stato ammesso non volevi certo uno così in squadra no convenne erri credo proprio di no ma non è stato disonesto ermione voglio dire tu sei un prefetto no o sta zitto sbottò lei davanti al suo ghigno che cosa state facendo voi due chiese ron insospettito ricomparendo sulla soglia della sala grande niente rispose lo incoro erri e ermione e lo seguirono di corsa il profumo del rosbif inflisse allo stomaco di erri una fitta di fame ma si erano appena avviati verso il tavolo di grifondoro quando il professor lumacorno bloccò loro il passo erri erri proprio te speravo di incontrare tuonò gioviale torcendo le punte dei baffoni da tricheco e spingendo in fuori il pancione mi auguravo di intercettarti prima di cena che ne dici di uno spuntino nelle mie stanze stasera facciamo una festicciola solo un po di stelle nascenti vengono mclagen zabini l'affascinante melinda bobbin non so se la conosci la sua famiglia possiede una grossa catena di botteghe di speciali e naturalmente spero tanto che anche la signorina granger mi onorerà della sua presenza lumacorno si inchinò brevemente a ermione senza nemmeno guardare ron era come se non ci fosse non posso professore rispose subito erri ho una punizione col professor piton o cielo esclamò lumacorno con una smorfia di delusione quasi ridicola cielo cielo contavo proprio su di te erri beh posso dire una parolina a severus e spiegargli la situazione sono sicuro che riuscirò a convincerlo a rimandarla sì a più tardi tutti e due e lasciò in fretta la sala non ha alcuna speranza di convincere piton commentò erri non appena lumacorno fu a debita distanza ha già spostato una volta la punizione per silente non lo farà per nessun altro oh vorrei che potessi venire non voglio andarci da sola si lagnò ermione preoccupata erri sapeva che stava pensando a mclagan dubito che sarai sola probabilmente gini verrà invitata sbottò ron che non aveva affatto gradito di essere stato ignorato dopo cena tornarono nella torre di grifondoro la sala comune era molto affollata perché quasi tutti avevano finito di cenare ma riuscirono a trovare un tavolo libero e si sedettero ron che era di malumore fin dall'incontro con lumacorno incrociò le braccia e fissò accigliato il soffitto ermione prese una copia del profeta della sera che qualcuno aveva abbandonato su una sedia qualcosa di nuovo chiese erri non proprio ermione scorreva le pagine interne o guarda c'è tuo padre ron sta bene aggiunse in fretta perché ron si era voltato in ansia dice solo che è andato a far visita a casa malfoi la seconda perquisizione della residenza del mangiamorte non sembra aver sortito alcun risultato arthur weasley dell'ufficio intercettazione confisca di incantesimi difensivi e oggetti protettivi contraffatti ha dichiarato che la sua squadra è intervenuta in seguito a una soffiata certo la mia dichiarò erri a king's cross gli ho detto di malfoi e della cosa che stava cercando di far riparare a borgin beh se non è a casa loro qualunque cosa sia deve averla portata con sé a hogwarts ma come può aver fatto erri chiese ermione sorpresa posando il giornale siamo stati tutti perquisiti al nostro arrivo no davvero chiese erri preso alla sprovvista io no oh no certo me l'ho dimenticata che eri in ritardo beh filce ci ha frugati tutti con dei sensori segreti quando siamo arrivati nella sala d'ingresso qualunque oggetto oscuro sarebbe stato trovato so per certo che a crebbe è stata confiscata una testa essiccata quindi vedi malfoi non può aver portato niente di pericoloso momentaneamente spiazzato erri guardò per un po gini weasley che giocava con arnold la puffola pigmea prima di trovare una risposta qualcuno gliela ha mandato via gufo allora suggerì sua madre o qualcun altro anche tutti i gufi vengono controllati replicò ermione ce l'ha detto filce quando ci ficcava quei sensori segreti ovunque riuscisse ad arrivare stavolta erri non trovò nient'altro da dire non sembrava che malfoi avesse potuto in alcun modo portare un oggetto oscuro pericoloso dentro la scuola guardò speranzoso ron che fissava con le braccia concerte lavanda brown riesce a pensare a un altro modo in cui malfoi o pianta la erri tagliò corto lui senti non è colpa mia se l'umacorno ha invitato me ermione alla sua stupida festa nessuno dei due ci voleva andare lo sai sbottò erri scaldandosi beh visto che non mi invitano alle feste concluse ron alzandosi credo che andrò a letto marciò verso la porta del dormitorio dei maschi lasciando erri e ermione a fissarlo erri la nuova cacciatrice demelsa robbins era apparsa all'improvviso accanto a lui ho un messaggio per te dal professor lumacorno chiese erri rizzandosi a sedere speranzoso no dal professor piton rispose demelsa il cuore di erri sprofondò dice che deve andare nel suo ufficio alle otto e mezzo per la punizione non importa quanti inviti mondani tu possa aver ricevuto e voleva che sapessi che dovrai separare i vermicoli marci da quelli buoni da usare a pozioni e e dice che non c'è bisogno che porti i guanti protettivi fa bene rispose erri cupo grazie mille demelsa argento e opali dove era silente e che cosa faceva erri vide il preside solo due volte nelle settimane seguenti compariva di rado ai pasti e sembrava che ermione avesse ragione a pensare che silente si assentasse dalla scuola per alcuni giorni di fila si era forse dimenticato delle lezioni con erri aveva detto che le lezioni avevano a che fare con la profezia erri si era sentito sostenuto confortato e ora si sentiva un po abbandonato a metà ottobre ci fu la prima gita a hogsmeade erri fu lieto di scoprire che nonostante le misure di sicurezza sempre più rigide quelle escursioni fossero ancora permesse era piacevole uscire dai confini del castello per qualche ora la mattina della gita che si annunciava tempestosa si svegliò presto e aspettò l'ora della colazione leggendo pozioni avanzate di solito non leggeva libri di scuola a letto come diceva giustamente ron quello era un comportamento vergognoso per chiunque tranne per ermione che era solo un po stramba tuttavia erri aveva la sensazione che il volume appartenuto al principe mezzosangue non si potesse proprio definire un libro di testo più tempo passava sul libro più comprendeva che non vi erano contenuti solo i suggerimenti e gli espedienti che gli stavano valendo una brillante reputazione con l'umacorno ma anche fatture e piccoli incanti ingegnosi scarabocchiati ai margini e a giudicare dalle cancellature e dalle revisioni inventati dal principe stesso erri ne aveva già sperimentati alcuni c'era una fattura che faceva crescere le unghie dei piedi a una velocità incredibile l'aveva provata su goil in corridoio con risultati esilaranti un incantesimo che incollava la lingua al palato l'aveva inflitto due volte tra gli applausi generali a un ignaro argus filch e forse il più utile di tutti il muffliato un comando che riempiva le orecchie degli altri di un ronzio indistinto così da poter comodamente chiacchierare in classe senza essere ascoltati l'unica non trovarci niente di buffo era ermione che manteneva un'espressione di rigido disappunto e si rifiutava di proferir parola se erri usava il muffliato erri girò il libro per esaminare più da vicino le istruzioni di un incantesimo che sembrava aver messo il principe a dura prova c'erano molte cancellature e modifiche ma infine rannicchiata in un angolo della pagina ecco la scritta levi corpus tra parentesi nvbl nel rumore del vento e della pioggia ghiacciata che battevano instancabili sulle finestre e di nevil che russava forte erri fissò le lettere fra parentesi nvbl doveva significare non verbale erri dubitava di poterlo eseguire aveva ancora qualche difficoltà con gli incantesimi non verbali cosa che piton non aveva mancato di commentare a ogni lezione d'altra parte il principe fino a quel momento si era dimostrato un insegnante molto più utile di piton erri puntò la bacchetta nel vuoto la fece scattare all'insù e disse tra sé levi corpus un lampo di luce e la stanza si riempì di voci l'urlo di ron aveva svegliato tutti in preda al panico erri getto via pozioni avanzate ron era appeso a mezz'aria a testa in giù come se un gancio invisibile l'avesse issato per la caviglia scusa strillò erri mentre din e simus si schiantavano dal ridere e nevil caduto dal letto si rialzava aspetta ti faccio scendere cercò attentoni il libro e lo sfogliò atterrito per trovare la pagina giusta quando infine la riconobbe decifrò una parola minuscola sotto la formula e pregando che fosse la controfattura pensò libera corpus con tutte le sue forze un altro lampo di luce e ron ricadde sul materasso come un sacco di patate scusa ripete erri debolmente mentre din e simus continuavano a squassarsi dal ridere domani mugolò ron preferirei che mettessi la sveglia quando si furono vestiti bene imbacuccati nei golf fatti a maglia dalla signora weasley ed ebbero preso mantelli sciarpe e guanti ron aveva superato lo spavento e deciso che il nuovo incantesimo di erri era molto divertente al punto che si precipitò a raccontarlo a ermione quando si sedettero nella sala grande e poi c'è stato un altro lampo e sono atterrato sul letto concluse con un gran sorriso servendosi le salsicce ermione serissima e gelida si rivolse a erri per caso era un'altra formula del tuo libro di pozioni chiese erri la guardò accigliato salti sempre alle conclusioni peggiori vero lo era beh sì e allora allora hai deciso di provare un incantesimo sconosciuto e scritto a mano per vedere che cosa succedeva che cosa importa se era scritto a mano domandò erri scegliendo di non rispondere al resto della domanda probabilmente non è approvato dal ministero della magia rispose ermione e in più aggiunse mentre erri e ron alzavano gli occhi al cielo sto cominciando a pensare che questo principe sia davvero sospetto sia erri che ron la zittirono subito è stata una cosa da ridere esclamò ron vuotando una bottiglia di ketchup sulle sue salsicce da ridere ermione tutto qui appendere la gente a testa in giù per la caviglia ribatte ermione chi spreca tempo ed energia a inventare incantesimi del genere fred e george rispose ron con un'alzata di spalle è il loro genere e mio padre disse erri gli era venuto in mente solo in quel momento che cosa chiesero insieme ron e ermione mio padre usava questo incantesimo spiegò erri io me l'ha raccontato lupin era vero solo in parte in effetti erri aveva visto suo padre usare la fattura contro piton ma non aveva mai raccontato a ron e ermione di quella particolare visione nel pensatoio ora tuttavia una meravigliosa ipotesi mi attraversò la mente possibile che il principe mezzo sangue fosse forse l'ha usato tuo padre erri disse ermione ma non è il solo abbiamo visto un sacco di gente usarlo nel caso te lo sia dimenticato appendere la gente per aria farla galleggiare addormentata in difesa erri la fissò si sentì sprofondare ricordando l'aggressione dei mangiamorte alla coppa del mondo di quidditch ron venne in suo aiuto era diverso asserì con vigore loro ne abusavano erri e suo padre si sono solo fatti due risate a te non piace il principe ermione aggiunse puntandole contro una salsiccia perché è più bravo di te in pozioni non c'entra niente esclamò ermione arrossendo penso solo che sia dai responsabili eseguire incantesimi quando non si sa nemmeno a cosa servono e smettila di parlare del principe come se fosse il suo titolo scommetto che è solo uno stupido soprannome e poi non mi pare che fosse proprio un simpaticone e tu che ne sai scusa ribatte erri accalorandosi se fosse stato un mangiamorte in erba non si sarebbe vantato di essere un mezzo sangue no già nel dirlo erri venne in mente che suo padre era un puro sangue ma allontanò il pensiero se ne sarebbe preoccupato più tardi i mangiamorte non possono essere tutti puro sangue non ne sono rimasti abbastanza insistette ermione per la maggior parte saranno mezzo sangue che si fanno passare per puri sono solo i babbani di nascita che detestano sarebbero felici di permettere a te a ron di unirvi a loro non mi permetterebbero mai di diventare un mangiamorte esclamò ron indignato e un pezzetto di salsiccia volò via dalla forchetta che brandiva contro ermione atterrando sulla testa di ernie mcmillen tutti quelli della mia famiglia sono traditori del proprio sangue per i mangiamorte è orrendo quanto essere nati babbani sarebbero lieti di accettarmi nel club come no ribatte erri sarcastico saremmo amiconi se non continuassero a cercare di uccidermi questo fece ridere ron anche ermione si apria malincuore in un sorriso e finalmente arrivò una distrazione nella persona di ginni ehi erri devo darti questo era un rotolo di pergamena col nome di erri scritto nella familiare grafia sottile e obliqua grazie ginni è la prossima lezione di silente disse erri a ron e ermione srotolando la pergamena e leggendone rapido il contenuto lunedì sera all'improvviso si sentì leggero e felice vuoi venire con noi a hogsmeade ginni le chiese ci vado con dean magari ci vediamo là rispose lei li salutò con la mano e se ne andò filch era di guardia vicino al portone di quercia come al solito a spuntare i nomi dei ragazzi che avevano il permesso di andare a hogsmeade il procedimento richiese più tempo del solito perché filch controllava tutti tre volte con il suo sensore segreto che cosa importa se portiamo fuori di nascosto della roba oscura chiese ron osservando con una certa ansia il lungo sottile sensore segreto non dovrebbe controllare quello che riportiamo dentro la sua sfacciataggine gli guadagnò qualche stoccata in più col sensore e stava ancora tremando quando uscirono nel vento sotto la pioggia gelata la passeggiata verso hogsmeade non fu piacevole harry si avvolse la sciarpa sulla bocca la parte esposta del viso divenne presto dolorante insensibile la strada per il villaggio era piena di studenti piegati in due contro il vento aspro più di una volta harry si chiese se non sarebbero stati meglio nel tepore della sala comune e quando finalmente raggiunsero hogsmeade e scoprirono che l'emporio degli scherzi di zonco era stato sbarrato con delle assi harry la prese come una conferma che la gita non era destinata al successo ron indicò mielandia con la mano coperta da un grosso guanto per fortuna era aperta così harry e ermione barcollarono dietro di lui nel negozio affollato grazie al cielo ansimò ron tremante appena furono avvolti dall'aria calda e profumata di caramello restiamo qui tutto il pomeriggio harry ragazzo mio tuonò una voce alle loro spalle oh no borbottò harry si voltarono tutti e tre verso il professor lumacorno indossava un cappotto con il collo di pelliccia un enorme berretto della stessa pelliccia reggeva un grosso sacchetto di anana scandito e occupava almeno un quarto del negozio harry ti sei già perso tre delle mie cenette esclamò dandogli una pacca gioviale sul petto non va bene ragazzo mio sono deciso ad averti la signorina granger le adora vero sì rispose ermione impotente sono davvero allora perché non vieni erri chiese lumacorno beh ho avuto gli allenamenti di quidditch professore si scusò erri che in verità programmava gli allenamenti ogni volta che lumacorno gli mandava il piccolo invito adorno di nastro violetto in questo modo ron non veniva escluso e lui e ginni si facevano quattro risate pensando a ermione intrappolata con mclagen e sabini beh dopo tutto questo impegno mi aspetto che tu vinca la prima partita esclamò lumacorno ma un po di distrazione non uccide nessuno allora lunedì sera non vorrai allenarti con questo tempo lunedì non posso professore o un appuntamento con il professor silente di nuovo sfortunato gridò lumacorno in tono teatrale ah beh non puoi sfuggirmi per sempre erri e agitando la mano con fare regale caracollò fuori dal negozio dedicando a ron la stessa attenzione che avrebbe riservato a un espositore di scarafaggi a grappolo non posso credere che tu sia riuscito a evitarne un altro si lamentò ermione scuotendo la testa non sono poi così male sai qualche volta sono anche divertenti ma poi vide la faccia di ron o guardate hanno le penne d'oca di zucchero deluxe dureranno ore lieto che ermione avesse cambiato argomento erri mostrò un interesse assai maggiore di quanto avrebbe fatto normalmente per le nuove grandi penne d'oca di zucchero ma ron fu intrattabile e si limitò ad alzare le spalle quando ermione gli chiese dove voleva andare andiamo ai tre manici di scopa propose erri la farà caldo si rimboccarono di nuovo le sciarpe sulle facce e uscirono dal negozio di dolci il vento era tagliente come un coltello affilato dopo il calore zuccherino di mielandia la strada non era molto affollata nessuno si fermava a chiacchierare tutti correvano verso le loro destinazioni facevano eccezione due individui un po più avanti fuori dai tre manici di scopa uno era molto alto e magro attraverso le lenti coperte di pioggia erri riconobbe il barista che lavorava nell'altro pub di hogsmeade la testa di porco quando i ragazzi si avvicinarono il barista avvolse più stretto il mantello attorno al collo e se ne andò lasciando l'uomo più basso ad armeggiare con qualcosa che teneva in braccio erano a pochi metri da lui quando erri lo riconobbe mandangus il tarchiato mago dalle gambe storte e dai lunghi disordinati capelli rossicci sobbalzò e lasciò cadere una vecchia valigia che si spalancò rovesciando quello che sembrava l'intera vetrina di un negozio di cianfrusaglie oh ciao erri disse mandangus fletcher con una disinvoltura assai poco convincente beh non voglio trattenerti e cominciò a rovistare per terra per recuperare gli oggetti sparsi con l'aria di che ha fretta di sparire vendi questa roba gli chiese erri guardandolo afferrare un assortimento di cose dall'aria sudicia oh beh devo pur guadagnarmi da vivere rispose mandangus dammelo ron si era chinato a raccogliere un calice d'argento aspetta disse lentamente questo ha un'aria familiare grazie esclamò mandangus strappandoglielo di mano e ficcando lo nella valigia beh ci vediamo aia erri aveva afferrato mandangus per la gola e l'aveva spinto con forza contro il muro lo tenne stretto con una mano ed estrasse la bacchetta erri squitti ermione l'hai rubato da casa di sirius disse erri talmente vicino all'altro da sentirne lo sgradevole odore di alcol e tabacco vecchio allo stemma dei black io no cosa balbettò mandangus che a poco a poco stava diventando viola che cosa hai fatto ci sei tornato la notte che è morto e hai saccheggiato la casa ringhiò erri io non dammelo erri no strillò ermione mentre mandangus cominciava a diventare blu si udì un gran colpo e erri sentì la propria mano volar via dalla gola di mandangus sputacchiando e rantolando l'altro afferrò la valigia caduta a terra e poi crack si smaterializzò erri imprecò a piena voce voltandosi di scatto torna qui brutto ladro è inutile erri tonks era comparsa dal nulla i capelli color topo umidi di nevischio ormai probabilmente mandangus sarà a londra non serve urlare ha rubato le cose di sirius le ha rubate sì però osservò tonks che non sembrava affatto turbata dalla notizia non dovresti stare così al freddo e aspettò che entrassero ai tre manici di scopa quando fu dentro erri esplose ha rubato le cose di sirius lo so erri ma per favore non gridare ci stanno guardando sussurrò ermione vai a sederti ti porto qualcosa da bere erri era ancora fumante di rabbia quando ermione tornò al loro tavolo con tre bottiglie di burro birra l'ordine non può controllare mandangus chiese erri agli altri due in un sussurro furioso non possono almeno impedirgli di portar via tutto ciò che non è inchiodato alle pareti quando è al quartier generale intimò ermione angosciata guardandosi intorno per assicurarsi che nessuno ascoltasse c'erano un paio di stregoni che fissavano erri con enorme interesse e sabini stava appoggiato a una colonna lì vicino erri anch'io sarei arrabbiata lo so che sta rubando le tue cose a erri andò di traverso la burro birra si era dimenticato di essere il proprietario del numero 12 di grimmall place già è roba mia esclamò ci credo che non era contento di vedermi beh racconterò assilente che cosa sta succedendo lui è l'unico che riesca a spaventare mandangus buona idea sussurrò ermione contenta che erri si stesse calmando ron che cosa guardi niente rispose ron distogliendo subito gli occhi dal bancone ma erri sapeva che stava cercando di attirare l'attenzione della sinuosa attraente barista madame rosmerta per la quale aveva un debole da tempo immagino che il tuo niente sia nel retro a prendere dell'altro whisky incendiario osservò ermione stizzita ron ignorò l'allusione e sorseggiò la propria bibita in quello che chiaramente riteneva un dignitoso silenzio erri stava pensando a sirius a quanto comunque aveva odiato quel calice d'argento ermione tamburellava con le dita sul tavolo lo sguardo che sfrecciava tra ron e il bancone non appena erri ebbe bevuto l'ultimo sorso lei propose la facciamo finita e torniamo a scuola allora gli altri due annuirono la gita era stata un fiasco e il tempo peggiorava si avvolsero di nuovo nei mantelli risistemarono le sciarpe si infilarono i guanti poi seguirono katie bell e un'amica fuori dal pub e su per high street sulla strada verso hogwarts arrancando nella fanghiglia gelata erri lasciò vagare i propri pensieri su ginni non si erano incontrati sicuramente lei e dean erano rinchiusi al calduccio della sala da tè di madame paddy food il rifugio delle coppie felici accigliato chinò il capo contro la gerida pioggia vorticante trascinando i piedi ci volle un po prima che si accorgesse che le voci di katie belle della sua amica che il vento gli riportava indietro erano diventate più alte e acute erri cercò di scrutare le loro sagome indistinte le due ragazze litigavano per qualcosa che katie teneva in mano non sono affari tuoi li en sentì erri svoltarono in un viottolo mentre il nevischio diventava più denso e fitto offuscando le lenti di erri ma mentre lui alzava una mano guantata per ripulirli li en fece per afferrare il pacchetto di katie che lo strinse a sé con uno strattone il pacchetto cadde a terra all'improvviso katie si levò a mezz'aria non come ron sospeso in modo ridicolo per la caviglia ma con grazia le braccia aperte come se stesse per volare eppure c'era qualcosa di sbagliato qualcosa di inquietante i capelli le vorticavano attorno al viso frustati dal vento forte ma i suoi occhi erano chiusi e il volto era privo di espressione erri ronne ermione e li en si erano bloccati poi a quasi due metri dal suolo katie emise un urlo terribile i suoi occhi si spalancarono ma qualunque cosa vedesse o provasse era evidente che le procurava un dolore tremendo urlò e urlò anche li en cominciò a urlare e afferrò katie per le caviglie cercando di trascinarla a terra erri ronne ermione corsero avanti per aiutarla ma proprio mentre la prendevano per le gambe katie precipitò su di loro erri e ron riuscirono a sorreggerla ma si contorceva tanto che non potevano trattenerla così la calarono a terra dove si agitò urlando senza riconoscerli erri si guardò intorno non c'era nessuno restate qui urlò agli altri superando l'ululato del vento vado a cercare aiuto fece percorrere verso la scuola non aveva mai visto nessuno in quello stato e non riusciva a capirne la causa si lanciò oltre una curva nel viottolo e urtò contro quello che sembrava un enorme orso ritto sulle zampe posteriori agrid esclamò senza fiato districandosi dalla siepe in cui era caduto erri esclamò agrid che aveva il nevischio impigliato nelle sopracciglia e nella barba e indossava l'enorme irsuta pelliccia di castoro sono andato a trovare gropp cresce così bene che non ci si agrid c'è una ragazza che si è fatta male laggiù o che è stata stregata o qualcosa cosa domandò agrid chinandosi di più per sentire erri sopra l'ululato del vento qualcuno è stato stregato urlò erri stregato chi è stato stregato ron ermione no nessuno di loro è katy bell da questa parte corsero insieme lungo il viottolo in un attimo trovarono il gruppetto intorno a katy che continuava a contorcersi e urlare ron ermione e lienne cercavano di calmarla state indietro gridò agrid fatemela vedere le è successo qualcosa singhiozzò lienne non so che cosa agrid fissò katy per un attimo poi senza una parola si chinò la prese fra le braccia e cominciò a correre verso il castello poco dopo le urla penetranti di katy erano svanite e il solo rumore rimasto era il rugito del vento ermione andò dall'amica di katy che piangeva a dirotto e le passò un braccio attorno alle spalle sei lienne vero la ragazza annui è successo all'improvviso è successo quando si è strappato quello raccontò lienne sempre singhiozzando e indicò il pacchetto che giaceva al suolo la carta marrone ormai inzuppata che lo avvolgeva si era squarciata rivelando un lucore verdastro ron si chinò con la mano tesa ma herry gliela bloccò e lo tirò indietro non toccarlo si accovacciò dalla carta spuntava un'elaborata collana di opali io l'ho già vista disse herry fissandola era esposta da bourgin and burke secoli fa il cartellino diceva che era maledetta katy deve averla toccata al solo sguardo su lienne che tremava in maniera incontrollabile come ha fatto katy ad averla è per questo che stavamo litigando aveva il pacchetto quando è uscita dal bagno dei tre manici di scopa ha detto che era una sorpresa per qualcuno a hogwarts e lei doveva consegnarlo era tutta strana mentre lo diceva oh no oh no scommetto che era sotto la maledizione imperius e io non me ne sono accorta lienne fu scossa da nuovi singhiozzi ermione le batte dolcemente su una spalla non ha detto che gliela aveva dato lienne no non voleva e io le ho detto che era una stupida e di non portarlo a scuola ma lei non ascoltava e poi ho cercato di prenderglielo e lienne gemette è meglio che torniamo a scuola suggerì ermione sempre abbracciando lienne così sapremo come sta andiamo harry esitò per un attimo poi si sfilò la sciarpa e ignorando il rantolo terrorizzato di ron ricoprì con cautela la collana e la raccolse dobbiamo mostrarla madame pomfrey disse harry mentre seguiva ermione e lienne su per la strada harry rifletteva intensamente appena misero piede nel parco del castello non riuscì più a trattenersi e proruppe malfoy sa della collana era in una teca di borgin e burke quattro anni fa l'ho visto che la guardava quando mi nascondevo da lui e da suo padre è questa la cosa che stava comprando il giorno che l'abbiamo seguito se l'è ricordata ed è tornato a comprarla non non so erri fece ronne esitante un sacco di gente va da borgin e burke e la ragazza non ha detto che katy l'ha presa nel bagno delle donne ha detto che quando è tornata dal bagno l'aveva con sé non è detto che l'abbia trovata proprio nel bagno la mcgonagall lo avvertì ron harry al solo sguardo la professoressa mcgonagall stava in effetti correndo verso di loro giù dai gradini di pietra nel nevischio vorticante agrid dice che voi quattro avete visto che cosa è successo a katy bell subito nel mio ufficio per favore che cosa hai in mano potter è la cosa che ha toccato rispose erri santo cielo esclamò la professoressa mcgonagall allarmata e prese la collana dalle mani di erri no no filch sono con me aggiunse in fretta mentre filch si avvicinava zelante dalla sala d'ingresso brandendo il suo sensore segreto porti subito questa collana al professor piton ma stia attento a non toccarla la tenga avvolta nella sciarpa erri e gli altri seguirono la professoressa mcgonagall di sopra nel suo ufficio le finestre schizzate di nevischio tremavano negli infissi e la stanza era gelida nonostante il fuoco scoppiettasse nel camino la professoressa mcgonagall chiuse la porta e andò alla scrivania per fronteggiare erri ron ermione e lienne che stava ancora singhiozzando allora chiese bruscamente che cosa è successo esitando e interrompendosi spesso nel tentativo di controllare il pianto lienne raccontò alla professoressa mcgonagall che katie era andata in bagno ai tre manici di scopa ed era tornata con quel pacchetto anonimo era sembrata un po strana e poi avevano litigato sul fatto di accettare o no oggetti ignoti e la discussione era culminata nella zuffa per il pacchetto che si era strappato e si era aperto a quel punto lienne fu così sopraffatta che non ci fu verso di cavarle altro d'accordo la consolò la professoressa mcgonagall con una certa dolcezza ora sali in infermeria lienne e fatti dare da madame pomfrey qualcosa per calmarti quando fu uscita la professoressa mcgonagall si rivolse a erri ron e ermione che cosa è successo quando katie ha toccato la collana si è alzata in aria rispose erri prima che ron e ermione potessero parlare e poi ha cominciato a urlare ed è precipitata professoressa posso vedere il professor silente per favore il preside è via fino a lunedì potter disse la professoressa mcgonagall sorpresa via ripete erri con rabbia sì potter via sbottò la professoressa mcgonagall brusca ma qualunque cosa tu abbia da dire su questa terribile faccenda sono sicura che puoi dirla anche a me per un istante erri esitò la professoressa mcgonagall non invitava alle confidenze silente benché più intimidatorio per molti versi sembrava invece meno incline a farsi beffe di una teoria per quanto assurda era questione di vita o di morte però e non era proprio il momento di preoccuparsi di venire deriso credo che draco malfoy abbia dato a che ti quella collana professoressa al suo fianco ron si stropicciò il naso con palese imbarazzo dall'altro lato ermione strofinò i piedi a terra come se volesse mettere una certa distanza fra sé erri questa è un'accusa molto seria potter osservò la professoressa mcgonagall dopo una pausa scandalizzata hai qualche prova no rispose erri ma e le raccontò di quando aveva seguito malfoy fino da borgin and burke e della conversazione che aveva origliato quando ebbe finito di parlare la professoressa mcgonagall era un po confusa malfoy ha portato qualcosa da riparare da borgin and burke no professoressa voleva solo che borgin gli dicesse come aggiustare una cosa non l'aveva con sé ma non è questo il punto il fatto è che ha comprato qualcosa nella stessa occasione e io credo che fosse quella collana hai visto malfoy uscire dal negozio con un pacchetto simile no professoressa ha detto a borgin di tenergliela da parte ma erri lo interruppe ermione borgin gli ha chiesto se voleva portarla con sé e malfoy ha detto di no perché non voleva toccarla è chiaro ribatte erri furioso veramente ha detto non posso portarlo così per strada rimarcò ermione beh sarebbe sembrato un idiota a portare una collana intervenne ron o ron sospirò ermione esasperata sarebbe stata tutta impacchettata per non toccarla e quindi piuttosto facile da nascondere sotto un mantello nessuno l'avrebbe vista secondo me qualunque cosa si sia fatto mettere da parte malfoy deve essere rumorosa o voluminosa qualcosa che sapeva avrebbe attirato l'attenzione e comunque continuò a voce alta prima che erri riuscisse a interromperla io ho chiesto a borgin della collana non vi ricordate quando sono entrata per cercare di scoprire che cosa gli aveva chiesto malfoy l'ho vista e borgin mi ha detto il prezzo non ha detto che era già venduta beh sei stata così prevedibile che ha capito le tue intenzioni in cinque secondi è chiaro che non te l'avrebbe detto comunque malfoy avrebbe potuto mandare qualcuno a prenderla da allora basta così l'interruppe la professoressa mcgonagall mentre ermione apriva la bocca per ribattere furente potter apprezzo che tu mi abbia detto questo ma non possiamo accusare il signor malfoy solo perché ha fatto visita al negozio in cui questa collana potrebbe essere stata comprata lo stesso vale probabilmente per centinaia di persone è quello che ho detto io borbottò ron e comunque abbiamo messo in atto strettissime misure di sicurezza quest'anno non credo che quella collana avrebbe potuto entrare a scuola a nostra insaputa ma e soprattutto concluse la professoressa mcgonagall in tono terribilmente definitivo il signor malfoy oggi non era a hogsmead harry la guardò a bocca aperta come sgonfiandosi come fa a saperlo professoressa perché era in punizione con me non ha finito i compiti di trasfigurazione per due volte di fila quindi grazie per avermi rivelato i tuoi sospetti potter proseguì ma adesso devo andare in infermeria per vedere come sta katie bell buona giornata a tutti tenne aperta la porta del suo ufficio non ebbero scelta sfilarono davanti a lei senza aggiungere parola harry era arrabbiato con gli altri due perché si erano schierati con la mcgonagall tuttavia non poté non intervenire quando cominciarono a parlare dell'accaduto allora chi pensate che katie dovesse dare la collana chiese ron mentre salivano le scale verso la sala comune chi lo sa disse ermione ma chiunque fosse se l'è cavata per un pelo nessuno avrebbe potuto aprire quel pacchetto senza toccare la collana poteva essere destinata a un sacco di gente osservò harry a silente i mangiamorte sarebbero lieti di liberarsi di lui deve essere uno dei loro bersagli preferiti o allumacorno silente sostiene che voldemort lo voleva davvero dalla sua e non possono essere contenti che stia dalla parte opposta oppure oppure a te concluse ermione turbata impossibile rispose harry se no katie si sarebbe voltata e me l'avrebbe data no sono sempre stato dietro di lei da quando siamo usciti dai tre manici di scopa sarebbe stato molto più sensato consegnare il pacchetto fuori da hogwarts visto che filce perquisisce tutti quelli che entrano ed escono chissà perché malfoy le ha detto di portarlo dentro il castello harry malfoy non era hogsby esclamò ermione pestando un piede per la frustrazione avrà usato un complice insistete harry creb o goyle oppure adesso che ci penso un altro mangiamorte avrà un mucchio di compari migliori di crebbe goyle ora che si è unito ron e ermione si scambiarono sguardi che dicevano chiaramente non serve a niente discutere con lui zuppa di prugne declamò ermione quando raggiunsero la signora grassa il ritratto si aprì per farli passare la sala comune era piuttosto affollata e odorava di vestiti umidi a quel che pareva molti ragazzi erano tornati presto a hogwarts per via del maltempo non c'erano brusii spaventati o scambi di congetture tuttavia evidentemente la notizia della sorte di katy non si era ancora diffusa non è stato un attacco molto astuto a pensarci bene osservò ron scaraventando via con aria non curante un piccolo del primo anno da una delle poltrone buone vicino al fuoco e prendendone il posto la maledizione non è nemmeno entrata nel castello non è quello che si dice un piano infallibile hai ragione convenne ermione spingendo via ron dalla poltrona con un calcetto e offrendola di nuovo al piccolo del primo anno non è stato affatto ben congegnato ma da quando malfoi è uno dei grandi pensatori mondiali chiese erri né ron né ermione gli risposero il riddol segreto il giorno dopo katy fu trasferita all'ospedale san mungo per malattie e ferite magiche nel frattempo la notizia che era stata colpita da una maledizione si era sparsa in tutta la scuola anche se i particolari erano incerti e nessuno a parte erri ron né ermione sembrava sapere che non era lei la vittima designata o e naturalmente lo sa anche malfoi disse erri agli altri due che avevano deciso di far finta di essere sordi tutte le volte che lui tirava fuori la teoria malfoi è un mangiamorte erri si era chiesto se silente sarebbe tornato in tempo per la lezione di lunedì sera non avendo avuto contrordini si presentò fuori dal suo ufficio alle otto in punto bussò e fu invitato a entrare il preside sedeva al proprio posto insolitamente stanco aveva la mano nera e bruciata come sempre ma sorrise e gli fece segno di accomodarsi il pensatoio era di nuovo sulla scrivania e gettava scintille di luce argentata sul soffitto hai passato giorni intensi mentre io ero via esordì mi risulta che tu abbia assistito all'incidente di catty sì signore come sta ancora molto male anche se è stata abbastanza fortunata pare che abbia sfiorato la collana con una piccolissima zona di epidermide aveva un buchetto nel guanto se l'avesse indossata se anche solo l'avesse presa a mani nude sarebbe morta forse all'istante per fortuna il professor piton è riuscito a evitare la rapida diffusione della maledizione perché lui chiese subito harry perché non madame pomfrey impertinente intervenne una voce flebile da uno dei ritratti sulla parete fineas nigellus black il bis bis nonno di sirius che un attimo prima sembrava addormentato al sola testa che teneva appoggiata alle braccia ai miei tempi io non avrei permesso a uno studente di mettere in discussione le regole di hogwarts sì grazie fineas rispose silente in tono conciliante il professor piton è molto più esperto delle arti oscure di madame pomfrey harry comunque il personale del san mungo mi manda un bollettino ogni ora e spero che col tempo catty si riprenderà del tutto dove è stato questo fine settimana signore chiese ancora harry respingendo la netta sensazione di esagerare anche fineas nigellus doveva pensarla allo stesso modo perché si bilò piano preferirei non dirlo adesso ribatte silente ma lo farò a tempo debito davvero disse harry stupito sì suppongo di sì silente trasse dall'interno della veste una nuova bottiglia di ricordi d'argento e la stappò con un colpo di bacchetta signore cominciò harry esitante ho incontrato mandangus a hogsmeet ah sì so che mandangus sta trattando la tua eredità con fraudolenta mancanza di rispetto commentò silente aggrottando la fronte da quando l'ha incontrato fuori dai tre manici di scopa si è dato alla macchia sospetto che abbia paura di affrontarmi ma sta sicuro che non farà più sparire nessuno degli oggetti di sirius quel vecchio mezzosangue rognoso ruba i cimeli di famiglia dei black esclamò fineas nigellus irritato e sparì dalla cornice indubbiamente per far visita al proprio ritratto al numero 12 di grimmall place professore proseguì harry dopo una breve pausa la professoressa mcgonagall le ha detto quello che le ho raccontato dopo che katie è stata ferita su draco malfoy mi ha riferito i tuoi sospetti sì e lei prenderò tutti i provvedimenti necessari per indagare su chiunque abbia potuto aver parte nell'incidente di katie garantì silente ma quello che mi sta a cuore adesso harry è la nostra lezione il ragazzo era un po seccato se le loro lezioni erano tanto importanti perché tra la prima e la seconda c'era stato un intervallo così lungo però non aggiunse altro su draco malfoy ma guardò silente versare i ricordi freschi nel pensatoio e far roteare ancora una volta il bacile di pietra ricorderai ne sono certo che abbiamo lasciato il racconto degli esordi di lord voldemort al punto in cui quell'attraente babbano tom riddle aveva abbandonato la moglie strega merop ed era tornato alla dimora di famiglia a little angleton merop rimase sola a londra aspettava il bambino che un giorno sarebbe diventato lord voldemort come fa a sapere che era a londra signore per via delle prove fornite da un certo caractacus burke rispose silente che per una strana coincidenza era socio di borgin nel negozio dal quale proviene la collana di cui abbiamo appena discusso fece roteare il contenuto del pensatoio come eri l'aveva visto fare in passato come un cercatore d'oro setaccia la sabbia in cerca di pepite dalla vorticante massa argentea spuntò un vecchietto che girava piano o palescente come un fantasma ma molto più solido con un ciuffo di capelli che gli copriva del tutto gli occhi sì ne siamo entrati in possesso in circostanze curiose ci fu portato da una giovane strega appena prima di natale ormai sono passati tanti anni disse che aveva un disperato bisogno di denaro beh era evidente era coperta di stracci e parecchio avanti con aspettava un bambino insomma disse che il medaglione era appartenuto a serpeverde beh sentiamo di continuo storie del genere o questa era di merlino sul serio la sua teiera preferita ma quando lo guardai vidi che portava veramente il suo blasone e bastarono pochi semplici incantesimi a rivelarmi la verità naturalmente questo lo rendeva senza prezzo lei non sembrava avere la minima idea di quanto valesse fu felice di prendere dieci galeoni l'affare migliore che abbiamo mai fatto silente scosse con forza il pensatoio e caractacus burke calò di nuovo nel vortice di ricordi da cui era affiorato solo dieci galeoni ripete erri indignato caractacus burke non era celebre per la sua generosità osservò silente così ora sappiamo che verso la fine della sua gravidanza merop era sola a londra con un disperato bisogno di denaro così disperato da vendere la sola cosa preziosa che possedeva uno degli amati cimeli di famiglia di marvolo ma poteva fare un incantesimo sbottò erri impaziente avrebbe potuto procurarsi cibo e tutto ciò che le serviva con la magia no fece silente forse sì però credo e ancora una volta azzardo un'ipotesi ma sono sicuro di avere ragione che quando suo marito la abbandonò merop abbia cessato di usare la magia credo che non volesse più essere una strega è anche possibile che la sofferenza per l'amore non corrisposto l'abbia privata dei suoi poteri può succedere in ogni caso come stai per vedere merop rifiutò di alzare la bacchetta anche per salvarsi la vita non ha voluto restare in vita nemmeno per suo figlio silente levò le sopracciglia possibile che provi compassione per lord voldemort no rispose erri immediatamente ma lei poteva scegliere no non come mia madre anche tua madre ha potuto scegliere lo corresse silente con dolcezza si merop riddle scelse la morte nonostante un figlio che aveva bisogno di lei ma non essere troppo severo nel giudicarla erri era profondamente debilitata da una lunga sofferenza e non aveva mai posseduto il coraggio di tua madre e ora se vuoi alzarti dove andiamo chiese erri mentre silente lo raggiungeva davanti alla scrivania questa volta entreremo nella mia memoria credo che la troverai particolareggiata ed esauriente dopo di te erri erri si chinò sul pensatoio il suo viso infranse la fresca superficie della memoria e lui precipitò di nuovo nel buio qualche secondo più tardi i suoi piedi toccarono terra aprì gli occhi e scoprì che lui e silente si trovavano in una vecchia e animata strada di londra eccomi annunciò silente allegro indicando un'alta figura poco distante che attraversava la strada davanti a un carro del latte trainato da cavalli i lunghi capelli e la barba di quel giovane albus silente erano rossicci procedette sul marciapiede attirando molti sguardi curiosi sul suo vistoso abito di velluto color prugna bel vestito signore osservò erri senza riuscire a trattenersi silente si limitò a ridacchiare seguirono a breve distanza la sua versione più giovane fino ad attraversare il cancello di ferro di un cortile spoglio davanti a un edificio squadrato e tetro circondato da alte cancellate silente salì pochi gradini fino al portone e bussò una volta dopo qualche istante la porta fu aperta da una ragazza trasandata in grembiule buon pomeriggio ho appuntamento con una certa signora cole che credo sia la direttrice o fece la ragazza sbalordita dall'aspetto eccentrico di silente aspetti un attimo signora cole gridò erri udì una voce remota urlare qualcosa in risposta la ragazza si rivolse di nuovo silente venga sta arrivando silente entrò in un ingresso col pavimento a scacchi bianchi e neri il luogo era squallido ma immacolato prima ancora che la porta si chiudesse una donna scarna dall'aria tormentata si avvicinò a passetti rapidi il suo viso affilato sembrava più ansioso che scortese e avanzando verso silente la donna si rivolse a un'altra domestica in grembiule alle proprie spalle e porta sulla tintura di odio a marta billy stabs si è tolto le croste e le bolle aperte di eric walley stanno macchiando tutte le lenzuola ci mancava la varicella mormorò a nessuno in particolare poi il suo sguardo si posò su silente e rimase immobile stupefatta come se una giraffa avesse appena avarcato la soglia buon pomeriggio la salutò lui e le tese la mano la signora col rimase a bocca aperta sono albus silente le ho mandato una lettera per chiederle un appuntamento e lei è stata così gentile da invitarmi qui oggi la signora col batte le palpebre stabilito che non si trattava di un'allucinazione rispose con voce fioca o sì beh beh allora è meglio se viene nel mio ufficio sì guidò silente in una stanzetta che sembrava in parte salotto in parte ufficio era squallida come l'ingresso e i mobili erano vecchi e spaiati invitò l'ospite ad accomodarsi su una sedia traballante e prese posto dietro una scrivania ingombra osservandolo con aria nervosa sono qui come le ho scritto nella mia lettera per parlare di tom riddle e dei provvedimenti per il suo futuro esordì silente lei è un parente gli chiese la signora col no sono un insegnante rispose lui sono qui per offrire a tom un posto nella mia scuola di che scuola si tratta si chiama hogwarts e come mai è interessato a tom crediamo che possieda le qualità che cerchiamo vuol dire che ha vinto una borsa di studio com'è possibile non ne ha mai fatto richiesta beh era iscritto alla nostra scuola dalla nascita chi l'ha iscritto i suoi genitori senza dubbio la signora col era una donna inopportunamente acuta anche silente doveva essere dello stesso avviso perché eri lo vide sfilare la bacchetta dalla tasca dell'abito di velluto e nello stesso tempo prendere un foglio perfettamente bianco dalla scrivania ecco disse silente fece un gesto con la bacchetta e le porse il foglio credo che questo chiarirà tutto la signora col guardò intensamente il foglio bianco per un attimo gli occhi le andarono fuori fuoco poi tornarono normali sembra a posto approvò placida e glielo restituì poi il suo sguardo si posò su una bottiglia di gin e due bicchieri che di sicuro qualche istante prima non c'erano posso offrirle un bicchiere di gin domandò in tono molto sofisticato grazie molte rispose silente con un gran sorriso fu subito chiaro che la signora col non era una dilettante infatto di gin versò due bei bicchieri e vuotò il proprio in un sorso schioccò le labbra con naturalezza e sorrise per la prima volta a silente che non esitò ad approfittare del vantaggio mi chiedevo se lei potesse raccontarmi qualcosa sulla storia di tom riddle credo che sia nato qui all'orfanotrofio vero esatto rispose la signora col versandosi altro gin me lo ricordo benissimo perché avevo appena cominciato a lavorare qui era l'ultimo giorno dell'anno e faceva un freddo terribile nevitava una gran brutta notte e questa ragazza non molto più vecchia di me a quel tempo arrivò barcollando su per i gradini beh non era la prima l'abbiamo accolta e un'ora dopo è nato il bambino e dopo un'altra ora era morta la signora col annui solennemente e beve un altro generoso sorso di gin ha detto qualcosa prima di morire chiese silente qualcosa sul padre del bambino per esempio a dire il vero sì rispose la signora col che sembrava godersela parecchio col gin in mano e un pubblico attento alla sua storia ricordo che mi disse spero che assomigli al suo papà e davvero faceva bene a sperarlo perché lei non era una bellezza poi mi ha detto che dovevamo chiamarlo tom come suo padre e marvolo come il padre di lei sì un nome strano vero ci siamo chiesti se facesse parte di un circo poi disse che il cognome del bambino doveva essere riddol ed è morta poco dopo senza un'altra parola l'abbiamo chiamato come aveva detto lei sembrava così importante per quella povera ragazza ma nessun tom né marvolo né riddol è mai venuto a cercarlo nessun parente quindi è rimasto all'orfanotrofio da allora la signora col si versò quasi distrattamente un'altra bella dose di gin sugli zigomi le erano comparsi due pomelli rosa poi riprese è un ragazzo strano si commentò silente lo sospettavo era strano anche da bambino non piangeva quasi mai e poi quando è diventato un po più grande è diventato bizzarro bizzarro in che senso chiese silente con dolcezza beh lui ma la signora col indugiò per un attimo e non c'era niente di vago o confuso nello sguardo indagatore che lanciò a silente da sopra il bicchiere di gin mi garantisce che ha un posto alla sua scuola assolutamente affermò silente e nulla di quello che dico può cambiare questa cosa nulla lo porterà via comunque comunque ripete silente in tono grave lei lo guardò con gli occhi ridotti a fessure come se stesse decidendo se credergli evidentemente decise di sì perché sbottò spaventa gli altri bambini vuol dire che è prepotente chiese silente diciamo così rispose la signora collo un po accigliata ma è molto difficile sorprenderlo ci sono stati degli episodi delle cose brutte silente non le mise fretta anche se ricapì che era molto interessato lei beve un'altra sorsata di gin e il suo colorito si fece più intenso il coniglio di billy stabs beh tom ha detto che non è stato lui e io non vedo come avrebbe potuto ma comunque non si è impiccato da solo alle travi no non direi no mormorò silente ma se invece è stato lui che io sia maledetta se so come ha fatto ad arrampicarsi fin lassù so solo che lui e billy avevano litigato il giorno prima e poi la signora collo beve un altro po di gin versandosene un goccio sul mento questa volta alla gita estiva li portiamo fuori sa una volta all'anno in campagna o al mare beh emi benson e dennis bishop non sono più stati gli stessi dopo e siamo riusciti a cavargli solo che erano stati in una caverna con tom riddle lui ha giurato che erano solo andati a esplorare ma qualcosa è successo là dentro ne sono certa e poi beh sono accadute un sacco di cose cose bizzarre guardò di nuovo silente e anche se aveva le guance arrossate il suo sguardo era fermo non credo che si dispiaceranno in molti a vederlo andar via lei capirà senz'altro che non possiamo tenerlo sempre con noi ribatté silente dovrà tornare qui come minimo tutte le estati o beh è sempre meglio di una botta sul naso con un attizzatoio arrugginito replicò la signora collo con un leggero singhiozzo si alzò eri fu stupito di scoprire che si reggeva bene sulle gambe anche se due terzi del gin erano spariti vorrà vederlo immagino certo rispose silente alzandosi a sua volta lei lo guidò su per le scale di pietra impartendo allo stesso tempo ordini e raccomandazioni ai servienti e bambini eri vide che gli orfani indossavano tutti la stessa tunica grigiastra sembravano nel complesso ben curati ma non si poteva negare che fosse un posto triste in cui crescere eccoci annunciò la signora collo fermandosi all'inizio di un lungo corridoio al secondo piano bussò due volte alla prima porta ed entrò tom hai una visita questo è il signor sipiente mi scusi saliente è venuto a beh te lo dirà lui eri e i due silente entrarono nella stanza e la signora col chiuse la porta alle loro spalle era una cameretta spoglia e vuota a parte un vecchio armadio una sedia di legno e un letto di ferro un ragazzo era seduto sulle coperte grigie con le gambe tese davanti a sé e un libro in mano non c'era traccia dei gant sul volto di tom riddol l'ultimo desiderio di merop era stato esaudito era l'affascinante padre in miniatura alto per i suoi undici anni pallido e coi capelli scuri socchiuse un po gli occhi per valutare l'aspetto eccentrico del nuovo venuto ci fu un momento di silenzio come stai tom chiese silente si fece avanti e tese la mano il ragazzo esitò poi la strinse silente avvicinò la dura sedia di legno a riddol così che i due sembravano un paziente all'ospedale e un visitatore io sono il professor silente professore ripete riddol era guardingo è come dottore come mai è qui lei la chiamata per farmi visitare indicò la porta dalla quale la signora cole se n'era appena andata no no rispose silente sorridendo non le credo ribatte riddol vuole farmi visitare vero dica la verità pronunciò le ultime tre parole con forza impressionante era un ordine e sembrava che l'avesse impartito molte volte i suoi occhi si erano dilatati e lui scrutava truce silente che non rispose e continuò a sorridere affabile dopo qualche istante riddol smise di guardarlo eppure era se possibile ancora più sospettoso chi è lei te l'ho detto mi chiamo professor silente e sono venuto a offrirti un posto a hogwarts la mia scuola la tua nuova scuola se vorrai venire la reazione di riddol fu sorprendente balzò dal letto indietreggio furibondo non mi prenda in giro dal manicomio ecco da dove viene lei vero professore certo beh io non ci vado capito quella vecchia babbiona è lei che dovrebbe essere ricoverata io non ho mai fatto niente alla piccola amy benson o a dennis bishop e può anche andare a chiederglielo glielo diranno io non vengo dal manicomio disse silente con pazienza sono un professore e se vuoi sederti tranquillo ti racconterò di hogwarts ma se preferisci non venire nella mia scuola nessuno ti costringerà vorrei solo che ci provassero lo interruppe riddol beffardo hogwarts continuò silente come se non avesse sentito è una scuola per ragazzi con capacità speciali io non sono pazzo lo so che non sei pazzo hogwarts non è una scuola per pazzi è una scuola di magia silenzio riddol si era bloccato il volto inespressivo ma i suoi occhi balenavano a destra e a sinistra fra i due di silente come se cercasse di coglierne uno in flagrante menzogna magia ripete in un sussurro esatto confermò silente è magia quella che so fare che cos'è che sai fare di tutto esalò riddol un rossore eccitato gli salì dal collo alle guance incavate sembrava febbricitante muovo le cose senza toccarle faccio fare agli animali quello che voglio senza addestrarli faccio capitare cose brutte a chi mi dà fastidio sofferirli se voglio gli tremavano le gambe barcollò in avanti e si risiedette sul letto fissandosi le mani a capochino come in preghiera lo sapevo che ero diverso sussurrò alle proprie dita tremanti lo sapevo che ero speciale ho sempre saputo che c'era qualcosa beh avevi ragione disse silente che non sorrideva più ma osservava riddol con intensità tu sei un mago riddol alzò il capo il suo volto era trasfigurato mostrava una selvaggia felicità eppure per qualche ragione questa non migliorava il suo aspetto al contrario i suoi tratti finemente modellati sembravano più rozzi la sua espressione quasi ferina anche lei è un sì lo sono lo dimostri ordinò subito riddol con lo stesso tono autoritario di prima silente alzò le sopracciglia se come deduco accetti di venire a hogwarts certo che accetto allora devi chiamarmi professore o signore riddol si irrigidì per un attimo fugace prima di dire con irriconoscibile cortesia mi scusi signore volevo dire la prego professore potrebbe mostrarmi harry era sicuro che silente avrebbe rifiutato che avrebbe detto a riddol che ci sarebbe stato un sacco di tempo per le dimostrazioni pratiche a hogwarts che al momento si trovavano in un edificio pieno di babbani e quindi dovevano essere cauti e invece con sua enorme sorpresa silente estrasse la bacchetta da una tasca interna della giacca la puntò verso lo squallido armadio nell'angolo e l'agitò appena con non curanza l'armadio si incendiò riddol balzò in piedi harry non potebbe asimarlo quando gemette per la sorpresa e la rabbia tutto ciò che possedeva doveva trovarsi là dentro ma non appena riddol si scagliò verso silente le fiamme svanirono lasciando l'armadio intatto riddol spostò lo sguardo dall'armadio a silente poi con espressione avida indicò la bacchetta dove posso trovarne una tutto a tempo debito rispose silente credo che ci sia qualcosa che cerca di uscire dal tuo armadio e infatti dall'interno si udiva un debole sbatacchiare per la prima volta riddol parve spaventato apri ordinò silente riddol esitò poi attraversò la stanza e aprì di colpo l'anta dell'armadio sullo scaffale più alto sopra una fila di abiti lisi una scatoletta di cartone tremava e si scuoteva come se vi fossero intrappolati dei topi tirala fuori disse silente riddol prese la scatola vibrante era nervoso c'è qualcosa in quella scatola che non dovresti avere gli chiese silente riddol gli rivolse un lungo limpido sguardo calcolatore sì direi di sì signore ammise infine aprila continuò silente riddol torse il coperchio e rovesciò il contenuto sul letto senza guardarlo henry che si era aspettato qualcosa di molto più interessante vide un mucchio di piccoli oggetti banali tra gli altri uno yo-yo un ditale d'argento e un'armonica bocca tutta arrugginita una volta liberati dalla scatola cessarono di tremare e rimasero immobili sulla coperta sottile li restituirai ai loro proprietari con le tue scuse ordinò silente con calma infilando di nuovo la bacchetta dentro la giacca saprò se questo è stato fatto o no e ti avverto il furto non è tollerato a hogwarts riddol non parve nemmeno remotamente confuso continuava a fissare il mago con freddezza soppesandolo infine mormorò con voce in colore sì signore a hogwarts continuò silente si insegna non solo a usare la magia ma a controllarla tu di sicuro inavvertitamente hai usato i tuoi poteri in un modo che non viene né insegnato né ammesso nella nostra scuola non sei il primo e non sarai l'ultimo che consente alla propria magia di prendere il sopravvento ma devi sapere che hogwarts può espellere gli studenti e che il ministero della magia sì esiste un ministero punisce chi infrange la legge con severità ancora maggiore tutti i nuovi maghi devono accettare entrando nel nostro mondo di attenersi alle nostre leggi sì signore ripete riddol era impossibile capire che cosa stesse pensando il suo volto rimase inespressivo mentre rimetteva la piccola scorta di oggetti rubati nella scatola di cartone quando ebbe finito si rivolse a silente e dichiarò con schiettezza non ho denaro a questo si può porre rimedio ribatte silente ed estrasse dalla tasca un borsellino di pelle pieno di monete a hogwarts esiste un fondo per aiutare chi ne ha bisogno a comprare libri e abiti forse dovrai accontentarti di libri e altre cose di seconda mano ma dove si comprano i libri di incantesimi lo interruppe riddol che aveva preso la pesante borsa di monete senza ringraziarlo e stava osservando un grosso galeone d'oro a diagonale rispose silente ho qui la tua lista dei libri e del necessario per la scuola posso aiutarti a trovare tutto lei viene con me chiese riddol alzando lo sguardo certo se tu non ho bisogno di lei tagliò corto riddol sono abituato a fare le cose da solo vado sempre in giro per londra per conto mio come si arriva in questa diagonale signore chiese incrociando lo sguardo di silente eri pensava che silente avrebbe insistito per accompagnare riddol ma ancora una volta rimase sorpreso silente consegnò a riddol la busta con la lista delle cose necessarie e dopo avergli spiegato con precisione come arrivare dall'orfanotrofio al paiolo magico disse tu riuscirai a vederlo anche se i babbani la gente non magica non possono chiedi di tom il barista è facile da ricordare ha il tuo stesso nome riddol ebbe uno scatto irritato come se cercasse di scacciare una mosca molesta non ti piace il nome tom ci sono un mucchio di tom borbottò riddol poi come se non potesse trattenere la domanda come se gli venisse fuori suo malgrado chiese mio padre era un mago si chiamava anche lui tom riddol mi hanno detto temo di non saperlo rispose silente con dolcezza mia madre non può essere stata magica se no non sarebbe morta disse riddol più a se stesso che a silente quindi doveva esserlo lui allora quando avrò preso tutta la mia roba quando vengo a questa hogwarts tutti i dettagli sono sul secondo foglio di pergamena nella busta replicò silente partirai dalla stazione di king's cross il primo di settembre c'è dentro anche un biglietto ferroviario riddol annui silente si alzò e tese di nuovo la mano stringendola riddol disse so parlare coi serpenti l'ho scoperto quando siamo stati in gita in campagna mi trovano mi sussurrano cose è normale per un mago henry capì che aveva tralasciato fino a quel momento di citare quello stranissimo potere deciso a far colpo è insolito rispose silente dopo un attimo di esitazione ma non unico il suo tono era non curante ma il suo sguardo vagò curioso sul volto di riddol rimasero a osservarsi un momento l'uomo e il ragazzo poi la stretta di mano si sciolse e silente fu alla porta ci rivediamo a hogwarts tom credo che possa bastare annunciò il silente dai capelli bianchi al fianco di harry e qualche istante dopo veleggiavano di nuovo leggeri nel buio prima di atterrare con agio nell'ufficio si è di chi lo invitò silente henry obbedì la testa colma di quel che aveva appena visto ci ha creduto molto più in fretta di me voglio dire quando lei gli ha detto che era un mago osservò henry io non ho creduto subito a grid quando me l'ha detto sì riddol era perfettamente pronto a credere di essere per usare la sua parola speciale lei lo sapeva allora sapevo di aver appena incontrato il più pericoloso mago oscuro di tutti i tempi no non avevo idea che crescendo sarebbe diventato quello che è rispose silente tuttavia fui senza dubbio affascinato da lui tornai a hogwarts deciso a tenerlo d'occhio cosa che avrei dovuto fare in ogni caso perché era solo e senza amici ma già sentivo di doverlo fare per il bene degli altri quanto per il suo i suoi poteri come hai sentito erano sorprendentemente sviluppati per un mago così giovane e ciò che è più interessante e sinistro aveva già scoperto di poterli in qualche modo controllare e cominciato a usarli con consapevolezza come hai visto non erano gli esperimenti a casaccio tipici dei giovani maghi usava la magia contro altre persone per spaventare per punire per manipolare le storie del coniglio impiccato e dei bambini attirati in una caverna erano assai eloquenti sofferirli se voglio ed era un rettilofono lo interruppe erli esatto una rara capacità presumibilmente connessa con le arti oscure anche se come sappiamo vi sono rettilofoni anche tra i buoni e i grandi in effetti la sua capacità di parlare con i serpenti non mi preoccupò quanto la sua chiara inclinazione alla crudeltà alla segretezza e al dominio il tempo si prende di nuovo gioco di noi osservò silente indicando il cielo buio oltre le finestre ma prima che ci separiamo voglio richiamare la tua attenzione su alcuni aspetti della scena cui abbiamo appena assistito perché hanno importanti rapporti con quanto discuteremo nei nostri incontri futuri prima di tutto spero che tu abbia notato la reazione di riddle quando osservato che un'altra persona portava il suo nome tom harry annui in quel momento ha dimostrato il suo disprezzo per qualunque cosa lo righi ad altre persone qualunque cosa lo renda ordinario già allora desiderava essere diverso unico celebre come sai si sbarazzò del suo nome pochi anni dopo quella conversazione e creò la maschera di lord voldemort dietro la quale si è nascosto per tanto tempo confido che tu abbia notato pure che tom riddle era già del tutto autonomo incline all'isolamento e privo di amici non volle aiuto o compagnia per andare a diagonalei preferì agire da solo il voldemort adulto è uguale sentirai molti dei suoi mangiamorte sostenere di godere della sua fiducia di essere i soli vicini a lui perfino di capirlo sono degli illusi lord voldemort non ha mai avuto un amico e non credo che ne abbia mai voluto uno e spero che tu non abbia troppo sonno per prestare attenzione a un'ultima cosa il giovane tom riddle amava collezionare trofei hai visto la scatola di oggetti rubati che aveva nascosto nella sua stanza erano stati sottratti alle vittime della sua prepotenza ricordi se vuoi di momenti di magia particolarmente sgradevole rammenta questa inclinazione perché sarà importantissima più avanti e adesso è proprio ora di andare a letto harry si alzò mentre attraversava la stanza il suo sguardo cadde sul tavolino sul quale l'ultima volta era posato l'anello di marvolo gant ma l'anello non c'era più sì erri chiese silente vedendo che erri si era bloccato l'anello è sparito disse erri guardandosi attorno ma pensavo che potesse avere l'armonica o qualcosa del genere silente gli rivolse un gran sorriso osservandolo da sopra gli occhiali a mezzaluna molto astuto erri ma l'armonica è sempre stata solo un'armonica e su questa nota enigmatica fece un cenno con la mano a erri che capì di essere stato congedato felix felicitis la mattina dopo erri aveva erbologia alla prima ora in sala grande non aveva raccontato a ron e ermione della serata con silente per paura di essere udito dagli altri e così li raguagliò mentre attraversavano l'orto diretti alle serre il vento brutale era finalmente cessato la strana nebbia era tornata e i ragazzi impiegarono un po più tempo del solito a trovare la serra giusta che paura il piccolo voi sapete chi sussurrò ron mentre si sedevano attorno a uno dei ceppi contorti di pugnaccio su cui avrebbero lavorato per tutto il trimestre e cominciavano a infilarsi i guanti protettivi ma continuo a non capire perché silente ti fa vedere tutte queste cose voglio dire è interessante ma a cosa serve bo rispose erri mettendosi un paragengive ma dice che è utilissimo e mi aiuterà a sopravvivere secondo me è affascinante intervenne ermione con fervore è del tutto sensato sapere quanto più possibile di voldemort altrimenti come farai a scoprire i suoi punti deboli allora com'è andata l'ultima festa di lumacorno le chiese erri con la voce alterata dal paragengive o è stata divertente davvero rispose ermione indossando degli occhiali protettivi voglio dire si pavoneggia dei suoi ex allievi famosi e adula mccluggen in modo spudorato per via dei suoi contatti ma la cena era ottima e ci ha presentato a guenog jones guenog jones ripete ron gli occhi sgranati sotto gli occhialoni quella guenog jones il capitano delle holyhead arpis già rispose ermione personalmente l'ho trovata un po piena di sé ma basta con le chiacchiere laggiù ingiunse la professoressa sprout in tono spiccio avvicinandosi con aria decisa siete indietro tutti gli altri hanno cominciato e neville ha già preso il primo baccello si guardarono intorno in effetti neville esibiva un labbro insanguinato e parecchi brutti graffi sulla guancia ma stringeva un oggetto verde grande come un pompelmo che pulsava in modo sgradevole d'accordo professoressa iniziamo subito rispose ron ma quando lei si fu voltata aggiunse sottovoce dovevamo usare il muffliato erri no che non dovevamo ribatte subito ermione come sempre ostile al principe mezzo sangue e ai suoi incantesimi beh su è meglio muoversi lanciò agli altri due un'occhiata apprensiva inspirarono profondamente e poi si gettarono sul ceppo contorto quello prese vita all'istante i pungenti tralci simili a rovi schizzarono dalla cima e cominciarono a frustare l'aria uno si impigliò nei capelli di ermione e ron lo neutralizzò con un paio di cesoie erri riuscì a bloccare due tralci e ad annodarli insieme un buco si aprì al centro di tutti i rami tentacolari ermione tuffò coraggiosa il braccio nel buco che si chiuse come una trappola attorno al suo gomito erri e ron tirarono e torsero i tralci costringendo il buco a riaprirsi ermione liberò il braccio stringendo fra le dita un baccello come quello di neville subito i tralci pungenti si ritrassero all'interno del ceppo contorto che rimase come un innocente ciocco di legno inanimato non credo che ne metterò uno nel giardino di casa mia dichiarò ron spingendo gli occhiali sulla fronte e asciugandosi il sudore dal viso passami una ciotola disse ermione reggendo a distanza il baccello pulsante erri gliene porse una e lei ce lo lasciò cadere dentro disgustata non siate schizzinosi spremetelo danno il meglio quando sono freschi gridò la professoressa sprout comunque continuò ermione come se non fossero stati appena aggrediti da un tronco di legno l'umacorno darà una festa di natale erri e non potrai evitarla stavolta perché mi ha chiesto di controllare le tue serate libere in modo da organizzarla quando potrai esserci anche tu erri gemette nel frattempo ron che si era alzato in piedi e con tutta la sua forza stava cercando di spremere il baccello nella ciotola sbottò rabbioso e questa è un'altra festa riservata ai cocchi di lumacorno vero solo per il luma club si rispose ermione il baccello schizzò via dalla stretta di ron colpì il vetro della serra rimbalzò sulla testa della professoressa sprout e le fece volar via il vecchio cappello rappezzato erri andò a riprenderlo quando tornò ermione stava dicendo senti non l'ho inventato io il nome luma club luma club ripete ron con un ghigno beffardo degno di malfoi è penoso beh spero che ti diverta perché non provi a uscire con me claggan così lumacorno potrà nominarvi re e regina dei lumaconi possiamo portare degli ospiti lo interruppe ermione che per qualche ragione era violentemente arrossita e stavo per chiederti di venire ma se la pensi così allora lascio perdere erri all'improvviso desiderò che il baccello fosse volato molto più lontano in modo da non dover stare lì con quei due senza che lo notassero prese la ciotola e cercò di aprire il baccello nel modo più rumoroso e violento che riuscisse a escogitare ma questo purtroppo non gli impedì di sentire ogni parola stavi per invitare me chiese ron in tutt'altro tono sì rispose ermione adirata ma se preferisci che esca con me claggan ci fu una pausa durante la quale erri continuò a pestare il baccello elastico con una palletta no che non preferisco bisbigliò ron erri mancò il baccello e colpì la ciotola che andò in pezzi reparo ordinò subito picchiettando i frammenti con la bacchetta e la ciotola tornò integra ma il fracasso evidentemente ricordò a ron e ermione che erri era un passo da loro ermione apparve turbata e cominciò subito a cercare la sua copia di alberi carnivori del mondo per scoprire il modo corretto di spremere i baccelli di pugnaccio da parte sua ron era imbarazzato ma anche compiaciuto dammelo erri disse ermione premulosa dice che dovremmo forarlo con qualcosa di aguzzo erri le passò la ciotola con il baccello sia lui che ron si rimisero a posto gli occhiali protettivi e ripresero ad aggredire il ceppo non era veramente sorpreso pensò erri mentre lottava con un tralcio spinoso deciso a strangolarlo aveva avuto il sospetto che prima o poi sarebbe potuto succedere ma non era sicuro di come si sentiva al riguardo lui e ciò ormai erano troppo imbarazzati per guardarsi figuriamoci parlarsi e se ron e ermione si fossero messi insieme e poi si fossero lasciati la loro amicizia sarebbe sopravvissuta erri ricordò le poche settimane in cui i due non si erano parlati al terzo anno non si era affatto divertito a cercare di riconciliarli e se invece non si fossero lasciati se fossero diventati come bill e fleur e si fosse rivelato imbarazzante stare con loro e lui fosse stato escluso per sempre preso urlò ron ed estrasse un secondo baccello dal ceppo proprio mentre ermione riusciva a far scoppiare il primo la ciotola si riempì di tuberi che si contorcevano come vermi color verde pallido il resto della lezione passò senza altre allusioni alla festa di lumacorno erri osservò attentamente i due amici nei giorni che seguirono ma ron e ermione non sembravano diversi a parte il fatto che erano un po più gentili del solito l'uno con l'altra erri pensò che avrebbe dovuto solo aspettare di vedere che cosa sarebbe successo sotto l'influsso della burro birra nella penombra della stanza di lumacorno la sera della festa nel frattempo aveva preoccupazioni più pressanti katie bell era ancora all'ospedale san mungo senza alcuna prospettiva di uscirne e ciò significava che la promettente squadra di grifondoro che erri allenava con tanta cura da settembre aveva un cacciatore in meno continuava a rimandare la sostituzione di katie nella speranza che guarisse ma la partita inaugurale contro serpe verde incombeva e alla fine dovette accettare il fatto che non sarebbe tornata in tempo per giocare erri si disse che non poteva reggere un'altra selezione a pieni ranghi con uno sconforto che aveva poco a che fare col quidditch un giorno bloccò dean thomas dopo trasfigurazione gran parte della classe se n'era già andata anche se parecchi uccelli gialli cinguettanti tutti opera di ermione sfrecciavano ancora per la stanza nessun altro era riuscito a far apparire dal nulla più di una piuma sei ancora interessato a giocare come cacciatore cos sì certo esclamò dean eccitato alle sue spalle erri vide simus finnegan sbattere i libri nella borsa con aria acida era una delle ragioni per cui avrebbe preferito non dover chiedere a dean di giocare simus ci sarebbe rimasto male d'altro canto doveva fare ciò che era meglio per la squadra e dean aveva superato simus alle selezioni beh allora sei dei nostri disse erri c'è un allenamento stasera alle sette bene rispose dean evviva erri accidenti non vedo l'ora di dirlo a ginni schizzò fuori dall'aula lasciando soli erri e simus il canarino di ermione lasciò cadere una cacca proprio sulla testa di simus e non contribuì affatto ad alleviare l'imbarazzo simus non fu l'unico scontento ci furono molti borbottii in sala comune sul fatto che erri avesse scelto due compagni di classe per la squadra avendo sopportato maldicenze ben peggiori nella sua carriera scolastica erri non se ne preoccupò molto ma alla necessità di assicurarsi una vittoria nell'imminente partita contro serpe verde diventò più forte se grifondoro avesse vinto erri era sicuro che l'intera casa avrebbe dimenticato ogni critica giurando di aver sempre saputo che quella era una squadra eccezionale se avesse perso beh pensò erri amaramente ne aveva passate di peggio non ebbe ragione di rimpiangere la scelta fatta quando vide dean volare quella sera funzionava bene con gini e demelsa i battitori pix e cut continuavano a migliorare il solo problema era ron erri aveva sempre saputo che ron era un giocatore discontinuo nervoso e insicuro e purtroppo la prospettiva della partita d'apertura sembrava aver fatto affiorare tutte le sue vecchie incertezze dopo aver lasciato passare una mezza dozzina di gol in gran parte segnati da gini perse via via il controllo finché mollò un pugno sulla bocca di demelsa robbins è stato un incidente scusa demelsa mi dispiace davvero urlò ron dietro di lei che zigzagava verso terra col sangue che colava dappertutto mi sono solo fatto prendere dal panico completò gini furente atterrando vicino a demelsa ed esaminando il suo labbro gonfio ron idiota guarda come l'hai ridotta ci penso io disse erri toccando terra accanto alle due ragazze puntò la bacchetta verso la bocca di demelsa e ordinò epismendo gini non dire a ron che un idiota non sei tu il capitano beh tu sembravi troppo occupato per dirglielo e io ho pensato che qualcuno dovesse erri si costrinse a non ridere tutti in aria andiamo nel complesso fu uno degli allenamenti peggiori dall'inizio dell'anno ma erri pensò che la sincerità non fosse la politica migliore a pochi giorni dalla partita bel lavoro tutti quanti schiacceremo serpeverde li incoraggiò e i cacciatori e i battitori uscirono dagli spogliatoi con aria soddisfatta ho giocato come un sacco di cacca di drago bofonchiò ron quando la porta si fu chiusa dietro gini non è vero ribatte erri con decisione sei il miglior portiere che abbia visto alle selezioni ron il tuo unico problema sono i nervi mantenne un flusso ininterrotto di incoraggiamenti per tutta la strada di ritorno al castello e quando ebbero raggiunto il secondo piano ron era appena appena più allegro poi quando erri spinse da parte l'arazzo per prendere la solita scorciatoia verso la torre di grifondoro si ritrovarono faccia a faccia con dean e ginni stretti in un abbraccio mozzafiato che si baciavano con furia come se fossero incollati fu come se qualcosa di grosso e squamoso avesse preso bruscamente vita nello stomaco di erri artigliandogli le viscere il sangue caldo gli salì al cervello e gli spense ogni pensiero sostituito da un selvaggio impulso di trasformare dean in un budino lottando contro questa improvvisa follia sentì la voce di ron come da un'enorme distanza ehi dean e ginni si staccarono e si guardarono attorno cosa fece ginni non mi piace vedere mia sorella pomiciare in pubblico questo era un corridoio deserto finché non siete venuti a ficcare il naso sbottò ginni dean era imbarazzato rivolse a erri un sorrisetto furtivo che lui non ricambiò mentre il neonato mostro dentro di lui invocava l'istantanea espulsione di dean dalla squadra su ginni balbettò dean andiamo in sala comune vacci tu ringhiò ginni io devo fare due chiacchiere col mio caro fratello dean se ne andò con l'aria di non essere così dispiaciuto di abbandonare la scena bene attaccò ginni scuotendo i lunghi capelli rossi e guardando ron torva chiariamo questa faccenda una volta per tutte ron con chi sto o che cosa ci faccio non ti riguarda invece sì esclamò ron altrettanto infuriato non voglio che la gente dica che mia sorella è una una cosa urlò ginni sfoderando la bacchetta una cosa di preciso non voleva dire niente ginni intervenne erri automaticamente anche se il mostro rugiva la sua approvazione alle parole di ron invece sì sbraitò lei infiammandosi con erri solo perché lui non ha mai baciato nessuno in vita sua solo perché il più bel bacio che abbia mai ricevuto è stato la zia muriel sta zitta gridò ron più che rosso ormai quasi marrone col cavolo strillo ginni fuori di sé ti ho visto con flora batterica tutte le volte che la incontri speri che ti baci sulle guance fai pena se andassi in giro a pomiciare un po anche tu non ti seccherebbe tanto che lo facciano tutti gli altri anche ron aveva estratto la bacchetta erri si intromise rapido tra i due ma cosa stai dicendo abbaiò ron cercando di mirare a ginni al di là di erri che le stava davanti a braccia spalancate solo perché non lo faccio in pubblico ginni rise spressante cercando di spingere erri da parte cosa fai baci leo tordo o hai una foto di zia muriel nascosta sotto il cuscino tu un lampo di luce arancione sfrecciò sotto il braccio sinistro di erri e mancò ginni di pochi centimetri erri spinse ron contro il muro non fare lo stupido erri ha baciato ciocian urlò ginni ormai vicino alle lacrime ermione ha baciato victor crum sei solo tu che ti comporti come se fosse una cosa disgustosa ron ed è perché hai l'esperienza di un dodicenne e con questo corse via erri lasciò andare ron che aveva un'aria assassina rimasero fermi ansimando finché mrs norris l'amicia di filch apparve dietro l'angolo andiamo disse erri che coglieva già il rumore dei passi strascicati del custode corsero su per le scale lungo un corridoio del settimo piano e i togliti di mezzo ringhiò ron a una bambinetta che dallo spavento fece cadere una bottiglia di uova di rospo erri udì appena il rumore del vetro infranto si sentiva disorientato stordito come fosse stato colpito da un fulmine è solo perché è la sorella di ron si disse ti dà fastidio che baci din perché è la sorella di ron ma spontaneamente affiorò nel suo animo un'immagine di quello stesso corridoio deserto e di lui che baciava gini al posto di din il mostro nel suo petto fece le fusa ma poi erri vide ron strattonare l'arazzo e puntare la bacchetta contro di lui urlando fiducia tradita credevo che fossi il mio migliore amico pensi che ermione crum si siano baciati chiese ron all'improvviso mentre si avvicinavano alla signora grassa erri sussultò con aria colpevole e strappò via la propria fantasia da un corridoio in cui nessun ron ficcava il naso in cui lui e ginni erano soli cosa si impappinò o la risposta sincera era sì ma non volle pronunciarla tuttavia ron parve dedurre il peggio dalla sua espressione suppa di prugne ordinò cupo alla signora grassa e varcarono insieme il buco del ritratto per entrare nella sala comune nessuno dei due nominò più ginni o ermione a dire il vero quella sera quasi non si rivolselo la parola e andarono a dormire in silenzio ciascuno immerso nei suoi pensieri erri rimase a lungo sveglio a contemplare il baldacchino del letto e a cercare di convincersi che i suoi sentimenti per ginni erano quelli di un fratello maggiore erano vissuti o no come fratello e sorella per tutta l'estate giocando a quidditch prendendo in giro ron e ridendo insieme di bill e flora batterica ormai la conosceva da anni era naturale che si sentisse protettivo naturale che desiderasse vegliare su di lei che volesse squartare din un pezzo alla volta per averla baciata no quel particolare sentimento fraterno avrebbe dovuto dominarlo ron russò sonoramente è sua sorella si disse erri con fermezza sua sorella è proibita non voleva mettere a repentaglio la sua amicizia con ron per nulla al mondo prese a pugni il cuscino per dargli una forma più confortevole e aspettò che sonno arrivasse sforzandosi di impedire ai pensieri di deviare in zona ginni il giorno dopo si svegliò un po intontito e confuso da una serie di sogni nei quali ron l'aveva inseguito con una mazza da battitore ma verso mezzogiorno avrebbe scambiato volentieri il ron del sogno con quello vero che non solo trattava con freddezza ginni e din ma ostentava verso ermione ferita e stupefatta una glaciale sprezzante indifferenza inoltre nell'arco di una notte sembrava diventato suscettibile e pronto a scattare come uno schiopodo sparacoda erri passò la giornata tentando senza successo di mantenere la pace tra ron e ermione infine lei andò a dormire indignatissima e ron si avviò rigido verso il dormitorio dei maschi dopo aver imprecato contro parecchi atterriti ragazzini del primo anno che avevano commesso l'errore di guardarlo con costernazione di erri la nuova aggressività di ron non si placò nei giorni seguenti ancor peggio coincise con un ulteriore calo della sua abilità di portiere il che lo rese ancora più aggressivo durante l'ultimo allenamento prima della partita del sabato ron non riuscì a parare neanche un tiro ma urlò addosso a tutti con tanta furia che demersa robbins si mise a piangere sta zitto e lasciala stare gridò px che era molto più basso di ron e tuttavia armato di una mazza pesante basta ulurò erri notando ginni che guardava torva ron ricordando la sua reputazione di lanciatrice di malefici mucovolanti planò per intervenire prima che le cose gli sfuggissero di mano px vai a mettere via i bolidi demersa riprenditi oggi hai giocato benissimo ron erri aspettò che il resto della squadra si allontanasse poi continuò tu sei il mio migliore amico ma continuo a trattare così gli altri e ti sbatto fuori squadra per un momento pensò seriamente che ron l'avrebbe preso a pugni ma poi successe una cosa di gran lunga peggiore ron parve affrosciarsi sulla scopa perse tutta la furia e mormorò mi ritiro faccio schifo non fai schifo e non ti ritiri esclamò erri con forza afferrando ron per il davanti della divisa sai parare di tutto quando sei in forma hai solo un problema di testa mi stai dicendo che sono pazzo si può darsi si scrutarono cupi per un momento poi ron scosse stancamente la testa lo so che non hai il tempo di trovarti un altro portiere quindi domani gioco ma se perdiamo e perderemo lascio la squadra niente di ciò che disse erri servì a qualcosa cercò di rincuorarlo per tutta la cena ma ron era troppo occupato a tenere il broncio a ermione per farci caso erri insistette anche quando furono nella sala comune tuttavia la sua affermazione che la squadra sarebbe stata devastata dall'abbandono di ron fu in qualche modo compromessa dal fatto che il resto della squadra era riunito nell'angolo opposto a parlare male di lui e a guardarlo in cagnesco infine erri cercò di arrabbiarsi di nuovo nella speranza di provocare in ron una reazione d'orgoglio ma neanche questa strategia parve funzionare ron andò a dormire più avvilito e disperato che mai erri rimase a lungo sveglio nell'oscurità non voleva perdere la partita non solo era la sua prima da capitano ma era deciso a battere draco malfoi a quidditch anche se non aveva ancora prove dei suoi sospetti su di lui ma se ron avesse giocato come negli ultimi allenamenti le probabilità di vincere erano molto scarse se solo avesse potuto fare qualcosa per rimettere ron in sesto qualcosa che lo facesse giocare al massimo della forma che gli garantisse una buona giornata e la soluzione gli giunse in un solo improvviso glorioso lampo di ispirazione la mattina dopo la colazione fu come al solito agitata i serpeverde fischiarono e vociarono ogni volta che un membro della squadra di grifondoro entrò nella sala grande erri diede un'occhiata al soffitto e vide un pallido limpido cielo azzurro un buon segno su con la vita ron gridò lavanda sarai bravissimo me lo sento ron la ignorò te gli chiese erri caffè succo di zucca quello che vuoi rispose ron cupo dando un malmostoso morso al pane tostato qualche minuto dopo passò ermione così stufa del comportamento di ron da non voler fare colazione con loro e si fermò come vi sentite voi due chiese esitante lo sguardo fisso sulla nuca di ron bene rispose erri porgendo a ron un bicchiere di succo di zucca ecco bevi aveva appena portato il bicchiere alle labbra quando ermione esclamò non berlo ron i due alzarono lo sguardo su di lei perché no chiese ron ermione fissava erri come se non potesse credere ai propri occhi hai appena messo qualcosa in quel succo scusa fece erri mi hai sentito ti ho visto hai appena versato qualcosa nella bibita di ron hai ancora la bottiglia in mano non so di cosa stai parlando ribatte erri rimettendo in fretta una bottiglietta in tasca ron attento non berlo lo ammonì di nuovo ermione preoccupata ma ron vuotò il bicchiere in un solo sorso e rispose smettila di maltrattarmi ermione scandalizzata lei si chinò in modo che solo erri potesse sentirla e sibilò dovresti essere espulso per questo non me lo sarei mai aspettato da te erri senti chi parla sussurrò lui di rimando hai confuso nessuno ultimamente lei si allontanò furiosa erri la guardò andar via senza rimpianti ermione non aveva mai veramente capito che il quidditch era una cosa seria poi si voltò a guardare ron che schioccò le labbra è quasi ora annunciò erri allegramente l'erba ghiacciata scricchiolava sotto i loro passi mentre scendevano verso lo stadio fortuna che il tempo sia così buono disse erri a ron già rispose ron pallido e con l'aria malaticcia ginni ed emersa erano già indivisa da quidditch e aspettavano nello spogliatoio le condizioni sembrano ideali osservò ginni ignorando il fratello e indovina un po quel cacciatore di serpe verde veisi si è preso un bolide in testa ieri in allenamento e sta troppo male per giocare e ancora meglio anche malfoio è malato che cosa esclamò erri voltandosi di colpo a guardarla è malato che cosa non ne ho idea ma per noi è magnifico rispose ginni con vivacità fanno giocare arper a suo posto è del mio anno ed è un idiota erri abbozzò un sorriso ma mentre indossava la divisa scarlatta non pensava al quidditch malfoi aveva già sostenuto una volta di non poter giocare per via di un infortunio ma aveva fatto in modo che la partita venisse spostata a un momento più opportuno per i serpe verde come mai adesso era felice di mandare avanti una riserva stava davvero male o fingeva è sospetto vero bisbigliò a ron malfoi che non gioca io la chiamerei fortuna rispose lui un po più animato e anche veisi fuori è il loro capocannoniere non immaginavo ehi ron si bloccò i guanti da portiere infilati a metà gli occhi fissi su erri cosa c'è io tu balbettò ron a bassa voce spaventato ed eccitato a un tempo la bibita il succo di zucca non avrai mica erri al sole sopracciglia ma si limitò a dire cominciamo fra cinque minuti è meglio se ti metti gli stivali uscirono sul campo accolti da cori tumultuosi una curva dello stadio era un tappeto rosso e oro l'altra un mare verde e argento anche molti tassofrasso e corvo nero si erano schierati tra le urla e gli applausi erri distinse il rugito del celebre cappello a forma di leone di luna lovegood erri si avvicinò a madame mucce l'arbitro pronta a liberare le palle dal baule capitani stringetevi la mano disse lei erri si sentì frantumare la sua dal nuovo capitano di serpe verde urquhart sulle scope al mio fischio 3 2 1 erri e gli altri si alzarono scalciando dal suolo ghiacciato ed eccoli in aria erri planò lungo il perimetro del campo cercando il boccino e tenendo d'occhio arper che zigzagava molto più in basso poi una voce spiacevolmente diversa da quella del solito commentatore attaccò con la cronaca beh ecco che partono e credo che siamo tutti sorpresi di vedere la squadra che potter ha messo insieme quest'anno molti pensavano che date le prestazioni discontinue dell'anno scorso ronald weasley potesse essere escluso ma naturalmente l'intima amicizia con il capitano aiuta queste parole furono accolte con risate di scherno e applausi dal lato serpe verde del campo erri allungò la testa per scrutare verso il podio del commentatore un ragazzo biondo alto e magro col naso all'insù parlava dentro il megafono magico che era appartenuto a lee jordan erri riconobbe zacharias smith un giocatore di tasso frasso che detestava con tutto il cuore oh ecco il primo tentativo di segnare di serpe verde è urquhart che sfreccia giù per il campo e lo stomaco di erri si rivoltò weasley para beh deve pure avere fortuna qualche volta immagino giusto smith deve proprio mormorò erri tra sé sorridendo mentre si tuffava tra i cacciatori cercando con gli occhi qualche traccia dell'elusivo boccino a mezz'ora dal fischio d'inizio grifondoro era in vantaggio 60 a 0 ron aveva fatto alcune parate davvero spettacolari qualcuna con la punta dei guanti e ginny aveva segnato quattro dei sei gol di grifondoro non potendo più chiedersi ad alta voce se i due weasley fossero in squadra solo perché erano amici di erri zacharias smith cominciò a prendere di mira pix e cut naturalmente cut non ha la tipica stazza di un battitore osservò sprezzante in genere hanno un po più di muscoli tiragli un bolide gridò erri a cut sfrecciandogli accanto ma cut con un gran sorriso decise di scagliare il bolide successivo contro arper che sorpassava erri nella direzione opposta erri udì con piacere il tetro tonfo di un bolide andato a segno sembrava che grifondoro non potesse sbagliare segnarono più e più volte e più e più volte dall'altra parte del campo ron parò con evidente disinvoltura ormai sorrideva e quando la folla celebrò una parata particolarmente efficace con l'antico amato coro perché weasley è il nostro re fece finta di dirigerla dall'alto crede di essere speciale oggi eh disse una voce maligna e arper urtò erri deliberatamente con tanta forza che quasi lo buttò giù dalla scopa il tuo amico traditore del suo sangue madame muc era voltata e anche se i grifondoro sugli spalti urlarono di rabbia quando finalmente guardò in alto arper se l'era già affilata con la spalla dolorante erri lo inseguì deciso a rendergli la botta e credo che arper di serpeverde abbia visto il boccino esultò zacharias smith nel megafono sì ha sicuramente visto qualcosa che a potere è sfuggito smith è proprio un idiota pensò erri non si è accorto dello scontro ma un attimo dopo il suo stomaco parve precipitare dal cielo smith aveva ragione arper non era sfrecciato in suo a caso aveva individuato qualcosa che a lui era sfuggito il boccino volava alto e rapido sopra di loro scintillante contro il limpido cielo azzurro erri accelerò il vento gli fischiava nelle orecchie inghiottendo il commento di smith e i fragori della folla ma arper era ancora più su e grifondoro era in vantaggio di soli 100 punti se arper fosse arrivato prima la partita sarebbe stata persa e ormai arper era a pochi metri con la mano tesa ehi arper urlò erri disperato quanto ti ha pagato malfoy per prendere il suo posto non sapeva che cosa gliel'avesse fatto dire ma arper si distrasse si lasciò scivolare il boccino tra le dita e sfrecciò oltre erri balzò in avanti verso la minuscola palla fluttuante e la afferrò sì urlò roteò in aria e ridiscese verso terra tenendo alto il boccino quando il pubblico se ne accorse esplose un boato che quasi soffocò il fischio di fine partita ginni dove vai gridò erri avviluppato con il resto della squadra in un abbraccio volante collettivo ma ginni li superò di corsa finché con grande fracasso cozzò contro il podio del cronista tra le urla e le risate del pubblico la squadra di grifondoro atterrò accanto alla catasta di legno sotto cui zacharias si agitava debolmente e erri udì ginni spiegare allegramente a un'irata mcgonagall mi sono dimenticata di frenare professoressa mi scusi ridendo erri si liberò dal resto della squadra e abbracciò ginni ma la lasciò andare molto in fretta senza guardarla negli occhi diede invece una gran pacca a un festante ron mentre dimenticata ogni ostilità la squadra di grifondoro lasciava il campo tenendosi a braccetto brandendo i pugni in aria e salutando i tifosi l'atmosfera nello spogliatoio era di puro giubilo si fa festa su in sala comune l'ha detto simus urlò din scatenato andiamo ginni demelsa ron e erri rimasero per ultimi stavano per uscire quando entrò ermione tormentava la sciarpa di grifondoro e sembrava scombussolata ma decisa devo parlarti erri respirò profondamente non avresti dovuto hai sentito lumacorno è illegale che cosa vuoi fare denunciarci domandò ron di che cosa state parlando voi due chiese erri voltandosi per appendere la divisa in modo che nessuno dei due lo vedesse sorridere sai benissimo di che cosa stiamo parlando esclamò ermione con voce acuta hai messo la pozione della fortuna nel succo di ron la felix felices no che non l'ho fatto ribatte erri girandosi a guardare entrambi invece sì erri ed è per questo che tutto è filato liscio c'erano dei giocatori di serpeverde assenti e ron ha parato tutto invece no replicò erri con un enorme sorriso fece scivolare la mano nella tasca della giacca ed estrasse la bottiglietta che ermione gli aveva visto in mano la mattina era colma di pozione dorata e il tappo era ancora sigillato con la ceralacca volevo che ron lo credesse così ho fatto finta quando sapevo che stavi guardando si rivolse a ron hai parato tutto perché ti sentivi fortunato hai fatto tutto da solo intascò di nuovo la pozione davvero non c'era niente nel mio succo di zucca boccheggiò ron esterrefatto ma il tempo è buono e veisi non ha giocato sul serio non ho preso la pozione della fortuna erri scosse il capo ron lo guardò a bocca aperta per un istante poi si scagliò contro ermione facendole il verso hai messo la felix felicis nel succo di ron ecco perché le apparate tutte visto so giocare anche senza aiuto ermione non ho mai detto che non sei capace ron anche tu credevi che te l'avesse data ma ron era passato oltre ed era uscito con la scopa in spalla tossicchiò erri nell'improvviso silenzio non si era aspettato che il suo piano sortisse quel risultato andiamo andiamo su alla festa allora vacci tu esclamò ermione ricacciando le lacrime non lo reggo proprio ron adesso non so che cosa avrei fatto di male e anche lei uscì di corsa dallo spogliatoio erri si incamminò lentamente verso il castello da solo attraversando la folla che esultava per lui avvilito era sicuro che se ron avesse vinto la partita lui e ermione sarebbero subito tornati amici non sapeva come fare a spiegarle che ron ce l'aveva con lei perché aveva baciato victor crum anche perché l'oltraggio era avvenuto tanto tempo prima erri non vide ermione alla festa di grifondoro che al suo arrivo era al culmine nuovi applausi e grida salutarono il suo ingresso e ben presto fu circondato da una folla di gente che si congratulava con lui fra il tentativo di liberarsi dei fratelli crivei che volevano un'analisi della partita azione per azione e il vasto branco di ragazze che lo circondava ridendo a ogni sciocchezza e sbattendo le ciglia gli si volle un po per trovare ron infine si liberò di romilda vain che gli fece chiaramente capire quanto le sarebbe piaciuto andare alla festa di natale di lumacorno con lui si tuffò verso il tavolo delle bibite e si imbatté in ginni con arnold la puffola pigmea che le viaggiava sulla spalla e grattastinchi che miagolava speranzoso ai suoi piedi cerchi ron gli chiese lei con una smorfia è laggiù quello schifoso ipocrita erri guardò in un angolo davanti a tutti c'era ron avvinghiato così stretto alla vanda brown che era difficile dire quali mani erano di chi sembra che le stia mangiando la faccia no osservò ginni in tono distaccato ma suppongo che debba affinare la tecnica bella partita erri gli diede un colpetto sul braccio erri sentì lo stomaco sprofondare ma poi lei si allontanò per prendere dell'altra burro birra grattastinchi trotterellò dietro di lei gli occhi gialli fissi su arnold erri distorse lo sguardo da ron che non aveva l'aria di voler riemergere presto dalla sua occupazione appena in tempo per veder chiudersi il buco del ritratto con un senso di oppressione gli parve di scorgere una cespugliosa chioma bruna che spariva svolazzando sfrecciò in avanti schivò di nuovo romilda vein e spinse il ritratto della signora grassa il corridoio sembrava deserto ermione la trovò nella prima classe aperta in cui entrò era seduta sulla cattedra sola a parte una piccola aureola di canarini cinguettanti che evidentemente aveva appena fatto apparire dal nulla erri non pote fare a meno di ammirare la sua abilità negli incantesimi anche in un momento come quello oh ciao erri lo salutò nervosamente mi stavo esercitando sì sono proprio venuti bene balbettò erri non aveva idea di che cosa dirle si stava chiedendo se c'era qualche possibilità che non avesse notato ron che fosse uscita dalla sala solo perché la festa era un po troppo chiassosa quando lei osservò con voce innaturalmente acuta a quanto pare ron si sta godendo i festeggiamenti davvero chiese erri non far finta di non averlo visto ribatte ermione non si stava precisamente nascondendo no la porta alle loro spalle si spalancò con orrore di erri entrò ron ridendo e tirando lavanda per la mano o fece bloccandosi di colpo alla vista di erri e ermione ops squitti lavanda e uscì indietreggiando con una risatina la porta si richiuse calò un orrendo silenzio gravido di attesa ermione fissava ron che non la guardò ma che invece disse con uno strano misto di impudenza e goffaggine ciao erri mi stavo chiedendo dove eri finito ermione scivolò giù dalla cattedra il piccolo stormo di canarini che continuava a volteggiarle attorno alla testa cinguettando la faceva somigliare a uno stravagante modellino piumato del sistema solare non dovresti lasciare lavanda fuori ad aspettarti disse calma si chiederà che fine hai fatto avanzò lenta e impettita verso la porta erri lanciò un'occhiata a ron che sembrava sollevato che non fosse successo altro o pugno erri si voltò di scatto e vide ermione puntare la bacchetta contro ron con aria folle il piccolo stormo filò come una pioggia di grossi proiettili d'oro verso ron che gemette e si coprì il volto con le mani ma i canarini lo aggredirono beccando e graffiando ogni brano di pelle che riuscivano a raggiungere togli meli di dosso urlò lui ma con un ultimo sguardo di rabbia vendicativa ermione spalancò la porta e sparì erri credette di aver sentito un singhiozzo prima che la porta sbattesse il voto infrangibile ancora una volta la neve vorticava contro le finestre ghiacciate il natale si avvicinava in fretta agrid da solo aveva già portato al castello i consueti 12 alberi per la sala grande ghirlande di agrifoglio e decorazioni luccicanti erano state avvolte attorno alle balaustre delle scale candele perpetue brillavano dentro gli elmi delle armature ed enormi mazzi di vischio erano stati appesi a intervalli regolari lungo i corridoi ampi gruppi di ragazze tendevano a convergere sotto i rami di vischio tutte le volte che passava erri creando ingorghi nei corridoi ma per fortuna i frequenti vagabondaggi notturni di erri gli avevano conferito una conoscenza non comune dei passaggi segreti del castello tanto che riusciva a navigare senza troppe difficoltà lungo rotte prive di vischio tra una lezione e l'altra ron che un tempo avrebbe preso queste deviazioni come motivo di gelosia più che di larità si schiantava dalle risate anche se erri preferiva di gran lunga questo nuovo ron scherzoso ridanciano al modello umorale aggressivo delle ultime settimane il progresso fu pagato a caro prezzo prima di tutto erri dovete accettare la presenza frequente di lavanda brown che sembrava ritenere sprecato ogni momento che passava senza baciare ron in secondo luogo erri si ritrovò ancora una volta a essere il migliore amico di due persone che probabilmente non si sarebbero mai più rivolte la parola ron che aveva ancora mani e avambracci coperti di graffi e tagli dopo l'attacco dei canarini di ermione assumeva un tono difensivo e risentito di che si lamenta disse a erri ha baciato crum poi ha scoperto che qualcuno vuole baciare anche me beh è un paese libero non ho fatto niente di male erri non rispose ma finse di concentrarsi sul libro che avrebbero dovuto leggere prima della lezione di incantesimi del mattino dopo la quintessenza una missione deciso com'era restare amico sia di ron che di ermione passava un sacco di tempo con la bocca sigillata non ho mai promesso niente a ermione borbottò ron voglio dire d'accordo sarei andato alla festa di natale di lumacorno con lei ma lei non ha mai detto solo come amici non ho mica firmato un contratto erri voltò una pagina della quintessenza sapendo che ron lo stava osservando la voce dell'amico si perse in un mormorio quasi impercettibile tra lo scoppiettare robusto del fuoco anche se a erri parve di cogliere le parole crum e di nuovo di che si lamenta l'orario di ermione era così fitto che erri riusciva a parlarle sul serio solo la sera quando ron era comunque così avvinto a lavanda da non vedere nient'altro ermione si rifiutava di restare nella sala comune quando c'era ron così di solito erri la raggiungeva in biblioteca dove ovviamente dovevano sussurrare tutto il tempo è libero di baciare chi vuole affermò ermione mentre la bibliotecaria madame pins pattugliava gli scaffali dietro di loro non me ne importa un accidente levò la penna d'oca e mise un puntino su una i con tanta ferocia che bucò la pergamena erri tacque si disse che presto avrebbe perso la voce per mancanza di esercizio si chinò un po di più su pozioni avanzate e continuò a prendere appunti sugli elisir eterni interrompendosi ogni tanto per decifrare le utili integrazioni del principe al testo di libazius boreg fra parentesi aggiunse ermione dopo un po devi stare attento per l'ultima volta sussurrò erri leggermente rocco dopo tre quarti d'ora di silenzio non ho intenzione di restituire questo libro ho imparato di più dal principe mezzo sangue che da pito nel lumacorno non sto parlando del tuo cosiddetto principe lo interruppe ermione lanciando uno sguardo cattivo al libro come se fosse stato sgarbato con lei sto parlando di poco fa sono andata nel bagno delle ragazze prima di venire qui e ce n'erano una decina compresa quella romilda vein che cercavano di decidere come rifilarti di nascosto un filtro d'amore sperano di convincerti a portarle alla festa di lumacorno e a quanto pare hanno comprato tutte i filtri d'amore di fredda e george che temo funzionino perché non glieli hai confiscati allora chiese erri era sorprendente che la mania di ermione per il rispetto delle regole potesse averla abbandonata in quel momento cruciale non avevano portato i filtri in bagno rispose ermione sdegnosa stavano solo parlando di come fare siccome dubito che perfino il principe mezzo sangue e scoccò al libro un'altra occhiataccia si sia potuto sognare un antidoto per una decina di pozioni diverse in un colpo solo al posto tuo la farei finita e ne inviterei una così le altre smetteranno di illudersi è domani sera sono sull'orlo della disperazione non c'è nessuna che voglio invitare borbottò erri che cercava di pensare a gini il meno possibile nonostante lei continuasse a sbucare nei suoi sogni in modi che gli facevano ringraziare il cielo che ron non sapesse esercitare la legilimanzia beh stai attento a quello che bevi perché romilda vain aveva l'aria di fare sul serio concluse ermione funerea fece scorrere il lungo rotolo di pergamena sul quale stava scrivendo il tema di aritmanzia e continuò a grattare sul foglio con la penna erri la guardava con la mente lontanissima aspetta un momento scandì pensavo che filch avesse messo al bando qualunque cosa di tiri vispi weasley no e da quando in qua si fa caso a quello che mette al bando filch gli chiese ermione sempre concentrata sul tema ma io pensavo che tutti i gufi venissero perquisiti come mai allora queste qui riescono a far passare i filtri d'amore a scuola fredda e george li mandano sotto forma di profumi e pozioni per la tosse rispose ermione fa parte del loro servizio ordini via gufo sei molto informata ermione gli rivolse lo stesso sguardo cattivo riservato al libro del principe mezzo sangue c'era scritto sull'etichetta delle bottiglie che hanno mostrato a me a gini quest'estate spiegò con freddezza io non verso pozioni nelle bibite della gente e nemmeno faccio finta che altrettanto disonesto si va bene lasciamo perdere replicò erri in fretta il punto è che filch viene imbrogliato no queste ragazze ricevono a scuola delle cose sotto forma di altre quindi perché malfoy non avrebbe potuto portare la collana o erri non di nuovo andiamo perché no insistete erri senti sospirò ermione i sensori segreti intercettano fatture maledizioni e in tantesimi dissimulanti no sono abituati a trovare magia oscura e oggetti oscuri avrebbero riconosciuto una maledizione potente come quella della collana in pochi secondi ma qualcosa che è solo stato messo nella bottiglia sbagliata non viene notato e comunque i filtri d'amore non sono oscuri e nemmeno pericolosi lo dici tu borbottò erri pensando a romilda vain quindi sarebbe compito di filch capire che non si tratta di una pozione per la tosse ma non è un mago molto abile dubito che sappia distinguere una pozione da ermione si interruppe di botto l'aveva sentito anche erri qualcuno si era mosso molto vicino alle loro spalle tra gli scaffali bui rimasero in attesa e un attimo dopo il cipiglio da voltoio di madame pins apparve da dietro l'angolo le guance incavate la pelle come pergamena e il lungo naso adunco illuminato in modo poco lusinghiero dalla lampada che reggeva la biblioteca adesso chiude esordì badate di rimettere qualunque cosa abbiate preso in prestito nel giusto che cosa stavi facendo a quel libro ragazzo perverso non è della biblioteca è mio esclamò erri togliendo rapido dal tavolo pozioni avanzate mentre lei cercava di artigliarlo con la mano depredato si bilò profanato insozzato è solo un libro su cui qualcuno ha preso degli appunti ribatte erri mettendolo fuori portata sembrava che madame pins fosse lì per avere un colpo ermione che aveva messo via le sue cose in fretta e furia afferrò erri per un braccio e lo trascinò via ti proibirà l'ingresso alla biblioteca se non stai attento perché hai portato quello stupido libro non è colpa mia se è matta da legare ermione o magari ti ha sentito parlare male di filch ho sempre pensato che ci fosse qualcosa tra quei due godendosi il fatto di poter parlare di nuovo ad alta voce avanzarono lungo i corridoi deserti illuminati dalle lampade fino alla sala comune discutendo se filch e madame pins fossero o non fossero segretamente innamorati gingilli disse erri alla signora grassa era la nuova parola d'ordine dei giorni di festa anche a voi rispose la signora grassa con un sorriso birbante e si aprì per lasciarli passare ciao erri esclamò romilda vain nel momento stesso in cui lui entrava dal buco del ritratto ti va un'acqua viola ermione allontanandosi gli lanciò un'occhiata in stile che ti dicevo no grazie rispose pronto erri non mi piace molto beh allora prendi questi ribattero milda ficcando gli in mano una scatola sono ciò calderoni ripieni di whisky incendiario me li ha mandati mia nonna ma a me non piacciono oh bene grazie mille rispose erri senza trovare altro da dire sto andando di là con rincorse ermione con la voce che si spegneva visto fece ermione sbrigativa prima ne inviti una prima ti lasceranno in pace tutte le altre e potrai ma sbiancò all'improvviso aveva avvistato ron e lavanda avvinghiati in una poltrona beh buonanotte erri lo salutò anche se erano solo le sette e si avviò verso il dormitorio delle ragazze senza dire altro erri andò a letto consolandosi col pensiero che c'era ancora solo un giorno di lezioni più la festa di lumacorno e poi lui e ron sarebbero partiti insieme per la tana era improbabile che ron e ermione facessero la pace prima dell'inizio delle vacanze ma forse in qualche modo la pausa avrebbe dato loro il tempo di calmarsi di riflettere non nutriva grandi speranze però e queste si affievolirono il giorno successivo dopo una lezione di trasfigurazione insieme ai due avevano appena affrontato l'argomento enormemente complesso della trasfigurazione umana ciascuno davanti a uno specchio dovevano cambiare il colore delle proprie sopracciglia ermione rise con insolenza del primo disastroso tentativo di ron che si fece spuntare un paio di spettacolari baffi a manubrio ron ricambiò con una feroce ma fedele imitazione di ermione che saltava su e giù sulla sedia tutte le volte che la professoressa mcgonagall faceva una domanda imitazione che lavanda e parvati trovarono tremendamente buffa e che spinse di nuovo ermione sull'orlo delle lacrime al suono della campanella scappo via lasciando metà della sua roba in classe harry decise che tra ermione e ron al momento era lei ad aver più bisogno di aiuto per cui le raccolse le cose e la seguì alla fine la trovò che usciva da un bagno al piano di sotto era con luna lovegood che le dava colpetti distratti sulla schiena oh ciao erri lo salutò luna lo sapevi che hai un sopracciglio giallo ciao luna ermione hai lasciato la tua roba le porse i libri oh sì rispose ermione con voce soffocata prese tutto e si voltò in fretta per non far vedere che si stava asciugando gli occhi con l'astuccio delle matite grazie erri beh è meglio che vada e corse via senza dargli il tempo di dirle qualche parola di conforto anche se non gliene veniva in mente nemmeno una è un po sconvolta osservò luna all'inizio ho pensato che lì dentro ci fosse mirtilla malcontenta e invece era ermione ha detto qualcosa su quel ron weasley si hanno litigato confermò erri lui dice delle cose molto buffe a volte vero fece luna mentre si avviavano insieme lungo il corridoio ma ogni tanto può essere poco gentile l'ho notato l'anno scorso già disse erri luna stava mostrando il suo solito dono per le verità scomode non aveva mai incontrato nessuno come lei come sono andati questi mesi di scuola oh bene rispose luna mi sento un po sola senza less gini è carina però l'altro giorno ha costretto due ragazzi del nostro corso di trasfigurazione a smettere di chiamarmi lunatica ti va di venire alla festa di lumacorno con me stasera le parole erano uscite dalla bocca di erri prima che potesse fermarle si udì pronunciarle come se a parlare fosse un estraneo luna gli puntò addosso gli occhi sporgenti sorpresa alla festa di lumacorno con te sì confermò erri dobbiamo portare degli ospiti e così ho pensato che magari ti va voglio dire era ansioso di chiarire le sue intenzioni voglio dire come amici sai ma se non vuoi già quasi sperava che non volesse oh no sono felice di venirci con te come amica esclamò luna sorridendo come non l'aveva mai vista sorridere nessuno mi ha mai invitato a una festa come amica è per quello che ti sei tinto il sopracciglio per la festa devo tingermelo anch'io no rispose erri deciso è stato un errore chiederò a fermione di sistemarmelo allora ci vediamo nella sala d'ingresso alle otto urlò una voce dall'alto ed entrambi sussultarono senza accorgersene erano appena passati sotto pivs appeso a testa in giù a un lampadario con un ghigno malvagio potti ha chiesto a lunatica di andare alla festa potti ama lunatica e schizzo via ridacchiando e strillando è bello poter tenere segrete queste cose commentò erri e infatti in un baleno tutta la scuola sapeva che erri potter portava luna lovegood alla festa di lumacorno avresti potuto invitare chiunque esclamò ron incredulo a cena chiunque e hai scelto lunatica lovegood non chiamarla così ron sbottò ginni fermandosi alle spalle di erri prima di raggiungere gli amici sono proprio contenta che tu l'abbia invitata erri è così emozionata e passò oltre per sedersi vicino a din erri cercò di essere contento del fatto che ginni approvasse la sua scelta ma non ci riuscì proprio molto più in là ermione era seduta da sola a giocherellare col suo stufato erri notò che ron la guardava furtivo potresti chiederle scusa suggerì con schiettezza se per farmi aggredire da un altro stormo di canarini borbottò ron dovevi proprio farle limitazione ha riso dei miei baffoni anch'io riso sono la cosa più stupida che abbia mai visto ma ron parve non aver sentito lavanda era appena arrivata con parvati si insinuò tra loro e gettò le braccia al collo di ron ciao erri lo salutò parvati che come lui sembrava un po imbarazzata e stufa del comportamento di quei due ciao replicò erri come stai resti a hogwarts allora ho sentito che i tuoi genitori volevano farti lasciare la scuola sono riuscita a convincerli per il momento rispose parvati la storia di katy li ha proprio spaventati ma siccome non è successo niente da ciao ermione parvati fece un gran sorriso erri capì che si sentiva in colpa per aver riso di lei a trasfigurazione si voltò e vide che ermione sorrideva a sua volta e se possibile il suo sorriso era ancora più grande le ragazze erano molto strane a volte ciao parvati la salutò ermione ignorando del tutto ron e lavanda vai alla festa di lumacorno stasera non sono stata invitata rispose parvati mesta mi piacerebbe andarci pare che sarà proprio bello tu ci vai vero sì vedo cormac alle otto e poi ci fu un rumore di ventosa staccata da un lavandino otturato e ron riemerse ermione fece come se non avesse visto o sentito nulla andiamo insieme alla festa cormac domandò parvati cormac mclacken vuoi dire esatto rispose ermione con dolcezza quello che è quasi e sottolineò accuratamente il quasi diventato portiere di grifondoro allora stai con lui le chiese parvati con gli occhi sgranati oh sì non lo sapevi rispose ermione con una risatina non da lei no esclamò parvati elettrizzata dal pettegolezzo beh ti piacciono i giocatori di quidditch è prima crum poi mclacken mi piacciono i giocatori di quidditch molto bravi la corresse ermione sempre sorridente beh ci vediamo devo andare a prepararmi per la festa e se ne andò subito lavanda e parvati si avvicinarono per discutere il nuovo sviluppo con tutto quello che avevano sentito dire di mclacken e che avevano sospettato di ermione ron aveva un'espressione vacua e non disse nulla harry rimase in silenzio a meditare sugli abissi nei quali le ragazze possono sprofondare per amor di vendetta quando arrivò nella sala d'ingresso alle otto in punto vi trovò un numero insolitamente ampio di ragazze e tutte lo fissarono risentite quando si avvicinò a luna lei indossava un completo di paillette d'argento che attirò una certa quantità di risatine da parte delle spettatrici ma nell'insieme era carina harry fu contento comunque che non si fosse portata agli orecchini al rapanello la collana di tappi di burro birra e gli spettrocoli ciao la salutò allora andiamo oh sì rispose lei allegra dov'è la festa nell'ufficio di lumacorno replicò harry guidando lassù per la scalinata di marmo lontano da tutti quegli sguardi e bisbigli hai sentito che dovrebbe venire un vampiro rufus scrimgeor chiese luna io che cosa chiese harry sconcertato il ministro della magia sì è un vampiro confermò luna come se niente fosse mio padre ha scritto un lungo articolo su di lui quando ha preso il posto di cornelius fudge ma qualcuno del ministero gli ha impedito di pubblicarlo evidentemente non volevano che la verità venisse a galla harry riteneva piuttosto improbabile che rufus scrimgeor fosse un vampiro ma era anche abituato a sentire luna ripetere le bizzarre opinioni del padre come se fossero fatti quindi non replicò erano già vicini all'ufficio di lumacorno e il rumore di risate musica e voci aumentava ogni passo che fosse stato costruito così o che lui avesse usato qualche espediente magico per farlo diventare tale l'ufficio di lumacorno era molto più grande di quelli degli altri insegnanti soffitto e pareti erano state ricoperti da razzi color smeraldo cremisi e oro sembrava di essere dentro un enorme tenda la sala era affollata calda e inondata dalla luce rossa di un elaborato lampadario d'oro appeso al soffitto dentro svolazzavano delle vere fate ciascuna una lucente scheggia di luce voci accompagnate da mandolini cantavano in un angolo remoto un'aura di fumo di pipa aleggiava sulle teste di molti stregoni anziani immersi in conversazione e un certo numero di elfi domestici si faceva strada strillando nella foresta di ginocchia portando pesanti vassoi d'argento carichi di cibo tanto da sembrare tavolini e rabondi eri ragazzo mio tuonò lumacorno non appena eri e luna si furono insinuati nella porta vieni vieni ci sono tante persone che vorrei presentarti lumacorno indossava un cappello di velluto infiocchettato coordinato alla giacca da camera afferrò il braccio di eri così forte che sembrava volesse smaterializzarsi con lui e lo guidò risoluto nel cuore della festa eri prese luna per mano e se la trascinò dietro eri ti presento eldred whirlpool un mio vecchio studente autore di fratelli di sangue la mia vita tra i vampiri e naturalmente il suo amico sanguini whirlpool che era un ometto occhialuto prese la mano di eri e la strinse con entusiasmo il vampiro sanguini alto ed emaciato con ombre scure sotto gli occhi si limitò a fare un cenno sembrava annoiato un gruppetto di ragazze curiose ed eccitate gli stava accanto harry potter sono semplicemente estasiato esclamò whirlpool scrutando in su con occhi miopi il viso di eri stavo dicendo proprio l'altro giorno al professor lumacorno dov'è la biografia di harry potter che stiamo tutti aspettando fece eri davvero modesto proprio come lo descrive oras vociò whirlpool ma sul serio e i suoi modi cambiarono improvvisamente pratici sarei lieto di scriverla io la gente muore dalla voglia di saperne di più su di te ragazzo mio muore dalla voglia se fossi disposto a rilasciarmi alcune interviste diciamo in sedute di quattro o cinque ore ecco potremmo avere il libro pronto fra qualche mese e tutto con un impegno minimo da parte tua te lo garantisco chiedi a sanguini se non è sanguini stai fermo aggiunse warpool a un tratto severo perché il vampiro si avviava verso il gruppo di ragazze con sguardo avido tieni mangia un canapè gli disse prendendone uno da un elfo di passaggio e ficcandolo in mano a sanguini prima di tornare a rivolgersi a eri mio caro ragazzo non ha idea di quanti soldi potresti guadagnare non sono affatto interessato rispose eri deciso e ho appena visto una mia amica mi scusi trascinò luna dietro di sé in mezzo alla folla aveva visto davvero una criniera di capelli castani sparire tra quelli che gli erano sembrati due membri dei weird sisters ermione ermione eri ci sei grazie al cielo ciao luna che cosa hai fatto le chiese eri perché ermione era parecchio scarmigliata come se fosse appena uscita a fatica da un boschetto di tranello del diavolo sono appena sfuggita voglio dire ho appena lasciato cormac rispose sotto il vischio aggiunse a mo di spiegazione visto che eri continuava a guardarla interrogativo così impari a invitarlo ribatte lui severamente ho pensato che avrebbe mandato ron fuori dai gangheri confessò ermione per un po ho preso in considerazione zacharias smith ma tutto sommato hai preso in considerazione zacharias smith ripete eri schifato esatto e sto cominciando a pentirmi di non averlo scelto in confronto a me clagen crop è un gentiluomo andiamo di qua così riesco a vederlo se arriva è così alto il terzetto si fece strada fino all'altro lato della stanza afferrando calici di idromele e si rese conto troppo tardi che la professoressa trelonei era la sola buonasera la salutò gentilmente luna buonasera cara rispose la professoressa mettendola a fuoco con una certa difficoltà eri sentì ancora l'odore di sherry non ti ho visto alle mie lezioni ultimamente no quest'anno ho firenze disse luna ah già ribatte la professoressa trelonei con un risolino iroso e alcolico o il ronzino come preferisco chiamarlo si pensava che adesso che sono tornata a scuola il professor silente si sarebbe liberato di quel cavallo no e invece no ci dividiamo le lezioni è un insulto onestamente un insulto ma lo sai la professoressa trelonei sembrava troppo brilla per riconoscere eri approfittando della stroncatura in atto su firenze lui si avvicinò a ermione e le sussurrò chiariamo una cosa hai in mente di dire a ron che ha interferito nelle selezioni per il portiere ermione al sole sopracciglia credi davvero che cadrei così in basso eri le rivolse un'occhiata pungente ermione se hai invitato mclagan c'è una certa differenza osservò lei con dignità non ho intenzione di dire niente a ron di ciò che potrebbe essere successo o non essere successo alle selezioni per il portiere bene eri sospirò di sollievo perché sarebbe di nuovo depresso e perderemmo la prossima partita quidditch sbottò lei con rabbia i maschi non sanno pensare ad altro cormac non mi ha fatto una sola domanda su di me no ma mi sono dovuto assorbire le cento grandi parate di cormac mclagan non stop fin da quando oh no ecco che arriva si spostò così in fretta che fu come se si fosse smaterializzata un attimo era lì un attimo dopo si era infilata fra due streghe sghignazzanti ed era sparita hai visto ermione chiese mclagan un minuto dopo facendosi largo tra la folla no mi spiace rispose eri e si voltò in fretta per inserirsi nella conversazione di luna dimenticando per un istante con chi stava parlando harry potter esclamò la professoressa triloni con voce profonda e vibrante notandolo per la prima volta oh buonasera la salutò lui senza entusiasmo mio caro ragazzo bisbigliò lei in modo perfettamente udibile quante voci quante storie il prescelto naturalmente io lo so da molto molto tempo i presagi non sono mai stati favorevoli ma perché non sei tornato a frequentare divinazione per te più che per chiunque altro la materia è della massima importanza simile siamo tutti convinti che la nostra materia sia la più importante intervenne una voce sonora e l'umacorno comparve all'altro fianco della professoressa trelonei molto rosso in viso il cappello di velluto un po storto un bicchiere di idromele in una mano e una fetta enorme di pasticcio di carne nell'altra ma io non credo di aver mai conosciuto una persona così portata per le pozioni continuò guardando harry con occhi affettuosi e arrossati ha istinto sai come sua madre ho insegnato solo a pochi ragazzi così dotati te lo garantisco sibyl ma sì perfino severus e con orrore di harry l'umacorno tese un braccio e parve trarre piton fuori dal nulla trascinandolo verso di loro smettila di nasconderti e vieni con noi severus singultò l'umacorno allegramente stavo parlando delle straordinarie capacità di harry in pozzioni un po di merito è tuo ovviamente sei stato il suo insegnante per cinque anni in trappola col braccio di l'umacorno attorno alle spalle piton guardò harry dall'alto del suo naso adunco gli occhi neri ridotti a fessure buffo non ho mai avuto l'impressione di riuscire a insegnare alcunché a potter beh allora è tutta abilità naturale urlò l'umacorno dovevi vedere che cosa mi ha preparato alla prima lezione il distillato della morte vivente mai uno studente ha fatto di meglio al primo tentativo nemmeno tu credo severus davvero sussurrò piton gli occhi ancora fissi su harry che provò un certo disagio l'ultima cosa che voleva era che piton indagasse sulla fonte della sua nuova abilità in pozzioni mi ricordi quali altre materie segui harry gli chiese l'umacorno difesa contro le arti oscure incantesimi trasfigurazione erbologia tutte le materie richieste in breve per un auror osservò piton con una vaga ombra di disprezzo sì beh è quello che mi piacerebbe diventare ribatte harry in tono di sfida e sarai un grande auror tuonò l'umacorno non credo che dovresti diventare un auror harry intervenne luna a sorpresa tutti la guardarono gli auror fanno parte del complotto zanna marcia pensavo che lo sapessero tutti lavorano dall'interno per minare il ministero della magia usando una combinazione di magia oscura e piorrea harry scoppiò a ridere mandandosi nel naso metà del suo idromele valeva la pena di aver invitato luna anche solo per questo riaffiorando dal suo calice tossendo suppo ma ancora sorridente vide qualcosa che riuscì a migliorare ancora di più il suo umore draco malfoy veniva trascinato per un orecchio verso di loro da argus filch professor rumacorno sibilò filch le guance tremolanti e negli occhi sporgenti la luce maniacale di chi ha beccato una malefatta ho trovato questo ragazzo nascosto in un corridoio di sopra sostiene di essere stato invitato alla sua festa e di essere in ritardo lei lo ha invitato malfoy si liberò dalla presa di filch furente d'accordo non sono invitato sbottò furibondo stavo cercando di imbucarmi contento no per niente ribatte filch in perfetto contrasto con la pura gioia dipinta sul suo viso sei nei guai o se il preside non ha detto che andare in giro di sera è vietato se non sia il permesso basta così filch basta così intervenne l'umacorno sventolando una mano è natale e non è un crimine voler andare a una festa solo per questa volta sospendiamo le punizioni puoi restare draco l'espressione di filch di offesa delusione era perfettamente prevedibile ma perché si chiese erri guardandolo malfoy sembrava quasi altrettanto scontento e perché piton guardava malfoy come se fosse insieme arrabbiato e possibile un po spaventato ma prima ancora che erri avesse elaborato quanto aveva appena visto filch si voltò e si trascinò via borbottando malfoy ricompose il volto in un sorriso e ringraziò l'umacorno per la sua generosità e il viso di piton tornò imperscrutabile niente niente rispose l'umacorno schermendosi dai ringraziamenti di malfoy conoscevo tuo nonno dopo tutto ha sempre parlato molto bene di lei signore disse in fretta malfoy diceva che lei era il miglior pozionista che avesse mai incontrato erri fissò malfoy non era stupito dall'adulazione che gli vedeva praticare nei confronti di piton da molto tempo ma dal fatto che sembrava davvero malaticcio era la prima volta da secoli che lo vedeva da vicino notò che aveva ombre scure sotto gli occhi e una distinta sfumatura grigia sulla pelle vorrei parlarti un momento draco disse piton all'improvviso o andiamo severus fece l'umacorno con un altro singhiozzo è natale non essere troppo duro sono il direttore della sua casa e decido io se essere duro oppure no ribatte piton asciutto seguimi draco uscirono piton davanti e malfoy dietro con l'aria rancorosa erri rimase un attimo indeciso poi disse torno subito luna il bagno va bene cinguettò lei allegra e a erri mentre si tuffava rapido tra la folla parve di sentirle riprendere l'argomento del complotto zanna marcia con la professoressa trelonei sinceramente interessata gli fu facile una volta fuori dalla festa sfilarsi di tasca il mantello dell'invisibilità e gettarselo addosso perché il corridoio era deserto più difficile fu trovare piton e malfoy erri corse il rumore dei passi coperto dalla musica e dalle voci che ancora uscivano dall'ufficio di lumacorno alle sue spalle forse piton aveva portato malfoy nel suo ufficio nelle segrete o forse lo stava ascoltando fino alla sala comune di serpeverde ma erri mentre sfrecciava nel corridoio premette l'orecchio contro ogni porta finché si rannicchiò vicino a quella dell'ultima classe e con un brivido di eccitazione sentì delle voci non puoi permetterti degli errori draco perché se vieni espulso io non c'entro niente chiaro spero che tu stia dicendo la verità perché è stato un tentativo goffo e sciocco insieme e tu ne sei già sospettato chi sospetta di me sbottò malfoy adirato per l'ultima volta non sono stato io d'accordo quella belle deve aver avuto un nemico di cui nessuno sa nulla non mi guardi così lo so che cosa sta cercando di fare non sono stupido ma non funzionerà io la posso fermare ci fu una pausa e poi piton mormorò sia bella trix ti insegna occlumanzia vedo quali pensieri stai cercando di nascondere al tuo signore draco non sto cercando di nascondere niente a lui è lei che non voglio che si intrometta erri premette l'orecchio contro la serratura che cosa era successo perché malfoy si rivolgesse a piton in quel modo piton verso il quale aveva sempre mostrato rispetto perfino ammirazione allora è per questo che mi eviti temi la mia interferenza ti rendi conto che se chiunque altro avesse mancato di venire nel mio ufficio dopo che gli avevo detto più volte di venire draco allora mi metta in punizione mi denuncia silente lo schernì malfoy beffardo un'altra pausa poi piton rispose sai benissimo e non desidero fare alcuna delle due cose allora la smetta di dirmi di venire nel suo ufficio ascoltami mormorò piton a voce così bassa che erri dovete premere più forte l'orecchio contro il buco della serratura per sentire io sto cercando di aiutarti ho giurato a tua madre che ti avrei protetto ho stretto il voto infrangibile draco pare che dovrà infrangerlo allora perché io non ho bisogno della sua protezione è la mia missione lui l'ha affidata a me e io la sto portando a compimento ho un piano e funzionerà ci vuole solo un po più tempo di quanto pensassi qual è il tuo piano non sono affari suoi se mi dici che cosa stai cercando di fare posso aiutarti ho tutto l'aiuto che mi serve grazie non sono solo stasera eri solo cosa estremamente stupida vagare per i corridoi senza sentinelle o retroguardia questi sono errori elementari avrei avuto crebbe goil se lei non li avesse messi in punizione abbassa la voce sbottò piton perché il tono di malfoy era salito per l'agitazione se i tuoi amici crebbe goil questa volta intendono passare il gufo in difesa contro le arti oscure devono studiare un po più di quanto non facciano al mo che importanza lo interruppe malfoy difesa contro le arti oscure è tutto uno scherzo no una messa in scena come se noi avessimo bisogno di protezione contro le arti oscure è una messa in scena cruciale per ottenere il successo traco ribatte piton dove credi che sarei stato in tutti questi anni se non avessi saputo fingere adesso ascoltami sei imprudente a vagare così di notte a farti sorprendere e se pensi di poterti fidare di assistenti come crebbe goil non sono i soli o altra gente dalla mia gente migliore allora perché non mi confidi tutto io posso lo so che cosa in mente vuole rubarmi la gloria un'altra pausa poi piton rispose gelido parli come un bambino capisco che la cattura e la prigionia di tuo padre ti abbiano sconvolto ma harry ebbe solo un attimo di preavviso sentì i passi di malfoy al di là della porta e riuscì a scansarsi proprio mentre si apriva malfoy si allontanò velocemente lungo il corridoio oltre la porta aperta dell'ufficio di lumacorno svoltò l'angolo lontano e sparì senza quasi avere il coraggio di respirare harry rimase accovacciato mentre piton usciva lentamente dalla classe con espressione indecifrabile torno alla festa harry rimase a terra nascosto sotto il mantello la mente che lavorava frenetica un natale molto gelato e così piton si è offerto di aiutarlo davvero si è offerto di aiutarlo se me lo chiedi un'altra volta minacciò harry ti ficco questo cavolino volevo solo sapere rispose ron erano soli al lavandino della cucina della tana a pulire una montagna di cavolini per la signora weasley la neve cadeva lieve oltre la finestra davanti a loro sì piton si è offerto di aiutarlo ripete harry ha detto che aveva promesso alla madre di malfoy di proteggerlo che aveva fatto un giuramento infrangibile o qualcosa del genere un voto infrangibile interruppe ron stupefatto no non può essere sei sicuro sì sono sicuro rispose harry perché cosa vuol dire beh non si può infrangere un voto infrangibile che strano ci ero arrivato da solo ma allora che cosa succede se lo infrangi muori rispose ron semplicemente fred e george hanno cercato di convincermi a farne uno quando avevo cinque anni e quasi l'ho fatto ci stavamo già tenendo la mano con fred quando papà ci ha scoperti andò fuori di testa ricordò con un luccichio negli occhi è stata la sola volta che ho visto papà arrabbiato quanto mamma fred sostiene che la sua chiappa sinistra non è mai più stata la stessa sì beh a parte la chiappa sinistra di fred scusa chiese la voce di fred mentre i gemelli entravano in cucina a george guarda qui usano i coltelli che tenerezza fra poco più di due mesi compio 17 anni rispose ron imbronciato e allora potrò farlo con la magia ma nel frattempo intervenne george sedendosi e mettendo i piedi sul tavolo possiamo goderci lo spettacolo di voi che dimostrate l'uso corretto di un opla sei stato tu sbottò ron arrabbiato succhiandosi il dito tagliato aspetta quando avrò 17 anni sono sicuro che ci stupirai tutti con le tue finora insospettate magiche virtù sbadigliò fred e a proposito di finora insospettate virtù ronald fece george che cos'è che ci ha detto gini di te e una signorina che si chiama a meno che le nostre informazioni siano manchevoli lavanda brown ron diventò un po rosso ma rivolse di nuovo la sua attenzione ai cavolini con un'aria che non sembrava dispiaciuta fatevi gli affari vostri che risposta elegante commentò fred non so proprio come ti vengono in mente no quello che volevamo sapere com'è successo in che senso ha avuto un incidente come beh come ha fatto a riportare un danno cerebrale così esteso attenti la signora weasley entrò appena in tempo per vedere ron scagliare il coltello dei cavolini contro fred che lo trasformò in un aeroplano di carta con un pigro colpo di bacchetta ron esclamò furiosa che non ti veda mai più lanciare coltelli va bene rispose ron vedrete aggiunse sottovoce voltandosi verso la montagna di cavolini fred george mi dispiace cari ma remus arriva stasera quindi bill dovrà dormire insieme a voi non c'è problema replicò george e poi visto che charlie non torna a casa ron e harry staranno su in soffitta e se fleur dorme con ginni gran bel natale per ginni borbottò fred tutti dovrebbero star comodi beh tutti avranno un letto almeno concluse la signora weasley un po' seccata siamo sicuri che persi non ci farà vedere la sua brutta faccia allora chiese fred la signora weasley si voltò dall'altra parte prima di rispondere no è molto occupato al ministero credo oppure è l'idiota più grande del mondo aggiunse fred mentre sua madre usciva dalla cucina una delle due beh allora andiamo george che cosa avete in mente voi due chiese ron perché non ci aiutate con questi cavolini potreste usare la bacchetta così saremmo liberi anche noi no non credo che sarebbe giusto rispose fred serio è molto formativo per il carattere imparare a pulire i cavolini senza magia ti fa capire quanto è difficile per i babbani e i maghi no e se vuoi che uno ti dia una mano ron aggiunse george tirandogli l'aeroplano di carta io eviterei di lanciargli i coltelli è solo un piccolo suggerimento stiamo andando al villaggio c'è una ragazza molto carina che lavora dal giornalaio e pensa che i miei trucchi con le carte siano meravigliosi quasi come vera magia idioti borbottò ron cupo osservando fred e george allontanarsi sul prato coperto di neve gli ci volevano solo pochi secondi e poi potevamo andare anche noi io non avrei potuto obiettò erri ho promesso assilente di non andare in giro mentre sono qui ah già fece ron pulì ancora qualche cavolino e chiese racconterai assilente di pitone malfoi e delle cose che si sono detti certo rispose erri lo dirò a chiunque possa fermarli e silente è il primo della lista forse ne parlerò ancora anche a tuo padre peccato che tu non abbia capito cosa combina malfoi e come facevo a capirlo era quello il problema che si è rifiutato di dirlo a piton calò il silenzio per qualche istante poi ron riprese naturalmente lo sai che cosa diranno tutti mio padre silente tutti quanti diranno che piton non vuole davvero aiutare malfoi ma stava solo cercando di scoprire il suo piano perché non l'hanno sentito rispose erri nessuno può recitare così bene nemmeno piton già però lo diranno erri si voltò a guardarlo accigliato ma tu mi credi certo replicò ron frettolosamente davvero io sì ma loro sono tutti convinti che piton faccia parte dell'ordine no erri non rispose gli era già venuto in mente che quella sarebbe stata l'obiezione più probabile alle sue nuove prove gli pareva già di sentire ermione ma è ovvio erri faceva finta perché malfoi gli rivelasse che cosa sta facendo era pura ipotesi tuttavia dal momento che non aveva avuto l'occasione di raccontare a ermione quello che aveva origliato era sparita dalla festa di lumacorno prima che lui tornasse o così gli aveva detto un adirato mclaggen ed era già andata a dormire quando lui era tornato in sala comune siccome lui e ron erano partiti per la tana molto presto la mattina dopo aveva avuto appena il tempo di augurarle buon natale e dirle che aveva novità molto importanti da raccontarle al ritorno dalle vacanze non era del tutto sicuro che lei l'avesse sentito però ron e lavanda alle sue spalle si stavano dando un addio decisamente non verbale eppure nemmeno ermione sarebbe riuscita a negare che malfoi tramava qualcosa e che piton lo sapeva quindi erri si sentiva pienamente in diritto di dire io te l'avevo detto cosa che aveva già ripetuto parecchie volte a ron erri non pote parlare con il signor weasley che lavorava fino a tardi al ministero prima della vigilia di natale ospiti e padroni di casa erano seduti in salotto ginny l'aveva decorato con tanta dovizia che sembrava di trovarsi nel centro di un'esplosione di ghirlande di carta fred george harry e ron erano gli unici a sapere che l'angelo in cima all'albero era in verità un ognomo da giardino che aveva morso fredda alla caviglia mentre raccoglieva le carote per la cena di natale sottoposto a uno stupeficium dipinto d'oro ficcato in un minuscolo tutù e con due alucce incollate alla schiena scrutava torvo tutti quanti dall'alto era l'angelo più brutto che erri avesse mai visto con il testone calvo e bitorzoluto e i piedi pelosi avrebbero dovuto tutti ascoltare la trasmissione natalizia della cantante preferita della signora weasley celestina warbeck la cui voce usciva trillando da una grossa radio di legno fleur che sembrava trovare celestina molto noiosa parlava a voce altissima e la signora weasley accigliata continuava ad alzare il volume a colpi di bacchetta così che celestina cantava sempre più forte coperti da una canzone particolarmente vivace dal titolo un calderone pieno di forte amor bollente fred e george cominciarono una partita a sparaschiocco con ginni ron continuava a lanciare sguardi furtivi a bill e fleur come a voler prendere spunti remus lupin più magro e lacero che mai era seduto vicino al fuoco e ne studiava le profondità apparentemente sordo alla voce di celestina vieni mescola il mio calderone e se compassione ti riuscirà il mio forte amor bollente questa notte ti scalderà la ballavamo a 18 anni sospirò la signora weasley asciugandosi gli occhi nel lavoro a maglia ti ricordi arthur fece il signor weasley che stava chino a sbucciare un mandarancio o sicuro una melodia meravigliosa con uno sforzo si raddrizzò un po e guardò eri seduto accanto a lui mi dispiace disse accennando alla radio mentre celestina attaccava il ritornello finirà presto non c'è problema rispose eri con un gran sorriso c'è stato tanto lavoro al ministero molto assentì il signor weasley non mi peserebbe se ottenessimo dei risultati ma abbiamo arrestato tre persone negli ultimi due mesi e temo che nessuno di loro sia un vero mangiamorte ma non andarlo a dire in giro eri aggiunse in fretta improvvisamente molto più sveglio non staranno ancora trattenendo stenti da corto vero chiese eri temo di sì rispose il signor weasley so che silente ha cercato di fare appello direttamente a scrimgeor per stan voglio dire tutti quelli che l'hanno interrogato convengono che è un mangiamorte come questo mandarancio ma le alte cariche vogliono dare l'impressione di fare progressi e tre arresti suona meglio di tre arresti erronei con successivo rilascio ma anche questo è top secret non dirò nulla gli assicurò eri esitò per un attimo chiedendosi quale fosse il modo migliore per affrontare l'argomento che gli stava a cuore mentre riordinava i pensieri celestina warbeck attaccò una ballata dal titolo mi hai stregato il cuor signor weasley si ricorda quello che le avevo detto alla stazione quando partivamo per la scuola ho controllato eri fu la pronta risposta sono andato a perquisire casa malfoi non c'era niente che non avrebbe dovuto esserci sì lo so l'ho letto sul giornale ma questa è una cosa diversa beh più e raccontò la conversazione tra malfoi e piton che aveva origliato lupin si voltò appena verso di lui registrando ogni parola quando ebbe finito cadde il silenzio a parte la cantilena di celestina o mio povero cuore dove è andato per un incantesimo mi ha lasciato non hai pensato eri cominciò il signor weasley che piton stesse solo fingendo fingendo di offrire il suo aiuto in modo da poter scoprire che cosa malfoi avesse in mente completò eri rapido sì immaginavo che lei l'avrebbe detto ma come facciamo a esserne sicuri non è affar nostro intervenne lupin inaspettatamente si era girato a guardare eri la schiena verso il camino sono affari di silente lui si fida di severus e questo dovrebbe bastare a tutti noi ma interro qui eri mettiamo che mettiamo che silente si sbagli su piton l'hanno detto in tanti tante volte tutto si riduce ad avere o non avere fiducia nel giudizio di silente io ce l'ho e quindi mi fido di severus ma silente può sbagliare ribatte eri lo dice anche lui e a te guardò lupin dritto negli occhi sinceramente a te piace piton non lo odio e non lo amo rispose lupin no eri dico la verità aggiunse perché eri aveva assunto un'espressione scettica non saremo mai amici forse dopo tutto quello che è successo tra james sirius e severus c'è troppo rancore ma non dimentico che durante l'anno in cui ho insegnato hogwarts severus ha preparato la pozione antilupo per me tutti i mesi alla perfezione perché non soffrissi durante la luna piena ma si è lasciato sfuggire per caso che sei un lupo mannaro e così sei dovuto andar via sbottò eri arrabbiato lupin scrollò le spalle la notizia sarebbe trapelata comunque sappiamo tutti e due che voleva il mio posto ma avrebbe potuto danneggiarmi molto di più ma non mettendo la pozione mi ha mantenuto in salute devo essergli grato forse non ha osato perché silente lo teneva d'occhio ribatte eri tu sei deciso a detestarlo eri lupin sorrise debolmente e capisco che con james come padre e sirius come padrino tu abbia ereditato un vecchio pregiudizio racconta silente quello che hai detto ad arthur e a me ma non aspettarti che condivida il tuo punto di vista non aspettarti nemmeno che sia sorpreso da quello che gli dici può anche darsi che piton abbia interrogato draco per ordine di silente e adesso che per bene l'hai spezzato ridammi ti prego il mio cuore innamorato celestina concluse la canzone su una lunghissima nota acuta e alti applausi uscirono dalla radio la signora weasley vi si unì con entusiasmo è finito chiese flora d'alta voce sotto cielo era terribile una tisana per tutti chiese il signor weasley alzandosi un bombardino che cosa hai fatto ultimamente chiese harry a lupin mentre il signor weasley andava a prendere il bombardino e tutti gli altri si stiracchiavano e cominciavano a chiacchierare oh mi sono dato alla macchia rispose lupin letteralmente ecco perché non ho potuto scriverti harry mandarti delle lettere sarebbe stato come tradirsi perché vivo tra i miei compagni i miei pari lupi mannari aggiunse lupin quando harry lo fissò senza capire stanno quasi tutti dalla parte di voldemort silente voleva una spia ed eccomi belle pronto era un po amareggiato e forse se ne rese conto perché sorrise con più calore e riprese non mi lamento è un lavoro necessario e chi può farlo meglio di me ma è stato difficile ottenere la loro fiducia vedi porto i segni inconfondibili di chi ha cercato di vivere tra i maghi mentre loro hanno sfuggito la società e vivono ai margini rubando e a volte uccidendo per mangiare come mai parteggiano per voldemort sono convinti che con lui avranno una vita migliore rispose lupin ed è difficile controbattere con greybeck là fuori chi è greybeck non hai sentito parlare di lui le mani di lupin si strinsero convulsamente in grembo fenrir greybeck è forse il più selvaggio lupo mannaro che esista considera sua missione nella vita mordere e contaminare quanti più umani possibile vuole creare tanti lupi mannari da sopraffare i maghi voldemort gli ha promesso una lauta preda in cambio dei suoi servigi greybeck è specializzato in bambini mordili da piccoli dice e allevali lontano dai loro genitori insegna loro a odiare i maghi normali voldemort ha minacciato riscatenarlo sui figli di tanta gente una minaccia che di solito sortisce buoni risultati lupi intacque e poi aggiunse è stato greybeck a mordere me come chiese erri esterrefatto cioè quando eri bambino sì mio padre l'aveva offeso a lungo ignorato l'identità del lupo mannaro che mi aveva aggredito provavo perfino pietà per lui pensavo che non riuscisse a controllarsi dal momento che ormai sapevo come ci si sentiva ma greybeck non è così quando c'è la luna piena si apposta vicino alle vittime per essere sicuro di colpire pensa a tutto e questo è l'essere che voldemort sta usando per riunire i lupi mannari non posso dire che i miei argomenti ragionevoli abbiano gran successo contro i proclami di greybeck che noi lupi mannari meritiamo il sangue che dobbiamo vendicarci delle persone normali ma tu sei normale esclamò erri hai solo un problema lupin scoppiò a ridere a volte mi ricordi tanto james in compagnia lo chiamava il mio piccolo problema peloso un sacco di gente si era fatta l'idea che avessi un coniglio ribelle prese un bombardino offerto dal signor weasley e lo ringraziò sembrava un po più allegro nel frattempo erri avvertì un impeto di emozione sentendo nominare suo padre si era ricordato che c'era una cosa che voleva chiedere a lupin hai mai sentito parlare di qualcuno che si chiamava il principe mezzo sangue mezzo sangue e prima principe ripete erri osservandolo bene per capire la sua reazione non ci sono principi tra i maghi rispose lupin sorridendo è il titolo che stai pensando di adottare pensavo che prescelto ti bastasse non c'entra niente con me ribatte erri indignato il principe mezzo sangue era uno studente di hogwarts io ho il suo vecchio libro di pozioni l'ha riempito di incantesimi di sua invenzione uno è il levi corpus o quello era molto di moda quando andava a hogwarts ricordò lupin al quinto anno per diversi mesi non potevi fare un passo senza finire appeso in aria per la caviglia lo usava anche mio padre disse erri l'ho visto nel pensatoio contro piton cercò di suonare indifferente come se fosse un commento trascurabile ma non era sicuro di aver ottenuto l'effetto desiderato il sorriso di lupin era un po troppo comprensivo se rispose ma non era l'unico come ti ho detto era molto popolare sai che questi incantesimi vanno e vengono ma sembra che sia stato inventato quando andavi a scuola tu insistete erri non necessariamente ribatte lupin le fatture seguono le mode come tutto il resto studiò erri e poi mormorò james era puro sangue erri e ti garantisco che non ci ha mai chiesto di chiamarlo principe erri abbandonò ogni cautela e non era sirius non eri tu decisamente no oh rispose erri fissando il fuoco pensavo solo beh mi ha aiutato un sacco in pozioni il principe quanti anni a questo libro erri non so non ho mai controllato beh forse ti darà qualche idea sul periodo in cui il principe è stato a hogwarts suggerì lupin poco dopo fleur decise di imitare celestina cantando un calderone pieno di forte amor bollente e dalla faccia della signora weasley tutti lo presero come il segnale che era ora di andare a letto nella camera di ron in soffitta era stata aggiunta una brandina per erri ron si addormentò quasi subito ma prima di andare a letto erri frugò nel suo baule ed estrasse pozioni avanzate lo sfogliò finché trovò la data di pubblicazione sulla prima pagina aveva quasi 50 anni né suo padre né gli amici di suo padre erano a hogwarts 50 anni prima deluso erri gettò il libro nel baule spense la lampada e si rigirò pensando ai lupi mannari e a piton a stenti raccorto e al principe mezzo sangue infine cadde in un sonno inquieto denso di ombre striscianti e di urla di bambini che venivano morsi sta scherzando erri si svegliò di colpo e trovò una calza rigonfia i piedi del letto si infilò gli occhiali e si guardò attorno la finestrella era quasi completamente oscurata dalla neve e davanti a lui ron sedeva nel letto esaminando una specie di grossa catena d'oro che cos'è chiese erri è il regalo di lavanda rispose ron disgustato non può mica pensare che io mi metta erri guardò meglio e scoppiò a ridere dalla catena pendevano in grosse lettere d'oro le parole amore mio carina sghignazzò elegante dovresti proprio mettertela davanti a fredda e george se glielo dici lo minacciò ron facendo sparire la catena sotto il cuscino io 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 ti mi balbetti addosso andiamo ti pare che lo farei come può pensare che mi piaccia una roba del genere chiese ron al nulla con aria agghiacciata beh ripensaci suggerì erri ti sei mai lasciato sfuggire che non vedevi l'ora di andare in giro con amore mio appeso al collo beh non è che noi due parliamo molto ammise ron più che altro pomiciate completò erri beh sì ribatte ron esitò un momento poi domandò ermione sta sul serio con mcclagan non lo so ammise erri erano insieme alla festa di lumacorno ma non credo che sia andata benissimo ron tornò a rovistare nella calza un po più allegro tra i regali di erri c'erano un pullover fatto a maglia dalla signora weasley con un bel boccino d'oro sul davanti una grossa scatola di prodotti tirivispi weasley da parte dei gemelli e un pacchetto un po umido che sapeva di muffa con un'etichetta che diceva al padrone da creature erri lo fissò credi che sia sicuro aprirlo chiese non può essere niente di pericoloso tutta la nostra posta viene ancora perquisita al ministero disse ron osservando il pacchetto con aria sospettosa io non ho pensato di fare un regalo a creature in genere si fanno regali di natale ai propri elfi domestici domandò erri tastando cautamente il pacchetto ermione lo farebbe rispose ron ma aspettiamo di vedere che cos'è prima che cominci a sentirti in colpa un attimo dopo erri strillò e balzò giù dalla branda il pacchetto conteneva un mucchio di vermi carini sghignazzò ron un pensiero gentile meglio della tua collana ribatte erri e ron si incubì di botto tutti indossavano pullover nuovi al pranzo di natale tranne fleur per la quale a quanto pareva la signora weasley non aveva voluto sprecarne uno e la signora weasley che esibiva un cappello da strega nuovo di zecca blu notte coperto da minuscoli diamanti a forma di stella e una spettacolare collana d'oro sono i regali di fred e george bellissimi vero beh adesso che ci laviamo i calzini da soli ti apprezziamo sempre di più mamma disse george agitando una mano con leggerezza un po di pastinaca remus erri hai un verme nei capelli fece gini allegra sporgendosi sopra il tavolo per prenderlo erri sentì sul collo una pelle d'oca che non aveva niente a che fare col verme orribile disse fleur con un brividino affettato sì vero confermò ron un po di salsa fleur nel desiderio di aiutarla rovesciò la salsiera bill agitò la bacchetta e la salsa galleggiò a mezz'aria poi tornò mansueta al suo posto sei un pastichon come quella tonks disse fleur a ron dopo aver baciato bill per ringraziarlo rovescia sempre tutto ho invitato la cara tonks qui oggi intervenne la signora weasley posando le carote sul tavolo con fogha eccessiva e guardando fleur torva ma non è voluta venire le hai parlato di recente remus no non sono stato in contatto con nessuno rispose lupin ma tonks ha la sua famiglia da cui andare no fece la signora weasley forse ma veramente ho avuto l'impressione che pensasse di trascorrere il natale da sola scoccò a lupin un'occhiata irritata come se fosse tutta colpa sua se si ritrovava fleur come nuora invece di tonks ma osservando fleur che imboccava bill con la propria forchetta erri si disse che la signora weasley combatteva una battaglia persa poi gli venne in mente una cosa a proposito di tonks e a chi chiedere se non a lupin che sapeva tutto dei patroni il patronus di tonks ha cambiato forma gli disse almeno così ha detto piton non sapevo che potesse succedere perché un patronus dovrebbe cambiare lupin masticò con calma il boccone e lo inghiottì prima di rispondere lentamente qualche volta un grosso spavento una tempesta emotiva era grande e aveva quattro zampe mormorò erri attraversato da un pensiero improvviso e non poteva essere arthur esclamò la signora weasley all'improvviso si era alzata dalla sedia la mano sul cuore e fissava fuori dalla finestra della cucina arthur e persi che cosa il signor weasley si voltò tutti guardarono dalla finestra gini si alzò per vedere meglio c'era proprio persi weasley che avanzava nel giardino coperto di neve gli occhiali cerchiati di corno che scintillavano al sole ma non era solo arthur è con il ministro e infatti lo seguivo all'uomo che erri aveva visto sulla gazzetta del profeta un po soppicante la criniera di capelli grigi e il nero punteggiati di neve prima che uno di loro potesse parlare prima che il signore e la signora weasley potessero far altro che scambiarsi sguardi esterrefatti la porta sul retro si aprì ed entrò persi ci fu un istante di doloroso silenzio poi persi disse rigido buon natale madre o persi si inghiozzò la signora weasley gettandosi tra le sue braccia rufus scrimgeor si fermò sulla soglia appoggiandosi al bastone e sorridendo a quella scena commovente dovete perdonare l'intrusione cominciò quando la signora weasley lo guardò sorridendo e asciugandosi gli occhi io e persi eravamo nelle vicinanze per lavoro naturalmente e lui non è riuscito a resistere all'idea di fare un salto ma persi non dava segno di voler salutare nessuno del resto della famiglia rimase dritto come un palo con aria guardinga fissando oltre le teste di tutti gli altri il signor weasley fred e george lo guardavano impietriti prego si accomodi ministro si agitò la signora weasley raddrizzandosi il cappello prenda un po di dacchino o un tolce cioè no no mia cara molly rispose scrimgeor harry sospettò che ne avesse chiesto il nome a persi prima di entrare non voglio disturbare non sarei affatto qui se persi non avesse tanto voluto vedervi oh pers mugolò la signora weasley alzandosi in punta di piedi per baciarlo ci tratteniamo solo cinque minuti quindi farò un giro in giardino mentre voi chiacchierate con persi no no vi garantisco che non voglio intromettermi beh se a qualcuno andasse di mostrarmi il vostro delizioso giardino a quel giovane ha finito perché non fa una passeggiata con me l'atmosfera attorno alla tavola mutò in modo palpabile tutti guardarono da scrimgeor a harry nessuno parve trovare convincente che il ministro fingesse di non conoscere il nome di harry o naturale che scegliesse proprio lui per farsi accompagnare quando anche ginny fred e george avevano i piatti vuoti sì d'accordo rispose harry nel silenzio generale non c'era cascato a dispetto delle affermazioni di scrimgeor di essere lì per caso perché persi potesse salutare la famiglia la vera ragione del loro arrivo era quella parlare a quattro occhi con lui è tutto a posto mormorò passando davanti a lupin che si era alzato tutto a posto ripete quando il signor weasley fece per parlare magnifico disse scrimgeor e fece un passo indietro per lasciar passare harry faremo un giro e poi io e persi ce ne andremo continuate pure voi tutti harry attraversò il cortile verso il giardino incolto e coperto di neve con scrimgeor che gli zoppicava al fianco sapeva che era stato capo dell'ufficio auror era duro e segnato dalle battaglie molto diverso dal corpulento faggio con la sua bombetta delizioso commentò scrimgeor fermandosi vicino allo steccato per guardare il prato bianco e le piante irriconoscibili delizioso harry non disse nulla si sentiva addosso lo sguardo dell'altro è da molto tempo che desideravo conoscerti continuò scrimgeor dopo un po lo sapevi no rispose harry con sincerità oh sì ma silente molto protettivo con te naturale ovvio naturale dopo quello che hai passato soprattutto dopo quello che è successo al ministero aspettò che harry dicesse qualcosa poi visto che non lo faceva continuò è da quando sono stato nominato che spero di avere un'occasione per parlarti ma silente e lo capisco come ti dicevo ha evitato che accadesse harry continuò a tacere in attesa quante voci sono circolate proseguì scrimgeor beh naturalmente sappiamo tutti e due che sono un po gonfiate tutte quelle storie su una profezia che tu sei il prescelto stavano arrivando pensò harry alla vera ragione di quella visita suppongo che silente abbia discusso di queste faccende con te harry riflette chiedendosi se doveva mentire o no guardò le piccole impronte degli ignomi nelle aiuole e i solchi lasciati da quello che fredda aveva catturato e che ora indossava il tutù in cima all'albero di natale infine decise per la verità o almeno una parte sì ne abbiamo discusso certo certo fece scrimgeor harry vide con la coda dell'occhio che il ministro lo stava scrutando intensamente così finse di essere molto interessato a un ognomo che spuntava da un rododendro congelato e che cosa ti ha detto silente harry mi spiace ma questo resta fra noi rispose harry con la sua voce più amabile anche quella di scrimgeor suonò leggera e amichevole naturale se si tratta di confidenze non devi divulgarle no no e in ogni caso è poi così importante se tu sei il prescelto harry dovete rimuginarci sopra prima di rispondere non capisco cosa intende ministro beh naturalmente per te sarà della massima importanza rise scrimgeor ma per la comunità magica tutto sta nella percezione no è quello che la gente crede che importa harry non rispose gli parve di capire vagamente dove stavano andando a parare ma non voleva aiutare scrimgeor ad arrivarci l'ognomo sotto il rododendro scavava vicino alle radici in cerca di vermi harry non gli levò gli occhi di dosso vedi tutti credono che tu sia davvero il prescelto proseguì il ministro pensano che tu sia l'eroe e naturalmente lo sei harry prescelto o no quante volte ormai hai affrontato colui che non deve essere nominato beh comunque continuò senza aspettare risposta il fatto è che sei un simbolo di speranza per molti harry l'idea che ci sia qualcuno che potrebbe riuscire che potrebbe addirittura essere destinato a distruggere colui che non deve essere nominato ecco è ovvio che dà un certo sollievo alla gente e io non posso fare a meno di pensare che quando te ne renderai conto potrai considerare ecco quasi un dovere schierarti al fianco del ministero e dare un sostegno morale a tutti l'ognomo era appena riuscito a impossessarsi di un verme lo tirava forte cercando di sfilarlo dal suolo gelato harry rimase in silenzio così a lungo che scream giordisse spostando lo sguardo da lui all'ognomo buffe creature ma tu che ne dici harry non riesco a capire che cosa vuole da me replicò harry lentamente schierarmi al fianco del ministero che significa oh beh niente di oneroso te lo garantisco rispose scream giordi vederti entrare uscire ogni tanto dal ministero per esempio darebbe la giusta impressione e già che ci sei potresti avere ampie opportunità di parlare con gawain robarts il mio successore a capo dell'ufficio auror dolore sunbridge mi ha detto che tu accarezzi il sogno di diventare un auror insomma si potrebbe fare in modo che succeda facilmente harry sentì la rabbia ribollirgli in fondo allo stomaco dolore sunbridge era ancora al ministero insomma rispose come se volesse solo chiarire alcuni punti vorrebbe dare l'impressione che io lavori per il ministero sarebbe di conforto per tutti credere che tu sia più coinvolto harry confermò scream giordi sollevato che harry avesse capito così in fretta il prescelto sai si tratta di dare alla gente speranza la sensazione che siano in ballo grandi cose ma se io continuo a correre dentro e fuori dal ministero proseguì harry sempre sforzandosi di mantenere un tono amichevole non sembrerà che io approvi quanto sta facendo il ministero beh fece scream giordi accigliandosi appena ecco sì in parte è quello che vorremmo no non credo che possa andare concluse harry in tono amabile vede a me non piacciono alcune cose che il ministero sta facendo sbattere dentro stenti la corto per esempio scream giordi accue per un momento ma la sua espressione si indurì di botto non mi aspetto che tu possa capire rispose e non fu bravo quanto harry nel controllare la rabbia questi sono tempi pericolosi e bisogna prendere certe misure tu hai 16 anni silente ne ha molti di più e anche lui pensa che stan non dovrebbe stare ad azkaban replicò harry ne state facendo un capro espiatorio e di me volete fare una mascotte si guardarono a lungo e intensamente infine scream giordi sbottò senza più fingere cordialità capisco tu preferisci come il tuo eroe silente dissociarti dal ministero io non voglio essere usato ribatte harry c'è chi direbbe che è tuo dovere farti usare dal ministero sì e c'è chi direbbe che è vostro dovere controllare che le persone siano davvero mangiamorte prima di metterle in galera ribatte harry con rabbia crescente lei sta facendo quello che faceva barty crouch non capite mai voi vero prima fudge che fa finta che tutto vada benone mentre la gente viene assassinata sotto il suo naso poi lei che sbatte dentro quelli sbagliati e vuole far la scena di aver arruolato il prescelto quindi tu non sei il prescelto domandò scream giord ha detto che non importava riseri amaro non a lei comunque non avrei dovuto dirlo fece scream giordi in fretta sono stato insensibile no è stato onesto lo corresse harry è una delle poche cose oneste che mi ha detto a lei non importa che io viva o muoia le interessa solo che la aiuti a convincere tutti che state vincendo la guerra contro voldemort non ho dimenticato ministro alzò il pugno destro bianche e lucide sul dorso della mano gelata c'erano le cicatrici delle parole che dolore sunbridge lo aveva costretto a incidere nella sua stessa carne non devo dire bugie non ricordo di averla vista correre in mia difesa quando cercavo di dire a tutti che voldemort era tornato il ministero non aveva tanta voglia di fare amicizia l'anno scorso rimasero in un silenzio ghiacciato quanto il suolo sotto i loro piedi l'ognomo era riuscito a sfilare il suo verme da terra e lo succhiava allegramente appoggiandosi contro i rami più bassi del cespuglio di rododendro che cos'ha in testa silente chiese scrimgeor in tono brusco dove va durante le sue assenze da hogwarts non ne ho idea rispose erri e anche se lo sapessi non me lo diresti vero no non glielo direi beh allora vedrò di scoprirlo in un altro modo può provarci replicò erri con indifferenza ma lei sembra più abile di fudge quindi avrà imparato dai suoi errori lui ha cercato rintromettersi a hogwarts avrà notato che non è più ministro ma silente ancora preside lo lascerei in pace se fossi in lei ci fu una lunga pausa beh mi sembra chiaro che ha fatto un ottimo lavoro con te riprese scrimgeor gli occhi freddi e duri dietro le lenti cerchiate di metallo sei l'uomo di silente sempre e comunque vero potter esatto concluse erri e sono contento che l'abbiamo chiarito voltò le spalle al ministro della magia e tornò a grandi passi verso la casa un ricordo lumacoso un tardo pomeriggio qualche giorno dopo capodanno erri ron e ginni si misero in fila accanto al camino della cucina per tornare a hogwarts il ministero aveva predisposto un collegamento straordinario alla metro polvere per far tornare gli studenti a scuola rapidamente e in tutta sicurezza c'era solo la signora weasley a salutarli perché il signor weasley fred george bill e fleur erano tutti al lavoro la signora weasley si sciolse in lacrime al momento di separarsi in verità le ci voleva poco ultimamente piangeva a intermittenza da quando persi se n'era andato dopo la sua visita a sorpresa con gli occhiali schizzati di purè di pastinaca atto del quale sia fred che george che ginni rivendicavano il merito non piangere mamma la consolò ginni battendo gentilmente sulla schiena di sua madre che le singhiozzava sulla spalla va tutto bene sì non stare in pensiero per noi aggiunse ron consentendole di stampargli un bacio molto umido sulla guancia o per persi è un tale imbecille non è una gran perdita no la signora weasley singhiozzò più forte che mai stringendo harry tra le braccia promettimi che starai attento stai lontano dai guai lo faccio sempre signora weasley disse harry lo sa mi piace la vita tranquilla lei rispose con una risatina acquosa e un passo indietro fate i bravi tutti quanti harry entrò nel fuoco sbelaldino e gridò hogwarts ebbe un'ultima fugace visione della cucina e del volto lacrimoso della signora weasley prima che le fiamme lo avvolgessero vorticando colse lampi sfocati di altre case magiche che sfrecciarono via prima che riuscisse a guardare bene poi rallentò e infine si fermò nel cammino dell'ufficio della professoressa mcgonagall lei alzò appena lo sguardo dal lavoro mentre lui si arrampicava fuori dal focolare sera potter cerca di non far cadere troppa cenere sul tappeto si professoressa harry si raddrizzò gli occhiali e si appiattì i capelli mentre ron appariva roteando quando fu arrivata anche ginni uscirono tutti dall'ufficio della mcgonagall diretti alla torre di grifondoro harry guardò fuori dalle finestre del corridoio il sole stava già calando sul parco coperto da una coltre di neve più alta di quella del giardino della tana in lontananza scorse agrid che dava da mangiare a fiero becco davanti alla sua capanna gingilli disse ron con sicurezza quando ebbero raggiunto la signora grassa molto più pallida del solito che sussultò infastidita dalla voce squillante no rispose lei come sarebbe no c'è una nuova parola d'ordine disse e per favore non gridare ma siamo stati via come facciamo a harry ginni ermione correva verso di loro rossa in viso bardata con mantello cappello e guanti sono tornata un paio d'ore fa sono appena andata a trovare agrid e fiero voglio dire alisecco disse senza fiato avete passato un buon natale altro che rispose subito ron pieno di avvenimenti rufus scream ho qualcosa per te erri lo interruppe ermione senza guardarlo né dare segno di averlo sentito o un momento la parola d'ordine astinenza precisamente pigolò la signora grassa e si spostò per rivelare il buco dietro il ritratto che cosa le succede chiese erri a quanto pare ha esagerato durante le feste rispose ermione con gli occhi al cielo guidandolo nella follatissima sala comune lei e la sua amica violet hanno finito tutto il vino del quadro dei monaci ubriachi in fondo al corridoio di incantesimi comunque si frugò in tasca e prese un rotolo di pergamena con la grafia di silente ottimo fece erri e lo srotolò subito per scoprire che la lezione successiva era fissata per la sera dopo o un mucchio di cose da dirgli e da dire a te sediamoci ma in quel momento si levò un gridolino acuto ron ron lavanda brown sbucò fuori dal nulla e si gettò fra le braccia di ron parecchi spettatori sogghignarono ermione ridacchiò e disse c'è un tavolo laggiù vieni con noi ginni no grazie ho appuntamento con dean rispose lei erri non poté fare a meno di notare che non sembrava molto entusiasta lui e ermione si allontanarono da ron e lavanda avvinghiati in una sorta di wrestling verticale e raggiunsero il tavolo libero allora come sono andate le vacanze oh bene ermione scrollò le spalle niente di speciale e da ron ron te lo racconto fra un minuto replicò erri senti ermione non puoi no non posso fece lei in tono piatto quindi non chiedermelo nemmeno pensavo che forse sai dopo natale è stata la signora grassa a versi una tinozza di vino vecchio di 500 anni erri non io allora quali erano le notizie importanti sembrava troppo inviperita per discutere così erri lasciò cadere l'argomento ron e riferì la conversazione tra malfoi e piton quando ebbe finito ermione rimase immersa nei suoi pensieri per un momento e poi domandò non credi che stesse fingendo di aiutarlo in modo da convincere malfoi a dirgli che cosa sta facendo beh sì rispose lei anche il padre di ron e lupin la pensano così a miseria malincuore ma questo dimostra senza dubbio che malfoi sta tramando qualcosa non puoi negarlo no infatti convenne lei e agisce per ordine di voldemort come ho detto io uno dei due ha davvero fatto il nome di voldemort erri aggrottò la fronte cercando di ricordare non ne sono sicuro piton ha detto certamente il tuo signore e chi altri potrebbe essere non so rispose ermione mordendosi il labbro forse suo padre fissò un punto dall'altra parte della stanza persa nei suoi pensieri senza nemmeno accorgersi che lavanda stava facendo il solletico a ron come sta lupin non benissimo rispose erri e le raccontò della missione tra i lupi mannari e delle difficoltà che stava affrontando hai mai sentito parlare di questo fenrir graybeck certo esclamò ermione trasalendo e anche tu erri quando a storia della magia sai benissimo che non ho mai seguito no no non a storia della magia malfoi lo ha nominato per minacciare borgin a noturnalle non ti ricordi ha detto a borgin che graybeck era un vecchio amico di famiglia e che avrebbe controllato il suo lavoro erri la guardò a bocca aperta me l'ero dimenticato ma questo prova che malfoi è un mangiamorte altrimenti come potrebbe essere in contatto con graybeck e dirgli cosa fare è molto sospetto sussurrò ermione a meno che o andiamo sbottò erri esasperato non puoi contestare anche questo beh c'è la possibilità che fosse un blef sei incredibile sai erri scosse la testa vedremo chi ha ragione ti rimangerai le tue parole ermione proprio come il ministero oh già ho anche litigato con rufus scrimgeor e trascorsero amichevolmente il resto della serata a parlare male del ministero della magia perché ermione come ron era convinta che dopo tutto quello che il ministero aveva fatto passare a erri l'anno prima ci voleva un bel coraggio a chiedere il suo aiuto il nuovo trimestre cominciò la mattina dopo con una piacevole sorpresa per i ragazzi del sesto anno durante la notte nella bacheca della sala comune era stato appeso un grosso cartello lezioni di materializzazione se hai 17 anni o li compirai entro il 31 agosto sei idoneo per un corso di 12 settimane di lezioni di materializzazione tenuto da un istruttore del ministero della magia se desideri partecipare sei pregato di apporre qui sotto la tua firma iscrizione 12 galeoni erri e ron si unirono alla folla di ragazzi che sgomitavano attorno al cartello e a turno scrivevano il proprio nome in fondo ron stava per firmare dopo ermione quando lavanda gli strisciò alle spalle gli fece scivolare le mani sugli occhi e trillò indovina chi è ron ron erri vide ermione allontanarsi e la imitò perché non aveva nessuna voglia di restare indietro con ron e lavanda ma inaspettatamente ron li raggiunse appena dopo il buco del ritratto le orecchie rosso vivo e l'espressione scontenta senza una parola ermione accelerò per scendere con neville allora materializzazione esordì ron e suo tono non lasciava dubbi che erri non doveva alludere a quanto era appena successo dovrebbe essere divertente non so rispose erri forse è meglio farlo da soli non mi è piaciuto granché quando silente mi ha fatto fare un giro dimenticavo che tu l'hai già fatto sarà meglio che io passi l'esame al primo colpo considerò ron preoccupato fredde george ci sono riusciti ma charlie è stato bocciato no sì ma charlie è più grosso di me e ron scostò le braccia dal corpo come un gorilla quindi fredde george non l'hanno preso tanto in giro non in sua presenza almeno quando possiamo fare l'esame appena avremo 17 anni vuol dire marzo per me sì ma non ci si può materializzare qui nel castello non è questo il punto no tutti saprebbero che potrei materializzarmi se volessi ron non era l'unico a essere eccitato all'idea della materializzazione tutto il giorno si parlò molto delle lezioni imminenti la possibilità di sparire e riapparire a piacere era tenuta in gran conto sarà fortissimo simus schioccò le dita in un gesto eloquente mio cugino fergus lo fa solo per irritarmi ma vedrà appena imparerò anch'io non avrà più un momento di pace perso in quella prospettiva beata agitò la bacchetta con troppo entusiasmo e invece di produrre la fontana di acqua pura che era l'oggetto della lezione di incantesimi di quel giorno scatenò un getto da idrante che rimbalzò sul soffitto e stese il professor flitwick faccia a terra eri si è già materializzato confidò ron a un imbarazzato simus il professor flitwick si era nel frattempo asciugato con un colpo di bacchetta e gli aveva assegnato per punizione una frase da scrivere cento volte sono un mago non un babbuino che brandisce un bastone si le qualcuno l'ha portato con sé materializzazione congiunta sai wow sussurrò simus e lui din e neville avvicinarono le teste per sentire che cosa si provava a materializzarsi per tutto il giorno eri fu assediato dai compagni alla notizia di quanto fosse sgradevole tutti parvero sgomenti più che scoraggiati e poiché alle 8 meno 10 non aveva ancora finito di rispondere alle domande eri decise di mentire disse che doveva restituire un libro alla biblioteca e sfuggì in tempo per la lezione consilente le lampade nell'ufficio erano accese i ritratti dei presidi del passato rossavano con dolcezza nelle cornici e il pensatoio era ancora una volta pronto sulla scrivania le mani di silente erano posate ai due lati la destra annerita e bruciata come sempre non sembrava affatto guarita eri si domandò forse per la centesima volta che cosa avesse provocato una ferita così grave però non lo chiese visto che silente aveva detto che alla fine l'avrebbe saputo e comunque c'era un altro argomento che gli premeva discutere ma prima che potesse raccontare qualcosa su pitone malfoy fu il preside a parlare ho saputo che hai conosciuto il ministro della magia a natale sì confermò eri non è molto contento di me no sospirò silente nemmeno di me dobbiamo cercare di non sprofondare nel dolore eri ma continuare a combattere eri fece un gran sorriso voleva che dicessi alla comunità magica che il ministero sta facendo un ottimo lavoro anche silente sorrise era un'idea di fudge nei suoi ultimi giorni da ministro quando cercava disperatamente di restare aggrappato alla sua sedia ha chiesto un incontro con te nella speranza che tu lo sostenessi dopo tutto quello che ha fatto l'anno scorso esclamò eri furente dopo la umbridge io ho detto a cornelius che non c'era alcuna possibilità ma l'idea non è svanita quando lui se n'è andato a poche ore dalla nomina di scrimgeour ci siamo visti e mi ha chiesto di organizzare un incontro con te allora è per questo che avete litigato sbottò eri ce l'ha scritto sulla gazzetta del profeta ogni tanto persino il profeta riporta la verità rispose silente anche solo per caso sì è per questo che abbiamo litigato beh pare che rufus abbia trovato il modo di metterti alle strette alla fine mi ha accusato di essere l'uomo di silente sempre comunque molto maleducato da parte sua gli ho risposto che è vero silente aprì la bocca per parlare e poi la richiuse alle spalle di eri fox la fenice levò un basso dolce grido musicale con enorme imbarazzo eri all'improvviso si accorse che i vividi occhi azzurri di silente erano umidi e si affrettò abbassare lo sguardo sulle proprie ginocchia quando silente parlò tuttavia la sua voce era ferma sono molto commosso eri scrimgeour voleva sapere dove va quando non è a hogwarts proseguì eri continuando a fissarsi le ginocchia si è molto indiscreto a questo proposito replicò silente ora allegro eri si disse che poteva rialzare lo sguardo ha perfino cercato di farmi seguire divertente davvero mi ha messo dolish alle calcagna non è stato carino da parte sua sono già stato costretto a stregare dolish una volta e ho dovuto farlo di nuovo con enorme dispiacere allora continuano a non sapere dove va chiese eri sperando in maggiori informazioni su questo affascinante argomento ma silente si limitò a sorridere al di sopra degli occhiali no non lo sanno e non è nemmeno il momento giusto perché lo sappia tu ora suggerirei di muoverci se non c'è nient'altro c'è in verità signore si affrettò ad aggiungere eri si tratta di malfoi e piton il professor piton eri sì signore ho sentito la loro conversazione durante la festa del professor rumacorno beh veramente li ho seguiti silente ascoltò il racconto convolto impassibile tacque per alcuni istanti poi disse grazie per avermelo riferito eri ma ti suggerisco di non pensarci più non credo che sia di grande importanza non di grande importanza ripete eri incredulo professore ha capito sì eri dotato come sono di un cervello straordinario ho capito tutto quello che mi hai raccontato rispose silente con una certa asprezza credo che potresti perfino prendere in considerazione la possibilità che abbia capito più di te sono contento che tu ti sia confidato con me ma permettimi di rassicurarti non mi hai detto niente che mi provochi inquietudine eri tacque agitato guardando torvo silente che cosa stava succedendo silente aveva davvero ordinato a piton di scoprire le intenzioni di malfoi e dunque aveva già saputo da piton tutto quello che eri gli aveva appena detto o era davvero preoccupato da quanto aveva sentito ma fingeva di non esserlo allora signore riprese in quello che sperava essere un tono educato e tranquillo lei continua a fidarsi sono stato già abbastanza tollerante da rispondere a questa domanda disse il preside che non sembrava più tanto tollerante la mia risposta non è cambiata lo spero bene intervenne una voce sprezzante evidentemente fine a snigellus faceva solo finta di dormire silente lo ignorò e ora eri devo insistere perché ci muoviamo ho cose più importanti da discutere con te questa sera eri rimase a sedere astioso e se si fosse rifiutato di cambiare argomento se avesse insistito a sostenere la sua tesi contro malfoi come se gli avesse letto nel pensiero silente scosse il capo quanto spesso accade anche tra i migliori amici ognuno ritiene di aver da dire qualcosa di molto più importante dell'altro io non credo che quello che lei ha da dire non sia importante signore osservò eri rigido beh hai ragione perché lo è ribattessi lente sbrigativo ho altri due ricordi da mostrarti questa sera entrambi ottenuti con enorme difficoltà e il secondo è credo il più vitale che abbia raccolto eri non replicò era ancora arrabbiato per l'accoglienza riservata alle sue confidenze ma non vedeva l'utilità di continuare a discutere quindi proseguì silente con voce sonora ci incontriamo questa sera per continuare la storia di tom riddle che all'ultima lezione abbiamo lasciato sospeso sulla soglia dei suoi anni a hogwarts ricorderai quanto si era emozionato nello scoprire di essere un mago che rifiutò la mia compagnia per il giro in diagonale e che io a mia volta lo misi in guardia contro il perseverare nei furti una volta a scuola beh arrivò l'inizio dell'anno scolastico e con esso arrivò tom riddle un ragazzo tranquillo con un uniforme di seconda mano che si mise in fila con gli altri del primo anno per essere smistato fu assegnato alla casa di serpe verde nello stesso istante in cui il cappello parlante sfiorò la sua testa silente agitò la mano annerita verso lo scaffale che ospitava il cappello antico e immobile non so quanto tempo dopo riddle apprese che il celebre fondatore della casa sapeva parlare coi serpenti forse quella sera stessa la scoperta può soltanto averlo esaltato e aver accresciuto il suo senso di importanza tuttavia se spaventò o cercò di affascinare i compagni serpe verde con esibizioni di serpentese in sala comune non ne giunse voce al corpo insegnanti riddle non diede alcun segnale di arroganza o aggressività essendo un orfano di insolito talento e di bell'aspetto fin dal suo arrivo attirò l'attenzione e la comprensione dei professori sembrava educato tranquillo e avido di sapere quasi tutti furono assai favorevolmente colpiti da lui non aveva detto loro signore com'era quando l'aveva conosciuto all'orfanotrofio chiese erri no non lo feci anche se non aveva mostrato alcun barlume di rimorso era possibile che fosse dispiaciuto per il comportamento tenuto fino ad allora e deciso a voltare pagina scelsi di dargli quella possibilità silente si interruppe e guardò interrogativo erri che era sul punto di parlare di nuovo la tendenza a dar fiducia alle persone anche quando non se la meritavano ma poi a erri venne in mente qualcosa ma lei non si fidava veramente di lui giusto lui mi ha detto il riddle che è uscito da quel diario mi ha detto silente non mi ha mai apprezzato quanto gli altri insegnanti diciamo che non davo per scontato che fosse degno di fiducia precisò silente come ho già detto avevo deciso di tenerlo d'occhio e così feci non posso fingere di aver tratto molto dalla mia osservazione all'inizio era molto prudente con me sono sicuro che nell'emozione di scoprire la sua vera identità sentiva di essersi lasciato sfuggire troppe cose fu attento a non commettere più lo stesso errore ma non poteva rimangiarsi quello che mi aveva già detto e nemmeno quello che mi aveva raccontato la signora col tuttavia ebbe il buon senso di non cercare mai di incantarmi come incantava tanti miei colleghi col passare del tempo raccolse attorno a sé un gruppo di amici zelanti li definisco così per mancanza di una definizione migliore anche se come ho già accennato riddle non provava alcun affetto per loro questo gruppo esercitava una sorta di fascino oscuro all'interno del castello erano una compagnia eterogenea un misto di deboli in cerca di protezione ambiziosi in cerca di gloria condivisa e di bruti che gravitavano attorno a un capo in grado di mostrare loro forme più sofisticate di crudeltà in altre parole erano i precursori dei mangiamorte e difatti alcuni di loro divennero i primi mangiamorte dopo aver lasciato hogwarts strettamente controllati da riddle non furono mai sorpresi a compiere aperte malefatte anche se i loro sette anni a hogwarts furono segnati da una serie di incidenti ai quali non furono mai collegati con piena soddisfazione il più grave di questi fu naturalmente l'apertura della camera dei segreti che culminò con la morte di una ragazza come sai agrid fu accusato a torto di quel crimine non sono riuscito a trovare molti ricordi di riddle a hogwarts continuò silente posando la mano rattrappita sul pensatoio pochi di coloro che lo conobbero allora sono disposti a parlare di lui sono troppo spaventati quello che so l'ho scoperto dopo che se n'era andato da hogwarts con molti penosi sforzi dopo aver braccato i pochi che potevano essere convinti a parlare aver frugato tra vecchi documenti e interrogato altri testimoni sia babbani che maghi mi dissero che riddle era ossessionato dalla sua stirpe questo è comprensibile naturalmente era cresciuto in un orfanotrofio ed era ovvio che desiderasse sapere come c'era arrivato pare che abbia cercato in vano tracce di tom riddle senior sugli scudi nella sala dei trofei tra le liste dei prefetti nei vecchi documenti scolastici perfino sui libri di storia della magia infine fu costretto ad accettare il fatto che il padre non aveva mai messo piede a hogwarts fu allora credo che abbandonò il suo nome per sempre assunse l'identità di lord voldemort e cominciò le indagini sulla famiglia della madre che fino ad allora aveva disprezzato la donna che ricorderai era convinto non potesse essere una strega poiché aveva ceduto alla vergognosa debolezza umana della morte aveva solo un nome su cui basarsi mar volo e dal personale dell'orfanotrofio aveva saputo che era il nome del padre di sua madre infine dopo faticose ricerche in vecchi libri sulle famiglie magiche scoprì l'esistenza del ramo sopravvissuto dei serpeverde nell'estate del suo sedicesimo anno lasciò l'orfanotrofio e partì alla ricerca dei parenti gant e ora erri se sei pronto silente si alzò erri vide che reggeva ancora una bottiglietta di cristallo colma di vorticante perlace a memoria ho avuto molta fortuna a trovare questo disse versando la massa lucente nel pensatoio come capirai presto andiamo erri si avvicinò al bacile di pietra e si chinò obbediente finché il suo viso sprofondò nella superficie del ricordo provò la familiare sensazione di cadere nel nulla e poi atterrò su un sudicio pavimento di pietra nel buio quasi totale gli ci vollero parecchi secondi per riconoscere il luogo silente era atterrato vicino a lui la casa dei gant era indescrivibilmente sporca più di qualunque posto erri avesse mai visto il soffitto era coperto di ragnatele il pavimento foderato di terriccio cibo muffito e marcescente era disposto sul tavolo in un caos di pentole incrostate la sola luce veniva da un'unica tremolante candela ai piedi di un uomo con capelli e barba così lunghi che erri non distinse negli occhi nella bocca era afflosciato in una poltrona vicino al fuoco erri si chiese per un attimo se fosse morto ma poi qualcuno bussò forte alla porta e l'uomo si svegliò in un sussulto alzando una bacchetta nella destra e un corto pugnale nella sinistra la porta si aprì cicolando sulla soglia con in mano una lanterna vecchio stile c'era un bel ragazzo alto pallido dai capelli scuri che erri riconobbe subito voldemort adolescente il suo sguardo si spostò ad agio per il tugurio e poi si posò sull'uomo in poltrona per qualche istante si guardarono poi l'uomo si alzò barcollando facendo sbatacchiare e tintinnare le numerose bottiglie vuote ai suoi piedi tu urlò tu e si scagliò verso riddle bacchetta e pugnale in aria fermo riddle parlò in serpentese l'uomo scivolò contro il tavolo mandando le pentole ammuffite a schiantarsi sul pavimento fissò riddle si contemplarono a lungo in silenzio fu l'uomo a romperlo lo parli si lo parlo rispose riddle avanzò lasciando che la porta si chiudesse alle sue spalle erri non poté non provare una rancorosa ammirazione per la totale assenza di paura di voldemort il suo volto esprimeva solo disgusto e forse delusione dov'è marvolo chiese morto fu la risposta è morto anni fa no riddle si rabbuiò allora tu chi sei sono morfin no il figlio di marvolo ma sì morfin si allontano i capelli dal volto sporco per vedere meglio riddle alla mano destra portava l'anello con la pietra nera appartenuto a marvolo pensavo che eri quel babbano mormorò sei uguale a quel babbano quale babbano chiese riddle brusco quel babbano che piaceva a mia sorella quel babbano che vive nella casa grande lassù rispose morfin e sputò per terra sei identico a lui riddle ma adesso è più vecchio è più vecchio di che adesso che ci penso morfin era un po stordito e oscillò reggendosi al bordo del tavolo è tornato sai aggiunse in tono vacuo voldemort osservava morfin come per valutarlo si avvicinò un po e disse riddle è tornato già l'ha lasciata e le sta bene sposare quella feccia ringhiò morfin sputando di nuovo per terra ci ha derubati sai prima di scappare dov'è il medaglione dov'è il medaglione di serpe verde voldemort non rispose morfin era sempre più furibondo brandì il pugnale e urlò ci ha disonorati quella squadrina e tu chi sei che vieni qui e fai domande su tutto è finita no finita distorse lo sguardo barcollando e voldemort si fece avanti in quel momento calò un'oscurità innaturale che spense la lampada di voldemort e la candela di morfin che spense tutto le dita di silente si strinsero al braccio di erri e i due planarono di nuovo nel presente la dolce luce dorata dell'ufficio parve a ciecare erri dopo quell'impenetrabile oscurità è tutto chiese subito perché si è fatto buio che cosa è successo perché morfin non è riuscito a ricordare nulla da quel momento in poi spiegò silente facendogli cenno di sedersi quando si svegliò la mattina dopo era disteso a terra solo l'anello di marvolo era sparito intanto nel villaggio di little angleton una servetta correva lungo la strada principale urlando che c'erano tre cadaveri nel salotto della grande casa tom riddle senior sua madre e suo padre le autorità babbane erano perplesse per quanto ne so a tutt'oggi ignorano come siano morti riddle perché la maledizione avada che davra in genere non lascia tracce l'eccezione è qui davanti a me aggiunse silente accennando alla cicatrice di erri il ministero d'altra parte capì subito che si trattava di un assassino magico sapevano anche che un nemico dichiarato dei babbani viveva dall'altra parte della valle ed era già stato incarcerato una volta per aver aggredito una delle persone assassinate così il ministero fece visita a morfin non ebbero bisogno di interrogarlo di veritaserum o di legilimanzia ammise subito il delitto rivelando particolari che solo l'assassino poteva conoscere era fiero disse di aver ucciso i babbani aveva aspettato per tutti quegli anni l'occasione giusta consegnò la bacchetta che subito fu riconosciuta come l'arma del delitto e si lasciò portare ad azkaban senza lottare lo turbava solo il fatto che l'anello di suo padre fosse sparito mi ucciderà per averlo perso ripeteva continuamente mi ucciderà perché gli ho perso l'anello e a quanto pare furono le ultime parole che pronunciò visse ciò che gli restava da vivere ad azkaban lamentando la perdita dell'ultimo cimelio di marvolo e fu sepolto accanto alla prigione insieme alle altre povere anime che erano spirate dentro quelle mura quindi voldemort rubò la bacchetta di morfin e la usò chiese erri raddrizzandosi sulla sedia proprio così rispose silente non abbiamo ricordi che ce lo mostrino ma possiamo esserne abbastanza sicuri voldemort gettò uno stupeficium sullo zio gli prese la bacchetta e attraversò la valle diretto alla casa grande lassù la uccise l'uomo babbano che aveva abbandonato sua madre strega e per buona misura i nonni babbani cancellando così gli ultimi indegni riddol e vendicandosi del padre che non l'aveva mai voluto poi tornò alla catapecchia dei gant esegui la complicata magia per innestare un falso ricordo nella mente dello zio posò la bacchetta di morfin accanto al proprietario privo di sensi intascò l'antico anello e se ne andò e morfin non capì mai che non era stato lui mai confermò silente come ho detto rese una confessione piena e vana gloriosa ma aveva ancora questo ricordo vero dentro di sé sì ma c'è voluta una bella dose di abile legilimanzia per estrarglielo ribattessi lente e perché qualcuno avrebbe dovuto scavare più a fondo nella mente di morfin quando aveva già confessato il delitto comunque io riuscì a fargli visita nelle sue ultime settimane di vita a quel tempo stavo cercando di scoprire tutto quello che potevo sul passato di voldemort gli estrassi questo ricordo con difficoltà quando vidi che cosa conteneva cercai di usarlo per ottenere il suo rilascio da azkaban però prima che il ministero prendesse una decisione morfin morì ma perché il ministero non capì che voldemort aveva fatto tutto questo a morfin chiese erri con rabbia era minorenne no pensavo che si potesse intercettare la magia eseguita da minori hai ragione si può intercettare la magia ma non chi la compie ricorderai di essere stato accusato dal ministero dell'incantesimo di librazione che in effetti fu compiuto da dobby ringhiò erri quell'ingiustizia gli bruciava ancora allora se un minorenne pratica la magia nella casa di un mago o di una strega adulti il ministero non lo può scoprire certo non riuscirà a identificare chi ha messo in atto la magia silente sorrise appena all'espressione indignata di erri contano sul fatto che i genitori maghi impongano l'obbedienza ai loro rampolli entro le mura domestiche beh sono sciocchezze sbottò erri guardi che cosa è successo qui guardi che cosa è successo a morfin sono d'accordo approvò silente qualunque cosa fosse morfin non meritava di morire come morì accusato di omicidi che non aveva commesso ma si sta facendo tardi e voglio che tu veda quest'altro ricordo prima che ci separiamo silente estrasse da una tasca interna un'altra fiala di cristallo e erri tacque il preside aveva detto che era il ricordo più importante che avesse raccolto notò che il contenuto sembrava difficile da vuotare nel pensatoio come se si fosse cagliato i ricordi vanno a male per questo non ci vorrà molto disse silente quando infine ebbe vuotato la fiala torneremo prima che tu te ne renda conto ancora una volta nel pensatoio allora erri cadde di nuovo attraverso la superficie argentea e questa volta atterrò davanti a un uomo che riconobbe subito era un oras lumacorno molto più giovane erri era così abituato alla sua calvizie che trovò sconcertante vederlo con folti lucenti capelli giallastri era come se gli avessero coperto la testa di paglia ma aveva già una chiazza pelata grande come un galeone in cima alla testa i baffi allora meno ingombranti erano biondo rossicci non era grasso come il lumacorno che conosceva erri anche se i bottoni d'oro sul panciotto a complicati ricami erano sottoposti a una certa tensione i piccoli piedi erano poggiati su un puff di velluto ed era sprofondato in una comoda poltrona con una mano stringeva un bicchiere di vino con l'altra frugava in una scatola di ananas canditi si trovavano nell'ufficio di lumacorno sei o sette ragazzi nel cuore dell'adolescenza lo circondavano seduti su poltrone più dure o più basse della sua erri riconobbe subito riddle era il più bello e il più disinvolto di tutti la sua mano destra era posata negligentemente sul bracciolo della poltrona con un sussulto erri notò che portava all'anello nero e oro di marvolo aveva già ucciso suo padre signore è vero che la professoressa mary tot va in pensione chiese riddle tom tom anche se lo sapessi non potrei dirtelo rispose l'umacorno agitando verso di lui un dito coperto di zucchero a modi rimprovero anche se sciupò l'effetto facendogli l'occhiolino ammetto che mi piacerebbe sapere da dove prendi le tue informazioni ragazzo ne sai di più di metà del corpo insegnanti davvero riddle sorrise gli altri ragazzi risero e lo guardarono ammirati con la tua inquietante capacità di scoprire le cose che non dovresti sapere e la tua abile adulazione verso coloro che contano grazie per l'ananas fra parentesi hai ragione è il mio preferito mentre parecchi ragazzi ridacchiavano successe una cosa molto strana tutta la stanza all'improvviso si riempì di una densa nebbia bianca harry non riuscì a vedere altro che il volto di silente in piedi accanto a lui poi la voce di lumacorno risuonò nella nebbia innaturalmente forte finirai male ragazzo mio dai retta a me la nebbia si risolse all'improvviso come era apparsa eppure nessuno ne parlò ne parve aver assistito a qualcosa di insolito esterrefatto harry vide un ororogino d'oro sulla scrivania di lumacorno battere le undici cielo è già così tardi esclamò il professore è meglio che cominciate ad andare ragazzi o ci metteremo tutti nei guai l'estrange voglio la tua relazione per domani o finirai in punizione lo stesso vale per te averi lumacorno si alzò dalla poltrona e mise il bicchiere vuoto sulla scrivania mentre i ragazzi uscivano riddol però rimase indietro chiaramente per restare solo con il professore attento tom lo ammonì lumacorno voltandosi e scoprendo che era ancora lì non vorrai farti sorprendere fuori dal letto nelle ore proibite sei anche un prefetto signore volevo chiederle una cosa chiedi ragazzo mio chiedi signore mi domandavo che cosa sa degli degli orcrux e successe ancora la densa nebbia riempì la stanza e erri non riuscì più a vedere lumacorno né riddol ma solo silente che sorrideva sereno accanto a lui poi la voce di lumacorno rimbombò di nuovo come prima non so niente degli orcrux e se lo sapessi non te lo direi adesso esci subito di qui e non farti sorprendere a nominarli un'altra volta beh ecco tutto commentò silente tranquillo è ora di andare i piedi di erri abbandonarono il suolo per posarsi di nuovo qualche istante dopo sul tappeto davanti alla scrivania del preside è tutto qui chiese stupito silente aveva detto che quello era il ricordo più importante di tutti ma erri non riusciva a capire che cosa ci fosse di tanto significativo certo la nebbia e il fatto che nessuno pareva essersene accorto erano strani ma a parte quello non sembrava che fosse successo nulla tranne che riddol aveva posto una domanda e non aveva ottenuto risposta come avrai forse notato osservò silente sedendosi di nuovo dietro la scrivania quel ricordo è stato manomesso manomesso ripete erri riprendendo posto a sua volta infatti il professor lumacorno ha modificato la propria memoria ma perché perché si vergogna suppongo ha cercato di rielaborare il ricordo per mettersi in una luce migliore cancellando quelle parti che non vuole far vedere il lavoro è stato fatto con una certa approssimazione ed è meglio così perché ci mostra che il vero ricordo è ancora lì sotto le alterazioni e dunque per la prima volta ti assegno un compito erri dovrai convincere il professor lumacorno a raccontare cosa è accaduto davvero e questa sarà senza alcun dubbio l'informazione più preziosa di tutte erri lo fissò ma signore obiettò mantenendo il tono più rispettoso possibile lei non ha bisogno di me potrebbe ricorrere alla legilimanzia o al veritaserum il professor lumacorno è un mago estremamente capace e si aspetta entrambe le cose rispose silente è molto più abile in occlumanzia del povero morfin gant e mi stupirei se non avesse portato con sé un antidoto al veritaserum fin da quando l'ho costretto a consegnarmi questa parodia di un ricordo no credo che sarebbe sciocco cercare di estrarre con la forza la verità al professor lumacorno e potrebbe rivelarsi più dannoso che utile io non desidero che se ne vada da hogwarts tuttavia ha le sue debolezze come tutti noi e credo che tu sia la sola persona in grado di penetrare le sue difese è importantissimo che ci impossessiamo del vero ricordo erri quanto importante lo sapremo solo quando l'avremo visto quindi buona fortuna e buonanotte un po' sconcertato dal brusco congedo erri si alzò in fretta buonanotte signore chiudendo la porta dello studio udì chiaramente la voce di fine a snigellus non capisco perché il ragazzo dovrebbe riuscire a fare meglio di te silente non mi aspetto che tu lo capisca fine as replicò silente e fox diede in un altro basso grido musicale sorprese di compleanno il giorno dopo erri confidò l'incarico che gli aveva assegnato silente sia a ron che a ermione anche se in separata sede perché ermione si rifiutava di stare in presenza di ron più del tempo necessario a rifilargli un'occhiata sprezzante ron era convinto che erri non avrebbe avuto problemi con l'umacorno ti adora disse a colazione agitando una forchettata di uovo fritto non ti rifiuterà niente no non al suo piccolo principe delle pozioni fermati oggi pomeriggio dopo la lezione e chiediglielo ermione era più pessimista deve essere deciso a nascondere quello che è davvero successo se silente non è riuscito a estorcerglielo bisbigliò mentre passeggiavano nel cortile deserto e innevato all'intervallo orcrux orcrux non ne ho mai sentito parlare davvero erri era deluso aveva sperato che lei ne sapesse qualcosa deve essere magia oscura molto avanzata altrimenti perché voldemort lo voleva sapere credo che sarà difficile ottenere quell'informazione erri dovrai stare molto attento a come affronti l'umacorno architettare una strategia secondo ron basta che oggi pomeriggio mi fermi dopo pozioni o beh se ron ron la pensa così è meglio che tu segua il suo consiglio sbottò infiammandosi subito dopo tutto quando mai ron ron ha sbagliato giudizio ermione non puoi no esclamò lei con rabbia e se ne andò di corsa lasciando erri solo e sprofondato fino alle caviglie nella neve le ore di pozioni erano molto sgradevoli in quel periodo poiché dovevano condividere il tavolo quel giorno ermione spostò il suo calderone in modo da stare vicino a erni e ignorò gli altri due ma tu che cosa le hai fatto borbottò ronna erri osservando il profilo altezzoso di ermione ma prima che erri potesse rispondere l'umacorno li invitò al silenzio state buoni state buoni presto abbiamo un sacco di lavoro da fare oggi pomeriggio la terza legge di gol palot chi sa dirmi ma la signorina granger naturalmente ermione recitò tutto d'un fiato la terza legge di gol palot dice che l'antidoto per un veleno composto è maggiore della somma degli antidoti di ciascuno dei singoli componenti esatto gongolò l'umacorno dieci punti per griffondoro ora se accettiamo la terza legge di gol palot erri avrebbe dovuto credere l'umacorno sulla parola riguardo alla terza legge di gol palot perché non ci aveva capito niente ma nessun altro tranne ermione parve comprendere il resto naturalmente supponendo di aver compiuto una corretta identificazione degli ingredienti della pozione grazie a rivela incanto di scarpin il nostro scopo primario non è quello relativamente semplice di scegliere gli antidoti agli ingredienti contenuti ma di scoprire il componente aggiunto che grazie a un processo quasi alchemico trasformerà tali diversi elementi ron era seduto vicino a erri a bocca aperta e scarabocchiava distrattamente sul suo pozioni avanzate dimenticava sempre che non poteva più contare su ermione per tirarsi fuori dai guai e quindi concluse l'umacorno voglio che ciascuno di voi prenda una di queste fiale sulla mia cattedra contengono un veleno al quale dovete creare un antidoto prima della fine della lezione buona fortuna e non dimenticate i guanti protettivi ermione era scesa dal suo sgabello ed era a metà strada verso la scrivania di lumacorno prima ancora che il resto della classe avesse capito che era ora di muoversi e quando erri ron ed erni tornarono al tavolo aveva già versato il contenuto della sua fiala nel calderone e stava accendendo il fuoco è un peccato che il principe non possa aiutarti granché questa volta erri disse allegramente rialzandosi qui si tratta di capire il concetto niente scolciatoie o trucchetti irritato erri stappò il veleno che aveva preso dalla cattedra di lumacorno un liquido di un rosa sgargiante lo versò nel calderone e vi accese sotto il fuoco non aveva la minima idea di che cosa fare guardò ron che aveva copiato tutte le sue mosse e ora stava lì con espressione idiota sicuro che il principe non ha qualche suggerimento borbottò a erri erri prese il suo fidato pozioni avanzate e andò al capitolo sugli antidoti c'era la terza legge di gol palot parola per parola come l'aveva pronunciata ermione ma senza una singola nota illuminante a spiegare che cosa volesse dire evidentemente il principe come ermione non aveva avuto difficoltà a capirla niente rispose erri funereo ermione agitava entusiasta la bacchetta sopra il suo calderone non riuscirono nemmeno a copiare l'incantesimo che stava eseguendo perché ormai era diventata così brava in quelli non verbali che non aveva più bisogno di dirle ad alta voce ernie mcmillen però stava borbottando specialis revelio sul suo paiolo che suonava bene così erri e ron si affrettarono a imitarlo a erri bastarono cinque minuti per capire che la sua reputazione di miglior artefice di pozioni della classe stava per crollare l'umacorno aveva sbirciato speranzoso nel suo calderone durante il primo giro della segreta pronto a profondersi in esclamazioni estasiate come al solito e invece aveva ritratto in fretta la testa tossendo soffocato dall'odore di uova marce ermione non avrebbe potuto essere più soddisfatta non aveva tollerato di essere superata in ogni prova di pozioni al momento stava decantando gli ingredienti del suo veleno che si erano misteriosamente separati in dieci diverse fiale di cristallo per evitare quello spettacolo irritante erri si chinò sul libro del principe mezzo sangue e voltò alcune pagine con inutile energia ed eccola lì scarabocchiata attraverso una lunga lista di antidoti ficca gli un besoar in gola erri fissò le parole per un istante una volta molto tempo prima non aveva sentito parlare di besoar piton non l'aveva nominato nella primissima lezione di pozioni una pietra che si trova nella pancia delle capre e che salva da molti veleni non era una risposta al problema gol palot e se piton fosse ancora stato il loro insegnante erri non avrebbe osato farlo ma a mali estremi estremi rimedi si affrettò verso l'armadio delle scorte e vi frugò dentro spingendo la parte corni di unicorno e grovigli di erbe essiccate finché non trovò proprio in fondo una scatolina con su scarabocchiata la parola besoar aprì la scatola proprio mentre l'umacorno gridava ragazzi ancora due minuti dentro c'erano alcuni oggetti raggrinziti più simili a reni secchi che a vere pietre erri ne afferrò uno rimise la scatola nell'armadio e corse indietro al suo calderone tempo scaduto gridò l'umacorno gioviale beh vediamo che cosa avete fatto blaze che cos'hai da farmi vedere l'umacorno fece lentamente il giro della stanza esaminando i vari antidoti nessuno aveva portato a termine il compito anche se ermione stava ancora cercando di ficcare alcuni ingredienti nella sua bottiglia prima che l'umacorno arrivasse da lei ron aveva rinunciato e cercava solo di non inalare i fumi putrescenti che si levavano dal suo calderone erri rimase in attesa col besoar stretto nella mano sudata il loro tavolo era l'ultimo l'umacorno annusò la pozione di erni e passò a quella di ron con una smorfia non indugiò sul suo calderone ma si ritrasse in fretta con un breve conato e tu erri domandò che cosa mi hai preparato erri tese la mano con il besoar sul palmo l'umacorno lo fissò per dieci secondi buoni erri si chiese per un istante se gli avrebbe urlato addosso poi gettò indietro la testa e scoppiò in una risata ruggente hai del coraggio ragazzo tuonò prendendo il besoar e alzandolo in modo che tutti potessero vederlo oh sei come tua madre beh niente da dire un besoar è senza dubbio un antidoto a tutte queste pozioni ermione lustra in volto e macchiata di fuligine sul naso era livida il suo antidoto incompiuto che contava 52 ingredienti compresa una ciocca dei suoi capelli ribolliva pigro alle spalle di l'umacorno che aveva occhi solo per erri e ci hai pensato da solo al besoar vero erri gli chiese lei a denti stretti questo è lo spirito inventivo di cui un vero pozionista ha bisogno cinguettò l'umacorno prima che erri le potesse rispondere proprio come sua madre la stessa padronanza intuitiva della materia l'ha sicuramente ereditata da lili sì erri sì se hai un besoar a portata di mano naturalmente funzionerà anche se visto che non funzionano con tutto e sono rari vale comunque la pena di sapere come preparare un antidoto la sola persona nella stanza più arrabbiata di ermione era malfoi che erri fu lieto di constatare si era versato addosso una sostanza che sembrava vomito di gatto prima che uno dei due potesse manifestare la sua ira perché erri era risultato il primo della classe senza fare niente però suonò la campanella ora di metter via tutto annunciò l'umacorno e altri dieci punti a grifondoro per la sfacciataggine ridacchiando tornò balselloni alla cattedra erri si attardò impiegando una quantità di tempo esagerata a riempire lo zaino né ronne né ermione gli augurarono buona fortuna uscendo erano tutti e due seccati infine erri e l'umacorno rimasero soli nella stanza su erri o sarà in ritardo per la prossima lezione disse l'umacorno affabile facendo scattare le serrature d'oro della sua valigetta di pelle di drago signore cominciò erri sentendosi spaventosamente identico a voldemort vorrei chiederle una cosa spara ragazzo mio spara signore mi chiedevo che cosa sa degli degli orcrux l'umacorno si immobilizzò il suo viso tondo parve ripiegarsi su se stesso si lecò le labbra e chiese con voce roca che cosa hai detto le ho domandato se sa qualcosa degli orcrux signore vede te l'ha detto silente sussurrò l'umacorno la sua voce era cambiata non era più gioviale ma spaventata terrorizzata si frugò nella tasca sul petto e ne sfilò un fazzoletto con cui si asciugò la fronte umida silente ti ha mostrato quel quel ricordo continuò allora non è così si rispose erri decidendo all'istante che era meglio non mentire sì naturale mormorò l'umacorno picchiettandosi ancora il volto pallido ovviamente beh se hai visto quel ricordo erri saprai che io non so niente niente e ripete la parola con forza degli orcrux prese la valigetta di pelle di drago si rificò in tasca il fazzoletto e marciò verso la porta della segreta signore tentò erri disperato pensavo solo che potesse esserci qualcos'altro in quel ricordo ah sì chiese l'umacorno beh ti sei sbagliato sai sbagliato urlò l'ultima parola e prima che erri potesse dire altro uscì sbattendo la porta né ron né ermione furono per nulla comprensivi con lui quando raccontò del suo disastroso colloquio luna ribolliva ancora per il modo in cui erri aveva trionfato senza merito l'altro ce l'aveva con lui perché non gli aveva passato un besoar sarebbe stato da stupidi farlo tutti e due sbottò erri irritato senti ho dovuto cercare di ammorbidirlo per potergli chiedere di voldemort no non puoi controllarti aggiunse esasperato davanti al sussulto di ron furioso per il suo fallimento e per l'atteggiamento degli amici nei giorni seguenti erri rimuginò sull'umacorno decise che per il momento avrebbe finto di aver dimenticato tutto meglio lasciare che si cullasse in un falso senso di sicurezza prima di tornare all'attacco di conseguenza l'umacorno tornò a trattarlo con il consueto calore come se non fosse successo niente erri attese un invito a uno dei suoi festini serali questa volta deciso ad accettare anche a costo di spostare gli allenamenti di quidditch purtroppo però non arrivò alcun invito erri controllò con ermione e ginni nessuna delle due ne aveva ricevuti né per quanto ne sapevano nessun altro non poté fare a meno di chiedersi se l'umacorno non fosse poi smemorato come sembrava ma solo deciso a non offrire a erri altre occasioni per interrogarlo nel frattempo la biblioteca di hogwarts aveva tradito ermione per la prima volta a memoria d'uomo era così sconvolta che dimenticò perfino di essere irritata con erri per il trucchetto del besoar non ho trovato una sola spiegazione degli effetti di un orcrux gli rivelò nemmeno una ho cercato in tutto il reparto proibito e perfino nei libri più orrendi quelli che ti spiegano come preparare le pozioni più raccapriccianti niente sono riuscito a solo questo nell'introduzione a delle magie fetide e putridissime sentite qui dell'orcrux la più malvagia delle magiche invenzioni non discorreremo né daremo istruzione ma allora perché citarlo esclamò con impazienza chiudendo bruscamente il vecchio libro che emise un lamento spettrale o stai zitto sbottò e lo ricacciò nella borsa la neve si sciolse attorno alla scuola all'arrivo di febbraio sostituita da un'umidità fredda e desolata nubi di un grigio violetto gravavano sul castello e una costante pioggia gelida rendeva i prati fangosi e sdrucciolevoli il risultato fu che la prima lezione di materializzazione per i ragazzi del sesto anno fissata per un sabato mattina in modo che non interferisse col programma regolare si tenne nella sala grande invece che all'aperto quando giunsero eri e ermione ron era sceso con lavanda scoprirono che le tavole erano scomparse la pioggia frustava le alte finestre e il soffitto incantato vorticava cupo sopra di loro mentre si riunivano davanti ai professori mcgonagall piton frittwick e sprout i direttori delle case e a un piccolo mago che doveva essere l'istruttore mandato dal ministero era stranamente in colore con ciglia trasparenti capelli sottili e un'aria eterea come se un solo soffio di vento potesse spazzarlo via eri si chiese se le frequenti smaterializzazioni e materializzazioni avessero in qualche modo diminuito la sua sostanza o se una struttura fragile fosse ideale per chiunque desiderasse svanire buongiorno esordì il mago del ministero quando tutti gli studenti furono arrivati e i direttori delle case ebbero imposto il silenzio mi chiamo wilkie twycross e sarò il vostro istruttore ministeriale di materializzazione per le prossime 12 settimane spero in questo periodo di riuscire a prepararvi silenzio malfoi e stai attento abbaiò la professoressa mcgonagall tutti si voltarono malfoi era rosso grigiastro si allontanò furente da creb con cui sembrava aver litigato a bassa voce eri guardò rapido piton che pareva irritato ma probabilmente più per il fatto che la mcgonagall avesse sgridato uno della sua casa che per la maleducazione di malfoi così che molti di voi possano affrontare l'esame continuò twycross come se non fosse stato interrotto come saprete di solito è impossibile materializzarsi o smaterializzarsi entro i confini di hogwarts il preside ha sospeso questo incantesimo solo per la sala grande e per un'ora per consentirvi di esercitarvi vorrei sottolineare che non riuscirete a materializzarvi fuori dalle pareti di questa sala e che sarebbe assai poco saggio provarci prego disponetevi in modo da avere un metro e mezzo di spazio davanti a voi seguì una grande agitazione i ragazzi si allontanavano si urtavano e si intimavano a vicenda di uscire dal proprio spazio i direttori delle case camminarono tra gli studenti disponendoli in ordine e interrompendo le liti eri dove vai gli chiese ermione ma eri non rispose avanzava rapido nella calca oltre il punto in cui il professor flitwick faceva queruli tentativi di sistemare alcuni corvo nero che volevano stare tutti davanti oltre la professoressa sprout che incitava i tassofrasso a mettersi in fila finché scansato ernie macmillan prese posto in fondo alla folla proprio dietro malfoi il quale approfittava del caos generale per continuare la discussione con crebbe che un metro e mezzo più in là aveva un'aria ribelle non so quanto ancora durerà va bene gli sibilò malfoi ignaro di eri alle sue spalle ci vuole più tempo di quanto immaginarsi crebbe aprì la bocca ma l'altro lo anticipò senti quello che faccio non ti deve interessare tu e goil fate come dico io estate di guardia io racconto ai miei amici che cosa ho in mente se voglio che facciano la guardia per me fece eri abbastanza forte perché malfoi lo sentisse malfoi si voltò di scatto e la mano gli volò alla bacchetta ma in quel preciso istante i quattro direttori delle case gridarono zitti e calò di nuovo il silenzio malfoi si voltò lentamente per guardare davanti a sé grazie continuò twycross allora agitò la bacchetta vecchi cerchi di legno apparvero all'istante sul pavimento davanti a ciascuno studente le cose importanti da ricordare quando ci si materializza sono le 3d spiegò twycross destinazione determinazione decisione punto primo fissate la mente con forza sulla destinazione desiderata in questo caso l'interno del vostro cerchio vi prego di concentrarvi adesso tutti si guardarono attorno furtivi per controllare che gli altri fissassero il proprio cerchio poi si affrettarono a obbedire henry scrutò l'area circolare di pavimento polveroso delimitata dal suo cerchio e si sforzò di non pensare a nient'altro ma risultò impossibile perché non riusciva a smettere di lambiccarsi su che cosa potesse tramare malfoi che richiedesse delle sentinelle punto secondo proseguì twycross mettete a fuoco la vostra determinazione di occupare lo spazio visualizzato lasciate che la brama di entrarvi fluisca dalla vostra mente in ogni particella del vostro corpo henry si guardò intorno di nascosto alla sua sinistra ernie mcmillen contemplava il proprio cerchio con tanta intensità che era diventato rosso sembrava che volesse deporre un nuovo grande come una pluffa henry soffocò una risata e calò in fretta lo sguardo sul proprio cerchio punto terzo annunciò twycross e solo quando vi do l'ordine girate sul posto cercando di entrare nel nulla muovendovi con decisione al mio ordine uno henry si guardò di nuovo intorno molti dei ragazzi erano preoccupati dalla richiesta di materializzarsi così in fretta due henry cercò di concentrarsi di nuovo sul suo cerchio si era già dimenticato il significato delle 3d tre henry girò su se stesso perse l'equilibrio e quasi cadde non fu il solo tutta la sala all'improvviso fu piena di ragazzi barcollanti neville era disteso a pancia in su ernie mcmillen aveva fatto una sorta di piruetta dentro il suo cerchio e per un attimo parve emozionato finché non vide dean thomas ridere di lui non importa non importa commentò asciutto twycross che evidentemente non si era aspettato niente di meglio sistemate i cerchi per favore e tornate nella posizione iniziale il secondo tentativo non fu migliore del primo il terzo altrettanto fino al quarto non accadde nulla di interessante poi e che già un terribile ululato di dolore e tutti si voltarono terrorizzati per vedere susan bones di tasso frasso che oscillava dentro il suo cerchio ma la gamba sinistra l'era rimasta nel punto da cui era partita a un metro e mezzo da lei i direttori delle case accorsero si udì un grande schiocco e si levò uno sbuffo di fumo viola che si dissolse rivelando susan insigliozzi ricongiunta alla sua gamba ma spaventatissima lo spaccamento ossia la separazione casuale di parti del corpo spiegò wilkie twycross con freddezza si verifica quando la volontà non è sufficientemente determinata dovete concentrarvi di continuo sulla vostra destinazione e muovervi senza fretta ma con decisione così fece un passo avanti girò su se stesso con grazia a braccia larghe e svanì in un vorticare di stoffa per apparire in fondo alla sala ricordate le 3d ripete e riprovate 1 2 3 ma un'ora dopo lo spaccamento di susan era ancora la cosa più interessante che fosse successa twycross non pareva scoraggiato si allacciò il mantello al collo e si limitò a dire a sabato prossimo voi tutti e non dimenticate destinazione determinazione decisione e con questo agitò la bacchetta fece evanescere i cerchi e uscì dalla sala accompagnato dalla professoressa mcgonagall le chiacchiere esplosero non appena i ragazzi cominciarono a spintonarsi verso la sala d'ingresso come andata chiese ron raggiungendo harry di corsa a me pare di aver sentito qualcosa l'ultima volta che ho provato una specie di formicolio nei piedi avrai le scarpe troppo strette ron ron disse una voce alle loro spalle ermione li superò a grandi passi con un sogghigno io non ho sentito niente rispose harry ignorando l'interruzione ma al momento non me ne importa come sarebbe non te ne importa non vuoi imparare a materializzarti chiese ron incredulo non puoi tanto davvero preferisco volare replicò harry e si guardò indietro per vedere dove era malfoi arrivati nella sala d'ingresso accelerò dai spicciati voglio fare una cosa perplesso ron seguì harry di corsa su alla torre di grifondoro furono trattenuti da pivs che aveva chiuso una porta al quarto piano e si rifiutava di lasciar passare chiunque a meno che non si desse fuoco alle mutande ma harry e ron si limitarono a tornare indietro e a prendere una delle loro fidate scorciatoie di lì a cinque minuti varcavano il buco del ritratto mi vuoi dire che cosa dobbiamo fare allora gli chiese ron ansante quassù rispose harry e lo guidò attraverso la sala comune oltre la porta verso la scala dei ragazzi il loro dormitorio era vuoto come harry aveva sperato aprì in fretta il suo baule e cominciò a rovistare mentre ron lo guardava impaziente harry malfoi sta usando crebbe goil come sentinelle ha appena litigato con crebbe voglio sapere ecco l'aveva trovata una pergamena piegata in apparenza bianca che dispiegò e batte con la punta della bacchetta giuro solennemente di non avere buone intenzioni o almeno malfoi non le ha sulla pergamena apparve immediatamente la mappa del malandrino la pianta dettagliata di tutti i piani del castello e i minuscoli punti in movimento etichettati da un piccolo cartiglio che rappresentavano tutti gli abitanti aiutami a trovare malfoi fece harry posò la mappa sul letto e vi si chinò sopra insieme a ron ecco disse lui dopo un minuto è nella sala comune di serpeverte guarda con la parkinson e sabini e crebbe goil e riguardò la mappa deluso ma si rianimò subito d'ora in poi lo terrò d'occhio decise e quando lo vedrò a postarsi da qualche parte con crebbe goil che fanno la guardia fuori mi metterò il mantello dell'invisibilità e andrò a vedere che cosa si interruppe perché nevi era entrato nel dormitorio con addosso un forte odore di bruciato e sarà messo a cercare un paio di mutande nuove nel proprio baule benché determinato a sorprendere malfoi harry non ebbe fortuna per le due settimane seguenti consultava la mappa più spesso che poteva facendo anche visite non necessarie in bagno tra una lezione e l'altra ma non gli capitò mai di cogliere malfoi in un luogo sospetto in realtà vide crebbe goil spostarsi per il castello da soli fermandosi in corridoi deserti però in quelle occasioni non solo malfoi non era nelle vicinanze ma era impossibile da individuare sulla mappa era un vero mistero harry contemplò l'ipotesi che si allontanasse dai confini della scuola ma non riusciva a capire come visto l'altissimo livello di sorveglianza poteva solo supporre di avere difficoltà a trovare malfoi tra le centinaia di puntolini neri sulla mappa quanto al fatto che malfoi crebbe e goil sembravano andare ciascuno per la propria strada quando di solito erano inseparabili è quello che succede quando si cresce ron e ermione riflette malinconicamente harry ne erano la prova vivente marzo prese il posto di febbraio senza che il tempo mutasse a parte il vento che si aggiunse all'umidità nell'indignazione generale in tutte le bacheche delle sale comuni apparve un cartello la gita successiva a hogsmeade era stata cancellata ron era fulente era il giorno del mio compleanno si lagnò l'aspettavo tanto non è una gran sorpresa però no ribatte harry dopo quello che è successo a katie non era ancora tornata dal san mungo e in più la gazzetta del profeta aveva riferito di altre sparizioni tra cui quelle di numerosi parenti di allievi di hogwarts adesso l'unica cosa che ho da aspettare è quella stupida lezione di materializzazione borbottò ron in musonito bel regalo di compleanno dopo tre lezioni materializzarsi era sempre difficilissimo anche se altri erano riusciti a spaccarsi la delusione era alta e circolava un certo malcontento nei confronti di wilkie twycross e delle sue 3d che gli erano valse una serie di soprannomi i più garbati dei quali erano deretano e demente buon compleanno ron disse harry il primo di marzo quando furono svegliati da simus e din che scendevano rumorosamente a colazione un regalo per te gli lanciò sul letto un pacco che andò ad aggiungersi a una piccola catasta probabilmente consegnata dagli elfi domestici durante la notte grazie rispose ron sonnolento strappò l'involucro mentre harry scese dal letto aprì il baule e vi rovistò dentro in cerca della mappa del malandrino che nascondeva sempre dopo l'uso lo svuotò per metà prima di trovarla sotto i calzini appallottolati dove teneva ancora la bottiglia di pozione della fortuna la felix felicis bene mormorò tornò a letto colpì piano la mappa con la bacchetta e sussurrò giuro solennemente di non avere buone intenzioni in modo che neville non lo sentisse belli esclamò ron entusiasta sventolando il regalo di harry un nuovo paio di guanti da portiere prego replicò harry distrattamente cercando malfoi nel dormitorio di serpe verde ehi non mi pare che sia a letto ron non rispose era troppo occupato a scartare regali e ogni tanto gettava un'esclamazione di gioia gran bel bottino quest'anno annunciò mostrando un pesante orologio d'oro con strani simboli sul bordo e minuscole stelle mobili al posto delle lancette visto che cosa mi hanno regalato mamma e papà mi sa che diventerò maggiorenne anche il prossimo anno forte borbottò harry dedicando uno sguardo rapido all'orologio prima di scrutare la mappa più da vicino dove era malfoi non sembrava che fosse alla tavola di serpe verde in sala grande a fare colazione non era vicino a piton nel suo studio non era in nessuno dei bagni o in infermeria ne vuoi uno farfugliò ron offrendogli una scatola di cioccalderoni no grazie rispose harry alzando gli occhi malfoi è sparito di nuovo non è possibile biascicò ron ficandosi in bocca un secondo cioccalderone mentre scivolava giù dal letto per vestirsi andiamo se non ti spicci dovrai materializzarti a stomaco vuoto forse sarebbe più facile chissà guardò pensieroso la scatola di cioccalderoni poi scrollò le spalle e ne prese un terzo harry batte con la bacchetta sulla mappa borbottò fatto il misfatto anche se non era vero e si vestì meditabondo ci doveva essere un motivo per le periodiche sparizioni di malfoi ma non riusciva a immaginarlo il modo migliore per scoprirlo sarebbe stato pedinarlo ma anche con il mantello dell'invisibilità era un'idea poco realistica aveva le lezioni gli allenamenti di quidditch i compiti e materializzazione non poteva seguire malfoi tutto il giorno in giro per la scuola senza che la sua assenza venisse notata pronto chiese a ron era a metà strada verso la porta del dormitorio quando si accorse che ron non si era mosso era appoggiato ai piedi del letto e fissava fuori dalla finestra bagnata di pioggia con una strana espressione confusa ron la colazione non ho fame harry lo squadrò ma non hai appena detto beh d'accordo scendo sospirò ron ma non mi va di mangiare harry lo studiò insospettito ti sei appena mangiato mezza scatola di ciò calderoni vero non è per quello ron sospirò di nuovo tu tu non puoi capire d'accordo ribatte harry benché perplesso voltandosi per aprire la porta harry esclamò ron cosa harry non lo sopporto non sopporti cosa gli chiese harry che cominciava a essere preoccupato ron era pallido e sembrava sul punto di vomitare non riesco a smettere di pensare a lei ansimo harry lo guardò a bocca aperta non se l'era aspettato e non era sicuro di volerlo sentire fa bene essere amici ma se ron cominciava a chiamare lavanda love love avrebbe dovuto dire basta perché questo ti impedisce di fare colazione gli chiese cercando di infondere un po di buonsenso al dialogo non credo che sappia che esisto sospirò ron con un gesto disperato certo che sa che esisti ribatte harry e sterrefatto non fa altro che pomiciare con te no ron strizzò gli occhi di chi stai parlando e tu di chi stai parlando chiese harry sempre più convinto che ogni briciolo di ragionevolezza fosse svanito dalla conversazione di romilda vain rispose ron dolcemente e tutto il suo viso parve illuminarsi come se fosse stato colpito da un raggio della più pura luce solare si fissarono per quasi un minuto è uno scherzo vero stai scherzando concluse harry io credo harry credo di amarla balbettò ron con voce soffocata d'accordo disse harry avvicinandosi per esaminare gli occhi vitrei e il colorito pallido d'accordo dillo di nuovo stando serio io l'amo boccheggiò ron senza fiato hai visto i capelli sono così neri e splendenti e setosi e i suoi occhi i suoi grandi occhi scuri e il suo è molto molto divertente tagliò corto harry ma lo scherzo è finito d'accordo smettila si voltò per andarsene aveva fatto due passi verso la porta quando gli arrivò un colpo sull'orecchio destro si voltò barcollando il pugno di ron era serrato il suo volto deformato dall'ira stava per colpire di nuovo harry reagì distinto la bacchetta uscì dalla tasca e l'incantesimo gli balzò in mente senza nemmeno pensarci levi corpus ron fu issato per la caviglia un'altra volta urlò ciondolando impotente con i vestiti che gli pendevano di dosso ma sei impazzito urlò harry tu l'hai insultata hai detto che era uno scherzo gridò ron che stava piano piano diventando scarlatto per via del sangue alla testa è una follia esclamò harry che cosa ti è e poi vide la scatola aperta sul letto di ron e la verità lo colpì con la forza di un troll in fuga dove hai preso quei cioccalderoni erano un regalo di compleanno strillò ron girando lentamente a mezz'aria mentre lottava per liberarsi te ne ho anche offerto uno no li hai presi da terra mi erano caduti dal letto va bene fammi scendere non ti sono caduti dal letto idiota non capisci erano miei li ho tirati fuori dal baule quando cercavo la mappa sono i cioccalderoni che romilda mi ha regalato prima di natale e sono tutti ripieni di filtro d'amore marron parve comprendere solo una di quelle parole romilda ripete hai detto romilda harry la conosci puoi presentarmela harry guardò ron appeso per aria e il suo volto tremendamente speranzoso e contenne a fatica una risata una parte di lui quella più vicina al suo orecchio destro pulsante era piuttosto incline a lasciar cadere ron e stare a guardarlo correre qua e là come un pazzo fino a quando l'effetto della pozione fosse svanito ma d'altronde erano amici ron non era in sé quando l'aveva aggredito harry era convinto di meritarsi un altro pugno se avesse consentito a ron di dichiarare amore imperituro a romilda vain si te la presento rispose pensando in fretta adesso ti faccio scendere va bene spedì ron a schiantarsi sul pavimento l'orecchio gli faceva proprio male ma quello balzò in piedi con un gran sorriso deve essere nell'ufficio di lumacorno gli disse con sicurezza avviandosi alla porta perché chiese ron teso correndo per salgli al passo o fa delle ripetizioni con lui inventò erri senza alcuno scrupolo forse posso chiedere se posso farle anch'io con lei chiese ron entusiasta magnifica idea approvò erri lavanda era in attesa vicino al buco del ritratto una complicazione imprevista sei in ritardo ron ron l'ore d'arguì imbronciata ho un regalo lasciami in pace ribatte ron impaziente harry deve presentarmi romilda vain e senza un'altra parola uscì harry cercò di imbastire un'espressione di scusa per lavanda ma forse gliene riuscì solo una di divertimento perché lei sembrava più offesa che mai quando la signora grassa si richiuse alle loro spalle harry era un po preoccupato che l'umacorno non ci fosse invece aprì la porta del suo ufficio non appena sentì bussare indossava una vestaglia di velluto e un berretto da notte verdi e aveva gli occhi cisposi harry borbottò è molto presto di solito il sabato dormo fino a tardi professore mi dispiace disturbarla bisbigliò harry mentre ron si issava in punta di piedi nel tentativo di vedere la stanza oltre l'umacorno ma il mio amico ron ha ingerito per sbaglio un filtro d'amore non potrebbe dargli un antidoto lo porterei da madame ponfri ma noi studenti non dovremmo possedere niente che provenga da tiri vispi weasley e sa strane domande avrei pensato che riuscissi a preparargli tu un rimedio harry un pozioni stabile come te obiettò l'umacorno fece harry un po distratto dalle gumitate di ron che cercava di entrare a forza nella stanza beh non ho mai preparato un antidoto per un filtro d'amore signore e nel tempo che impiegherei a fare quello giusto ron potrebbe combinare qualcosa di grave per fortuna ron scelse quel momento per mugolare harry non la vedo la tiene nascosta la pozione era scaduta chiese l'umacorno osservando ron con interesse professionale possono irrobustirsi se conservate a lungo questo spiegherebbe parecchie cose ansimò harry ormai impegnato in un corpo a corpo con ron per impedirgli di stendere l'umacorno è il suo compleanno professore aggiunse in tono supplichevole oh d'accordo entrate allora entrate acconsentì l'umacorno addolcito ho l'occorrente qui nella mia borsa non è un antidoto difficile ron si scaraventò nello studio sul riscaldato ingombro inciampò in un poggiapiedi con le nappine riacquistò l'equilibrio aggrappandosi al collo di harry e borbottò non mi ha visto vero non è ancora arrivata lo rassicurò harry l'umacorno aprì la cassetta delle pozioni e versò un pizzico di questo e quello in una bottiglietta di cristallo bene disse ron con ardore come ti sembro bellissimo disse l'umacorno soave e porse a ron un bicchiere di liquido trasparente adesso bevilo è un tonico per i nervi ti calmerà fino al suo arrivo ottimo approvò ron entusiasta e beve rumorosamente l'antidoto harry e l'umacorno lo osservarono per un attimo ron sorrise poi molto lentamente il sorriso si afflosciò e svanì sostituito da un'espressione di intenso orrore sei tornato normale allora chiese harry sollevato l'umacorno ridacchiò grazie mille professore di niente ragazzo mio di niente replicò l'umacorno mentre ron crollava in una poltrona con aria devastata ha bisogno di un cordiale aggiunse trafficando su un tavolo carico di bottiglie ho della burro birra ho del vino ho un'ottima bottiglia di questo idromele barricato volevo regalarlo a silente per natale ah beh scrollò le spalle non può sentire la mancanza di ciò che non ha mai ricevuto perché non lo apriamo adesso per festeggiare il compleanno del signor weasley non c'è niente come un buon liquore per cacciar via le pene d'amore non corrisposto ridacchiò di nuovo harry lo imitò era la prima volta che si trovava quasi solo con l'umacorno dopo il disastroso tentativo di estorcergli il vero ricordo forse se fosse riuscito a mantenerlo di buon umore forse se avessero bevuto abbastanza idromele barricato ecco qua continuò l'umacorno e porsi ai ragazzi due bicchieri di idromele prima di levare il suo beh buonissimo compleanno ralph ron sussurrò harry ma ron che sembrava non aver sentito il brindisi aveva già bevuto ci fu un secondo appena più di un battito cardiaco nel quale harry capì che c'era qualcosa che non andava qualcosa di terribile e l'umacorno evidentemente no e cento di questi ron ron aveva lasciato cadere il bicchiere si alzò a metà dalla poltrona e poi si afflosciò con le braccia e le gambe che sussultavano incontrollabili aveva la schiuma alla bocca e gli occhi fuori dalle orbite professore urrò harry faccia qualcosa ma l'umacorno sembrava paralizzato dallo spavento ron si contorceva e soffocava la sua pelle stava diventando blu cosa ma farfugliò l'umacorno harry balzò oltre un basso tavolino e corse alla cassetta da pozioni di l'umacorno estrasse barattoli e sacchetti mentre i terribili rantoli di ron riempivano la stanza poi la trovò la pietra simile a un rene raggrinzito che l'umacorno gli aveva preso a pozioni si precipitò di nuovo accanto a ron gli spalancò la bocca e gli ficcò in gola il besoar ron fu scosso da un grande brivido inspirò con un suono rasposo e il suo corpo divenne molle e immobile di nuovo accanto a ron l'umacorno 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 a ron l'umacorno